I pirati di Montpracem La notte del 20 dicembre 1849, un uragano violentissimo imperversava sopra Montpracem, isola selvaggia, di fama sinistra, covo di formidabili pirati, situata nel mare della Malesia, a poche centinaia di miglia dalle coste occidentali del Borneo. Pel cielo, spinte da un vento irresistibile, correvano come cavalli sbrigliati e mescolandosi confusamente nere masse di vapori, le quali, di quando in quando, lasciavano cadere sulle cupe foreste dell'isola furiosi acquazzoni. Sul mare, pure sollevato dal vento, sortavano disordinatamente e si infrangevano furiosamente enormi ondate, confondendo i loro mugiti con gli scoppi ora brevi e secchi ed ora interminabili delle folgori. Né dalle capanne allineate in fondo alla baia dell'isola, né sulle fortificazioni che le difendevano, né sui numerosi navigli ancorati al di là delle scogliere, né sotto i boschi, né sulla tumultuosa superficie del mare si scorgeva alcun lume. Chi però venendo da Oriente avesse guardato in alto, avrebbe scorto sulla cima ad un'altissima rupe, tagliata a picco sul mare, brillare due punti luminosi, due finestre vivamente illuminate. Chi mai vegliava, in quell'ora e con simile bufera, nell'isola dei sanguinari pirati? Tra un labirinto di trincee sfondate, di terra pieni cadenti, di stecconati di velti, di gabbioni sventrati, presso i quali scorgevansi ancora armi infrante e ossa umane, una vasta e solida capanna si innalzava, adorna sulla cima ad una grande bandiera rossa, con nel mezzo una testa di tigre. Una stanza di quell'abitazione è illuminata. Le pareti sono coperte di pesanti tessuti rossi, di velluti e di broccati di gran pregio, ma qua è l'asgualciti, strappati e macchiati, e il pavimento scompare sotto un alto strato di tappeti di Persia, sfolgoranti d'oro, ma anche questi lacerati e imbrattati. Nel mezzo sta un tavolo d'ebano, intarsiato di madreperla e adorno di fregi d'argento, carico di bottiglie e di bicchieri del più raro cristallo. Negli angoli si rizzano grandi scaffali in parte rovinati, zeppi di vasi riboccanti di braccialetti d'oro, di orecchini, d'anelli, di medaglioni, di preziosi arredi sacri, contorti o schiacciati, di perle provenienti senza dubbio dalle famose peschiere di Ceylan, di smeraldi, di rubini e di diamanti, che scintillano come tanti soli sotto i riflessi di una lampada dorata sospesa al soffitto. In un canto sta un divano turco con le frange qua e là strappate. In un altro, un armonium di ebano con la tastiera sfregiata e all'ingiro, in una confusione indescrivibile, stanno sparsi tappeti arrotolati, splendide vesti, quadri dovuti forse a celebri pennelli, lampade rovesciate, bottiglie ritte o capovolte, bicchieri interi o infranti e poi carabine indiane e ravescate, tromboni di spagna, sciavole, scimitarre, accette, pugnali, pistole. In quella stanza, così stranamente arredata, un uomo sta seduto su una poltrona zoppicante. È di statura alta, slanciata dalla muscolatura potente, dai lineamenti energici, maschi, fieri ed una bellezza strana. Lunghi capelli gli cadono sugli omeri. Una barba nerissima gli incornicia il volto leggermente abbronzato. Alla fronte ampia, ombreggiata da due stupende sopracciglia d'allardita arcata, una bocca piccola che mostra dei denti acominati come quelli delle fiere e scintillanti come perle. Due occhi nerissimi, d'un fulgore che affascina, che brucia, che fa chinare qualsiasi altro sguardo. Era seduto da alcuni minuti con lo sguardo fisso sulla lampada, con le mani chiuse nervosamente attorno alla ricca scimitarra che gli pendeva da una larga fascia di seta rossa stretta attorno ad una casacca di velluto azzurro a freggi d'oro. Uno scroscio formidabile, che scosse la gran capanna fino alle fondamenta, lo strappò bruscamente da quell'immobilità. Si gettò indietro i lunghi, inanellati capelli, si assicurò sul capo il turbante adorno di uno splendido diamante, grosso quanto una noce, e s'alzò di scatto, gettando all'intorno uno sguardo nel quale leggevasi un non so che di tetro e di minaccioso. «È mezzanotte», mormorò egli. «Mezzanotte non è ancora tornato». Vuotò lentamente un bicchiere pieno di un liquido color dell'ambra. Poi aprì la porta. Si inoltrò con passo fermo fra le trincee che difendevano la capanna e si fermò sull'orlo della gran rupe, dalla cui base rugiva furiosamente il mare. Stette là alcuni minuti con le braccia incrociate, fermo come la rupe che lo reggeva, aspirando con volutà i tremendi soffi della tempesta e spingendo lo sguardo sullo sconvolto mare. Poi si ritirò lentamente nella capanna e si arrestò dinanzi all'armonium. «Quale contrasto!» esclamò. «Al di fuori l'uragano, ecco io!» «Quale il più tremendo!» Fece scorrere le dita sulla tastiera, traendo dei suoni rapidissimi e che avevano qualche cosa di strano, di selvaggio, e che poi rallentò, finché si spensero fra gli scrosci delle folgori e di fischi del vento. A un tratto volse vivamente il capo verso la porta lasciata semiaperta. Stette un momento in ascolto, curvo innanzi, con gli orecchi tesi, poi uscì rapidamente, spingendosi fino sull'orlo della rupe. Al rapido chiarore d'un lampo vide un piccolo legno, con le vele quasi ammainate, entrare nella baia e confondersi in mezzo ai navigli ancorati. Il nostro uomo accostò le labbra a un fischietto d'oro e mandò tre note stridenti. Un fischio acuto vi rispose un momento dopo. «E' lui!» mormorò con viva emozione. «Era tempo!» Cinque minuti dopo, un essere umano avvolto in un ampio mantello grondante d'acqua si presentava dinanzi alla capanna. «Janez!» esclamò l'uomo dal torbante, gettandogli le braccia al collo. «Sandokan!» rispose il nuovo venuto con un accento straniero marcatissimo. «Brrr! Che notte d'inferno, fratellino mio!» «Vieni!» attraversarono rapidamente le trincee ed entrarono nella stanza illuminata, chiudendo la porta. Sandokan riempì due bicchieri e porgendone uno allo straniero che si era sbarazzato del mantello e della carabina che portava d'armacollo, gli disse, con accento quasi affettuoso, «Bevi, mio buon Janetz!» «Alla tua salute, Sandokan!» «Alla tua!» vuotarono i bicchieri e si assisero dinnanzi al tavolo. Il nuovo arrivato era un uomo sui 33 o 34 anni, cioè un po' più anziano del compagno. Era di media statura, robustissimo, dalla pelle bianchissima, i lineamenti regolari, gli occhi grigi, astuti, le labbra beffarde e sottili, indizio di una ferrea volontà. A prima vista si capiva che era un europeo non solo, ma che doveva appartenere a qualche razza meridionale. «Ebbene, Janetz!» chiese Sandokan con una certa emozione. «Hai veduta la fanciulla dai capelli d'oro?» «No, ma so quanto volevi sapere!» «Non sei andato alla Wuhan!» «Sì, ma capirai che su quelle coste guardate dagli incrociatori inglesi riesce difficile lo sbarco a gente della nostra specie!» «Parlami di questa fanciulla. Chi è?» «Ti dirò che è una creatura meravigliosamente bella, tanto bella da essere capace di stregare il più formidabile pirata!» «Ah!» esclamò Sandokan. «Mi dissero che ha i capelli biondi come l'oro, gli occhi più azzurri del mare, le carni bianche come l'alabastro. So che Alamba, uno dei nostri più feroci pirati, la vide una sera passeggiare sotto i boschi dell'isola e che fu tanto colpito da quella bellezza da fermare la sua nave per meglio contemplarla, a rischio di farsi massacrare dagli incrociatori inglesi. Ma a chi appartiene?» «Da alcuni, si dice, sia figlia di un colono, da altri di un lord, da altri ancora che sia niente meno che parente del governatore di Labuan. «Strana creatura!» mormorò Sandokan, comprimendosi con le mani la fronte. «E così?» chiese Yanez. Il pirata non rispose. Si era bruscamente alzato in preda ad una viva emozione e si era apportato dinanzi all'armonium, facendo scorrere le dita sui tasti. Yanez si limitò a sorridere e staccata da un chiodo una vecchia mandola si mise a pizzicarne le corde dicendo «Sta bene, facciamo un po' di musica!» Aveva però appena cominciato a suonare una rietta portoghese allora quando vide Sandokan avvicinarsi bruscamente al tavolo puntandovi sopra le mani con tale violenza da farlo piegare. Non era più lo stesso uomo di prima. La sua fronte era burrascosamente aggrottata. I suoi occhi mandavano copilampi. Le sue labbra ritirate si mostravano i denti convulsamente stretti. Le sue membra fremevano. In quel momento egli era il formidabile capo dei feroci pirati di Monprocem. Era l'uomo che da dieci anni insanguinava le coste della Malesia. L'uomo che per ogni dove aveva dato terribili battaglie. L'uomo la cui straordinaria audacia, l'indomito coraggio, gli avevano valso il nomignolo di Tigre della Malesia. Yanez esclamò egli con un tono di voce che più nulla aveva d'umano. «Che cosa fanno gli inglesi alla Wuhan?» «Si fortificano», rispose tranquillamente l'europeo. «Forse è che tramano qualche cosa contro di me». «Lo credo». «Ah, tu lo credi? Che osino alzare un dito contro la mia Monprocem. Dì a loro che si provino a sfidare i pirati nei loro covi. La Tigre li distruggerà fino all'ultimo e berrà tutto il loro sangue. Dimmi, che cosa dicono di me?» «Che è ora di finirla con un pirata così audace?» «E mi odiano molto». «Tanto che si accontenterebbero di perdere tutte le loro navi pur da piccarti». «Ah, dubiti forse, fratellino mio. Sono molti anni che tu ne commetti una peggiore dell'altra. Tutte le coste portano le tracce delle tue scorrerie. Tutti i villaggi e tutte le città sono state da te assalite e saccheggiate. Tutti i forti olandesi, spagnoli e inglesi hanno ricevuto le tue palle e il fondo del mare è irto di navi da te mandate a picco». «È vero, ma di chi la colpa?» «Forse è che gli uomini di razza bianca non sono stati inesorabili con me. Forse è che non mi hanno detronizzato col pretesto che io diventavo troppo potente. Forse è che non hanno assassinato mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle per distruggere la mia discendenza. Quale male avevo fatto io a costoro?» «La razza bianca non aveva mai avuto da dolersi di me, eppure mi volle schiacciare. Ora io li odio. Siano spagnoli o di inglesi o portoghesi, i tuoi compatrioti, io li esecro e mi vendicherò terribilmente di loro. L'ho giurato sui cadaveri della mia famiglia e manterrò il giuramento. Se sono però stato spietato coi miei nemici, qualche voce spero si alzerà per dire che talvolta sono stato generoso. Non una, bensì cento, mille voci possono ben dire che tu sei stato coi deboli perfino troppo generoso», disse Yanez. «Possono dirlo tutte quelle donne cadute in tuo potere che tu hai condotte a rischio di farti colare a picco dagli incrociatori nei porti degli uomini bianchi. Possono dirlo le deboli tribù che hai difeso contro le razzie dei prepotenti, i poveri marinai privati dei loro legni dalle tempeste che tu hai salvati dalle onde coperti di regali e cento e mille altri che ricorderanno sempre i tuoi benefici, O Sandokan. Ma dimmi ora, fratellino mio, che cosa vuoi concludere?» La tigre della Malesia non rispose. Si era messo a passeggiare per la stanza con le braccia incrociate e la testa china sul petto. A che pensava quel formidabile uomo? Il portoghese Yanez, quantunque lo conoscesse da lungo tempo, non sapeva indovinarlo. «Sandokan», disse dopo qualche minuto, «a che cosa pensi?» La tigre si fermò guardandolo fisso, ma ancora non rispose. «Hai qualche pensiero che ti tormenta?» riprese Yanez. «Toh, si direbbe che ti cruci perché gli inglesi ti odiano molto». Anche questa volta il pirata stette zitto. Il portoghese si alzò, accese una sigaretta e si diresse verso una porta nascosta dalla tappezzeria dicendo, «Buonanotte, fratellino mio». Sandokan a quelle parole si scosse e fermando con un gesto il portoghese disse, «Una parola, Yanez». «Parla, dunque. Sai che voglio andare alla Buan?» «Tu, alla Buan, perché tanta sorpresa?» «Perché tu sei troppo audace e commetteresti qualche pazzia nel covo dei tuoi più accaniti nemici». Sandokan lo guardò con due occhi che mandavano fiamme ed emise una specie di sordo rugito. «Fratello mio», riprese il portoghese, «non tentare troppo la fortuna, stai in guardia. L'affamato Inghilterra ha messo gli occhi sulla nostra Montpracem e forse non aspetta che la tua morte per gettarsi sui tuoi tigrotti e distruggerli. Stai in guardia, poiché ho veduto un incrociatore irto di cannoni e zeppo d'armati ronzare nelle nostre acque e quello là è un leone che altro non attende che una preda». «Ma incontrerà la tigre», esclamò Sandokan, stringendo i pugni e fremendo dai piedi al capo. «Sì, la incontrerà e forse nella pugna soccomberà, ma il suo grido di morte giungerà fino sulle coste di Labuan ed altri muoveranno contro di te. Morranno molti leoni, poiché tu sei forte e tremendo, ma morrà anche la tigre». «Io». Sandokan aveva fatto un salto innanzi, con le braccia contratte per il furore, gli occhi fiammeggianti, le mani raggrinzate come se stringessero delle armi. Fu però un lampo. Si sedette dinanzi al tavolo, tracannò da un solfiato una tazza rimasta piena e disse con voce perfettamente calma «Hai ragione, Yanez, tuttavia io andrò domani alla Buan. Una forza irresistibile mi spinge verso quelle spiagge e una voce mi sussurra che io devo vedere la fanciulla dai capelli d'oro, che io devo…» «Sandokan!» «Silenzio, fratellino mio. Andiamo a dormire». Ferocia e generosità All'indomani, qualche ora dopo che il sole era sorto, Sandokan usciva dalla capanna pronto a compiere l'ardita impresa. Era abbigliato da guerra, aveva calzato lunghi stivali di pelle rossa, il suo colore favorito, aveva indossato una splendida casacca di velluto pure rosso, adorna di ricami e di frange e larghi calzoni di seta azzurra. Ad armacollo portava una ricca carabina indiana rabescata e dal lungo tiro. Alla cintura una pesante scimitarra dall'impugnatura di oro massiccio e di dietro un cris, quel pugnale dalla lama serpeggiante avverenata tanto caro alle popolazioni della Malesia. Si arrestò un momento sull'orlo della Gran Rupee, scorrendo col suo sguardo d'aquila la superficie del mare, diventata liscia e tersa come uno specchio e lo fermò verso oriente. «E là!» mormorò egli dopo alcuni istanti di contemplazione. «Strano destino che mi spingi laggiù, dimmi se mi sarai fatale, dimmi se quella donna dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro che ogni notte conturba i miei sogni sarà la mia perdita!» Scosse il capo come se volesse scacciare un cattivo pensiero. Poi a lenti passi discese una stretta scaletta aperta nella roccia e che conduceva alla spiaggia. Un uomo lo attendeva al basso. Era Janetz. «Tutto è pronto», disse questi. «Ho fatto preparare i due migliori legni della nostra flotta, rinforzandoli con due grosse spingarde». «E gli uomini?» «Totte le bande sono schierate sulla spiaggia con i loro capi. Non avrai che da scegliere le migliori». «Grazie, Janetz. Non ringraziarmi, Sandokan. Forse ho preparato la tua rovina». «Non temere, fratello mio. Le palle hanno paura di me». «Sì, prudente. Molto prudente». «Lo sarò. E ti prometto che appena avrò veduta quella fanciulla, ritornerò qui». «Dannata femmina, strangolerei quel pirata che per primo la vide e ne parlò a te». «Vieni, Janetz». Attraversarono una spianata, difesa da grandi bastioni e armata di grossi pezzi d'artiglieria, di terra pieni e di profondi fossati, e giunsero sulle rive della Baia, in mezzo alla quale galleggiavano dodici o quindici velieri, che si chiamano Prahos. Dinanzi ad una lunga fila di capanne e di solidi fabbricati, che parevano magazzini. Trecento uomini stavano schierati in bell'ordine, in attesa di un comando qualunque per slanciarsi, come una legione di demoni, sulle navi e spargere il terrore su tutti i mari della Malesia. Malesia. Che uomini e che tipi! Vi erano dei malesi di statura piuttosto bassa, vigorosi e agili come le scimmie, dalla faccia quadra e ossuta, dalla tinta fosca, uomini famosi per la loro audacia e ferocia. Dei Batias, dalla tinta ancora più fosca, noti per la loro passione per la carne umana, quantunque dotati di una civiltà relativamente assai avanzata. Dei Dayaki, della vicina isola di Borneo, di alta statura, dai lineamenti belli, celebri per le loro stragi, che valsero loro il titolo di tagliatori di teste. Dei Siamesi, dal viso romboidale e gli occhi dai riflessi giallastri. Dei Cocin cinesi, dalla tinta gialla e il capo adorno di una coda smisurata e poi degli indiani, dei Bunghisi, dei Giavanesi, dei Tagali, delle Filippine e infine dei Negritos con delle teste enormi e i lineamenti ributtanti. All'apparire della tigre della Malesia, un fremito percorse la lunga fila dei pirati. Tutti gli occhi parvero incendiarsi e tutte le mani si raggrinzarono attorno alle armi. Sandokan gettò uno sguardo di compiacenza sui suoi tigrotti, come amava chiamarli, e disse, Patan, fatti innanzi. Un malese, di statura piuttosto alta, dalle membra poderose, la tinta olivastra e vestito ad un semplice sottanino rosso adorno di alcune piume, si avanzò con quel dondolamento che è particolare agli uomini di mare. Quanti uomini conta la tua banda? Cinquanta, tigre della Malesia. Tutti buoni? Tutti assetati di sangue. Immarcali su quei due prahos e cedi nella metà al giavanese girobatol. E si va? Sandokan gli lanciò uno sguardo che fece fremere l'imprudente quantunque fosse uno di quegli uomini che si rideva della mitraglia. Ubbidisci e non una parola se vuoi vivere, gli disse Sandokan. Il malese si allontanò rapidamente, traendosi dietro la sua banda composta di uomini coraggiosi fino alla pazzia e che a un cenno di Sandokan non avrebbe resitato a saccheggiare il sepolcro di Maometto quantunque tutti maomettani. Vieni, Yanez, disse Sandokan quando li vide imbarcati. Stavano per scendere la spiaggia quando furono raggiunti da un brutto negro dalla testa enorme, dalle mani e di piedi di grandezza sproporzionata, un vero campione di quegli orribili negritos che si incontrano nell'interno di quasi tutte le isole della Malesia. Che cosa vuoi? «E da dove vieni, chili da lù?» gli chiese Yanez. «Vengo dalla costa meridionale», rispose il negato respirando affannosamente. «E ci recchi?» «Una buona nuova, capo bianco! Ho veduto una grossa giunca bordeggiare verso le isole Romades!» «Era carica», chiese Sandokan. «Sì, tigre!» «Sta bene, fra tre ore cadrà il mio potere!» «E poi andrai a Lubuan!» direttamente, Yanez. si erano fermati dinanzi ad una ricca baleniera montata da quattro malesi. «Addio, fratello!» disse Sandokan abbracciando Yanez. «Addio, Sandokan!» «Bada di non commettere delle pazzie!» «Non temere, sarò prudente!» «Addio!» «E che la tua buona stella ti protegga!» Sandokan balzò nella baleniera e con pochi colpi di remo raggiunse i praos, i quali stavano spiegando le loro immense vele. Dalla spiaggia si alzò un immenso grido. «Evviva la tigre della Malesia!» «Partiamo!» comandò il pirata volgendosi ai due equipaggi. Le ancore vennero salpate da due squadre di demoni color verde-oliva o giallo-sporco e i due legni, fatte due bordate, si slanciarono in pieno mare beccheggiando sulle azzurre onde del marmalese. «La rotta?» chiese Sabau a Sandokan che aveva preso il comando del legno maggiore. «Diritti alle isole Romades!» rispose il capo. Poi volgendosi verso gli equipaggi gridò «Tigrotti! Aprite bene gli occhi! Abbiamo una giunca da saccheggiare!» Il vento era buono, soffiando dal sud-ovest e il mare, appena mosso, non opponeva resistenza alla corsa dei due legni, i quali in breve raggiunsero una celerità superiore ai dodici nodi, velocità veramente non comune ai bastimenti a vela, ma niente straordinaria pei legni malesi che portano vele immense e hanno scafi strittissimi e leggeri. I due legni, coi quali la tigre stava per intraprendere l'audace spedizione, non erano due veri prahos i quali ordinariamente sono piccoli e sprovvisti di ponte. Sandokan e Janez, che in fatto di cose di mare non avevano di uguali in tutta la Malesia, avevano modificati tutti i loro velieri, onde affrontare vantaggiosamente le navi che inseguivano. Avevano conservato le immense vele la cui lunghezza toccava i 40 metri e così pure gli alberi grossi ma dotati di una certa elasticità e le manovre di fibre di Gamuti e di Rotang più resistenti delle funi e più facili a trovarsi ma avevano dato agli scafi in maggiori dimensioni dalla carena forme più svelte e alla proa una solidità a tutta prova. Avevano inoltre fatto costruire su tutti i regni un ponte, aprire sui fianchi dei fori peiremi e avevano eliminato uno dei due timoni che portavano i prahos e soppresso il bilanciere attrezzi che potevano rendere meno facili gli abbordaggi. Malgrado i due prahos si trovassero ancora ad una grande distanza dalle Romades verso le quali si supponeva veleggiasse la giunca scorta da Chilidalu appena sparsasi la notizia della presenza di quel legno i pirati si misero subito all'opera onde essere pronti al combattimento. I due cannoni e le due grosse spingarde vennero caricati con la massima cura si disposero sul ponte palle in gran numero e granate da lanciarsi a mano poi fucili scuri sciabole da bordaggio e sulle murate vennero collocati i grappini dal rembaggio da gettarsi sulle manovre della nave nemica ciò fatto quei demoni cui sguardi già s'accendevano d'ardente bramosia si misero in osservazione chi sui bastingaggi chi sulle griselle e chi ha cavalcioni dei pennoni ansiosi tutti di scoprire la giunca che prometteva un ricco saccheggio provenendo ordinariamente tali navi dai porti della Cina anche Sandokan pareva che prendesse parte all'ansietà e irrequietezza dei suoi uomini camminava da prua a poppa con passo nervoso scrutando l'immensa distesa d'acqua e stringendo con una specie di rabbia l'impugnatura d'oro della sua splendida scimitarra alle dieci del mattino Montpracem scompariva sotto l'orizzonte ma il mare appariva ancora deserto non uno scoglio in vista non un pennacchio di fumo che indicasse la presenza di un piroscafo non un punto bianco che segnalasse la vicinanza di qualche veliero una viva impazienza cominciava ad invadere gli equipaggi dei due legni gli uomini salivano e scendevano gli attrezzi imprecando tormentavano le batterie dei fucili facevano lampeggiare le lucenti lame dei loro avvelenati crisi e delle scimitarre a un tratto poco dopo il mezzodì dall'alto dell'albero maestro sudì una voce a gridare ehi guarda sotto vento Sandokan interruppe la sua passeggiata lanciò un rapido sguardo sul ponte del proprio legno un altro su quello comandato da Girobatol poi comandò tigrotti ai vostri posti di combattimento in meno che si dica ai pirati che si erano arrampicati sugli alberi scesero in coperta occupando i posti loro assegnati ragno di mare disse Sandokan rivolgendosi all'uomo rimasto in osservazione sull'albero che cosa vedi una vela tigre è una giunca è la vela di una giunca non mi inganno avrei preferito un legno europeo mormorò Sandokan corrugando la fronte nessun odio mi spinge contro gli uomini del celeste impero ma chissà riprese la passeggiata e non parlo più passò una mezz'ora durante la quale i due prahos guadagnarono cinque nodi poi la voce del ragno di mare si fece ancora udire capitano è una giunca gridò badate che ci ascolti e che sta virando di bordo ah esclamò Sandokan ehi girobatol manovra in modo da impedirle di fuggire i due legni un momento dopo si separavano e dopo descritto un ampio semicerchio mossero a vele spiegate incontro al legno mercantile era questo uno di quei pesanti vascelli che si chiamano giunche dalle forme tozze di dubbia solidità usati nei mari della Cina appena accortosi della presenza di quei due legni sospetti contro i quali non poteva lottare di velocità si era fermato inalberando un gran drappo nel vedere quel vessillo Sandokan fece un salto innanzi la bandiera della Rajab Ruk dello sterminatore dei pirati esclamò con un intraducibile accento d'odio tigrotti all'abordaggio all'abordaggio un urlo selvaggio feroce salzò fra i due equipaggi ai quali non era ignota la fama dell'inglese James Ruk diventato Rajah di Sarawak nemico spietato dei pirati un gran numero dei quali erano caduti sotto i suoi colpi patando un balzo fu al cannone di prua mentre gli altri puntavano la spingarda ed armavano le carabine devo cominciare chiese a Sandukan sì ma che la tua palla non vada perduta sta bene di repente una detonazione cheggio a bordo della giunca e una palla di piccolo calibro passò con un acuto fischio attraverso le vele patan si chinò sul suo cannone e fece fuoco l'effetto fu pronto l'albero maestro della giunca che si era spaccato alla base oscillò violentemente innanzi e indietro e cadde in coperta con le vele e tutti i suoi cordami a bordo del disgraziato legno si videro degli uomini correre sulle murate e poi sparire guarda patan gridò il ragno di mare un piccolo canotto montato da sei uomini erasi staccato dalla giunca e fuggiva verso le romades ma esclamò Sandukan con ira vi sono degli uomini che fuggono invece di battersi patan fa fuoco su quei vili il malese lanciò a fior d'acqua un nembo di mitraglia che sfondò il canotto fulminando tutti quelli che lo montavano bravo patan gridò Sandukan ed ora rasami come un pontone quella nave sulla quale vedo ancora un numeroso equipaggio dopo la manderemo a raddobarsi nei cantieri della rajà se ne ha i due legni corsari ripresero l'infernale musica scagliando palle granate e nembi di mitraglia contro il povero legno spaccandogli l'albero di trinchetto sfondandogli le murate e le costole recidendogli le manovre e uccidendogli i marinai che si difendevano disperatamente a colpi di fucile bravi esclamò Sandukan che ammirava il coraggio di quei pochi uomini rimasti sulla giunca tirate tirate ancora contro di noi siete degni di combattere contro la tigre della Malesia i due legni corsari avvolti da fitte nuvole di fumo dalle quali scattavano lampi si avanzavano sempre e in brevi istanti furono sotto i fianchi della giunca barra sotto vento gridò allora Sandukan che aveva impugnato la scimitarra il suo legno abbordò il mercantile sotto l'anca di babordo e vi rimase attaccato essendo stati lanciati i grappini da bordaggio all'assalto tigrotti tuonò il terribile pirata si raccolse su se stesso come una tigre che sta per lanciarsi sulla preda e fece atto di saltare ma una mano robusta lo trattenne si volse gettando un urlo di furore ma l'uomo che aveva osato di fermarlo gli era saltato dinanzi coprendolo col proprio corpo tu ragno di mare gridò Sandukan alzando su di lui la scimitarra proprio in quell'istante un colpo di fucile partiva dalla giunca e il povero ragno cadeva sul ponte fulminato grazie mio tigrotto disse Sandukan volevi salvarmi si scagliò innanzi come un toro ferito si aggrappò alla bocca ad un cannone si isò sul ponte della giunca e si precipitò fra i combattenti con quella pazza temerità che tutti ammiravano l'intero equipaggio della nave mercantile si gittò adossi a lui per contrastargli il passo a me tigrotti gridò egli abbattendo due uomini col rovescio della scimitarra dieci o dodici pirati arrampicandosi come scimmie su per gli attrezzi e saltando le murate si slanciarono in coperta mentre l'altro prao gettava i grappini da bordaggio arrendetevi gridò la tigre ai marinai della giunca i sette o dotto uomini che ancora sopravvivevano vedendo altri pirati invadere la tolda gettarono le armi chi è il capitano? chiese Sandukan io rispose un cinese facendosi innanzi tremando tu sei un prode e i tuoi uomini sono degni di te disse Sandukan dove andavi? a Sarawak una profonda ruga si disegnò sull'ampia fronte del pirata ah esclamò con voce sorda tu vai a Sarawak e che cosa fa il Rajabruk lo sterminatore dei pirati? non lo so mancando da Sarawak da parecchi mesi non importa ma gli dirai che un giorno andrò a gettare l'ancora nella sua baia e che la attenderò i suoi legni la vedremo se lo sterminatore dei pirati sarà capace di vincere i miei poi si strappò dal collo una fila di diamanti del valore di tre o quattrocento mila lire e porgendola al capitano della giunca disse prendi mio valoroso mi rincresce di averti malmenato la giunca che tu hai così bene difesa ma potrai con questi diamanti comprartene dieci di nuove ma chi siete voi chiese il capitano stupito Sandokan gli si avvicinò e posandogli le mani sulle spalle gli disse guardami in viso io sono la tigre della Malesia poi prima che il capitano e i suoi marinai potessero riaversi dal loro sbalordimento e dal loro terrore Sandokan e i pirati erano ridiscesi nei loro legni la rotta chiese Patan la tigre stese il braccio verso l'est poi con voce metallica nella quale sentivasi una grande vibrazione gridò tigrotti alla Buan alla Buan l'incrociatore abbandonata la disalperata e sdrucita giunca la quale però non correva a pericolo di affondare almeno per il momento i due legni da preda ripresero la corsa verso la Buan l'isola abitata da quella fanciulla dai capelli d'oro che Sandokan voleva ad ogni costo vedere il vento si manteneva al nord ovest e assai fresco e il mare era ancora tranquillo favorendo la corsa dei due praos i quali filavano dieci o dundici nodi all'ora Sandokan dopo di aver fatto ripulire il ponte riannodare le manovre tagliate dalle palle nemiche gettare in mare il cadavere del ragno e di un altro pirata ucciso da una fucilata e caricare i fucili e le spingarde accese uno splendido narghilè proveniente senza dubbio da qualche bazar indiano o persiano e chiamò Patan il malese fu pronto ad obbedire dimmi malese disse la tigre piantandogli in viso due occhi che mettevano paura sai com'è morto il ragno di mare sì rispose Patan rabbrividendo nel vedere il pirata tanto accigliato quando io monto all'abordaggio sai qual è il tuo posto dietro di voi e tu non c'eri e qui il ragno è morto invece tua è vero capitano dovrei farti fucilare per questa tua mancanza ma tu sei un prode e io non amo sacrificare inutilmente i coraggiosi al primo abordaggio tu ti farai uccidere alla testa dei miei uomini grazie tigre Sabau chiamò Posha Sandokan un altro malese che aveva una profonda ferita attraverso il viso si fece innanzi sei stato tu il primo a saltare dopo di me sulla giunca gli chiese Sandokan sì tigre sta bene quando Patan sarà morto tu gli subentrerai nel comando ciò detto attraversò a lenti passi il ponte e discese nella sua cabina situata a poppa durante la giornata i due prajos continuarono a veleggiare in quel tratto di mare compreso fra Monpracem e le Romades all'ovest la costa del Borneo all'est e nord-est e la Buan e le tre isole al nord senza incontrare alcun legno mercantile la sinistra fama che godeva la tigre si era sparsa in quei mari e pochissimi legni ardivano avventurarsi in quei luoghi i più fuggivano quei paraggi scorrazzati continuamente dai legni corsari e si tenevano sotto le coste pronti al primo pericolo a gettarsi a terra onde salvare almeno la vita appena la notte cadde i due legni terza rolarono le loro grandi vele onde premonirsi contro gli improvvisi colpi di vento e si avvicinarono l'un l'altro per non perdersi di vista ed essere pronti a soccorrersi vicendevolmente verso la mezzanotte nel momento in cui passavano dinanzi alle tre isole che sono le sentinelle avanzate di La Buan Sandokan comparve sul ponte era sempre in preda ad una viva agitazione si mise a passeggiare da prua a poppa con le braccia incrociate rinchiuso in un feroce silenzio però di tratto in tratto si arrestava per scrutare la nera superficie del mare saliva sulle murate per abbracciare un maggiore orizzonte e poi si curvava e stava in ascolto cosa cercava di udire forse il brontolio di qualche macchina che indicasse la presenza di un incrociatore oppure il fragore delle onde rompentisi sulle coste di La Buan alle tre del mattino quando gli astri cominciavano ad impallidire Sandokan gridò La Buan infatti verso est là dove il mare si confondeva con l'orizzonte appariva confusamente una sottile linea oscura La Buan ripete il pirata respirando come se gli si fosse elevato un gran peso che opprimeva gli il cuore dobbiamo andare innanzi chiese Patan Sì rispose la tigre entreremo nel fiumicello che tu già conosci il comando fu trasmesso a giro Batol e i due legni si diressero in silenzio verso l'isola sospirata La Buan la cui superficie non oltrepassa i 116 km quadrati non era in quei tempi l'importante stazione navale che è oggi di occupata nel 1847 da Sir Rodney Mandy comandante dell'Iris per ordine del governo inglese che mirava a sopprimere la pirateria non contava allora che un migliaio di abitanti quasi tutti di razza malese e forse 200 bianchi avevano appena allora fondata una cittadella alla quale avevano dato il nome di Vittoria muonendola di alcuni fortini per impedire che venisse distrutta dai pirati di Montpracem che parecchie volte ne avevano devastate le coste il resto dell'isola era ricoperto di fitti boschi i popolati ancora di tigri e solo rare fattorie erano state fondate sulle alture o nelle praterie i due prajos dopo aver costeggiato per alcune miglia l'isola si cacciarono silenziosamente in un piccolo fiumicello le cui rive erano coperte da una ricchissima vegetazione e lo salirono per 6 o 700 metri ancorandosi sotto l'oscura ombra di grandi alberi un incrociatore che avesse battuta la costa non sarebbe riuscito a scoprirli ne avrebbe mai potuto sospettare la presenza di quei tigrotti imboscati come le tigri delle Sonderbuns indiane a mezzodì Sandokan dopo di aver mandato due uomini alla foce del fiumicello e due altri nelle foreste per non venire sorpreso armatosi della sua carabina sbarcava seguito da Patan aveva percorso circa un chilometro inoltrandosi nella fitta foresta quando si arrestò bruscamente ai piedi di un colossale durion le cui frutta deliziose irte di punte durissime si agitavano sotto i colpi di becco di uno stormo di tucani avete veduto qualche uomo chiese Patan no ascolta rispose Sandokan il malese tese l'orecchio e udì un lontano abbaiare è qualcuno che caccia disse rialzandosi andiamo a vedere ripresero il cammino cacciandosi sotto le piante di pepe i cui rami erano carichi di grappoli rossi sotto gli artocarpi o alberi del pane e gli arenga fra le cui foglie svolazzavano dai battaglioni di lucertole volanti i latrati del cane si avvicinavano sempre e ben presti i due pirati si trovarono in presenza di un brutto negro vestito ad un paio di calzoncini rossi e che teneva a guinzagli un mastino dove vai? gli chiese Sandokan sbarrandogli la via cerco la pista di una tigre rispose il negro e chi ti ha dato il permesso di cacciare nei miei boschi sono al servizio di lord guldec sta bene dimmi ora schiavo maledetto hai udito parlare di una fanciulla che si chiama la perla di labuan chi non conosce in quest'isola quella bella creatura è il buongenio di labuan che tutti amano e tutti adorano è bella chiese Sandokan con una viva emozione credo che nessuna donna possa eguagliarla un forte sussulto agitò la tigre della Malesia dimmi riprese dopo un istante di silenzio dove abita? a due chilometri da qui in mezzo ad una prateria basta così va e se ti preme la vita non volgerti indietro gli diede un pugno d'oro e quando il negro fu scomparso si gettò ai piedi di un grande artocarpo mormorando aspettiamo la notte e poi andremo a spiare i dintorni Patan lo imitò sdraiandosi all'ombra di una recche ma con la carabina sotto mano dovevano essere le nove pomeridiane quando un avvenimento inatteso venne ad interrompere la loro aspettativa un colpo di cannone era echeggiato verso la costa facendo bruscamente tacere tutti gli uccelli che popolavano i boschi Sandokan balzò in piedi con la carabina fra le mani tutto trasfigurato un colpo di cannone esclamò vieni Patan vedo del sangue si scagliò a balzi di tigre attraverso la foresta seguito dal malese che quantunque agile come un cervo stentava a tenergli dietro tigri e leopardi in meno di dieci minuti i due pirati giunsero sulla riva del fiumicello tutti i loro uomini erano saliti a bordo del prahos e stavano abbassando le vele essendo il vento caduto cosa succede chiese Sandokan balzando sul ponte capitano siamo assaliti disse girobatol un incrociatore ci sbarra la via alla foce del fiume nah disse la tigre vengono ad assalirmi anche qui questi inglesi ebbene tigrotti impugnate le armi e usciamo in mare mostreremo a questi uomini come combattono le tigri di Montprochem viva la tigre urlarono i due equipaggi con terribile entusiasmo all'abordaggio all'abordaggio un istante dopo i due legni scendevano il fiumicello e tre minuti più tardi uscivano in piano mare a 600 metri dalla costa un grande vascello della portata di oltre 1500 tonnellate potentemente armato navigava a piccolo vapore chiudendo la via dell'ovest sul suo ponte si udivano rullare i tamburi che chiamavano gli uomini ai posti di combattimento e si udivano i comandi degli ufficiali Sandokan guardò freddamente quel formidabile avversario e anziché spaventarsi della sua mole delle sue numerose artiglierie e del suo equipaggio tre o forse quattro volte più numeroso tuonò tigrotti ai remi i pirati si precipitarono sotto il ponte mettendo mano ai remi mentre gli artiglieri puntavano i cannoni e le spingarde ora noi due vascello maledetto disse Sandokan quando vide Praho sfilare come frecce sotto la spinta dei remi subito un getto di fuoco balenò sul ponte dell'incrociatore e una palla di grosso calibro fischiò fra gli alberi del Praho patan gridò Sandokan al tuo cannone il malese che era uno dei migliori cannonieri che vantasse la pirateria diede fuoco al suo pezzo il proiettile che si allontanava fischiando andò a schiantare l'asta della bandiera il legno da guerra invece di rispondere virò di bordo presentando i sabordi di babordo dai quali uscivano le estremità di una mezza dozzina di cannoni patan non perdere un solo colpo disse Sandokan mentre una cannonata rimbombava sul Praho di Girobatol fracassa gli alberi a quel maledetto schiantagli le ruote smontagli i pezzi e quando non avrai più occhio sicuro fatti uccidere in quell'istante l'incrociatore parve incendiarsi un uragano di ferro attraversò l'aria e colpì in pieno i due Prahos rasandoli come pontoni urla spaventevoli di rabbia e di dolore si alzarono fra i pirati soffocate da una seconda bordata che mandò sottosopra remiganti artiglierie ed artiglieri ciò fatto il legno da guerra avvolto fra turbini di fumo nero e bianco virò di bordo a meno di 400 passi dai Prahos e si portò un chilometro più lontano pronto a ricominciare il fuoco Sandokan rimasto illeso ma atterrato da un pennone si era tosto rialzato miserabile tuonò egli mostrando le pugna al nemico vile tu fuggi ma io ti raggiungerò con un fischio chiamò i suoi uomini in coperta presto gettate una barricata dinanzi ai cannoni e poi avanti in un baleno a prua dei due legni furono accumulati alberi di ricambio botti piene di palle vecchi cannoni smontati e rottami di ogni sorta formando una solida barricata venti uomini i più robusti ridiscesero per manovrare i remi ma gli altri si affollarono dietro alle barricate con le mani raggrinzate attorno alle carabine e i denti stretti sui pugnali che scintillavano fra le frementi labbra avanti comandò la tigre l'incrociatore aveva arrestato la sua marcia retrograda e ora si avanzava a piccolo vapore vomitando torrenti di fumo nero fuoco a volontà gridò la tigre da ambe le parti si riprese la musica infernale rispondendo colpo per colpo palla per palla mitraglia contro mitraglia i tre legni decisi a soccombere ma non a retrocedere non si scorgevano quasi più avvolti com'era non a immense nuvole di fumo che una calma ostinata manteneva sopra i ponti ma rugivano con egual furore e i lampi si succedevano ai lampi e le detonazioni alle detonazioni il vascello aveva il vantaggio della sua mole e delle sue artiglierie ma i due prajos che la valorosa tigre conduceva all'abordaggio non cedevano rasi come puntoni forati in cento luoghi sdruciti irriconoscibili già con l'acqua nella stiva già pieni di morti e di feriti continuavano a tirare innanzi malgrado il continuo tempestare di palle il delirio si era impadronito di quegli uomini e tutti altro non chiedevano che di salire sul ponte di quel formidabile vascello e se non di vincere almeno di morire sul campo del nemico patan fedele alla parola data si era fatto uccidere dietro al suo cannone ma un altro abile artigliere aveva preso il suo posto altri uomini erano caduti e altri ancora orrendamente feriti con le braccia o con le gambe mozzate si ribattevano disperatamente fra torrenti di sangue un cannone era stato smontato sul prago di girobatol e una spingarda non tirava quasi più ma che importava sul ponte dei due legni restavano altre tigri assetate di sangue che facevano valorosamente il loro dovere il ferro fischiava sopra quei prodi staccava braccia e sfondava petti rigava i ponti schiantava le murate frantumava ogni cosa ma nessuno parlava di retrocedere anzi insultavano il nemico e lo sfidavano ancora e quando un colpo di vento sbarazzava quei poveri legni dai nuvoloni che li coprivano si vedevano dietro le semi infrante barricate volti foschi e raggrinzati dal furore occhi iniettati di sangue che schizzavano fuoco ad ogni lampeggiare delle artiglierie denti che scricchiolavano sul lame dei pugnali e in mezzo a quell'orda di vere tigri il loro capo l'invincibile Sandokan il quale con la scimitarra in pugno lo sguardo ardente i lunghi capelli sciolti sugli omeri incoraggiava i combattenti con una voce che risuonava come una tromba fra il rimbombo dei cannoni la terribile battaglia durò venti minuti poi l'incrociatore si portò altri 600 passi più indietro per non venire abbordato un urlo di furore scoppiò a bordo dei due prajos a quella nuova ritirata ormai non era più possibile lottare con quel nemico che approfittando della sua macchina evitava ogni abbordaggio Sandokan però non voleva ancora cedere rovesciando con un'irresistibile spinta agli uomini che lo circondavano si curvò sul cannone che era stato caricato corresse la mira e vi diade fuoco pochi secondi dopo l'albero di maestra dell'incrociatore sparato alla base precipitava in mare assieme a tutti i bersaglieri delle coffe e delle crocette mentre il vascello si arrestava per salvare i suoi uomini che stavano per affogare e sospendeva il fuoco Sandokan approfittava per imbarcare sul proprio legno l'equipaggio di Girobatol ed ora alla costa e di volata tuono il prao di Girobatol che si manteneva a galla per un vero prodigio fu subito sgombrato ed abbandonato alle onde col suo carico di cadaveri e col suo pezzo d'artiglieria ormai inservibile subito i pirati misero mano ai remi ed approfittando dell'inazione del vascello da guerra si allontanarono in fretta rifugiandosi nel fiumicello era tempo il povero legno che faceva acqua da tutte le parti nonostante i tappi cacciati frettolosamente nei fori aperti e dalle palle dell'incrociatore affondava lentamente gemeva come un moribondo sotto il peso del liquido invasore e traballava tendendo ad inchinarsi a babordo Sandokan che si era messa alla barra del timone lo diresse verso la sponda vicina e lo arenò su un banco di sabbia appena i pirati si accorsero che non correva più alcun pericolo da affondare irruppero sulla tolda come un branco di tigri affamate con le armi in pugno i lineamenti contratti per il furore pronti a ricominciare la lotta con egual ferocia e risoluzione Sandokan li arrestò con un gesto poi disse guardando l'orologio che portava alla cintura sono le sei fra due ore il sole sarà scomparso e le tenebre piomberanno sul mare che ognuno si metta lacrimente al lavoro onde il prao per la mezzanotte sia pronto a riprendere il mare attaccheremo l'incrociatore chiesero i pirati agitando freneticamente le mani non ve lo prometto ma vi giuro che verrà ben presto il giorno in cui noi vendicheremo la sconfitta noi mostreremo al balenare dei cannoni la nostra bandiera sventolar sui bastioni di vittoria viva la tigre urlarono i pirati silenzio tuono Sandokan si mandino due uomini alla foce del fiumicello a spiare l'incrociatore e altri due nei boschi onde evitare di farci sorprendere sicurino i feriti poi tutti al lavoro mentre i pirati si affrettavano a fasciare le ferite riportate dai loro compagni Sandokan si recò a poppa e stette alcuni minuti in osservazione spingendo lo sguardo verso la baia il cui specchio d'acqua si scorgeva fra uno squarcio della foresta cercava senza dubbio di scoprire l'incrociatore ma questo pareva che non avesse osato spingersi troppo vicino alla costa forse per la tema di incagliarsi sui numerosi banchi di sabbia che colassi stendevano egli sa di tenerci mormorò il formidabile pirata aspetta che noi usciamo nuovamente in mare per sterminarci ma se crede che io lanci i miei uomini all'abordaggio si inganna la tigre sa anche essere prudente si sedette sul cannone poi chiamò Sabau il pirata uno dei più valorosi che si era già guadagnato il grado di sotto capo dopo ad aver giocata venti volte la propria pelle a corse patan e girobatol sono morti gli disse Sandokan con un sorriso si sono fatti uccidere sul loro prao alla testa dei valorosi che cercavano di trascinare addosso alla nave maledetta il comando aspetta a te ora e te lo conferisco grazie tigre della malesia tu sarai valoroso al pari di loro quando il mio capo mi comanderà di farmi uccidere sarò pronto ad obbedirlo ora aiutami radunarono le loro forze spinsera poppa il cannone e le spingarde e le puntarono verso la piccola baia onde spazzarla a colpi di mitraglia nel caso che le scialuppe dell'incrociatore avessero tentato di forzare la foce del fiumicello ora possiamo essere sicuri disse Sandokan hai mandato due uomini alla foce si tigre della malesia devono essersi imboscati fra i canneti benissimo aspetteremo la notte per uscire in mare sì Sabau ci riuscirà ad ingannare l'incrociatore la luna si alzerà tardi assai e forse farà meno di mostrarsi vedo alzarsi delle nubi da sud faremo rotta su Montpracem capo direttamente ed invendicati siamo troppo pochi Sabau per affrontare l'equipaggio dell'incrociatore e poi come rispondere alle sue artiglierie il nostro legno non è più in grado di sostenere un secondo combattimento è vero capo pazienza per ora il giorno della rivincita verrà e ben presto mentre i due capi chiacchieravano i loro uomini lavoravano con febbrile accanimento erano tutti valenti marinai e fra di loro non mancavano né i carpintieri né i mastri d'ascia in sole quattro ore rizzarono due nuovi alberetti raccomodarono le murate torarono tutti i fori e rinnovarono le manovre avendo a bordo abbondanza di cavi di fibre di catene e di gomene alle dieci il legno poteva non solo riprendere il mare ma affrontare anche un nuovo combattimento essendo state rizzate perfino delle barricate formate con tronchi d'albero onde proteggere il cannone e le spingarde durante quelle quattro ore nessuna scialuppa dell'incrociatore aveva osato mostrarsi nelle acque della baia il comandante inglese sapendo con quali individui aveva da fare non aveva creduto opportuno impegnare i suoi uomini in una lotta terrestre d'altronde si credeva certamente sicuro di costringere i pirati alla resa o di ributtarli verso la costa se avessero tentato di assalirlo o di prendere il largo verso le undici Sandokan che era risoluto a tentare l'uscita in mare fece richiamare gli uomini che aveva mandati a sorvegliare la foce del fiume è libera la baia chiese loro sì rispose uno di loro e l'incrociatore si trova dinanzi alla baia lontano molto un mezzo miglio avremo spazio sufficiente per passare mormorò Sandokan le tenebre proteggeranno la nostra ritirata poi volgendosi verso Sabau disse partiamo tosto quindici uomini scesero sul banco e con una scossa poderosa spinsero il prao nel fiume che nessuno mandi un grido per qualsiasi motivo disse Sandokan con voce imperiosa tenete invece bene aperti gli occhi e le armi pronte noi stiamo per giocare una tremenda partita si assise presso la barra del timone con Sabau a fianco e guidò risolutamente il legno verso la foce del fiumicello l'oscurità favoriva la loro fuga non luna in cielo anzi nemmeno una stella e nemmeno quel vago chiarore che proiettano le nubi quando l'astro notturno le illumina superiormente dei grossi nuvoloni avevano invasa alla volta celeste intercettando completamente qualsiasi chiarore l'ombra poi proiettata dai giganteschi durion dai palmizi e dalle smisurate foglie dei banani era tale che Sandokan penava molto a distinguere le due rive del fiumicello un silenzio profondo appena rotto dal lieve gorgogliare delle acque regnava su quel piccolo corso d'acqua non si udiva alcun sussurrio di foglie non essendovi alcun alito di vento sotto le copevolte di quei grandi vegetali e anche sul ponte del legno non si udiva alcun mormorio pareva che tutti quegli uomini stesi fra la prora e la poppa non respirassero più per tema di turbare quella calma il prago era già giunto presso la foce del fiumicello quando dopo un lieve strofinio s'arrestò arenati chiese brevemente Sandokan Sabau si curvò sulla murata e scrutò attentamente le acque sì disse poi vi ho un banco sotto di noi potremo passare la marea monta rapida e credo che far pochi minuti potremo continuare la discesa del fiume attendiamo adunque l'equipaggio quantunque ignorasse in seguito a quale causa il prago si era fermato non si era mosso però Sandokan aveva udito lo scricchiolio ben noto delle carabine che venivano armate ed aveva scorto gli artiglieri curvarsi silenziosamente sul pezzo di cannone e sulle due spingarde passarono alcuni minuti d'angosciosa aspettazione per tutti poi si udirono verso prora e sotto la chiglia degli scricchiolii il prago sollevato dalla marea che montava rapida scivolava sul banco di sabbia a un tratto si liberò da quel fondo tenace ondulando lievemente spiegate una vela comandò brevemente Sandokan agli uomini di manovra basterà capo chiese Sabau per ora si un momento dopo una vela latina venne spiegata sul trinchetto era stata dipinta in nero sicché doveva confondersi completamente con le ombre della notte il prago affrettò la discesa seguendo i serpeggiamenti del fiumicello superò felicemente la barra passando fra i banchi di sabbia e le scogliere attraversò la piccola baia e uscì silenziosamente in mare il vascello chiese Sandokan scattando in piedi eccolo laggiù a mezzo miglio da noi rispose Sabau nella direzione indicata si scorgeva confusamente una massa oscura sopra la quale volteggiavano di quando in quando dei piccoli punti luminosi certamente delle scorie sfuggite dalla ciminiera ascoltando attentamente si udivano anche i sordi brontolii delle caldaie hai fuochi ancora accesi mormorò Sandokan egli adunque ci aspetta passeremo inosservati capo chiese Sabau lo spero vedi nessuna scialuppa nessuna capo rasenteremo prima la spiaggia per meglio confonderci con la massa delle piante poi prenderemo il largo il vento era piuttosto debole ma il mare era calmo come se fosse d'olio Sandokan comandò di spiegare anche sull'albero maestro una vela poi spinse il legno verso il sud seguendo le sinuosità della costa essendo le spiagge coperte di grandi alberi i quali proiettavano sulle acque una cupa umbra vi erano poche probabilità che il piccolo legno corsaro potesse venire scorto Sandokan sempre alla barra non perdeva di vista il formidabile avversario il quale da un istante all'altro poteva di colpo risvegliarsi e coprire il mare e la costa con uragani di ferro e di piombo si studiava di ingannarlo però in fondo all'animo il fiero uomo si doleva di lasciare quei paraggi senza la rivincita avrebbe desiderato di trovarsi già a Montpracem ma avrebbe anche desiderato un'altra tremenda battaglia egli la formidabile tigre della Malesia l'invincibile capo dei pirati di Montpracem aveva quasi vergogna ad andarsene così alla chetichella come un ladro notturno solamente quest'idea gli faceva bollire il sangue e gli faceva avvampare gli sguardi ad una collera tremenda ah come avrebbe salutato un colpo di cannone anche quale segno di una nuova e più disastrosa disfatta il prago si era già allontanato di cinque o seicento passi dalla baia e si preparava a prendere il largo quando a poppa nella scia apparve uno strano scintillio pareva che miriadi di fiammelle sorgessero dalle profondità tenebrose del mare stiamo per tradirci disse Sabau tanto meglio rispose Sandokan con un sorriso feroce no questa ritirata non era degna di noi è vero capitano rispose il malese meglio morire con le armi in pugno che fuggire come sciagalli il mare continuava a diventare fosforescente dinanzi la prora e dietro la poppa di legno i punti luminosi si moltiplicavano e la scia diventava ancora più luminosa pareva che il prago si lasciasse dietro un solco di bitume ardente o di zolfo liquefatto quella striscia che scintillava vivamente fra l'oscurità circostante non doveva passare inosservata agli uomini di guardia dell'incrociatore da un istante all'altro poteva attuonare improvvisamente il cannone anche i pirati stesi sulla tolda si erano accorti di quella fosforescenza però nessuno aveva fatto un gesto solo o aveva pronunciato una sola parola che potesse tradire qualche apprensione anche loro non sapevano rassegnarsi ad andarsene senza sparare un colpo di fucile una grandina di mitraglia sarebbe stata salutata con un urlo di gioia erano appena trascorsi due o tre minuti quando Sandokan che teneva sempre gli sguardi fissi sull'incrociatore vide accendersi i fanali di posizione se ne sono accorti forse si chiese lo credo capo rispose Sabao guarda sì vedo che le scorie sfuggono più numerose dalla ciminiera si alimentano i fuochi a un tratto Sandokan scattò in piedi con la scimitarra in pugno alle armi avevano gridato a bordo del legno di guerra i pirati si erano prontamente risollevati mentre gli artiglieri si erano precipitati sul cannone e sulle due spingarde tutti erano pronti ad impegnare la lotta suprema dopo quel primo grido era successo un breve silenzio a bordo dell'incrociatore ma poi la stessa voce che il vento portava nettamente fino al prao ripetè alle armi alle armi i pirati fuggono poco dopo si udì un tamburo rullare sul ponte dell'incrociatore si chiamavano gli uomini ai loro posti di combattimento i pirati addossati alle murate o affollati dietro alle barricate formate con tronchi d'albero non fiatavano ma i loro lineamenti diventati feroci tradivano il loro stato d'animo le loro dita si raggrinzavano sulle armi impazienti di premere i grilletti delle loro formidabili carabine il tamburo continuava a rullare sul ponte del legno nemico si udivano le catene delle ancore stridere e i colpi secchi dall'argano il vascello si preparava a lasciare l'ancoraggio per assalire la piccola nave corsara al tuo pezzo Sabau comandò la tigre della Malesia otto uomini alle spingarde aveva appena dato quel comando quando una fiamma brillò a prora dell'incrociatore sopra il castello illuminando bruscamente il trinchetto ed il bompresso una detonazione acuta rintronò seguita subito dal ronfo metallico del proiettile sibilante attraverso gli strati d'aria il proiettile smussò l'estremità del pennone maestro e si perdette in mare sollevando un grande sprazzo spumeggiante un urlo di furore cheggio a bordo del legno corsaro ormai bisognava accettare la battaglia ed era ciò che desideravano quegli arditi schiumatori del mar Malese un fumor sastro sfuggiva dalla ciminiera del vascello da guerra si udivano le ruote e mordere affrettatamente le acque i brontoli rauchi delle caldaie i comandi degli ufficiali i passi precipitati degli uomini tutti si affrettarono a correre ai loro posti di combattimento i due fanali furono veduti cambiare di posizione il vascello correva addosso al piccolo legno corsaro per tagliargli la ritirata prepariamoci a morire da prodi gridò Sandokan il quale ormai non si illudeva sull'esito di quella tremenda pugna un urlo solo vi rispose viva la tigre della Malesia Sandokan con un vigoroso colpo di barra virò di bordo e mentre i suoi uomini orientavano rapidamente le vele spinse il legno incontro al vascello per tentare di abbordarlo e scagliare i suoi uomini sul ponte del nemico il cannoneggiamento cominciò ben presto da una parte e dall'altra si sparava a palla e a mitraglia or su tigrotti all'arrembaggio tuono Sandokan la partita non è uguale ma noi siamo le tigri di Montpracem l'incrociatore si avanzava rapidamente mostrando il suo acuto sperone rompendo le tenebre ed il silenzio con un furioso cannoneggiamento il prago vero giocattolo di fronte a quel gigante a cui bastava un solo urto per mandarlo a picco spaccato in due con un'audacia incredibile assaliva pure cannoneggiando meglio che poteva la partita però come aveva detto Sandokan non era uguale anzi era troppo disuguale nulla poteva tentare quel piccolo legno contro quella poderosa nave costruita in ferro e armata potentemente l'esito finale malgrado il valore disperato delle tigri di Montpracem non doveva essere difficile ad indovinare tuttavia i pirati non si perdevano d'animo e bruciavano le loro cariche con mirabile rapidità tentando di sterminare gli artiglieri della coperta e di abbattere i marinai delle manovre sparando furiosamente sul cassero sul castello di Prora e sulle coffe due minuti dopo però il loro legno oppresso dai tiri delle artiglierie nemiche non era altro che un rottame gli alberi erano caduti le murate erano state sfondate e perfino le barricate di tronchi d'albero non offrivano più riparo a quella tempesta di proiettili l'acqua di già entrava dai numerosi squarci inondando la stiva pure nessuno parlava di resa volevano morire tutti ma lassù sul ponte nemico le scariche intanto diventavano sempre più tremende il pezzo di Sabao era ormai stato smontato e mezzo equipaggio giaceva sulla tolda massacrato dalla mitraglia Sandokan comprese che l'ultima ora stava per suonare per le tigri di Montbragem la sconfitta era completa non era più possibile far fronte a quel gigante che vomitava ad ogni istante nemmi di proiettili non rimaneva che tentare l'abordaggio una pazzia poiché nemmeno sul ponte dell'incrociatore la vittoria poteva ridere a quei valorosi non restavano in piedi che dodici uomini dodici tigri però guidate da un capo il cui valore era incredibile a me miei prodi gridò egli i dodici pirati con gli occhi stravolti schiumanti di rabbia con le pugna chiuse come tenaglie attorno alle armi facendosi scudo coi cadaveri dei compagni gli si strinsero attorno il vascello correva allora tutto vapore addosso al prago per affondarlo con lo sperone ma Sandokan appena lo vide a pochi passi con un colpo di barra evitò l'urto e lanciò il suo legno contro la ruota di babordo del nemico avvenne un urto violentissimo il legno corsaro si piegò sul tribordo imbarcando acqua e rovesciando morti e feriti in mare lanciate i grappini tuonò Sandokan due grappini dal rembaggio si infissero nelle griselle dell'incrociatore allora i tredici pirati pazzi di furore assetati di vendetta si slanciarono come un solo uomo all'arrembaggio aiutandosi con le mani e con i piedi aggrappandosi agli sportelli delle batterie e alle gomene si arrampicarono su per la tambura raggiunsero le murate e si precipitarono sul ponte dell'incrociatore prima ancora che gli inglesi stupiti da tanta odacia avessero pensato a ributtarli con la tigre della Malesia alla testa si scagliarono contro gli artiglieri massacrandoli sui loro pezzi sbaragliarono i fucilieri che erano accorsi per sbarrare loro il passo poi tempestando colpi di scimitarra a destra e a sinistra si diressero verso poppa colà alle grida degli ufficiali si erano prontamente radunati gli uomini della batteria erano 60 o 70 ma i pirati non si fermarono a contarli e si gettarono furiosamente sulle punte delle baionette impegnando una lotta titanica avventando colpi disperati troncando braccia e spaccando teste urlando per spargere maggior terrore cadendo e rialzandosi ora indietreggiando ed ora avanzando per alcuni minuti tennero testa a tutti quei nemici ma moschettati dagli uomini delle coffe sciabolati a tergo incalzati dinanzi alle baionette quei valorosi caddero Sandokan e quattro altri coperti di ferite con le armi insanguinate fino all'impugnatura con uno sforzo poderoso si aprirono il passo e tentarono di guadagnare la prua per arrestare a colpi di cannone quella valanga di uomini a metà del ponte Sandokan cadde colpito in pieno petto da una palla di carabina ma subito e si rialzò urlando ammazza ammazza gli inglesi si avanzavano a passo di carica con le baionette calate l'urto fu mortale i quattro pirati che si erano gettati dinanzi al loro capitano per coprirlo sparvero fra una scarica di fucili rimanendo stecchiti ma non così accadde alla tigre della Malesia il formidabile uomo malgrado la ferita che mandava fiotti di sangue con un salto immenso raggiunse la murata di Babordo abbatté col troncone della scimitarra un gabbiere che cercava di trattenerlo e si gettò a capofitto in mare scomparendo sotto i neri flutti la perla di Labuan un tale uomo dotato di una forza così prodigiosa di un'energia così straordinaria e di un coraggio così grande non doveva morire infatti mentre il piroscafo proseguiva la sua corsa trasportato dalle ultime battute delle ruote il pirata con un vigoroso colpo di tallone risaliva a galla e si portava a largo per non venire tagliato in due dallo sperone del nemico o preso a colpi di fucile rattenendo i gemiti che gli strappava la ferita e frenando la rabbia che lo divorava si rannicchiò tenendosi quasi del tutto sommerso in attesa del momento opportuno per guadagnare le coste dell'isola il legno da guerra virava allora di bordo a meno di 300 metri si avanzò verso il luogo dove si era inabissato il pirata con la speranza di sbranarlo sotto le ruote poi tornò a virare si arrestò un momento come se volesse scrutare quel tratto di mare da lui agitato poi ripigliò la marcia tagliando in tutti i versi quella porzione d'acqua mentre i marinai calatisi nella rete della delfiniera e sulle bancazze proiettavano per ogni dove la luce di alcuni fanali convinto dell'inutilità delle ricerche alla fine si allontanò in direzione di Labuan la tigre emise allora un grido di furore va vascello esecrato esclamò va ma verrà il giorno in cui ti mostrerò quanto sia terribile la mia vendetta si passò la fascia sulla sanguinante ferita per arrestare l'emorragia che poteva ucciderlo poi raccogliendo le proprie forze si mise a nuotare cercando le spiagge dell'isola venti volte però il formidabile uomo si arrestò per guardare il legno da guerra che appena appena distingueva e per lanciargli dietro una terribile minaccia vi erano certi momenti in cui quel pirata ferito forse mortalmente forse ancora assai lontano dalle coste dell'isola si metteva ad inseguire quel legno che gli aveva fatto mordere la polvere e lo sfidava con urla che più nulla avevano d'umano la ragione finalmente la vinse e Sandokan riprese il faticoso esercizio scrutando le tenebre che gli nascondevano le coste di Labuan nuotò così per parecchio tempo fermandosi di tratto in tratto per riprendere l'ena e sbarazzarsi delle vesti che lo impacciavano poi sentì che le forze gli venivano meno gli si irrigidivano le membra la respirazione gli diventava sempre più difficile e per colmo di disgrazia la ferita continuava a gettare sangue producendo gli dolori acuti per contatto con l'acqua salata si raggomitolò su se stesso e si lasciò trasportare dal flusso agitando debolmente le braccia cercava di riposare alla meglio per riprendere l'ena ad un tratto sentì un urto qualche cosa l'aveva toccato era stato un pesce cane forse a quell'idea nonostante il suo coraggio da leone si sentì accapponare la pelle allungò istintivamente la mano e afferrò un oggetto scabroso che pareva galleggiasse a fior d'acqua lo tirò a sé e vide che si trattava di un rottame era un pezzo di coperta del prao a cui erano ancora appesi delle funi e un pennone era tempo mormorò Sandokan le mie forze se ne andavano si so faticosamente sul rottame mettendo allo scoperto la ferita dai cui margini gonfi e rosi dall'acqua marina usciva ancora un filo di sangue per un'altra ora quell'uomo che non voleva morire che non voleva darsi vinto lottò con le onde che volta a volta sommergevano il rottame ma poi le forze gli vennero meno e si accasciò su se stesso con le mani però chiuse ancora intorno al pennone cominciava ad albeggiare quando un urto violentissimo lo strappò da quell'accasciamento che poteva anche chiamarsi quasi uno svenimento si alzò faticosamente sulle braccia e guardò dinanzi a sé le onde si frangevano con fracasso intorno al rottame accartocciandosi e spumeggiando pareva che rotolassero su dei bassi fondi attraverso come ad una nebbia sanguigna il ferito scorse a breve distanza a una costa la buon mormorò approderò qua sulla terra dei miei nemici ebbe una breve esitazione ma poi radunate le forze abbandonò quelle tavole che l'avevano salvato da una morte quasi certa e sentendo sotto i piedi un banco sabbioso si avanzò verso la costa le onde lo urtavano da tutte le parti urlandogli intorno come molossi in furore tentando di abbatterlo ed ora spingendolo ora respingendolo pareva che volessero impedirgli di giungere su quella terra maledetta si avanzò barcollando attraverso i banchi di sabbia e dopo ad aver lottato contro le ultime ondate della risacca raggiunse la sponda coronata di grandi alberi lasciandosi cadere pesantemente al suolo quantunque si sentisse spinito per la lunga lotta sostenuta e per la grande perdita di sangue mise a nudo la ferita e la osservò a lungo aveva ricevuto una palla forse di pistola sotto la quinta costola del fianco destro e quel pezzo di piombo dopo di essere scivolato fra le ossa si era perduto nell'interno ma senza toccare a quanto sembrava alcun organo vitale forse quella ferita non era grave ma poteva diventarlo se non si curava prontamente e Sandoken che se ne intendeva un po' lo sapeva pudendo a breve distanza il mormorio d'un ruscello si trascinò fino là aprì le labbra della ferita diventate gonfia al prolungato contatto con l'acqua marina e le lavò accuratamente comprimendole poi fino a far uscire ancora alcune gocce di sangue le riunì per bene le fasciò con un lembo della sua camicia unico indumento che ancora teneva indosso oltre la fascia sostenente il cris guarirò mormorò egli quando ebbe finito e pronunziò quella parola con tanta energia da credere quasi che egli fosse l'arbitro assoluto della propria esistenza quell'uomo di ferro quantunque abbandonato su quell'isola dove non poteva trovare altro che nemici senza un ricovero senza risorse sanguinante senza una mano amica che lo soccorresse era certo di uscire vittorioso da quella tremenda situazione bevete alcuni sorsi d'acqua per calmare la febbre che cominciava a prenderlo poi si trascinò sotto una recche le cui foglie gigantesche lunghe non meno di 15 piedi e larghe 5 o 6 proiettavano all'intorno una fresca ombra vi era appena giunto che si sentì mancare nuovamente le forze chiuse gli occhi che roteavano in un cerchio sanguigno e dopo d'aver tentato ma in vano di mantenersi ritto cadde fra le erbe e rimanendo immobile non si riebbe che molte ore dopo quando già il sole dopo d'aver toccato l'ostro scendeva verso occidente una sete bruciante lo divorava e la ferita non più rinfrescata gli produceva dolori acuti insopportabili cercò di rialzarsi per trascinarsi fino al ruscelletto ma subito ricadde allora quell'uomo che voleva essere forte come la fiera di cui portava il nome con uno sforzo potente si rizzò sulle ginocchia gridando quasi in tono di sfida io sono la tigre a me le forze aggrappandosi al tronco del betel si rizzò in piedi e mantenendosi su per un prodigio d'equilibrio e d'energia camminò fino al piccolo corso d'acqua sulla cui riva ricadde estinse la sete bagnò nuovamente la ferita poi si prese il capo fra le mani e fissò gli sguardi sul mare che veniva a frangersi a pochi passi gorgogliando sordamente ah esclamò egli digrignando i denti chi avrebbe detto che un giorno i leopardi di Labuan avrebbero vinte le tigri di Montpracem chi avrebbe detto che io l'invincibile tigre della Malesia sarei approdato qui sconfitto e ferito e da quando la vendetta la vendetta tutti i miei praos le mie isole i miei uomini i miei tesori pur di distruggere questi odiati uomini bianchi che mi disputano questo mare ma cosa importa se oggi mi hanno fatto mordere la polvere quando fra un mese o due tornerò qui coi miei legni a lanciare su queste spiagge le mie formidabili bande assetate di sangue cosa importa se oggi il leopardo inglese va superbo della sua vittoria sarà lui allora che cadrà moribondo ai miei piedi tremino allora tutti gli inglesi di Labuan perché mostrerò alla luce degli incendi la mia sanguinosa bandiera il pirata così parlando si era nuovamente rialzato con gli occhi fiammeggianti agitando minacciosamente alla destra come se stringesse ancora la terribile scimitarra fremente tremendo anche ferito era pur sempre l'indomabile tigre della Malesia pazienza per ora Sandokan riprese egli ricadendo fra le erbe e gli sterpi guarirò dovessi vivere un mese due tre in questa foresta e cibarmi di ostriche e di frutta quando avrò recuperata le mie forze tornerò a Monpracem dovessi costruirmi una zattera o assalire una canoa ed espugnarla colpi di Chris stette parecchie ore disteso sotto le larghe foglie dell'arecchie guardando cupamente le onde che venivano a morire quasi ai suoi piedi con mille mormorii pareva che cercasse sotto quelle acque gli scafi dei suoi due legni colati in quei paraggi o i cadaveri dei suoi disgraziati compagni una febbre fortissima intanto lo assaliva mentre sentiva ondate di sangue salirgli al cervello la ferita gli produceva spasimi incessanti ma nessun lamento usciva dalle labbra del formidabile uomo alle otto il sole precipitò all'orizzonte e dopo un brevissimo crepuscolo le tenebre calarono sul mare ed invasero la foresta quell'oscurità produsse un'inesplicabile impressione sull'animo di Sandokan ebbe paura della notte lui il fiero pirata che non aveva mai tenuto la morte e che aveva affrontato con coraggio disperato i pericoli della guerra ed i furori delle onde le tenebre esclamò egli sollevando la terra con le unghie io non voglio che scenda la notte io non voglio morire si compresse con ambo le mani la ferita poi si alzò di scatto guardò il mare ormai diventato nero come se fosse l'inchiostro guardò sotto gli alberi indagando la loro copa ombra poi preso forse da un improvviso assalto di delirio si mise a correre come un pazzo internandosi nella selva dove andava perché fuggiva certamente una strana paura l'aveva invaso nel suo delirio gli pareva di udire in lontananza l'abbagliare di cani grida d'uomini ruggitei di fiere egli credeva forse di essere già stato scoperto e di venire inseguito ben presto quella corsa divenne vertiginosa completamente fuori di sé si precipitava innanzi all'impazzata scagliandosi in mezzo ai cespugli balzando sopra tronchi atterrati barcando torrenti e stagni urlando imprecando ed agitando forse innatamente il cris la cui impugnatura tempestata di diamanti mandava a fugaci bagliori continuò così per dieci o quindici minuti internandosi sempre più sotto gli alberi destando con le sue grida agli echi della foresta tenebrosa poi s'arrestò ansante trafelato aveva le labbra coperte d'una schiuma sanguigna e gli occhi sconvolti agitò pazzamente le braccia poi rovinò al suolo come un albero schiantato dalla fulcore delirava la testa gli pareva che fosse lì per riscoppiare e che dieci martelli gli percuotessero le tempie il cuore gli balzava nel petto come se volesse uscirgli e dalla ferita gli sembrava che uscissero torrenti di fuoco credeva di vedere nemici dappertutto sotto gli alberi sotto i cespugli in mezzo alle frane e delle radici che serpeggiavano per suolo i suoi occhi scorgevano uomini nascosti mentre per l'aria gli sembrava di vedere volteggiare legioni di fantasmi e di scheletri danzanti intorno alle grandi foglie degli alberi e gli esseri umani sorgevano dal suolo gementi urlanti chi con le teste sanguinanti chi con le membra tronche coi fianchi squarciati tutti ridevano sghignazzavano come se si beffassero dell'impotenza della tigre terribile della Malesia sandokan in preda ad uno spaventevole accesso di delirio si rotolava al suolo si alzava cadeva tendeva le pugna e minacciava e minacciava tutti via di qua cani urlava cosa volete da me io sono la tigre della Malesia e non vi temo venite ad assalirmi se lo osate ah voi ridete mi credete impotente perché i leopardi hanno ferita e vinta la tigre no non ho paura perché mi guardate con quegli occhi di fuoco perché venite a danzarmi intorno anche tu patan vieni a deridermi anche tu ragno di mare maledetti vi ricaccerò nell'inferno da cui siete usciti e tu Kimperlein cosa vuoi non è bastata dunque la mia scimitarra ad ucciderti via tutti tornate in fondo al mare nel regno delle tenebre negli abissi della terra o vi ucciderò ancora tutti e tu Girobatol cosa vuoi la vendetta sì tu l'avrai perché la tigre guarirà tornerà a Monpracem armerà i suoi praos verrà qui ad esterminare i leopardi inglesi tutti tutti fino all'ultimo il pirata si arrestò con le mani attorno ai capelli gli occhi strambuzzati i lineamenti spaventosamente alterati quindi alzatosi di scatto riprese la sua pazza corsa urlando sangue datemi del sangue che spenga la mia sete io sono la tigre del marmalese corse per parecchio tempo sempre urlando e minacciando uscì dalla foresta e si precipitò attraverso una prateria all'estremità della quale gli parve di vedere confusamente una palizzata poi si arrestò ancora cadendo sulle ginocchia era sfinito anelante rimase alcuni istanti accasciato su se stesso poi tentò ancora di rialzarsi ma ad un tratto le forze gli vennero meno un velo di sangue gli coprì gli occhi e stramazzò al suolo mandando un ultimo urlo che si perdette fra le tenebre lord james gilong quando tornò in sé con sua grande sorpresa non si trovava più nella piccola prateria che aveva attraversata durante la notte bensì in una spaziosa camera tappezzata di carta fiorita di tongue ed adagiato su di un comodo e soffice letto a tutta prima si credette in preda ad un sogno e si stropicciò parecchie volte gli occhi come per destarsi ma ben presto si convinse che tutto era realtà si alzò a sedere chiedendosi a più riprese ma dove sono io sono ancora vivo o morto guardò attorno ma non vide alcuna persona a cui potersi rivolgere allora si mise ad osservare minutamente la stanza era vasta elegante illuminata da due grandi finestre attraverso i cui vetri si vedevano degli alberi altissimi in un canto vide un pianoforte sul quale stavano sparpagliate delle carte di musica in un altro un cavalletto con un quadro raffigurante una marina nel mezzo un tavolo di mogano con sopra un lavoro di ricamo fatto senza dubbio dalle mani di una donna e presso il letto un ricco sgabello ad intarsi di ebano e d'avorio sul quale Sandokan vide non senza una viva compiacenza il fedele suo Chris e presso questo un libro semiaperto con un fiore appassito tra le pagine tese gli orecchi ma non udì alcuna voce però in distanza udivansi dei suoni delicati che parevano gli accordi di una mandola o di una chitarra dove sono io si chiese per la seconda volta in casa di amici o di nemici e chi è mai affasciata e curata la mia ferita ad un tratto i suoi occhi si fermarono nuovamente sul libro che stava sullo sgabello e spinto da un'irresistibile curiosità allungò una mano e lo prese sulla copertina vi era un nome impresso a lettere d'oro Marianna l'essegli cosa vuol dire ciò è un nome o una parola che io non comprendo tornò a leggere e cosa strana si sentì agitato da una sensazione ignota qualche cosa di dolce colpì il cuore di quell'uomo quel cuore che era d'acciaio e che restava chiuso alle più tremende emozioni aprì il libro era coperto da un carattere leggero elegante e nitido ma non riuscì a comprendere quelle parole quantunque alcune somigliassero alla lingua del portoghese janez senza volerlo ma spinto da una forza misteriosa prese delicatamente quel fiore che poco prima aveva veduto e lo mirò a lungo lo fiotò più volte procurando di non guastarlo con quelle dita che altro non avevano stretta che l'impugnatura della scimitarra provando per la seconda volta una strana sensazione un misterioso tremito un non so che nel cuore poi quell'uomo sanguinario quell'uomo di guerra si sentì vincere da un vivo desiderio di portarlo alle labbra lo ripose quasi con dispiacere fra le pagine chiuse il libro e lo ricollocò sullo sgapello era tempo la maniglia della porta girò ed un uomo si fece innanzi camminando lentamente e con quella rigidezza che è particolare agli uomini di razza anglosassone era un europeo a giudicarlo dalla tinta della pelle di statura piuttosto alta e ben complessa dimostrava circa 50 anni aveva il viso incorniciato da una barba rossiccia ma che cominciava ad incanotire due occhi azzurri profondi e nell'insieme si comprendeva un uomo abituato a comandare godo di vedervi tranquillo erano tre giorni che il delirio non vi lasciava un solo momento di quiete tre giorni esclamò Sandokan stupito tre giorni che io sono qui ma non sogno io adunque no non sognate siete presso buone persone che vi correranno affettuosamente e che faranno il possibile per guarirvi ma chi siete voi Lord James Gillanc capitano di vascello di sua maestà alla graziosa imperatrice Vittoria Sandokan fece un soprassalto e la sua fronte si offuscò però si rimise prontamente e facendo uno sforzo supremo per non tradire l'odio che portava contro tutto ciò che era inglese disse vi ringrazio mi Lord di tutto quello che avete fatto per me per uno sconosciuto che poteva essere un vostro mortale nemico era mio dovere di accogliere in casa un povero uomo ferito forse mortalmente rispose il Lord come state ora mi sento abbastanza gagliardo e non provo più dolori ho molto piacere ma ditemi se non vi rincresce chi vi ha conciato in quel modo oltre la palla che vi estrassi dal petto il vostro corpo era coperto di ferite prodotte da armi bianche Sandokan quantunque si aspettasse questa domanda non potè far a meno di trasalire fortemente tuttavia non si tradì né si perdette d'animo se io dovessi proprio dirlo non lo saprei rispose ho visto degli uomini piombare di notte sui miei legni montare all'abordaggio e massacrarmi i marinai chi erano io non lo so poiché fin dal primo urto cadde in mare coperto di ferite voi siete stato senza dubbio assalito dai tigrotti della tigre della Malesia disse Lord James dai pirati esclamò Sandokan sì da quelli di Monpracem che tre giorni fa scorrazzavano i vintorni dell'isola ma che furono poi distrutti da uno dei nostri incrociatori ditemi dove siete stato assalito nei pressi delle Romades giungeste alle nostre coste a nuoto sì aggrappato ad un rottame ma voi dove mi avete trovato sdraiato tra le erbe in preda ad un tremendo delirio e voi dove eravate diretto quando veniste assalito andavo a portare dei regali al sultano di Varauni da parte di mio fratello ma chi è vostro fratello? il sultano di Shaja voi adunque siete un principe malese? esclamò il Lord stendendogli la mano che Sandokan dopo una breve esitazione strinse quasi con ribrezzo sì mi Lord sono ben lieto di avervi ospitato e farò il possibile per non farvi annoiare quando sarete guarito anzi se non vi spiacerà andremo a trovare insieme il sultano di Varauni sì e egli si arrestò sporgendo innanzi il capo come se cercasse di raccogliere qualche lontano rumore dal di fuori venivano gli accordi di una mandola forse gli stessi suoni che aveva udito poco prima mi Lord esclamò in preda ad una viva eccitazione di cui invano cercava di spiegare la causa chi è che suona? perché mio caro principe? chiese l'inglese sorridendo non lo so avrei un vivo desiderio di vedere la persona che così suona si direbbe che questa musica mi tocca il cuore e che mi fa provare una sensazione che mi è nuova ed inesplicabile aspettate un istante gli fece segno di ricoricarsi e uscì sanno che Anna ricadde sul guanciale ma quasi subito si rialzò come se fosse stato spinto da una molla l'inesplicabile commozione che l'aveva colpito poco prima ritornava a prenderlo con maggior violenza il cuore gli batteva in maniera tale che pareva volesse uscirgli dal petto il sangue gli scorreva furiosamente per le vene e le membra provavano degli strani fremiti ma cosa provo io? si chiese egli è forse il delirio che mi assale ancora aveva appena pronunciate quelle parole che il lord rientrava ma non era solo dietro di lui si avanzava sfiorando appena il tappeto una splendida creatura alla cui vista Sandokan non poté trattenere un'esclamazione di sorpresa e di ammirazione era una fanciulla di 16 o 17 anni dalla taglia piccola ma snella ed elegante dalle forme superbamente modellate dalla cintura così stretta che una sola mano sarebbe bastata per circondarla dalla pelle rosea e fresca come un fiore appena sbocciato aveva una testolina ammirabile con due occhi azzurri come l'acqua del mare una fronte di incomparabile precisione sotto la quale spiccavano due sopracciglia leggeramente arcuate e che quasi si toccavano una capigliatura bionda le scendeva in pittoresco disordine come una pioggia d'oro sul bianco busticino che le copriva il seno il pirata nel vedere quella donna che sembrava una vera bambina malgrado la sua età si era sentito scuotere fino in fondo all'anima quell'uomo così fiero così sanguinario che portava quel terribile nome di tigre della Malesia per la prima volta in vita sua si sentiva affascinato dinanzi a quella gentile creatura dinanzi a quelle giadro fiore sorto sotto i boschi di Lapuan il suo cuore che poco prima batteva precipitosamente ora ardeva e nelle vene gli pareva che scorressero lingue di fuoco ebbene mio caro principe cosa dite di quella graziosa ragazza gli chiese il lord Sandokan non rispose immobile come una statua di bronzo egli fissava la giovanetta con due occhi che mandavano lampi di ardente bramosia e pareva che più non respirasse vi sentite male? chiese il lord che lo osservava no no esclamò vivamente il pirata scuotendosi allora permettetemi di presentarvi a mia nipote Lady Marianna Gilonk Marianna Gilonk Marianna Gilonk ripete Sandokan con accento sordo cosa vi trovate di strano sul mio nome? chiese la giovanetta sorridendo si direbbe che vi ha prodotto molta sorpresa Sandokan nell'udire quella voce trasalì fortemente mai aveva udito una voce così dolce a carezzare i suoi orecchi abituati all'infernale musica del cannone e alle urla di morte dei combattenti nulla vi trovo di strano disse con voce alterata gli è che il vostro nome non mi giunge nuovo oh esclamò il lord e da chi l'avete udito? l'avevo già letto prima sul libro che qui vedete e mi ero immaginato che chi lo portava doveva essere una splendida creatura voi scherzate disse la giovane lady arrossendo poi cambiando tono disse è vero che i pirati vi hanno gravemente ferito sì è vero rispose Sandokan con voce sorda mi hanno vinto e ferito ma un giorno sarò guarito e allora guai a coloro che mi hanno fatto mordere la polvere e soffrite molto no milady e ora meno di prima spero che guarirete presto il nostro principe è vigoroso disse il lord e non mi stupirei di vederlo in piedi tra una decina di giorni lo spero rispose Sandokan a un tratto egli che non staccava i suoi occhi dal viso della giovanetta sulle cui gote scorreva di quando in quando una nube rossa si raddrizzò impetuosamente esclamando milady mio dio cosa avete chiese la lady avvicinandosi ditemi voi portate un nome infinitamente più bello di quello di marianna ginlong è vero quale mai chiesero ad un tempo il lord e la giovane contessa si si esclamò Sandokan con maggior forza non potete essere che voi la creatura che tutti gli indigeni chiamano la perla di la buon il lord fece un gesto di sorpresa e una profonda ruga gli sorcò la fronte amico mio disse con voce grave come mai voi sapete ciò mentre mi avete detto che venivate dalla lontana penisola malese non è possibile che questo soprannome sia giunto fino al vostro paese aggiunse lady marianna non lo udì a Shaja rispose Sandokan che per poco non si era tradito ma bensì alle romades sulle cui spiagge sbarcai giorni sono Colammi parlarono di una fanciulla di incomparabile bellezza dagli occhi azzurri dai capelli profumati come i gelsomini del borneo di una creatura che cavalcava come un amazzone che cacciava arditamente le fiere di una vaga giovanetta che in certe sere al tramonto del sole si vedeva apparire sulle sponde di la buon affascinando con un canto più dolce del mormorio dei ruscelli pescatori delle coste ah milady anch'io un giorno voglio udire quella voce tante grazie mi attribuiscono rispose la lady ridendo sì e vedo che quegli uomini che mi parlarono di voi hanno detto il vero esclamò il pirata con slancio appassionato adulatore disse ella mia cara nipote disse il lord tu stregherai anche il nostro principe ne sono convinto esclamò Sandokan e quando lascerò questa casa per tornare nel mio lontano paese dirò ai miei compatrioti che una giovane donna dei visi bianchi ha vinto il cuore di un uomo che credeva di averlo invulnerabile la conversazione durò ancora qualche po' aggirandosi ora sulla patria di Sandokan ora sui pirati di Montpracem ora sulla buon poi essendosi fatta notte il lord e la lady si ritirarono quando il pirata si vide solo rimase a lungo immobile con gli occhi fissi sulla porta dalla quale era uscita quella vaga giovanetta pareva che fosse in preda a profondi desideri e ad una viva commozione forse in quel cuore che fino all'ora mai aveva battuto per alcuna donna in quel momento imperversava una terribile tempesta a un tratto Sandokan si scosse e qualche cosa come un suono rauco gli rumoreggiò in fondo alla gola pronto ad irrompere ma le labbra rimasero chiuse e i denti si strinsero con maggior forza in un lungo stridio egli rimase alcuni minuti lì immobile con gli occhi fiammeggianti il viso alterato la fronte imperlata di sudore le mani cacciate entro i folti e lunghi capelli poi quelle labbra che non volevano aprirsi lasciarono un barco dal quale uscì il ratto un nome Marianna poi il pirata non si frenò più ah esclamò egli quasi con rabbia e torcendosi le mani sento che io divento pazzo che io l'amo Guarigione ed amore Lady Marianna Gillong era nata sotto il bel cielo d'Italia sulle rive dello splendido golfo di Napoli da madre italiana e da padre inglese rimasta orfana 11 anni ed erede di una cospicua sostanza era stata raccolta da suo zio James l'unico parente che allora si trovasse in Europa in quei tempi James Gillong era uno dei più intrepidi lupi di mare dei due mondi proprietario di una nave armata ed equipaggiata da guerra onde cooperare con James Brooke diventato più tardi Rajah di Sarawak all'esterminio dei pirati malesi terribili nemici del commercio inglese in quei lontani mari quantunque Lord James ruvido come tutti i marinai incapace di nutrire un'affezione qualsiasi non provasse tenerezze soverchie per la giovane nipote piuttosto di affidarla a mani straniere l'aveva imbarcata sul proprio legno conducendola al Borneo ed esponendola ai gravi pericoli di quelle dure crociere per tre anni la ragazzina era stata testimone di quelle sanguinose battaglie nelle quali perivano migliaia di pirati e che diedero al futuro Rajah Brooke quella triste celebrità che commosse profondamente e indegnò i suoi stessi compatrioti un giorno però Lord James stanco di carnificine e di pericoli forse ricordandosi di avere una nipote aveva abbandonato il mare e si era stabilito alla Buan seppellendosi sotto i grandi boschi del centro Lady Marianna che toccava allora il quattordicesimo anno e che in quella vita perigliosa aveva acquistato una fierezza ed energia unica quantunque sembrasse un esile bambina aveva cercato di ribellarsi ai voleri dello zio credendo di non potersi abituare a quell'isolamento e a quella vita quasi selvaggia ma il lupo di mare che pareva non nutrisse molta affezione per lei era rimasto inflessibile costretta a subire quella strana prigionia si era interamente data a completare la propria educazione che fino allora non aveva avuto tempo di curare dotata di una tenace volontà a poco a poco aveva modificato gli impeti feroci contratti in quelle aspre e sanguinose battaglie e quella rovidità contratta nel continuo contatto con la gente di mare era così diventata un'appassionata coltrice della musica dei fiori delle arti belle mercelle e istruzioni di un'antica confidente di sua madre spenta più tardi dall'ardente clima tropicale col progredire dell'educazione pur conservando in fondo all'anima qualche cosa dell'antica fierezza era diventata buona generosa e caritatevole non aveva abbandonata la passione per le armi e gli esercizi violenti e ben spesso indomita amazzone percorreva i grandi boschi inseguendo perfino le tigri o pari ad una naiade si tuffava intrepidamente nelle azzurre onde del mar malese ma più sovente si trovava là dove la miseria o la sventura infieriva recando soccorsi a tutti gli indigeni dei dintorni a quegli indigeni che lord james odiava a morte come discendenti di antichi pirati e così quella fanciulla con la sua intrepidezza e la sua bontà e per la sua bellezza si era meritata quel soprannome di Perla di Labuan soprannome volato così lontano e che aveva fatto battere il cuore della formidabile tigre della Malesia ma sotto quei boschi quasi lontano da ogni creatura civile la bambina diventata ragazza non si era mai accorta di essere donna ma quando ebbe veduto quel fiero pirata senza sapere il perché ella aveva provato uno strano turbamento cos'era? ella lo ignorava ma si vedeva sempre dinanzi agli occhi e alla notte le appariva in sogno quell'uomo dalla figura così fiera che aveva la nobiltà di un soltano e che possedeva la galanteria di un cavaliere europeo quell'uomo dagli occhi scintillanti dai lunghi capelli neri e quel viso su cui leggeva sia chiare parole un coraggio più che indomito e un'energia più che rara dopo d'averlo affascinato coi suoi occhi con la sua voce con la sua bellezza era rimasta a sua volta affascinata e vinta aveva dapprima cercato di reagire contro quel battito del cuore che per lei era nuovo come era nuovo per Sandokan ma in vano sentiva sempre che una forza irresistibile la spingeva a rivedere quell'uomo e che non ritrovava la calma di prima che presso di lui si sentiva solamente felice quando si trovava al letto di lui e quando gli leniva agli acuti dolori della ferita col suo chiacchierio coi suoi sorrisi con la sua impareggiabile voce e con la sua mandola e bisognava vederlo in quei momenti Sandokan quando ella cantava le dolci canzoni del lontano paese natio accompagnandole coi delicati suoni del melodioso strumento allora non era più la tigre della Malesia non era più il sanguinario pirata muto anelante madido di sudore rattenendo il respiro per non turbare con l'arito quella voce argentina e melodiosa ascoltava come un uomo che sogna come se avesse voluto imprimersi nella mente quella lingua sconosciuta che lo inebriava che gli soffocava le torture della ferita e quando la voce dopo aver vibrato un'ultima volta moriva con l'ultima nota della mandola lo si vedeva rimanere a lungo in quella posa con le braccia tese come se volesse attirare a sé la fanciulla con lo sguardo fiammeggiante fisso in quello umido di lei col cuore sospeso e gli orecchi tesi come se ascoltasse ancora in quei momenti egli non si ricordava più di essere la tigre dimenticava la sua mompracem i suoi prahos i suoi tigrotti e il portoghese che forse in quell'ora credendolo per sempre spento vendicava la sua morte chissà con quali sanguinose rappresaglie i giorni così volavano rapidi e la guarigione potentemente aiutata dalla passione che gli divorava il sangue procedeva rapida nel pomeriggio del quindicesimo giorno il lord entrato improvvisamente trovò il pirata in piedi pronto ad uscire oh mio degno amico esclamò allegramente sono ben contento di vedervi in piedi non mi era più possibile rimanere a letto mi lord rispose Sandokan d'altronde mi sento tanto forte da lottare con una tigre benissimo allora vi metterò presto alla prova in qual modo ho invitato alcuni buoni amici alla caccia ad una tigre che viene sovente a ronzare presso le mura del mio parco già che vi vedo guarito stasera andrò ad avvertirli che domani mattina cacciamo la belva sarò della partita milord lo credo ma ditemi ora spero che rimanete qualche tempo mio ospite milord gravi affari mi chiamano altrove e bisogna che mi affretti a lasciarvi lasciarmi non pensatelo per gli affari vi ha sempre tempo e vi avverto che io non vi lascerò partire prima di qualche mese forso promettetemi di restare Sandokan lo guardò con due occhi che mandavano lampi per lui rimanere in quella villa presso la giovinetta che l'aveva affascinato era la vita era tutto non chiedeva di più per il momento che importava a lui che i pirati di Monpracem lo piangessero come morto quando poteva rivedere per molti giorni ancora quella divina fanciulla che importava a lui del suo fedele Janetz che forse lo cercava ansiosamente sulle sponde dell'isola giocando la propria esistenza quando Marianna cominciava ad amarlo e che importava a lui se non udiva più il tuonare delle fumanti artiglierie quando poteva ancora udire la voce deliziosa della donna amata o provare le terribili emozioni delle battaglie quando lei gli faceva provare delle emozioni più sublimi e che importava infine a lui se correva il pericolo di venire scoperto forse preso forse ucciso quando poteva ancora respirare la medesima aria che alimentava la sua Marianna vivere in mezzo ai grandi boschi dove viveva lei tutto avrebbe dimenticato per continuare ancora così per cento anni la sua Monpracem i suoi tigrotti i suoi legni e perfino le sue sanguinose vendette sì milord io rimarrò finché vorrete disse egli con impeto accetto l'ospitalità che voi cordialmente mi offrite e se mai un giorno non dimenticate queste parole milord noi dovremmo incontrarci non più amici ma fieri nemici con le armi in pugno saprò allora ricordarmi la riconoscenza che vi devo l'inglese lo guardò stupefatto perché mi parlate così chiese forse un giorno lo saprete rispose Sandokan con voce grave non voglio indagare per ora i vostri segreti disse il lord sorridendo aspetterò quel giorno trasse il l'orologio e guardò bisogna che parta subito se devo avvisare gli amici della caccia che intraprenderemo addio mio caro principe disse stava per uscire quando si fermò dicendo se vorrete scendere nel parco troverete mia nipote che spero vi terrà buona compagnia grazie milord era quello che Sandokan desiderava di potersi trovare anche per pochi minuti solo con la giovanitta forse per svelare la gigantesca passione che divorava gli il cuore appena si vide solo si avvicinò rapidamente ad una finestra che guardava su di un immenso parco là all'ombra di una magnolia di cina tempestata di fiori dall'acuto profumo seduta sul tronco rovesciato di una renga stava la giovane lady era sola in atteggiamento pensoso con la mandola sulle ginocchia assando camparve una celeste visione tutto il sangue gli affluia al capo e il cuore si misa a battergli con veemenza indescrivibile egli rimase lì con gli occhi ardentamente fissi sulla giovanitta rattenendo perfino il respiro come se avesse paura di turbarla a un tratto però diede indietro mandando un grido soffocato che parve un lontano rugito la faccia si alterò spaventosamente prendendo una feroce espressione la tigre della malesia fino allora affascinata stregata ora che si sentiva guarita improvvisamente si risvegliava tornava l'uomo feroce spietato sanguinario dal cuore inaccessibile ad ogni passione che cosa sto per fare io esclamò con voce rauca passandosi le mani sull'ardente fronte ma che sia proprio vero che io amo quella fanciulla è stato un sogno o un'inesplicabile pazzia che io non sia più il pirata di Monpracem per sentirmi attratto da una forza irresistibile verso quella figlia di una razza alla quale io ho giurato odio eterno io amare io che non ho mai provato altro che impeti d'odio e che porto il nome di una belva sanguinaria dimenticherei io forse la mia selvaggia Monpracem i miei fedeli tigrotti il mio Janetz che mi aspettano chissà mai in quali ansie dimentico io forse che i compatrioti di quella fanciulla non aspettano che il momento propizio per distruggere la mia potenza via a questa visione che mi ha perseguitato per tante notti via a questi fremiti che sono indegni della tigre della Malesia spegniamo questo vulcano che mi arde il cuore e facciamo invece sorgere mille abissi fra me e quella sirena incantatrice su tigre va udire il tuo ruggito seppellisci la riconoscenza che devi a queste persone che ti hanno curato va fuggi lontano da questi luoghi ritorna a quel mare che senza volerlo ti spinse su queste spiagge ritorna il temuto pirata della formidabile Monpracem Sandokan così parlando s'era rizzato dinanzi alla finestra coi pugni chiusi e i denti stretti tutto fremente di collera gli parve d'essere diventato un gigante e di udire in lontananza le urla dei suoi tigrotti che lo chiamavano alla pugna e il rombare delle artiglierie tuttavia egli rimase là come inchiodato dinanzi alla finestra trattenuto da una forza superiore al suo furore con gli occhi sempre ardentemente fissi sulla giovane lady Marianna esclamò ad un tratto Marianna a quel nome adorato quel trabocco dire ed odio sfumò come nebbia al sole la tigre tornava uomo e per di più amante le sue mani corsero involontariamente al gancio e con un rapido gesto aprì la finestra un buffo d'aria tiepida carico del profumo di millefiori entrò nella stanza nel respirare quei profumi balsamici il pirata si sentì inebriare e ridestarsi nel cuore più forte che mai quella passione che un momento prima aveva cercato di soffocare si curvò sul davanzale ed ammirò in silenzio fremente delirante la vaga lady una febbre intensa lo divorava e il fuoco gli guizzava per le vene riversandosi nel cuore nubi rosse gli correvano dinanzi agli occhi ma anche in mezzo a queste vedeva sempre colei che l'aveva stregato quanto rimase là molto tempo senza dubbio poiché quando si scosse la giovane lady non era più nel parco il sole era tramontato le tenebre erano calate e in cielo scintillavano miriadi di stelle si mise a passeggiare per la stanza con le mani incrociate sul petto e la testa china assorto in cupi pensieri guarda esclamò ritornando verso la finestra ed esponendo la fronte ardente alla fresca aria della notte qui la felicità qui una nuova vita qui una nuova ebrezza dolce e tranquilla laggiù monpracem una vita tempestosa uragani di ferro tuonardi artiglierie carneficine sanguinose i miei rapidi praos i miei tigrotti il mio buoni anez quale di queste due vite eppure tutto il mio sangue arde quando io penso a questa fanciulla che mi ha fatto battere il cuore ancora prima che la vedessi e nelle vene mi sento correre del bronzo fuso quando io penso a lei si direbbe che io l'antepongo ai miei tigrotti e alle mie vendette eppure sento vergogna di me pensando che ella è figlia di quella razza che io odio così profondamente e se la dimenticassi ah tu sanguini mio povero cuore tu non lo vuoi adunque prima ero il terrore di questi mari prima non avevo mai saputo cosa fosse affetto prima non avevo gustato che lebrezza delle battaglie e del sangue ed or sento che non potrei gustare più nulla lontano da lei si tacque porgendo ascolto allo stormire delle fronde e al sibilo del suo sangue e se frapponessi fra me quella donna divina la foresta poi il mare poi dell'odio riprese egli dell'odio e potrei io odiare costei eppure bisogna che io fugga che ritorni alla mia mompracem fra i miei tigrotti se io rimanessi qui la febbre finirebbe per divorare tutta la mia energia sento che spegnerei per sempre la mia potenza che non sarei più la tigre della malesia orsù partiamo guardo giù tre soli metri lo dividevano dal suolo tese le orecchie e non udì rumore alcuno scavalcò il davanzale e saltò leggermente fra le aiuole e si diresse verso l'albero sul quale poche ore prima erasi assisa Mariana era qui che ella riposava mormorò egli con voce triste oh con te ribella oh Mariana e io non ti rivedrò più mai e non odrò più mai la tua voce più più si curvò sull'albero e raccolse un fiore una rosa dei boschi che la giovane lady aveva lasciata cadere l'ammirò a lungo la fiutò più volte e appassionatamente se la nascose in petto quindi mosse rapidamente verso la cinta del parco mormorando andiamo Sandokan tutto è finito era giunto sotto ad una palizzata e stava per prendere lo slancio quando retrocesse vivamente con le mani nei capelli lo sguardo torvo emettendo una specie di singhiozzo no no esclamò egli con accento disperato non posso non posso che si navissimo che si uccidano i miei tigrotti che si disperda la mia potenza io rimango si mise a correre nel parco come se avesse paura di ritrovarsi sotto le palizzate della cinta e non si arrestò che sotto le finestre della sua stanza esitò un'altra volta poi con un salto si aggrappò al ramo di un albero e raggiunse il davanzare quando si ritrovò in quella casa che aveva lasciata con la ferma decisione di mai più ritornarvi un secondo singhiozzo gli rumoreggiò in fondo alla gola ah esclamò egli la tigre della Malesia sta per tramontare la caccia alla tigre quando ai primi albori il lord venne a bussare alla porta Sandokan non aveva ancora chiuso occhio ricordandosi della partita di caccia in un balino balzò dal letto si passò fra le pieghe della fascia il fedele Chris ed aprì la porta dicendo eccomi mi lord benissimo disse l'inglese non credevo di trovarvi così pronto caro principe come state mi sento tanto forte da rovesciare un albero allora affrettiamoci nel parco ci aspettano sei bravi cacciatori i quali sono impazienti di scovare la tigre che i miei battitori hanno cacciate in un bosco sono pronto a seguirvi e Lady Marianna verrà con noi certamente anzi credo che ci aspetti Sandokan soffocò a stento un grido di gioia andiamo milord disse ardo dal desiderio di incontrare la tigre uscirono e passarono in un salotto le cui pareti erano tappezzate d'ogni specie di armi fu colà che Sandokan trovò la giovane Lady più bella che mai fresca come una rosa splendida nel suo costume azzurro che risaltava vivamente sotto i suoi capelli biondi nel vederla Sandokan si arrestò come abbagliato poi muovendole rapidamente incontro le disse stringendole la mano anche voi della partita si principe mi hanno detto che i vostri compatrioti sono valentissimi in similcacce e voglio vedervi io inchioderò la tigre con il mio Chris e vi regalerò la sua pelle no no esclamò ella con il spavento vi potrebbe toccare qualche nuova disgrazia per voi miledi mi farei sbranare ma non temete la tigre di Labuan non mi atterrerà in quel mentre il lord si avvicinò forgendo a Sandokan una ricca carabina prendete principe disse una palla talvolta vale meglio del Chris più temperato ora andiamo che gli amici ci aspettano discesero nel parco dove erano aspettati da cinque cacciatori quattro erano coloni dei dintorni il quinto era invece un elegante ufficiale di marina Sandokan nel vederlo senza sapere precisamente il perché provò subito per quel giovanotto una violenta antipatia però represse quel sentimento e porse a tutti la mano all'incontro l'ufficiale lo fissò lungamente ed in strana guisa poi approfittando del momento in cui nessuno faceva a lui attenzione si avvicinò al lord che stava esaminando la bardatura di un cavallo dicendogli a bruciapelo capitano credo di aver veduto ancora quel principe malese dove? chiese il lord non mi rammento bene ma ne sono certo ma vi ingannate amico mio lo vedremo in seguito mi lord sia pure in sella amici che tutto è pronto badate che la tigre è molto grossa e che ha potenti artigli la ucciderò con una sola palla e offrirò la pelle a Lady Mariana disse l'ufficiale spero di ucciderla prima di voi signore disse Sandokan lo vedremo amici disse il lord for su in sella i cacciatori inforcarono i cavalli che erano stati condotti colà da alcuni servi mentre Lady Mariana saliva su un bellissimo pony dal mantello candido come la neve ad un segnale del lord tutti uscirono dal parco preceduti da parecchi battitori e da due dozzine di grossi cani appena fuori il drappello si divise dovendo frugare un grande bosco che si prolungava fino al mare Sandokan che montava un focoso animale si cacciò in uno stretto sentiero spingendosi audacemente innanzi onde essere il primo a scopare la belva gli altri presero differenti direzioni ed altri sentieri vola vola esclamò il pirata spronando furiosamente il nobile animale che seguiva alcuni cani abbaglianti bisogna che io mostri a quell'impertinente ufficiale di quanto io sia capace no non sarà lui che offrirà la pelle della tigre alla lady dovessi perdere le braccia o farmi sbranare in quell'istante uno squillo di trombie che gioi in mezzo al bosco la tigre è stata scoperta mormorò Sandokan vola destriero vola attraversò come un lampo un lembo di foresta irta di durion di cavoli palmisti di arecche e di colossali alberi della canfora e giunse addosso a sei o sette battitori che fuggivano dove correte chiese la tigre esclamarono i fuggiaschi dove presso lo stagno il pirata discese di sella legò il cavallo al tronco di un albero si mise il criss fra i denti e afferrata alla carabina si spinse verso lo stagno indicato si sentiva nell'aria un forte odore di selvatico odore particolare ai felini e che dura qualche tempo anche dopo il loro passaggio guardò sui rami degli alberi dai quali la tigre poteva balzargli addosso e seguì con precauzione le rive dello stagno la cui superficie era stata smossa la belva è passata di qui disse la furba ha passato lo stagno per far perdere le tracce ai cani ma Sandokan è una tigre più astuta tornò al cavallo e risalì in arcione stava per ripartire quando udì a breve distanza uno sparo seguito da un'esclamazione il cui accento lo fece trasalire si diresse rapidamente verso il luogo aveva recheggiata la detonazione e in mezzo ad una piccola radura scorse la giovane lady sul suo bianco pony e la carabina ancora fumante in mano in un baleno le fu vicino mandando un grido di gioia voi qui sola esclamò e voi principe come vi trovate qui chiese ella arrossendo seguivo le tracce della tigre anch'io ma su chi avete fatto fuoco sulla belva ma è fuggita senza essere stata colpita grandio perché esporre la vostra vita contro simile fiera per impedirvi di commettere l'imprudenza di pugnalarla col vostro chris avete avuto torto milady ma la fiera è ancora viva e il mio chris è pronto a squarciarle il cuore non farete siete coraggioso lo so lo leggo nei vostri occhi siete forte siete agile come una tigre ma una lotta corpo a corpo con la belva potrebbe esservi fatale che importa io vorrei che mi causasse tali crudeli ferite da averne per un anno intero e perché mai chiese la giovanetta sorpresa milady disse il pirata avvicinandosi via più ma non sapete che il mio cuore scoppia quando io penso che verrà il giorno in cui io dovrò lasciarvi per sempre e non rivedervi mai più se la tigre mi dilaniasse almeno rimarrei ancora sotto il vostro tetto godrei un'altra volta quelle dolci emozioni provate quando vinto e ferito giacevo sul letto di dolore sarei felice assai felice se altre crudeli ferite mi costringessero a rimanere ancora presso di voi a respirare la vostra medesima aria a riudire ancora la vostra deliziosa voce ad inebriarmi ancora dei vostri sguarni dei vostri sorrisi miledi voi mi avete stregato io sento che lontano da voi non saprei vivere non avrei più pace sarei un infelice ma cosa avete fatto di me cosa avete fatto del mio cuore che un tempo era inaccessibile ad ogni passione guardate al solo vedervi io frano tutto e sento il sangue bruciarmi nelle vene marianna dinanzi a quella appassionata e improvvisa confessione rimase muta stupita ma non ritirò le mani che il pirata le aveva prese e che stringeva con frenesia non irritatevi miledi riprese la tigre con una voce che scendeva come una musica deliziosa nel cuore dell'orfana non irritatevi se io vi confesso il mio amore se vi dico che io quantunque figlio di una razza di colore vi adoro come un dio e che un giorno anche voi mi amerete non so dal primo momento in cui mi appariste io non ebbi più bene su questa terra la mia testa si è smarrita io sempre qui fissa nel mio pensiero giorno e notte ascoltatemi miledi tanto è potente l'amore che mi arde in petto che per voi lotterei contro gli uomini tutti contro il destino contro Dio volete essere mia io farò di voi la regina di questi mari la regina della malesia ad una vostra parola 300 uomini più feroci delle tigri che non temono né piombo e acciaio sorgeranno e invaderanno gli stati del borneo per darvi un trono dite tutto ciò che l'ambizione vi può suggerire e l'avrete ho tanto oro da comprare dieci città ho navi ho soldati ho cannoni e sono potente più potente di quel che possiate supporre Dio 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 mio ma chi siete voi chiese la giovinetta stordita da quel turbinio di promesse e affascinata da quegli occhi che pareva mandassero fiamme chi sono io esclamò il pirata mentre la sua fronte si ottenebrava chi sono io egli si avvicinò sempre più alla giovane lady e guardandola fissamente le disse con voce cupa ci sono delle tenebre attorno a me che è meglio non squarciare per ora sappiate che dietro queste tenebre vi è del terribile del tremendo e sappiate pure che io porto un nome che atterrisce tutte le popolazioni di questi mari non solo ma che fa tremare il sultano del borneo e perfino gli inglesi di quest'isola e voi dite di amarmi voi così potente mormorò la giovanetta con voce soffocata tanto che per voi mi sarebbe possibile ogni cosa vi amo di quell'amore che fa compiere miracoli e delitti insieme mettetemi alla prova parlate e io vi ubbidirò come uno schiavo senza un lamento senza un sospiro volete che diventi re per darvi un trono io lo diventerò volete che io che vi amo alla pazzia ritorni a quella terra dalla quale sono partito io vi ritornerò dovessi martirizzare il mio cuore per sempre volete che io mi uccida dinanzi a voi io mi ucciderò parlate la mia testa si smarrisce il sangue mi brucia parlatemi lady parlate ebbene amatemi mormorò ella che si sentiva vinta da tanto amore il pirata gettò un grido ma uno di quei gridi che di rado escono da una gola umana quasi nello stesso tempo e che già erano due o tre colpi di fucile la tigre esclamò Marianna è mia gridò Sandokan cacciò gli sproni nel ventre del cavallo e partì come un fulmine con gli occhi spavillanti d'ardire e il crisi in pugno seguito dalla giovanetta che si sentiva così attratta verso quell'uomo che giocava così audacemente la propria esistenza per mantenere una promessa trecento passi più oltre stavano i cacciatori dinanzi a loro a piedi s'avanzava l'ufficialetto di Marina col fucile puntato verso un gruppo di alberi Sandokan si gettò d'arcioni gridando la tigre è mia pareva una seconda tigre spiccava salti di sedici piedi e ruggiva come una fiera principe gridò Marianna che era discesa da cavallo Sandokan non udiva nessuno in quel momento e continuava ad avanzarsi correndo l'ufficiale di Marina che lo precedeva di dieci passi odendolo avvicinarsi puntò rapidamente il fucile e fece fuoco sulla tigre che si teneva ai piedi di un grosso albero con le pupille contratte i potenti artigli aperti pronta a slanciarsi il fumo non si era ancora dissipato che la si vide attraversare lo spazio con impeto irresistibile e rovesciare l'imprudente maldestro ufficiale stava per riprendere lo slancio per gettarsi sui cacciatori ma Sandokan era lì impugnato solidamente il Chris si precipitò contro la belva e prima che questa sorpresa da tanta audacia pensasse a difendersi la rovesciava al suolo serrandole la gola con tale forza da soffocarle i ruggiti guardami disse anch'io sono una tigre poi rapido come il pensiero immerse la lama serpeggiante del suo Chris nel cuore della fiera la quale si distese come fulminata un urrà fragoroso accolse quella prodezza il pirata uscito illeso da quella lotta gettò uno sguardo sprezzante sull'ufficialetto che stava rialzandosi poi volgendosi verso la giovane lady rimasta muta per il terrore e per l'angoscia con un gesto di cui sarebbe andato altero un re e le disse milady la pelle della tigre è vostra il tradimento il pranzo offerto da lord james agli invitati fu uno dei più splendidi e dei più allegri che fossero stati dati fino allora nella villa la cucina inglese è rappresentata da enormi beefsteaks e da colossali puddings e la cucina malese è rappresentata da schidionate di tocani da ostriche gigantesche dette di singapore da teneri bambù il cui sapore rammentava gli asparagi d'europa e da una montagna di frutta squisite furono da tutti gustate e lodate non occorre dire che il tutto fu innaffiato da gran numero di bottiglie di vino di gin di brandy e di whisky le quali servirono a ripetuti brindisi in onore di Sandokan e della gentile quanto intrepida perla di Labuan altè la conversazione si fece animatissima discorrendo di tigri di cacce di pirati di navi dell'Inghilterra e della Malesia il solo ufficiale di marina si teneva silenzioso e pareva occupato unicamente a studiare Sandokan poiché infatti non lo perdeva un solo istante di vista né si lasciava sfuggire una delle sue parole o un solo dei suoi gesti a un tratto però indirizzandosi a Sandokan che stava parlando della pirateria gli chiese bruscamente scusate principe è molto tempo che voi siete giunto a Labuan mi trovo qui da venti giorni signore rispose la tigre ma per quale motivo non si è veduta la vostra nave a vittoria perché i pirati mi rapirono i due prahos che qui mi conducevano i pirati voi siete stato assalito dai pirati ma dove nei pressi delle Romades quando poche ore prima del mio arrivo su queste coste vi ingannate di certo principe poiché appunto allora il nostro incrociatore navigava in quei paraggi e nessun colpo di cannone pervenne a noi forse il vento soffiava da Levante rispose Sandokan che cominciava a tenersi in guardia non sapendo dove volesse finire l'ufficiale ma come siete giunto qui a nuoto e non avete assistito ad un combattimento fra due legni corsari che si dice fossero guidati dalla tigre della Malesia ed un incrociatore no è strano signore mettereste in dubbio le mie parole scattò Sandokan dio me ne guardi principe rispose l'ufficiale con leggera ironia oh oh esclamò il lord intervenendo baronetto William vi prego di non avviare dispute in casa mia scusate mi lord non ne avevo l'intenzione rispose l'ufficialetto non se ne parli più adunque assaggiate invece un altro bicchiere di questo delizioso whisky poi leviamo la mensa che la notte è calata e le foreste dell'isola non sono sicure quando fa oscuro i convitati fecero un'ultima volta onore alle bottiglie del generoso lord poi tutti si alzarono e discesero nel parco accompagnati da Sandokan e dalla lady signori disse lord james spero che voi mi verrete a trovare presto siate certo che non mancheremo dissero in coro i cacciatori e speriamo che non vi manchi l'occasione di essere più fortunato baronetto William disse rivolgendosi verso l'ufficiale tirerò meglio rispose questi lasciando cadere su Sandokan uno sguardo corrucciato permettetemi ora una parola mi lord tu e mio caro l'ufficialetto gli mormorò alcune parole all'orecchio che nessuno poteva udire sta bene rispose il lord dopo ed ora buonanotte amici e che dio vi preservi dai cattivi incontri i cacciatori salirono in arcione e uscirono dal parco di galoppo Sandokan dopo aver salutato il lord che pareva fosse diventato tutto ad un tratto assai di cattivo umore e stretta appassionatamente la mano alla giovane lady si ritirò nella propria stanza invece di coricarsi egli si mise a passeggiare in preda ad una viva agitazione una vaga inquietudine si rifletteva nel suo viso e le sue mani tormentavano l'impugnatura del Chris egli pensava senza dubbio a quella specie di interrogatorio fattogli subire dall'ufficiale di Marina e che poteva che poteva nascondere un tranello abilmente tesogli chi era quell'ufficiale quali motivi l'avevano spinta ad interrogarlo in quel modo la aveva forse incontrato sul ponte del piroscafo in quella notte di sangue era stato riconosciuto o l'ufficiale aveva un semplice sospetto si tramava forse in quel momento qualche cosa contro il pirata bah disse finalmente Sandokan alzando le spalle se si trama qualche tradimento io saprò sventarlo poiché sento di essere ancora l'uomo che non ha mai avuto paura di questi inglesi orso riposiamo e domani vedremo che cosa si dovrà fare si gettò sul letto senza spogliarsi si mise accanto il Chris e si addormentò tranquillamente col dolce nome di Marianna sulle labbra si svegliò verso mezzodì quando già il sole entrava per le finestre rimaste aperte chiamò un servo e gli chiese dove fosse il lord ma gli fu risposto che era salito a cavallo prima dell'alba dirigendosi verso Vittoria quella nuova che certo non si aspettava lo stupì partito mormorò partito senza avermi detto nulla ieri sera per quale motivo che si trami proprio qualche tradimento contro di me se stasera egli tornasse non più amico ma fiero nemico che cosa farò di quest'uomo che mi ha curato come un padre e che è zio della donna che io adoro bisogna che io riveda marianna e che io sappia qualche cosa discese nel parco con la speranza di incontrarla ma non vide nessuno senza volerlo si diresse verso l'albero atterrato dove ella era solita sedersi e si arrestò mandando un profondo sospiro ah come ribella marianna quella sera che io pensavo a fuggire mormorò passandosi una mano sull'ardente fronte stolto io cercavo di allontanarmi per sempre da te adorabile creatura mentre anche tu mi amavi strano destino chi avrebbe detto che un giorno io avrei amato una donna e come io ora l'amo vi ha del fuoco nelle mie vene del fuoco nel mio cuore del fuoco nel mio cervello e del fuoco perfino nelle mie ossa e che sempre cresce a misura che ingigantisce la passione sento che per quella donna io mi farei inglese che per lei mi venderei schiavo che abbandonerei per sempre la burrascosa vita di avventuriero che maledirei i miei tigrotti e questo mare che io domino e che considero come sangue delle mie vene egli chinò il capo sul petto immergendosi in profondi pensieri ma ad un tratto si rialzò con i denti convulsivamente stritti e gli occhi fiammeggianti e se ella rifiutasse il pirata esclamò con voce sibilante non è possibile non è possibile dovessi vincere il sultanato di Borneo per darle un trono o dare fuoco a tutto la Buan e la Saramia mia il pirata si mise a passeggiare nel parco col viso sconvolto in preda ad un'agitazione violentissima che lo faceva tremare dai piedi al capo una voce ben nota che sapeva trovargli la via del cuore anche attraverso le tempeste lo richiamò in sé Lady Marianna era apparsa allo svolto di un sentiero accompagnata da due indigeni armati fino ai denti e l'aveva chiamato mi Lady esclamò Sandokan correndo l'incontro mio prode amico vi cercavo disse la arrossendo poi accostò un dito alle labbra come per raccomandargli il silenzio e presolo per una mano lo condusse in un piccolo chiosco cinese semisepolto fra un boschetto d'aranci i due indigeni si fermarono a breve distanza con le carabine montate ascoltate disse la giovinetta che pareva atterrita ieri sera vi ho udito avete lasciato sfuggire dalle vostre labbra delle parole che hanno allarmato mio zio amico mio mi è abbalenato un sospetto che voi dovete strapparmi dal cuore ditemi mio prode amico se la donna alla quale voi avete giurato amore vi chiedesse una confessione la fareste voi il pirata che nel mentre la Lady parlava le si era avvicinato a quelle parole si ritrasse bruscamente indietro i suoi lineamenti si scomposero e parve che vacillasse sotto un fiero colpo Milady disse dopo qualche istante di silenzio e afferrando le mani della giovanetta Milady per voi tutto mi sarebbe possibile tutto farei parlate se io devo farvi una rivelazione per quanto possa essere dolorosa per entrambi vi giuro che la farò Marianna alzò gli occhi su di lui i loro sguardi quello di lei supplichevole e lacrimoso quello del pirata scintillante si incontrarono e si fissarono a lungo quei due esseri erano in preda ad un'ansietà che faceva male ad entrambi non ingannatemi principe disse Marianna con voce soffocata chiunque voi siate l'amore che avete suscitato in me non si spegnerà più mai reo bandito io vi amerò ugualmente un profondo sospiro uscì dalle labbra del pirata è il mio nome adunque il mio vero nome che tu vuoi sapere creatura celeste esclamò sì il tuo nome il tuo nome Sandokan si passò più volte la mano sulla fronte madida di sudore mentre le vene del collo gli si gonfiavano prodigiosamente come se facesse uno sforzo sovrumano odimi Marianna ti segli con accento selvaggio ti è un uomo che impera su questo mare che bagna le coste delle isole malesi un uomo che è il flagello dei naviganti che fa tremare le popolazioni e il cui nome suona come una campana funebre hai tu udito parlare di Sandokan soprannominato la tigre della malesia guardami in viso la tigre sono io la giovanetta mandò involontariamente un grido d'orrore e si coperse il viso con le mani Marianna esclamò il pirata cadendo ai suoi piedi con le braccia tese verso di lei non respingermi non spaventarti così fu la fatalità che mi fece diventare un pirata come fu la fatalità che mi impose questo sanguinoso soprannome gli uomini della tua razza furono inesorabili con me che pur non avevo fatto loro alcun male furono essi che dai gradini d'un trono mi precipitarono nel fango che mi tolsero il regno che mi assassinarono madre fratelli e sorelle e che mi spinsero su questi mari non sono pirata per avidità sono un giustiziere il vendicatore della mia famiglia e del mio popolo nulla di più ora se lo credi respingimi e io mi allontanerò per sempre da questi luoghi onde non farti più paura no Sandokan non ti respingo perché ti amo troppo perché tu sei prode tu sei potente tu sei tremendo come gli uragani che sconvolgono gli oceani ah tu mammi ancora dunque dimmelo con le tue labbra dimmelo ancora sì tamo Sandokan è più ora che ieri il pirata la tirò a sé e la strinse al petto una gioia sconfinata illuminava il suo maschio viso e su quelle labbra errava un sorriso di felicità sconfinata mia tu sei mia esclamò egli delirante fuori di sé parla ora mia adorata dimmi che cosa io posso fare per te che tutto mi è possibile se vuoi andrò a rovesciare un sultano per darti un regno se vorrai essere immensamente ricca io andrò a saccheggiare i templi dell'India e della Birmania per coprirti di diamanti ed oro se vuoi io mi farò inglese se vuoi che io rinunci per sempre alle mie vendette e che il pirata scompaia andrò ad incendiare i miei prahos onde non possano più corseggiare andrò a disperdere i miei tigrotti andrò ad inchiodare i miei cannoni onde non possono più rugire e distruggerò il mio covo parla dimmi ciò che vuoi chiedimi l'impossibile e io lo farò per te mi sentirei capace di sollevare il mondo e di precipitarlo attraverso gli spazi del cielo la giovanetta si chinò verso di lui sorridendo cingendogli con le delicate manine il robusto collo no mio valoroso disse non chiedo altro che la felicità accanto a te portami lontana in un'isola qualunque ma dove tu possa sposarmi senza pericoli senza ansie sì se tu lo vorrai ti porterò in un'isola lontana coperta di fiori e di boschi dove tu non udrai più parlare della tua labuan né io della mia monpragem in un'isola incantata del grande oceano dove potremo vivere felici come due colombi innamorati il terribile pirata che si è lasciato dietro torrenti di sangue e la gentile perla di labuan tu verrai marianna sì sandokan io verrò odimi ora un pericolo ti sovrasta forse un tradimento si sta tramando in questi momenti contro di te lo so esclamò sandokan lo sento questo tradimento ma non lo temo bisogna che tu mi ubbidisca sandokan che cosa devo fare devi partire all'istante partire partire ma io non ho paura sandokan fuggi mentre hai tempo ho un funesto presentimento temo che ti tocchi una sciagura mio zio non è partito per capriccio egli deve essere stato chiamato dal baronetto william rosenthal il quale ti ha forse conosciuto ah sandokan parti ritorna ora alla tua isola e mettiti in salvo prima che la tempesta si scateni sul tuo capo invece di ubbidire sandokan afferrò la giovanetta e la sollevò fra le braccia la sua faccia poco prima commossa aveva preso un'altra espressione i suoi occhi balenavano le tempie gli battevano furiosamente e le sue labbra si schiudevano mostrando i denti un istante dopo si scagliò come una belva attraverso il parco varcando ruscelli fossati e lacinta come se avesse paura o cercasse di fuggire da qualcosa non si arrestò che sulla spiaggia dove errò a lungo senza sapere dove andasse né cosa facesse quando si decise a ritornare la notte era calata e la luna era sorta appena rientrato nella villa chiese se il lord era giunto ma gli fu risposto che non era stato veduto salì nel salotto e trovò lì di marianna inginocchiato dinanzi un'immagine col viso inondato di lacrime mia adorata marianna esclamò egli rialzandola è per me che piangi forse perché io sono la tigre della malesia l'uomo esecrato dai tuoi compatrioti no sandokan ma ho paura una disgrazia sta per accadere fuggi fuggi da qui non ho paura io la tigre della malesia non ha mai tremato e si arrestò di colpo rabbrividendo suo malgrado un cavallo era entrato nel parco arrestandosi dinanzi alla palazzina mio zio fuggi sandokan esclamò la giovanetta io io in quel momento il stesso entrava nel salotto lord james non era più l'uomo del giorno innanzi era grave accigliato torvo e indossava la divisa di capitano di marina con un gesto sdegnoso respinse la mano che il pirata audacemente gli porgeva dicendo con freddo accento se io fossi stato un uomo della vostra specie anziché chiedere ospitalità ad un nemico acerrimo mi sarei lasciato uccidere dalle tigri della foresta ritirate quella mano che appartiene ad un pirata ad un assassino signore esclamò sandokan che avevo ormai compreso di essere stato scoperto e che si preparava a vendere caramente la vita non sono un assassino sono un giustiziere non un accento di più in casa mia uscite sta bene rispose sandokan gettò un lungo sguardo sull'amante che era caduta sul tappeto semisvenuta fece atto di precipitarsi ma si frenò e a lenti passi con la mano destra sull'impugnatura del Chris la testa alta lo sguardo fiero uscì dalla scala e discese i gradini soffocando con uno sforzo prodigioso i battiti furiosi del cuore e la profonda emozione che lo invadeva quando però giunse nel parco si fermò snudando il Chris la cui lama scintillò ai raggi della luna a 300 passi si estendeva una linea di soldati con le carabine in mano pronte a fare fuoco su di lui la caccia al pirata in altri tempi sandokan quantunque quasi inerme e di fronte ad un nemico 50 volte più numeroso non avrebbe esitato un solo istante a gettarsi sulle punte delle baionette per aprirsi un passaggio a qualunque costo ora che amava ora che sapeva di essere riamato ora che quella divina creatura forse lo seguiva ansiosamente con gli sguardi non voleva commettere una simile pazzia che poteva costargli la vita e a lei chissà quante lacrime bisognava tuttavia aprirsi un passaggio per raggiungere la foresta e di là il mare suo unico scampo ritorniamo disse poi vedremo risalì le scale senza essere stato scorto dai soldati e rientrò nel salotto col Chris in pugno il lord era ancora là accigliato con le braccia incrociate la giovane lady invece era scomparsa signore disse Sandokan avvicinandogli se io vi avessi ospitato se io vi avessi chiamato amico e poi scoperto per un mortale nemico vi avrei additato alla porta ma non vi avrei teso un vile agguato laggiù sulla medesima strada che io dovrò percorrere vi sono cinquanta forse cento uomini pronti a fucilarmi fateli ritirare mi si lasci libero il passo questa tigre invincibile ha dunque paura chiese il lord con fredda ironia paura io no davvero mi lord ma qui non si tratta di combattere ma di assassinare un uomo inerme ciò non mi riguarda uscite non disonorate più oltre la mia casa o per iddio non minacciate mi lord perché la tigre sarebbe capace di mordere la mano che l'ha curata uscite vi dico fate prima ritirare quegli uomini a noi dunque o tigre della malesia urlò il lord sguainando la sciabola e chiudendo la porta lo sapevo io che avreste cercato di assassinarmi a tradimento disse Sandokan orsumi lord apritemi il passo io mi getto contro di voi il lord invece di ubbidire staccò da un chiodo un corno e lanciò una nota acuta ah traditore gridò Sandokan che si sentì ribollire il sangue nelle vene è tempo sciagurato che tu cada nelle nostre mani disse il lord fra pochi minuti i soldati saranno qui e fra ventiquattro ore sarai appiccato Sandokan mandò un forte ruggito con un salto da felino si impadronì di una pesante seria e si slanciò sulla tavola che stava in mezzo alla sala faceva paura i suoi lineamenti erano ferocemente contratti per il furore i suoi occhi parevano mandare fiamme ed un sorriso di belva gli errava sulle labbra in quell'istante si udì al di fuori uno squillo di tromba e nel corridoio una voce quella di Marianna gridare disperatamente fuggi Sandokan sangue vedo sangue urlò il pirata sollevò la sedia e la scagliò con forza irresistibile contro il lord il quale colpito in piano petto stramazzò pesantemente al suolo pronto come il lampo Sandokan gli fu sopra col criss alzato uccidimi assassino rantolò il lord rammentatevi ciò che vi dissi giorni sono disse il pirata vi risparmio ma bisogna che vi renda impotente ciò dicendo con una destrezza straordinaria lo rivoltò e gli legò solidamente le braccia e le gambe con la propria fascia gli prese poscia la sciamola e si slanciò nel corridoio gridando marianna eccomi la giovane lady si precipitò fra le sue braccia poi traendolo nella propria stanza gli disse piangendo Sandokan ho veduto i soldati oh mio dio tu sei perduto non ancora rispose il pirata io fuggirò ai soldati lo vedrai la prese per un braccio e condottala dinanzi alla finestra la contemplò per alcuni istanti ai raggi della luna fuori di sé marianna disse giurami che sarai mia sposa te lo giuro sulla memoria di mia madre rispose la giovanetta e mi aspetterai sì te lo prometto sta bene io fuggo fra una settimana o due al più io tornerò qui a prenderti alla testa dei miei valorosi tigrotti ora voi cani d'inglesi esclamò rizzando fieramente l'alta statura io mi batto per la perla di Labuan scavalcò rapidamente il davanzale e balzò in mezzo ad una fitta aiuola che lo celava completamente i soldati che erano 60 o 70 avevano allora circondato completamente il parco e si avanzavano lentamente verso la palazzina coi fucili in mano pronti a far fuoco Sandokan che si teneva imboscato come una tigre con la sciabola nella destra e il Chris nella sinistra non fiatava né si muoveva ma si era raccolto su se stesso pronto a precipitarsi sul cerchio e a romperlo con impeto irresistibile il solo moto che facesse era quello di alzare il capo verso la finestra dove sapeva trovarsi la sua diletta Marianna la quale senza dubbio attendeva chissà mai fra quale angoscia l'esito della lotta suprema ben presto i soldati non si trovarono che a pochi passi dalla juola dove egli si teneva sempre gelato giunti a quel luogo si arrestarono come se fossero indecisi sul da farsi ed inquieti su quello che poteva succedere ad agio giovanotti disse un caporale aspettiamo il segnale prima di andare avanti temete che il pirata si sia imboscato chiese un soldato temo piuttosto che abbia massacrato tutti gli abitanti della casa poiché non si ode alcun rumore che sia stato capace di tanto è un brigante capace di tutto rispose il caporale ah come sarei contento di vederlo danzare all'estremità di un pennone con un metro di corda al collo Sandokan che non perdeva una sola parola fece un sordo brontolio e fissò sul caporale due occhi iniettati di sangue aspetta un momento mormorò digrignando i denti il primo che cade sarai tu in quell'istante si udì il corno dell'orde che giara nella palazzina ancora un segnale mormorò Sandokan avanti comandò il caporale il pirata è intorno alla casa i soldati si aprirono lentamente gettando sguardi inquieti per ogni dove Sandokan misurò con lo sguardo la distanza si rizzò sulle ginocchia poi con un salto si scagliò addosso ai nemici spaccare il cranio al caporale e sparire in mezzo ai cespugli vicini fu l'affare di un solo momento i soldati sorpresi da tanta audacia atterriti per la morte del loro caporale non pensarono subito a far fuoco quella breve esitazione bastò a Sandokan per raggiungere la cinta barcarla con un solo salto e scomparire dall'altro lato urla di furore scoppiarono tosto accompagnate da parecchie scariche di fucili tutti ufficiali e soldati si slanciarono come un solo uomo fuori del parco disperdendosi in tutte le direzioni e tirando ovunque fucilate con la speranza di cogliere il fuggiasco ma ormai era troppo tardi Sandokan miracolosamente sfuggito a quel cerchio di armi galoppava come un cavallo inoltrandosi nelle foreste che circondavano la tenuta di Lord James libero nella fitta boscaglia dove aveva a campo di spiegare mille astuzie di nascondersi dovunque di opporre qualunque resistenza non temeva più gli inglesi che importava a lui che lo inseguissero che lo cercassero dovunque quando ormai aveva lo spazio dinanzi e quando all'orecchio una voce gli sussurrava senza tregua fuggi che io t'amo mi si venga a cercare qui in mezzo alla natura selvaggia diceva egli correndo sempre incontreranno la tigre libera pronta a tutto risoluta a tutto solchino pure i loro furfanti incrociatori le acque dell'isola lancino pure i loro soldati attraverso le boscaglie chiamino pure in loro aiuto tutti gli abitanti di vittoria io passerò ugualmente fra le loro baionette e di loro cammon ma ritornerò in breve o fanciulla celeste te lo giuro ritornerò qui alla testa dei miei valorosi non da vinto ma come vincitore e ti strapperò per sempre da questi luoghi esecrati di passo in passo che si allontanava le grida degli inseguitori e di colpi di fucile diventavano sempre più fiocchi finché si spensero completamente si fermò un momento ai piedi di un gigantesco albero per riprendere l'ena e per scegliere la via da percorrere attraverso quelle migliaia di piante le une più grandi e più intricate delle altre la notte era chiara mercella luna che brillava in un cielo senza nubi spandendo sotto le fronde della foresta i suoi raggi azzurrini d'un'infinita dolcezza e d'una trasparenza vaporosa vediamo disse il pirato orizzontandosi con le stelle alle spalle ho gli inglesi dinanzi verso l'ovest sta il mare se io prendo questa direzione subito posso imbattermi in qualche trappello poiché essi supporranno che io cerchi di raggiungere la costa più vicina è meglio deviare dalla linea retta che piegare verso il sud del raggiungere il mare ad una notevole distanza da qui or su in cammino e occhi e orecchie attenti raccolse tutta la sua energia e tutte le sue forze colse le spalle alla costa che non doveva essere molto lontana e si internò di nuovo nella foresta aprendosi il passo fra i cespugli con mille precauzioni scalando tronchi d'alberi caduti per decrepitezza o abbattuti dal fulmine e arrampicandosi sulle piante quando si trovava dinanzi ad una barriera vegetale così fitta da impedire il passaggio anche ad una scimmia continuò così a camminare per tre ore fermandosi quando un uccello spaventato dalla sua presenza si levava mandando uno strido o quando un animale selvaggio fuggiva urlando e si arrestò dinanzi ad un torrente dalle acque nere qui entrò lo risalì per una cinquantina di metri schiacciando migliaia di vermi d'acqua e giunto di fronte ad un grosso ramo vi si aggrappò hissandosi su di un frondoso albero ecco ciò che basta per far smarrire le mie tracce anche ai cani disse ora posso riposarmi senza tema di venire scoperto era lì da una mezz'ora quando un lieve rumore che sarebbe sfuggito ad un orecchio meno acuto del suo si fece udire a breve distanza scostò lentamente le fronde trattenendo il respiro e gettò sotto la cupa ombra del bosco uno sguardo indagatore due uomini curvi fino a terra si avanzavano guardando attentamente a destra a sinistra e dinanzi Sandokan riconobbe in loro due soldati il nemico mormorò mi sono smarrito o mi hanno seguito così da vicino i due soldati che cercavano le orme del pirata quanto pareva dopo aver percorso alcuni metri si fermarono quasi sotto l'albero che serviva da ricovero a Sandokan sai John disse uno dei due la cui voce tremava che io ho paura nel trovarmi sotto questa scurissima boscaglia anch'io James rispose l'altro l'uomo che cerchiamo è peggio di una tigre capace di piombarci improvvisamente addosso e di spacciarci entrambi hai veduto come ha ucciso nel parco il nostro compagno non lo scorderò mai John sembrava non un uomo ma un gigante pronto a farci tutti in minutissimi pezzi credi tu che riusciremo a prenderlo ho i miei dubbi contunque il baronetto William Rosenthal abbia promesso 50 fiammanti sterline per la sua testa mentre tutti noi lo inseguiamo verso l'ovest per impedirgli di imbarcarsi su qualche prago forse corre verso il nord o il sud ma domani o post domani alla più lunga partirà qualche incrociatore e gli impedirà di fuggire hai ragione amico e così che cosa facciamo andiamo prima alla costa poi vedremo aspetteremo prima il sergente Willis che ci segue l'attenderemo alla costa speriamo che sfugga al pirata andiamo rimettiamoci in marcia per ora i due soldati diedero un ultimo sguardo all'ingiro e si rimisero a strisciare verso l'ovest scomparendo tra le ombre della notte Sandokan che non aveva perduto sillaba dei loro discorsi attese una mezz'ora poi si lasciò scivolare dolcemente a terra sta bene disse gli mi inseguono tutti verso l'occidente io piegherò sempre verso il sud dove so ormai di non incontrare nemici stiamo attenti però ho il sergente Willis alle calcagna riprese la silenziosa marcia dirigendosi verso il sud riattraversò il torrente e si aprì il passo attraverso una fitta cortina di piante stava per girare attorno ad un grosso albero della canfora che gli sbarrava il passo quando una voce minacciosa imperiosa gridò se fate un passo se fate un gesto vi uccido come un cane giro batol il pirata senza spaventarsi per quella brusca intimazione che poteva costargli la vita si voltò lentamente stringendo la sciabola pronto a servirsene a sei passi da lui un uomo un soldato senza dubbio il sergente Willis menzionato poco prima dai due cercatori di piste si era alzato dietro ad un cespuglio e lo prendeva freddamente di mira risoluto a quanto pareva ad eseguire alla lettera la minaccia lo guardò tranquillamente ma con due occhi che mandavano strani bagliori in mezzo a quella profonda oscurità e proruppa in uno scroscio di risa perché ridete? chiese il sergente sconcertato e stupito mi pare che non sia il momento rido perché mi sembra strano che tu osi minacciarmi di morte rispose Sandokan sai chi sono io? il capo dei pirati di Monpracem ne sei ben certo chiese Sandokan la cui voce si bilava in strano modo ah scommetterei una settimana della mia paga contro un penny che io non mi inganno infatti io sono la tigre della Malesia ah i due uomini Sandokan beffardo minaccioso sicuro di sé e l'altro spaventato di trovarsi solo dinanzi a quell'uomo il cui valore era leggendario ma risoluto a non retrocedere si guardarono in silenzio per alcuni minuti Orsu Willis vieni a prendermi disse Sandokan Willis esclamò il soldato preso da un superstizioso terrore come sapete il mio nome? nulla può ignorare un uomo fuggito dall'inferno disse la tigre sogginando voi mi fate paura? paura? esclamò Sandokan Willis sai che vedo sangue il soldato che aveva abbassato il fucile sorpreso spaventato non sapendo più se aveva dinanzi un uomo o un demonio retrocesse vivamente curando di prenderlo di mira ma Sandokan che non lo perdeva di vista in un baleno gli fu addosso rovesciandolo a terra grazie grazie balbettò il povero sergente che si vide dinanzi la punta della sciabola ti dono la vita disse Sandokan devo credervi la tigre della Malesia non promette in vano alzati e ascoltami il sergente si rizzò tremante fissando Sussanokan due occhi spaventati parlate disse io ho detto che ti dono la vita ma devi rispondere a tutte le domande che ti farò dite dove credono che io sia fuggito verso la costa occidentale quanti uomini ho dietro di me non lo posso dire sarebbe un tradimento hai ragione non ti rimprovero ti stimo anzi il sergente lo guardò con stupore che uomo siete voi gli chiese vi credevo un miserabile assassino ma vedo che tutti si ingannano non mi importa spogliati della tua divisa che cosa volete farne mi servirà per fuggire niente di più ci sono dei soldati indiani tra quelli che mi inseguono sì dei sipai sta bene spogliati e non opporre resistenza se vuoi che ci lasciamo da buoni amici il soldato obbedì Sandokan bene o male indossò la divisa si cinse la dag e la cartuccera si mise in capo il berretto e si gettò ad armacollo la carabina lasciati legare ora disse poi al soldato voi volete farmi divorare dalle tigri ma le tigri non sono così numerose come credi e poi bisogna che prenda le mie misure per impedire di tradirmi afferrò fra le robuste braccia il soldato che non osava opporre resistenza lo regò ad un albero con una solida corda poi si allontanò a rapidi passi senza volgersi indietro affrettiamoci disse bisogna che questa notte raggiunga la costa e mi imbarchi o domani sarà troppo tardi forse col costume che indosso mi sarà facile sfuggire agli inseguitori e prendere in barco su qualche legno diretto alle Romades e là potrò raggiungere Montpracem e allora ah Marianna mi rivedrai presto ma terribile vincitore a quel nome quasi involontariamente evocato la fronte del pirata si oscurò e i lineamenti gli si contrassero dolorosamente portò le mani al cuore e sospirò silenzio silenzio mormorò egli con voce cupa povera Marianna chissà a quest'ora quali ansie agiteranno il suo cuore forse mi crederà vinto ferito o incatenato come una belva feroce forse anche morto darei tutto il mio sangue goccia a goccia per rivederla un solo istante per dirle che la tigre è ancora viva e che ritornerà or su coraggio che ne ho bisogno questa notte abbandonerò questi lidi in ospitali portando con me il suo giuramento e ritornerò alla selvaggia mia isola e poi che cosa farò io darò io un addio alla mia vita d'avventuriare alla mia isola ai miei pirati al mio mare ho giurato a lei tutto ciò e per quella creatura sublime che ha saputo incatenare il cuore inaccessibile della tigre della malesia tutto farò silenzio non nominiamola più o io impazzisco avanti tiriamo innanzi si rimise in cammino con passo più rapido comprimandosi fortemente il petto come se volesse soffocare i battiti precipitosi del cuore camminò tutta la notte attraversando ora dei gruppi di giganteschi alberi delle piccole foreste ed ora delle praterie avvallate ricche di torrenti di stagni cercando di orientarsi con le stelle al sorgere del sole si arrestò presso una macchia di durian colossali per prendere un po' di riposo ed anche per accertarsi se la via era libera stava per celarsi in mezzo ad un festone di liane quando udì una voce a gridare oe camerata che cosa cercate là dentro vadate che non si nasconda qualche pirata ben più terribile delle tigri del vostro paese Sandokan niente sorpreso certo di nulla avere da temere col vestito che indossava si volse tranquillamente e vide coricati a breve distanza sotto la fresca ombra di una recca due soldati guardandoli attentamente credette di riconoscere in loro quei due che avevano preceduto il sergente Willis che cosa fate voi qui chiese Sandokan con accento gutturale estorpiando l'inglese ci riposiamo un po' rispose uno dei due abbiamo cacciato tutta la notte e non ne possiamo più cercavate anche voi il pirata si e vi posso dire sergente che abbiamo scoperto le sue tracce oh fe Sandokan fingendo stupore e dove le avete trovate? nel bosco che abbiamo orora attraversato e le avete smarrite poi? non c'è stato più possibile il ritrovarle disse il soldato con rabbia dove si dirigevano? verso il mare allora siamo perfettamente d'accordo cosa volete dire sergente? chiesero i due soldati balzando in piedi che io e Willis Willis l'avete incontrato? sì e l'ho lasciato due ore fa continuate sergente volevo dirvi che io e Willis le abbiamo ritrovate nelle vicinanze della collina rossa il pirata cerca di raggiungere la costa settentrionale dell'isola non vi è più da ingannarsi allora noi abbiamo seguito una falsa traccia no amici disse Sandokan e è che il pirata ci ha abilmente giocati in quale modo? chiese il più attempato dei due soldati risalendo verso il nord seguendo il letto d'un torrente il furbo ha lasciato le sue orme nei boschi fingendo di fuggire verso l'est poi invece è ritornato indietro che cosa dobbiamo fare ora? dove sono i vostri compagni? pattono la foresta a due miglia da qui avanzandosi verso l'est tornate immediatamente indietro e date loro l'ordine di dirigersi senza perdere tempo verso le spiagge settentrionali dell'isola spicciatevi il lord ha promesso cento sterline ed un grado a chi scoprirà il pirata non ci voleva di più per allettare i due soldati raccolsero precipitosamente i fucili si cacciarono in tasca le pipe che stavano fumando e salutato Sandokan si allontanarono rapidamente scomparendo sotto gli alberi la tigre della Malesia li seguì con lo sguardo finché potè poi tornò a cacciarsi in mezzo alla macchia mormorando finché mi sbarazzano la via io posso fare una dormita di qualche ora più tardi vedrò cosa potrò fare bevette alcuni sorsi di whisky essendo piena la fiaschetta di Willis mangiò alcune banane che aveva raccolto nella foresta poi appoggiò la testa su di un fascio d'erbe e si addormentò profondamente senza più occuparsi dei suoi nemici quanto dormì? certamente non più di tre o quattro ore poiché quando aprì gli occhi il sole era ancora alto stava per alzarsi onde rimettersi in marcia quando udì un colpo di fucile sparato a breve distanza seguito subito dal galoppo precipitoso d'un cavallo che mi abbiano scoperto mormorò Sandokan lasciandosi ricadere in mezzo ai cespugli armò rapidamente la carabina spostò con precauzione le foglie e guardò dapprima non vide nulla udiva però il galoppo che si avvicinava rapidamente credeva che si trattasse di qualche cacciatore lanciato sulle tracce di qualche babilussa ma ben presto si avvide di essersi ingannato si cacciava l'uomo infatti un istante dopo un indigeno o un malese a giudicarlo dalla tinta nero-rossastra della sua pelle attraversava a gran corsa la prateria cercando di raggiungere una folta macchia di banani era un uomo basso membruto quasi nudo non avente che un gonnellino stracciato ed un cappello di fibre di rotang ma nella destra impugnava un nodoso bastone e nella sinistra un cris dalla lama serpeggiante la sua corsa fu così rapida che a Sandokan mancò il tempo di osservarlo meglio lo vide però cacciarsi con un ultimo slancio in mezzo ai banani e scomparire sotto le gigantesche foglie chi sarà costui? si chiese Sandokan stupito un malese certamente a un tratto un sospetto gli attraversò il cervello se fosse uno dei miei uomini si chiese che Yanez abbia sbarcato qualcuno per venirmi a cercare egli non ignorava che io mi recavo alla Wuhan stava per uscire dalla macchia per cercare di scorgere il fuggiasco quando sul margine del bosco comparve un cavaliere era un cavalleggero del reggimento del Bengala pareva furibondo poiché bestemmiava e maltrattava il cavallo spronandolo e tormentandolo con violente strappate giunto a 50 passi dalla macchia di banani alzò agilmente in terra legò il cavallo alla radice di una pianta armò il moschetto e stette in ascolto scrutando attentamente gli alberi vicini per tutti i tuoni dell'universo esclamò non sarà mica scomparso sotto terra in qualche luogo deve essere nascosto e viva Dio non sfuggirà la seconda volta al mio moschetto so bene che ho da fare con la tigre della Malesia ma John Gibbys non ha paura se questo dannato cavallo non si fosse impennato a quest'ora quel pirataccio non sarebbe più vivo il cavalleggero così monologando aveva sguainata la sciavola e si era cacciato in una macchia di arecche e di cespugli allontanando con prudenza i rami quegli alberi confinavano con la macchia dei banani ma vera da dubitare che riuscisse a scovare il foggiasco e questi si era allontanato strisciando attraverso le liane e le radici ed aveva trovato un nascondiglio tale da metterlo al sicuro da qualsiasi ricerca Sandokan che non aveva abbandonato i cespugli in vano aveva tentato di sapere dove quel malese si fosse celato per quanto si allungasse e guardasse sotto e sopra le grandi foglie non riusciva a vederlo in alcun luogo però si guardava bene dal mettere il cavalleggero sulla buona via temendo di tradire quel povero indigeno che si era fatto inseguire per colpa non sua cerchiamo anzi di salvarlo mormorò può essere uno dei miei uomini o qualche esploratore mandato qui da Yanez bisogna mandare altrove quel cavalleggero o finire a coltrovarlo stava per inoltrarsi quando a pochi passi vide agitarsi un festone di liane volse rapidamente la testa da quella parte e vide apparire il malese il povero uomo temendo di venire sorpreso stava arrampicandosi su quelle corde vegetali per guadagnare la cima ad un mango fra le cui foglie fittissime poteva trovare un ottimo nascondiglio il furbo mormorò attese che giungesse fra i rami e che si voltasse appena pote scorgere la sua faccia a malapena trattenne un grido di gioia e di stupore giro batol esclamò ah il mio bravo malese ma come si trova ancora qui e vivo eppure mi rammento di averlo abbandonato sul prao affondante morto moribundo quale fortuna costui deve avere l'anima ben inchiodata al suo corpo or su salviamolo armò la carabina fece il giro della macchia e apparve bruscamente sul margine del bosco gridando ehi amico cosa cercate con tanto accanimento avete ferito qualche babirussa il cavalleggero udendo quella voce balzò agilmente fuori dal cespuglio tenendo il moschetto puntato dinanzi a sé e mandò un grido di stupore toh un sergente esclamò vi sorprende amico da dove siete sbucato voi dalla foresta ho udito un colpo di fucile e mi sono affrettato a venire qui per vedere che cosa era accaduto avete sparato contro un babirussa eh sì contro un babirussa più pericoloso di una tigre disse il cavalleggero con una collera malcelata che bestia era dunque non cercavate qualcuno anche voi chiese il soldato sì la tigre della malesia è vero sergente precisamente l'avete veduto il terribile pirata no ma ho scoperto le sue tracce ed io sergente ho trovato invece il pirata in persona è impossibile ho fatto fuoco contro di lui e l'avete mancato come un cacciatore novellino e dove si è nascosto temo che ormai sia lontano l'ho veduto attraversare la prateria e nascondersi per questi macchioni allora non lo troverete più lo temo anch'io quell'uomo è più agile d'una scimmia e più tremendo d'una tigre capace di mandarci tutti e due all'altro mondo lo so sergente se non vi fossero quelle cento sterline promesse dal lord gillong che sulle quali conto per fondare una fattoria il giorno che getterò la sciabola non avrei osato inseguirlo ed ora che cosa contate di fare non lo so credo che frugando fra queste macchie perderò inutilmente il mio tempo volete un consiglio? dite sergente rimontate a cavallo e fate il giro del bosco volete venire con me? in due avremo maggior coraggio no camerata e perché sergente? volete far sfuggire il pirata? spiegatevi se noi lo inseguiamo tutti e due da una parte la tigre fuggirà dall'altra voi fate il giro del bosco e lasciate a me la cura di frugare le macchie accettato ma una condizione quale? che dividiamo il premio se avete la fortuna di abbattere la tigre non voglio perdere tutte le cento sterline vi acconsento rispose Sandokan sorridendo il cavalleggero ringuainò la sciabola rimontò in sella mettendosi dinanzi il moschetto armato e salutò il sergente dicendogli ci ritroveremo sull'opposto margine della foresta ma aspetterai molto mormorò Sandokan aspettò che il cavaliere fosse scomparso fra la macchia poi si avvicinò all'albero su cui tenevasi nascosto il suo malese dicendo scendi girobatol non aveva ancora terminata la frase che già il malese cadeva ai suoi piedi gridando con voce rotta ah mio capitano sei sorpreso di rivedermi ancora vivo mio valoroso potete crederlo tigre della Malesia disse il pirata che aveva le lacrime agli occhi credevo di non rivedervi mai più essendo ormai certo che gli inglesi vi avessero ucciso ucciso gli inglesi non hanno ferro bastante per toccare il cuore della tigre della Malesia rispose Sandokan mi avevano gravemente ferito è vero ma come vedi sono guarito e pronto a ricominciare la lotta e tutti gli altri dormono negli abissi del mare rispose Sandokan con un sospiro tutti i valorosi che io trascinai all'abordaggio del vascello maledetto sono caduti sotto i colpi dei leopardi ma noi li vendicheremo è vero capitano si è molto presto ma in seguito a quale fortunata circostanza ti ritrovo ancora vivo mi ricordo d'averti veduto cadere morente a bordo del tuo prao durante la prima lotta è vero capitano una scheggia di mitraglia mi aveva colpito alla testa ma non m'aveva ucciso quando tornai in me il povero prao che voi avevate abbandonato sulle onde crivellato dalle palle dell'incrociatore stava per inabissarsi mi aggrappai ad un rottame e mi spinsi verso la costa errai parecchie ore sul mare poi svenni mi risvegliai nella capanna di un indigeno quel bravo uomo mi aveva raccolto a quindici miglia dalla spiaggia mi aveva imbarcato sulla sua canoa e trasportato a terra mi curò amorevolmente finché fui completamente guarito ed ora dove fuggivi stavo per recarmi alla costa onde gittare in acqua una canoa da me scavata quando mi vidi assalito da quel soldato oh tu possiedi una canoa si mio capitano volevi tornartene a Montprogem questa notte vi andremo insieme Girobatol quando? questa sera ci imbarcheremo volete venire nella mia capanna a riposarvi un po' oh tu possiedi anche una capanna una catapecchia donatami dagli indigeni andiamoci subito non puoi rimanere qui senza correre il pericolo di farti sorprendere dal cavalleggero tornerà chiese Girobatol con apprensione di certo fuggiamo capitano non vi affretta come vedi sono diventato un sergente del reggimento di fanteria del bengala quindi posso proteggerti avete spogliato qualche soldato si Girobatol quale colpo maestro silenzio in marcia o avremo addosso il cavalleggero è lontana la tua capanna fra un quarto d'ora vi saremo andiamo a riposare un po' e più tardi penseremo a prendere il largo i due pirati uscirono dalla macchia e dopo essersi accertati che non vera nessuno nei dintorni attraversarono celermente la prateria raggiungendo il margine della seconda foresta stavano per internarsi fra i grandi vegetali quando Sandokan udì un galoppo furioso ancora quel seccatore esclamò presto Girobatol cacciati in mezzo a quei cespugli oi sergente urlò il cavalleggero il quale pareva furibondo è così che mi ha aiutato a prendere quel furfante di pirata mentre io facevo quasi scoppiare il mio cavallo voi non vi siete mosso il soldato così dicendo spronava il suo destriero facendoli impennare e nitrire di dolore aveva già attraversato la prateria e si era arrestato presso un gruppo d'alberi che sorgeva isolato Sandokan si volse verso di lui e gli rispose pacatamente avendo ritrovato le tracce del pirata ho creduto inutile in seguirlo attraverso la foresta d'altronde vi aspettavo avete scoperto le sue tracce per mille demoni a quante orme ha lasciato quel briccone io credo che si sia divertito ad ingannarci lo suppongo anch'io chi ve le ha mostrate le ho trovate io la la sergente esclamò il cavalleggero con tono ironico che cosa volete dire chiese Sandokan aggrottando la fronte che qualcuno ve le ha indicate e chi ho veduto presso di voi un negro l'ho incontrato per caso e mi ha tenuto compagnia eravate ben certo che fosse un isolano non sono cieco e dove è andato si è internato nel bosco seguiva la pista ad un babi rossa avete fatto male a lasciarlo andare poteva fornire delle preziose indicazioni e farci guadagnare ancora le cento sterline io comincio a temere che siano ormai sfumate camerata io già vi rinuncio e me ne torno alla villa di Lord Gillong io non ho paura sergente oe camerata e continuerò ad inseguire il pirata come vi piace felice ritorno gridò il cavalleggero con ironia che il diavolo vi porti rispose Sandokan il cavalleggero era già lontano e spronava furiosamente il suo cavallo dirigendosi ancora verso la boscaglia che aveva poco prima attraversata andiamo disse Sandokan quando non lo vide più se ritorna ancora lo saluto con un buon colpo di carabina si avvicinò al nascondiglio di Girobatol e tutti e due si rimisero in marcia inoltrandosi nella foresta attraversata un'altra radura si cacciarono in mezzo alle folte piante aprendosi faticosamente il passo fra un caos di calamus e di rotang che si intrecciavano in mille guise ed una vera rete di radici le quali serpeggiavano per il suolo in mille direzioni camminarono per un buon quarto d'ora attraversando numerosi torrenti sulle cui rive si vedevano delle tracce recenti del passaggio degli uomini poi giunsero in mezzo ad un macchione fittissimo e così coperto che la luce non poteva quasi più penetrarvi Girobatol si arrestò un momento ad ascoltare poi disse volgendosi verso Sandokan la mia capanna è là in mezzo a quelle piante un asilo sicuro rispose la tigre della Malesia con un lieve sorriso ammiro la tua prudenza venite mio capitano nessuno verrà a disturbarci la canoa di Girobatol la capanna di Girobatol sorgeva proprio nel mezzo di quel fittissimo macchione fra due colossali pombo i quali con l'enorme massa delle loro fronde la riparavano completamente dai raggi del sole era una catapecchia più che un'abitazione appena capace di ricoverare qualche coppia di selvaggi bassa stretta col tetto formato di foglie di banano sovrapposte a strati e le pareti di rami intrecciati grossolanamente l'unica apertura era la porta di finestre nessuna traccia l'interno non valeva certo di più non vi si trovavano che un letto di foglie secche due rozze pentole d'argilla male cotta e due sassi che dovevano servire da focolare verano però dei viveri in abbondanza delle frutta ad ogni specie e anche un mezzo babirussa di pochi mesi sospeso al tetto per le gambe posteriori la mia capanna non vale gran cosa capitano disse girobatol qui però potrete riposarvi a vostro agio senza tema di venire disturbato perfino gli indigeni dei dintorni ignorano che qui si trova un rifugio se volete dormire posso offrirvi questo letto di fresche foglie tagliate questa mattina se avete sete ho una pentola ripiena d'acqua fresca e se avete fame delle frutta e delle deliziose costolette non domando di più mio bravo girobatol rispose Sandokan non speravo di trovare tanto concedetemi una mezz'ora per arrostirvi un pezzo di babirussa intanto potrete saccheggiare la mia dispensa ecco qui degli ananassi eccellenti delle banane profumate dei pombo succulenti come ne avete mai gustati a Montpracem delle frutta d'artocarpo di inverosimile grossezza e dei durion che sono migliori della crema tutto è a vostra disposizione grazie girobatol ne approfitterò perché sono affamato come una tigre a digiuno da una settimana intanto accenderò il fuoco non si scorgerà il fumo non temete mio capitano gli alberi sono così alti e così fitti che non lo permetteranno Sandokan che era assai affamato in causa di quelle lunghe marce attraverso la foresta assalì un cavolo palmista che non pesava meno di 20 libre e si mise a sgretolare quella sostanza bianca e dolce che gli rammentava il sapore delle mandorle intanto il malese accumulato sul focolare dei rami secchi li accendeva servendosi per fare ciò di due pezzetti di bambù spaccati per metà è assai curioso il sistema usato dai malesi per procurarsi il fuoco senza aver bisogno di zolfanelli prendono due bambù spaccati e sulla superficie convessa di uno fanno un'intaccatura con l'altra si comincia a fregare su quel taglio adoperando la costa dapprima lentamente poi sempre più in fretta il pulviscolo generato da quello spregamento a poco a poco si incendia e cade sopra un po' di esca di fibra di gomut l'operazione è assai facile e rapida e non richiede una speciale abilità Girobatol mise ad arrostire un bel pezzo di babirussa infilato in una bacchetta verde sostenuta da due rami forcuti infissi al suolo poi andò a frugare sotto un mucchio di foglie verdi traendo un vaso il quale esalava un profumo poco promettente ma che faceva dilatare le narici al selvaggio figlio della foresta malese cosa mi offri Girobatol chiese Sandokan un piatto delizioso mio capitano Sandokan guardò entro il vaso e fece una smorfia preferisco le costolette di babirussa amico mio il blacian non è fatto per me grazie e ugualmente della tua buona intenzione avevo serbato per le straordinarie occasioni mio capitano disse il malese mortificato sai bene che io non sono un malese finché io saccheggio le tue frutta manda giù il tuo famoso piatto in mare si guasterebbe il malese non se lo fece dire due volte e assalì ingordamente la pentola manifestando un grande piacere il blacian è avidamente ricercato dai malesi i quali in fatto di alimenti possono dare dei punti ai cinesi i meno schizzinosi di tutti i popoli non sdegnano i serpenti non le bestie già in potrefazione i vermi in salsa e nemmeno le larve per le quali anzi fanno delle vere pazzie il blacian passa però ogni immaginazione è un miscoglio di gamberetti e di piccoli pesci tritati insieme lasciati marcire al sole e poi salati l'odore che esala da quell'impasto è tale da non poter reggere anzi fa venire male i malesi e anche i giovanesi sono tuttavia ghiottissimi per quel piatto immondo e lo preferiscono ai polli e alle costolette soccolenti dei babi russa mentre attendevano l'arrosto avevano ripresa la conversazione partiremo questa notte è vero mio capitano chiese girobatol sì appena la luna sarà tramontata rispose sandokan sarà libera la via lo spero temo sempre un altro cattivo incontro mio capitano non preoccuparti girobatol non si possono avere dei sospetti su di un sergente e se qualcuno vi riconoscesse anche sotto quelle vesti non vi sono che pochissime persone che mi conoscono e sono certo che quelle non le ritroverò sui miei passi avete fatto delle relazioni adunque e con delle persone importanti con baroni e conti disse sandokan voi la tigre della malesia esclamò girobatol stupito poi guardando sandokan con un certo imbarazzo gli chiese esitando è la fanciulla bianca la tigre della malesia rialzò bruscamente il capo fissò sul malese uno sguardo che mandava cupi bagliori poi con un sospiro profondo disse taci girobatol taci non risvegliare in me terribili ricordi stette alcuni istanti silenzioso tenendosi il capo stretto fra le mani e gli occhi fissi nel vuoto poi parlando come fra sé riprese ritorneremo presto qui su quest'isola il destino sarà più potente della mia volontà e poi anche a monpracem fra i miei valorosi come dimenticarla la sconfitta non bastava dunque dovevo anche lasciare il cuore su quest'isola maledetta e chi parlate mio capitano chiese girobatol al colmo della sorpresa sandokan si passò una mano sugli occhi come se volesse cancellare una visione poi scuotendo si disse non chiedermi nulla girobatol ma ritorneremo qui è vero sì e vendicheremo i nostri compagni morti combattendo sulle spiagge di questa terra esecrata sì ma forse sarebbe meglio per me di non rivedermai più quest'isola cosa dite capitano dico che quest'isola potrà dare un colpo mortale alla potenza di monpracem e forse incatenare per sempre la tigre della malesia voi così forte e così tremendo voi non potete aver paura dei leopardi dell'inghilterra no di loro no ma chi potrà leggere nel destino le mie braccia sono ancora formidabili ed il cuore lo sarà il cuore non vi comprendo mio capitano meglio così a tavola girobatol non pensiamo al passato voi mi fate paura capitano taci girobatol disse sandokan con accento imperioso il malese non osò continuare levò l'arrosto che mandava un profumo appetitoso lo depose su una larga foglia di marano e lo offrì a sandokan poi andò a frugare in un angolo della catapecchia e da un buco levò una bottiglia semispezzata ma accuratamente coperta con un cartoccio formato con una delle fibre di rotang abilmente intrecciata del gin mio capitano disse guardando quella bottiglia con due occhi ardenti ho dovuto lavorare non poco per carpirla agli indigeni e la serbavo per rinvigorirmi in mare potete vuotarla fino all'ultima goccia grazie girobatol rispose sandokan con un mesto sorriso la divideremo fraternamente sandokan mangiò in silenzio facendo minore onore al pasto di quanto aveva creduto il bravo malese bevette qualche sorso di gin poi si stese sulle fresche foglie dicendo riposiamo alcune ore intanto calerà la sera e poi dovremo aspettare che la luna tramonti il malese chiuse accuratamente la capanna spense il fuoco e vuotata la bottiglia si aggomitolò in un angolo sognando di trovarsi già a Montpracem sandokan invece quantunque fosse stanchissimo avendo camminato l'intera notte precedente non fu capace di chiudere gli occhi non era già per la tema di venire da un istante all'altro sorpreso dai nemici non essendo possibile che essi potessero trovare quella capanna così ben celata agli sguardi di tutti era il pensiero della giovane inglese che lo teneva a destra cos'era accaduto di marianna dopo gli avvenimenti successi cos'era accaduto fra lei e lord james e quali accordi erano passati fra il vecchio lupo di mare e il baronetto william rosenthal l'avrebbe ritrovata ancora la buon ed ancora libera al suo ritorno quale tremenda gelosia ardeva nel cuore del formidabile pirata e nulla poteva fare per quella donna amata nulla fuorché fuggire per non cadere sotto i colpi degli odiati avversari ah esclamava sandokan dimenandosi sul letto di foglie sarei in mezzo del mio sangue per trovarmi ancora presso quella fanciulla che ha saputo far palpitare il cuore della tigre della malesia povera marianna chissà quali angosce la tormenteranno forse mi crederà vinto ferito forse anche morto i miei tesori i miei vascelli la mia isola per poterle dire che la tigre della malesia è ancora viva e che la ricorderà sempre forse coraggio questa notte lascerò quest'isola maledetta portando con me la sua promessa ma ritornerò dovessi trascinare con me fino l'ultimo mio uomo dovessi impegnare una lotta disperata contro tutte le forze di Labuan dovessi subire un'altra sconfitta e venire nuovamente ferito sandokan così pensando attese che il sole fosse tramontato poi quando le tenebre ebbero invasa la capanna e la macchia svegliò Girobatol il quale russava come un tapiro andiamo malese gli disse il cielo si è coperto di nubi quindi è inutile aspettare che la luna tramonti vieni subito perché sento che se io dovessi rimanere qui ancora qualche ora di più rifiuterei di seguirti e voi lascereste Montpracem per quest'isola maledetta taci Girobatol disse sandokan quasi con ira dove si trova la tua canoa a dieci minuti di strada è così vicino adunque il mare sì tigre della malesia vi hai messo dei viveri dentro ho pensato a tutto capitano non mancano né frutta né acqua né i remi e nemmeno la vela partiamo Girobatol il malese prese un pezzo d'arrosto che aveva messo da parte sarmò ad un nodoso bastone e seguì sandokan la notte non poteva essere più propizia disse guardando il cielo che erasi coperto di nuvoloni prenderemo il largo senza venire scorti attraversata la macchia Girobatol sostò un momento per ascoltare poi rassicurato dal profondo silenzio che regnava nella foresta riprese la marcia piegando verso l'ovest l'oscurità era fittissima sotto quei grandi alberi ma il malese ci vedeva anche di notte forse meglio dei gatti e poi era pratico dei luoghi ora strisciando fra le centomila radici che ingombravano il suolo ora issandosi fra le fitte reti intrecciate dai lunghissimi calamus e dai nepentes ed ora superando dei tronchi colossali caduti forse per decrepitezza Girobatol si avanzava sempre più nella tenebrosa foresta senza mai deviare Sandokan cupo taciturno lo seguiva da vicino imitando tutte quelle manovre se un raggio di luna avesse illuminato il volto del fiero pirata l'avrebbe mostrato alterato da un intenso dolore a quell'uomo che venti giorni prima avrebbe dato la metà del suo sangue per potersi trovare a Montpracem ora riusciva immensamente penoso l'abbandonare quell'isola sulla quale lasciava sola ed indifesa la donna chiamava alla follia ogni passo che l'avvicinava al mare si ripercuoteva nel suo petto come un colpo di pugnale e parevagli che la distanza che lo separava dalla perla di Labuan crescesse di minuto in minuto enormemente certi momenti egli s'arrestava indeciso se dovesse tornare o andare innanzi ma il malese che si sentiva scottare il terreno sotto i piedi e che sospirava l'istante di imbarcarsi lo decideva a continuare la via facendogli osservare quanto fosse pericoloso il minimo ritardo camminavano una mezz'ora quando Girobatol si arrestò improvvisamente tendendo le orecchie udite questo fragore chiese l'odo è il mare rispose Sandokan dov'è la canoa qui presso il malese guidò Sandokan attraverso una fitta cortina di fogliame e passata questa dimostrò il mare che brontolava infrangendosi sui banchi dell'isola vedete nulla nulla rispose Sandokan i cui occhi percorsero rapidamente l'orizzonte la fortuna è con noi gli incrociatori dormono ancora scese la sponda rimosse i rami di un albero e mostrò un'imbarcazione che si collava nel fondo di un piccolo seno era una barcaccia scavata nel tronco di un grosso albero col fuoco e con la scure somigliante a quelle che adoperano gli indiani del fiume Amazzoni e i pollinesiani del Pacifico sfidare il mare con una simile barca di forme barocche era una temerità senza pari poiché sarebbero bastate poche onde per rovesciarla ma i due pirati non erano persone da spaventarsi Girobatol fu il primo a balzarvi dentro ed alzare un alberetto a cui aveva adattato una piccola vela di fibre vegetali accuratamente intrecciate venite capitano disse gli disponendosi a prendere i remi fra pochi minuti la via potrebbe esserci tagliata Sandokan cupo con la testa china e le braccia sul petto stava ancora a terra guardando verso l'est come se cercasse di discernere fra la profonda oscurità e di grandi alberi l'abitazione della perla di Lapuan pareva che ignorasse che il momento della fuga era giunto e che un piccolo ritardo poteva riuscirgli fatale capitano ripete il malese volete farvi prendere dagli incrociatori venite venite o sarà troppo tardi ti seguo rispose Sandokan con voce triste balzò nella canoa chiudendo gli occhi e mandando un profondo sospiro una rotta per Montpracem il vento soffiava dall'est vale a dire che non poteva essere più favorevole la canoa con la sua vela tesa filava abbastanza rapidamente inclinata sul tribordo frapponendo fra il pirata che si sentiva estremamente commosso e la povera Mariana il vasto mare della Malesia Sandokan assiso a poppa con la testa tra le mani non parlava e teneva gli occhi fissi sulla buan che a poco a poco smarrivasi fra le tenebre giro patò l'assiso a prua felice sorridente chiacchierava per dieci tenendo gli occhi verso l'ovest là dove si doveva mostrare la formidabile isola di Mopracem or su capitano disse questi che non poteva tacere un solo istante perché diventare cupo ora che stiamo per rivedere la nostra isola si direbbe che voi rimpiangiate la buan si la rimpiango giro patò rispose Sandokan con voce sorda forse mi hanno stregato quei cani di inglesi eppure capitano vi davano la caccia per i boschi e per le pianure avidi del vostro sangue vorrei vederli domani se si saranno accorti della vostra fuga mordersi le dita per la rabbia e vorrei udire le imprecazioni delle loro donne delle loro donne esclamò Sandokan scuotendosi si poiché ci odiano forse più degli uomini no non tutte giro patò sono peggiori delle vipere capitano ve l'assicuro taci giro patò taci se tu ripeti quelle parole ti precipito in mare si era un tale accento di minaccia nella voce di Sandokan che il malese amutolì di botto e gli guardò a lungo il terribile uomo che fissava sempre la bohane comprimendosi il petto con ambe le mani come se volesse soffocare un dolore immenso poi si ritrasse lentamente a prua mormorando gli inglesi l'hanno stregato tutta la notte la canoa spinta dal vento dell'est filò senza incontrare alcun incrociatore e comportandosi abbastanza bene malgrado le onde che di quando in quando la investivano facendola rollare pericolosamente il malese per paura che Sandokan effettuasse la minaccia non parlava più seduto a prua scrutava attentamente la fosca linea dell'orizzonte per vedere se qualche nave appariva il suo compagno invece sdraiato a poppa non staccava gli sguardi dal luogo dove doveva trovarsi l'isola di Labuan ormai scomparsa fra le ombre della notte navigavano da un paio d'ore quando gli occhi acutissimi del malese scorsero un punto luminoso brillare sulla linea dell'orizzonte un veliero o un legno da guerra chiese con ansietà Sandokan sempre immerso nei suoi dolorosi pensieri non si era accorto di nulla il punto luminoso ingrandiva paurosamente e pareva che salsasse sempre di più sulla linea dell'orizzonte quella luce bianca non doveva appartenere che ad un vascello a vapore doveva essere un fanale acceso alla cima del trinchetto Giro Batol cominciava a dimenarsi le sue inquietudini aumentavano di momento in momento tanto più che quel punto luminoso pareva che si dirigesse direttamente verso la canoa ben presto al di sopra del fanale bianco ne comparvero altri due uno rosso ed uno verde una nave a vapore disse Sandokan non rispose forse non l'aveva udito mio capitano ripete una nave a vapore il capo dei pirati di Montpracem questa volta si scosse mentre un terribile lampo gli balenava nei cupi sguardi ah disse si volse con impeto e guardò l'immensa distesa del mare ancora un nemico mormorò mentre la sua destra correva istintivamente al Chris lo temo mio capitano disse il malese Sandokan fissò per alcuni istanti quei tre punti luminosi che si avvicinavano rapidamente poi disse pare che corra verso di noi lo temo mio capitano rispose il malese il suo comandante avrà veduto il nostro canotto è probabile cosa facciamo mio capitano lasciamola accostare e ci prenderanno io non sono più la tigre della Malesia bensì un sergente dei sipai e se qualcuno vi riconoscesse ben pochi hanno veduto la tigre della Malesia se quella nave venisse dalla buon vi sarebbe da temere venendo da largo potremo ingannare il comandante rimase zitto per alcuni istanti fissando attentamente il nemico poi disse abbiamo da fare con una cannoniera che venga da Sarawak è probabile Girobatol già che si dirige su di noi aspettiamola la cannoniera aveva infatti puntata la prora in direzione della canoa e accelerava la corsa per raggiungerla vedendola così lontana dalle coste di Labuan forse credeva che gli uomini che la montavano fossero stati spinti così a largo da qualche colpo di vento ed accorreva per raccoglierli forse però il suo comandante voleva accertarsi se si trattava di pirati o di naufraghi Sandokan aveva dato ordine a Girobatol di riprendere i remi e di mettere la prora in direzione delle Romades gruppo di isolette situate più al sud aveva ormai fatto il suo piano per ingannare il comandante mezz'ora dopo la cannoniera si trovava a poche gomene dalla canoa era un piccolo legno a poppa bassa armato di un solo cannone situato sulla piattaforma posteriore e attrezzato con un solo albero il suo equipaggio non doveva superare i 30 o 40 uomini il comandante o l'ufficiale di quarto che fosse fece manovrare in modo da passare a soli pochi metri dalla canoa poi dato il comando ad arrestare le tambure si curvò sul bordo gridando alt o vi faccio collare a fondo Sandokan si era vivamente alzato dicendo in buon inglese per chi mi prendete toh esclamò l'ufficiale con stupore un sergente dei sipai che cosa fate voi qui a largo di la buon vado alle romades signore rispose Sandokan a cosa fare devo portare degli ordini per lo yacht di lord james gilong si trova laggiù quel legno si comandante e vi andate su di una canoa non ho potuto trovare di meglio padate perché vi sono dei praos malesi che ronzano a largo ah fece Sandokan frenando a stento la gioia ieri mattina ne ho veduti due e scommetterei che venivano da Montpracem se avessi avuto qualche cannone di più non so se a quest'ora sarebbero ancora a galla mi guarderò da quei legni comandante vi occorre nulla sergente no signore buon viaggio la cannoniera riprese la corsa dirigendosi verso la buon mentre girobatol orientava la vela per filare verso Montpracem hai udito? gli chiese Sandokan sì mio capitano i nostri legni battono il mare vi cercano ancora mio capitano non crederanno alla mia morte no di certo quale sorpresa pel buon janez quando mi vedrà bravo ed affezionato compagno tornò a sedersi a poppa con gli sguardi sempre fissi in direzione di la buon e non parlò più il malese però lo intese diverse volte sospirare all'alba solo 150 miglia separavano i fuggiaschi da Montpracem distanza che potevano superare in meno di 24 o 30 ore se il vento non veniva meno il malese trasse da un vecchio vaso di terra assicurato ad un traverso della canoa delle provvigioni e le offrì a Sandokan ma questi assorto sempre nelle sue contemplazioni e nelle sue angosce non rispose nemmeno ne abbandonò la sua primiera posizione è stregato ripete il malese scuotendo il capo se è vero guai agli inglesi durante il giorno il vento cadde parecchie volte e la canoa che affondava pesantemente nei cavi delle onde imbarcò più volte molta acqua alla sera però un fresco vento del sud est si levò spingendola rapidamente verso l'ovest e si mantenne così anche l'indomani al cader del giorno il malese che si teneva in piedi a prua scosse finalmente una massa oscura che si elevava sul mare mon pracem esclamò a quel grido Sandokan per la prima volta da che aveva posto piede sulla canoa si mosse alzandosi di scatto non era allora più l'uomo di prima la malinconica espressione del suo viso era completamente scomparsa i suoi occhi mandavano lampi e i suoi lineamenti non erano più alterati da quel cupo dolore mon pracem esclamò egli raddrizzando l'alta statura e rimase lì a contemplare la sua selvaggia isola il baluardo della sua potenza della sua grandezza in quel mare che non a torto chiamava suo egli sentiva di ritornare in quel momento la formidabile tigre della Malesia dalle leggendarie imprese i suoi sguardi che sfidavano i migliori cannocchiali scorsero le coste dell'isola soffermandosi sull'alta rupe dove ondeggiava ancora la bandiera della pirateria sulle fortificazioni che difendevano il villaggio e sui numerosi prajos che si collavano nella baia ah finalmente ti rivedo esclamò siamo salvi tigre disse il malese che pareva impazzisse dalla gioia Sandokan lo guardò quasi stupito merito ancora dunque questo nome Girobatol chiese egli sì capitano eppure credevo di non meritarlo più mormorò Sandokan sospirando afferrò la pagaia che serviva da timone e diresse la canoa verso l'isola che si immergeva lentamente fra le tenebre alle dieci i due pirati senza essere stati scorti da alcuno approdavano presso la grande rupe Sandokan nel riporre i piedi sulla sua isola respirò a lungo e forse in quel momento non rimpiangeva la Wuhan e forse anche per un momento dimenticò Marianna girò rapidamente attorno alla rupe e raggiunse i primi gradini della tortuosa scala che menava alla grande capanna Girobatol disse volgendosi verso il malese che si era arrestato torna alla tua capanna avvertimi ai pirati del mio arrivo ma di loro che mi lasciano tranquillo poiché lassù devo dire certe cose che devono essere un segreto per voi capitano nessuno verrà a disturbarvi poiché tale è il vostro desiderio ed ora lasciate che vi ringrazi di avermi ricondotto qui e che vi dica che se vi occorre un uomo da sacrificare fosse pure per salvare un inglese o una donna della loro razza sarò sempre pronto grazie Girobatol grazie e ora vattene il pirata ricacciando in fondo al cuore il ricordo di Marianna involontariamente evocato dal malese salì i gradini elevandosi fra le tenebre amore ed ebbrezza giunto sulla cima della grande rupe Sandokan si fermò sull'orlo e il suo sguardo si spinse lontano lontano verso l'est in direzione di Labuan grandio mormorò egli quale distanza mi separa da quella celeste creatura cosa farà lei a quest'ora mi piangerà per morto o mi piangerà prigioniero un sordo gemito gli uscì dalle labbra e chinò il capo sul petto fatalità mormorò aspirò il vento della notte come se aspirasse il lontano profumo della sua diletta poi si avvicinò a lenti passi alla grande capanna dove era ancora illuminata una stanza guardò attraverso i vetri di una finestra e vide un uomo seduto dinanzi ad un tavolo con la testa fra le mani Janez sorrise tristemente cosa dirà quando saprà che la tigre torna vinta e stregata soffocò un sospiro e aprì pian piano la porta senza che Janez lo udisse ebbene fratello disse dopo qualche istante hai dimenticato la tigre della Malesia le parole non erano ancora terminate che Janez si slanciava tra le sue braccia esclamando tu tu Sandokan io ti credevo ormai perduto per sempre no sono ritornato come ben vedi ma disgraziato amico dove sei stato tutti questi giorni sono quattro settimane che io attendo in preda mille ansie cosa hai tu fatto in tanto tempo hai saccheggiato il sultano di Varaunio la perla di Labuanti ha stregato rispondi fratello mio che l'impazienza mi strugge invece di rispondere a tutte quelle domande Sandokan si mise a fissare in silenzio con le braccia incrociate sul petto lo sguardo torvo ed il volto abbugliato orsù disse Yanez sorpreso per quel silenzio parla cosa significa il vestito che tu indossi e perché mi guardi così ti è accaduta qualche disgrazia disgrazia esclamò Sandokan con voce rauca ma ignori tu adunque che dei 50 tigrotti che io conducevo alla Buan non sopravvive che il solo giro batol non sai tu adunque che sono caduti tutti sulle coste dell'isola maledetta sventrati dal ferro degli inglesi che io sono caduto gravemente ferito sul ponte di un incrociatore e che i miei legni riposano in fondo al mare della Malesia battuto tu è impossibile è impossibile sì Yanez sono stato vinto e ferito i miei uomini sono stati distrutti ed io ritorno mortalmente malato il pirata fece scorrere con un gesto convulso una sedia fino al tavolo vuotò uno dietro l'altro tre bicchieri di whisky poi con voce rotta o animata rauca o stridula alternando gesti violenti e imprecazioni narrò per filo e per segno tutto ciò che gli era accaduto lo sbarco a Lavuan l'incontro con l'incrociatore la pugna tremenda impegnata l'abordaggio le ferita toccategli le sofferenze e la guarigione quando però venne a parlare della perla di Lavuan tutta la sua ira sfumò la sua voce poco prima rauca strozzata per il furore prese a loro un altro tono diventando dolce carezzevole appassionata descrisse con slancio poetico le bellezze della giovane lady quegli occhi grandi dolci melanconici azzurri come l'acqua del mare che l'avevano profondamente commosso parlò di quei capelli lunghi più biondi dell'oro più sottili della seta più profumati delle rose dei boschi di quella voce incomparabile angelica che aveva fatto stranamente vibrare le corde del suo cuore fino all'ora inaccessibile e di quelle mani che sapevano trarre dalla mandola quei suoni così soavi così dolci che l'avevano affascinato che l'avevano incantato dipinse con la viva passione i cari momenti passati accanto alla donna amata momenti sublimi durante i quali non si ricordava né di Montpracem né dei suoi tigrotti e in cui dimenticava persino di essere la tigre della Malesia venendo poi man mano a narrare tutte le avventure che seguirono dopo ossia dalla caccia alla tigre alla confessione del suo amore al tradimento del lord alla fuga all'incontro di Girobatol e all'imbarco per Montpracem Odimi Yanez continua egli con accento ancora commosso Nel momento in cui io mettevo piede nella canoa per abbandonare in difesa quella creatura ho creduto che mi si lacerasse il cuore avrei voluto piuttosto di lasciare quell'isola subissare la canoa e Girobatol avrei voluto far rientrare il mare nella terra e far sorgere in sua vece un mare di fuoco onde non potessi più valicarlo in quel momento avrei distrutto senza rimpianti la mia formidabile Montpracem affondati i miei praos dispersi i miei uomini e non aver voluto essere mai stato la tigre della Malesia ah Sandokan esclamò Yanez con tono di rimprovero non rimproverarmi Yanez se tu sapessi cosa io provo qui in questo cuore che io credevo di ferro inaccessibile a qualsiasi passione odimi io amo quella donna a tale punto che se ella mi apparisse dinanzi e mi dicesse di rinnegare la mia nazionalità e di farmi inglese io la tigre della Malesia che giurai odio eterno a quella razza lo farei senza esitare ho un fuoco indomabile che mi scorre senza posa nelle vene che mi consuma le carni mi pare di aver sempre il delirio e di avere un vulcano in mezzo al cuore mi pare di diventare pazzo pazzo ed è dal giorno in cui ho veduto quella creatura che io sono in questo stato Yanez e l'ho sempre dinanzi quella visione celeste ovunque volga lo sguardo io la vedo sempre 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 quel genio scintillante di bellezza che mi abbrucia che mi consuma il pirata si alzò con brusco gesto col volto alterato coi denti convulsamente stretti fece alcuni giri attorno alla stanza come se cercasse di allontanare quella visione che lo perseguitava e calmare le ansie che lo torturavano poi si fermò dinanzi al portoghese interrogandolo con lo sguardo ma questi rimase muto tu non lo crederai riprese Sandokan ma io ho lottato tremendamente prima di lasciarmi vincere dalla passione ma né la ferrea volontà della tigre della Malesia né il mio odio per tutto ciò che sa di inglese hanno potuto frenare gli impeti del cuore quante volte ho tentato di spezzare la catena quante volte quando mi assaliva il pensiero di dover un giorno per sposare quella donna abbandonare il mio mare por fine alle mie vendette abbandonare la mia isola perdere il mio nome di cui andavo un dì tanto altero perdere i miei tigrotti ho cercato di fuggire di porre fra me e quegli occhi affascinanti una barriera insormontabile eppure ho dovuto cedere Ianez mi sono trovato fra due abissi qui in Montpracemco i suoi pirati fra il ballenar dei suoi cento cannoni e i suoi vittoriosi praos la aqua e l'adorabile creatura dai biondi capelli e gli occhi azzurri mi sono liberato a lungo esitando e sono precipitato verso quella fanciulla dalla quale lo sento nessuna forza umana saprà strapparmi ah sento che la tigre cesserà di esistere dimenticala dunque disse Ianez scuotendosi dimenticarla è impossibile Ianez è impossibile sento che non potrò mai spezzare le catene dorate che ella ha gettate attorno al mio cuore nelle battaglie nelle grandi emozioni della vita piratesca nell'amore dei miei uomini nelle più tremende stragi nelle più spaventevoli vendette sarebbero capaci di farmi dimenticare quella fanciulla la sua immagine si frapporrebbe sempre fra me e quelle emozioni e spegnerebbe l'antica energia e il valore della tigre no 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 non la dimenticherò mai sarà mia moglie dovesse costarmi il mio nome la mia isola la mia potenza tutto tutto si arrestò per la seconda volta guardando Ianez che era ricaduto nel suo mutismo ebbene fratello chiese parla mi hai compreso sì cosa mi consigli cosa hai da rispondermi ora che ti ho svelato tutto dimentica quella donna ti ho detto io hai tu pensato alle conseguenze che potrebbero derivare da questo insensato amore cosa diranno i tuoi uomini quando sapranno che la tigre è innamorata e poi cosa farai tu di questa fanciulla e diventerà poi tua moglie dimentica la Sandokan abbandonala per sempre e ritorna la tigre della Malesia dal cuore di ferro Sandokan si alzò di scatto e si diresse verso la porta che aprì con violenza dove vai? chiese Ianez balzando in piedi ritorno alla Wuhan rispose Sandokan domani dirai ai miei uomini che ho abbandonato per sempre la mia isola e che tu sei il loro nuovo capo non udranno più mai parlare di me poiché io non ritornerò mai più su questi mari Sandokan esclamò Ianez afferrandolo strettamente per le braccia sei pazzo per ritornare solo alla Wuhan mentre qui hai navi hai cannoni e uomini devoti pronti a farsi uccidere per te o per la donna del tuo cuore io ho voluto tentarti ho voluto vedere se era possibile sradicare dal tuo cuore la passione che nutri per quella donna che appartiene ad una razza che tu dovevi per sempre odiare no Ianez no non è inglese quella donna perché ella mi ha parlato di un mare azzurro e più bello del nostro e che lambe la sua lontana patria di una terra coperta di fiori dominata da un fumante vulcano di un paradiso terrestre dove si parla una lingua armoniosa che nulla ha di comune con quella inglese non importa inglese o no già che tu l'ami così immensamente noi tutti ti aiuteremo a far la tua sposa perché tu ritorni felice puoi ritornare ancora alla tigre della Malesia anche sposando la giovinetta dai capelli d'oro Sandokan si precipitò fra le braccia di Ianez e quei due uomini rimasero a lungo abbracciati dimmi ora chiese il portoghese cosa intendi di fare partire più presto che è possibile per la Buan e rapire Marianna hai ragione il lord se viene a sapere che tu hai lasciato l'isola e che sei tornato a Montpracem può prendere il lardo per paura di vederti ritornare bisogna agire prontamente o la partita è perduta va ora a dormire che hai bisogno di un po' di calma e lascia a me la cura di preparare ogni cosa domani la spedizione sarà pronta a salpare a domani Ianez addio fratello rispose il portoghese e uscì scendendo lentamente la scaletta Sandokan rimasto solo tornò a sedersi dinanzi al tavolo più cupo e più agitato che mai facendo saltare i tappi di parecchie bottiglie di whisky si sentiva il bisogno di stordirsi per dimenticare per alcune ore almeno quella giovanetta che l'aveva stregato e per calmare l'impazienza che l'orodeva si mise a bere con una specie di rabbia vuotando uno dopo l'altro parecchi bicchieri ah esclamò egli potessi addormentarmi e non risvegliarmi che alla buane sento che questa impazienza che quest'amore che questa gelosia mi ucciderà sola sola alla buane e forse mentre io sono qui il baronetto le farà la corte si alzò in preda ad un violento impeto di furore e si mise a passeggiare come un pazzo rovesciando le sedie infrangendo le bottiglie ammucchiate negli angoli spezzando i vetri dei grandi scaffali ripieni di oro e di gioie e si fermò dinanzi all'armonium darei mezzo del mio sangue per poter imitare una di quelle care romanze che ella mi cantava quando languivo vinto e ferito nella villa del lord e non è possibile non mi n'ammento più nulla era una lingua straniera la sua ma una lingua celeste che Marianna sola poteva conoscere ah come ribella allora perla di la buane quale brezza quale felicità tu versavi nel mio cuore in quei sublimi momenti oh mia diletta fanciulla fece scorrere le dita sulla tastiera suonando una romanza selvaggia vertiginosa di un effetto strano della quale pareva talora di udire gli scrosci di un uragano o i lamenti di gente che muore si arrestò come fosse stato colpito da un nuovo pensiero e ritornò al tavolo prendendo una tazza ricolma ah vedo gli occhi di lei nel fondo disse egli sempre i suoi occhi sempre la sua figura sempre la perla di la buane la vuotò la riempì ancora e tornò a guardare dentro delle macchie di sangue esclamò chi ha versato del sangue nella mia tazza sangue o liquore bevi tigre della malesia che l'ebbrezza è la felicità il pirata che era ormai ebro si rimise a bere con nuova foga ingollando l'ardente liquido come fosse acqua alternando imprecazioni e suoni di risa si rizzò ma ricadde sulla sedia lanciando attorno sguardi torvi gli pareva di vedere delle ombre correre per la stanza dei fantasmi che gli mostravano ghignando scuri crisse e scimitarre insanguinate in una di quelle ombre credette di ravvisare il suo rivale il baronetto William si sentì prendere da un impeto di furore e digrignò ferocemente i denti ti vedo ti vedo maledetto inglese urlò ma guai a te se posso afferrarti tu vuoi rubarmi la perla lo leggo nei tuoi occhi ma io te lo impedirò verrò a distruggere la tua casa quella del lord metterò a ferrefuoco la buan farò scorrere dovunque sangue vi sterminerò tutti tutti ah tu ridi aspetta aspetta che io venga egli era allora giunto al colmo dell'ebbrezza si sentì prendere da una smania feroce e di distruggere tutto di tutto rovesciare dopo reiterati sforzi si sollevò afferrò una scimitarra e sostenendosi a malapena appoggiandosi ai muri si mise a menare colpi disperati ovunque correndo dietro all'ombra del baronetto che pareva sempre gli sfuggisse lacerando le tappezzerie frantumando le bottiglie avventando tremendi colpi sugli scaffali sulla tavola sull'armonium facendo piovere dai vasi infranti torrenti d'oro di perle e di diamanti finché spossato vinto dall'ebbrezza cadde fra tutte quelle rovine addormentandosi profondamente il caporale inglese quando si svegliò si trovò coricato sull'ottomana trasportatovi dai malesi addetti al suo servizio i vetri spezzati erano stati tolti di là gli ori e le perle erano state ricollocate negli scaffali i mobili raddrizzati e accomodati alla meglio solo si vedevano le tracce lasciate dalla scimitarra del pirata sulle tappezzerie che pendevano ancora lacerate dalle muraglie Sandokan si stropicciò parecchie volte gli occhi e si passò più volte le mani sull'ardente fronte come se cercasse di rammentarsi ciò che aveva commesso non posso aver sognato mormorò sì ero ebro e mi sentivo felice ma ora il fuoco torna ad avvampare nel mio cuore che non lo possa spegnere più mai quale passione ha invaso il cuore della tigre si strappò di dosso la divisa del sergente Willis indossò nuove vesti scintillanti d'oro e di perle si mise in capo un ricco turbante sormontato da uno zaffiro grosso quanto una noce si passò tra le pieghe della fascia un nuovo cris e una nuova scimitarra e uscì aspirò una boccata d'aria marina che gli dissipò completamente gli ultimi vapori dell'ebbrezza guardò il sole che era già assai alto poi si volse verso oriente guardando in direzione della lontana Labuan e sospirò povera marianna mormorò comprimendosi il petto percorse con quegli occhi d'aquila il mare e guardò ai piedi della rupe tre prahos con le grandi vele spiegate stavano dinanzi al villaggio pronti a prendere il largo sulla spiaggia i pirati andavano e venivano occupati ad imbarcare armi munizioni da bocca e da guerra e cannoni in mezzo a loro Sandokan scorse i anez buon amico mormorò mentre io dormivo egli preparava la spedizione scese i gradini e si diresse verso il villaggio appena i pirati lo videro un immenso urlo e cheggio viva la tigre viva il nostro capitano poi tutti quegli uomini che parevano fossero stati presi da una subitanea pazzia si precipitarono confusamente attorno al pirata assordandolo con grida di gioia baciandogli le mani le vesti i piedi minacciando di soffocarlo i più vecchi capi della pirateria piangevano di gioia nel rivederlo vivo mentre l'avevano creduto morto sulle coste dell'isola maledetta nessun lamento usciva da quelle bocche nessun rimpianto per i loro compagni per i loro fratelli per i loro figli per i loro parenti caduti sotto il ferro degli inglesi nella disastrosa spedizione ma di quando in quando da quei petti di bronzo irrompevano tremende le grida di abbiamo sete di sangue tigre della malesia vendetta per i nostri compagni andiamo alla buona ad esterminare i nemici di monpracem amici disse sandokan con quell'accento metallico e strano che affascinava la vendetta che voi recate non tarderà le tigri che io conducevo alla buona sono cadute sotto i colpi dei leopardi dalla pelle bianca cento volte più numerosi e cento volte più armati dei nostri ma la partita non è ancora chiusa no tigrotti gli eroi che caddero pugnando sulle spiagge dell'isola maledetta non rimarranno invendicati stiamo per partire per quella terra dei leopardi e giunti là renderemo ruggito per ruggito sangue per sangue il giorno della pugna le tigri di monpracem divoreranno i leopardi di la buon si si alla buon alla buon gridarono i pirati agitando freneticamente le mani janez è tutto pronto chiese Sandokan janez parve che non l'avesse udito era salito su quel vecchio affusto di un cannone e guardava attentamente verso un promontorio che si prolungava assai sul mare cosa cerchi fratellino gli chiese Sandokan vedo l'estremità di un albero spuntare dietro quelle scogliere rispose il portoghese uno dei nostri praos quale altro legno oserebbe avvicinarsi alle nostre coste non sono tutti rientrati i nostri velieri tutti meno uno quello di pisango uno dei più grossi e dei meglio armati dove l'avevi mandato verso la buon onde ti cercasse si è il prao di pisango confermò un capobanda vedo però un solo albero signor janez che si sia battuto ed abbia perduto il trinchetto si chiese Sandokan attendiamolo chissà può recarci qualche notizia dalla buon tutti i pirati erano saliti sui bastioni per meglio osservare quel veliero che s'avanzava lentamente seguendo il promontorio quando ebbe girata la punta estrema un grido solo sfuggì da tutti i petti il prao di pisango era veramente il veliero che janez tre giorni prima aveva mandato verso la buon onde cercasse di aver notizie della tigre della malesia e dei suoi prodi ma in quale stato ritornava dell'albero di trinchetto non rimaneva che un truncone quello maestro si reggeva a malapena sostenuto da una fitta rete di sartie e di paterazzi le murate non esistevano quasi più e anche i fianchi si vedevano gravemente danneggiati e irti di tappi di legno per chiudere i fori aperti dalle palle quel legno deve essersi ben battuto disse sandokan pisango è un valoroso che non temi di assalire anche le grosse navi rispose janez to mi pare che conduca qualche prigioniero non scorgi una giacca rossa fra i nostri bravi tigrotti sì mi pare di vedere un soldato inglese legato all'albero maestro disse janez che l'abbia preso alla buon non l'avrà certamente pescato in mare ah se potesse darmi notizie di marianna è vero fratellino mio sì rispose sandokan con voce sorda lo interrogheremo il prago aiutato dai remi essendo il vento piuttosto debole s'avanza rapidamente il suo capitano un bornese d'alta statura di forme splendide che lo faceva rassomigliare ad una superba statua di bronzo antico anche in causa della tinta olivastra scorgendo janez e sandokan mandò un grido di gioia poi alzando le mani urlò buona preda cinque minuti dopo il veliero entrava nella piccola baia gettando l'ancora a venti passi dalla sponda una scialuppa fu subito messa in mare e pisangu vi prese posto assieme al soldato e a quattro rematori da dove vieni ti chiese sandokan appena sbarcato dalle coste orientali di laboannio capitano disse il bornese mi ero spinto colà con la speranza di avere notizie e sono ben felice di ritrovarvi qui e sano ancora chi è quell'inglese un caporale capitano dove l'hai fatto prigioniero presso laboannia narra ogni cosa stavo perlustrando le spiagge quando vidi un canotto montato da quell'uomo sbucare dalla foce ad un piccolo fiumicello il briccone doveva avere dei compagni sulle due rive poiché lo udivo di frequente a mandare dei fischi a cotissimi feci subito mettere in mare la scialuppa e con dieci uomini gli diedi la caccia sperando che mi desse vostre notizie la cattura non fu difficile ma quando vogli abbandonare la foce del fiumicello accorsi che la via era stata chiusa da una cannoniera impegnai risolutamente la lotta scambiando palle e mitraglia in abbondanza una vera tempesta mio capitano che mi distrusse mezzo equipaggio e che mi rovinò il legno ma che ridusse a mal partito anche la cannoniera quando vedi che il nemico si ritirava con due bordate presi in largo tornandomene qui più che in fretta e quel soldato viene proprio dalla buan sì mio capitano grazie pisango conducete il soldato quel disgraziato era stato di già spinto sulla spiaggia e circondato dai pirati i quali avevano già cominciato a maltrattarlo e a strappargli di dosso i galloni di caporale era un giovanotto di venticinque o ventotto anni grasso di statura piuttosto bassa biondo roseo e paffuto pareva assai spaventato di trovarsi in mezzo a quelle bande di pirati però nessuna parola gli usciva dalle labbra vedendo Sandokan si sforzò di sbozzare quel sorriso poi disse con un certo tremito nella voce la tigre della Malesia mi conosci gli chiese Sandokan sì dove mi hai veduto nella villa di Lord Gillong sarai stupito di vedermi qui è vero vi facevo ancora la buone già nelle mani dei miei camerati c'eri anche tu fra quelli che mi davano la caccia il soldato non rispose poi crollando il capo disse la è finita per me è vero signor pirata la tua vita dipende dalle tue risposte rispose Sandokan chi può affidarsi della parola di un uomo che ammazza la gente come se bevesse un bicchierino di Gino di Brandy un lampo di collera brillò negli occhi della tigre della Malesia tu mentisci cane come volete rispose il caporale e parlerai vada ho dei cris che tagliano un corpo in mille pezzi ho delle tenaglie roventi per strappare la carne brano a brano ho del piombo liquefatto da versarti sulle ferite o da far inghiottire ai ricalcitranti tu parlerai o ti farò soffrire tanto da invocare la morte come una liberazione l'inglese impallidì ma invece di aprire le labbra se le chiuse fra i denti come se temesse che qualche parola gli sfuggisse or su dove ti trovavi quando io ho lasciato la villa del lord nei boschi cosa facevi nulla tu vuoi burlarti di me la buona ha troppo pochi soldati per mandarli a passeggiare nei boschi senza alcun motivo ma parla voglio sapere tutto io non so nulla ah no la vedremo Sandokan aveva estratto il cris e con un rapido gesto l'aveva puntato alla gola del soldato facendo uscire una goccia di sangue il prigioniero non seppe frenare un grido di dolore parla o ti uccido disse freddamente Sandokan senza staccare il pugnale la cui punta cominciava già a rosseggiare il caporale ebbe ancora una breve esitazione ma vedendo negli occhi della tigre della Malesia un lampo terribile cedette basta disse sottraendosi alla punta del cris parlerò Sandokan fece segno ai suoi uomini ad allontanarsi poi si sedette assieme a Yanez su un affusto di cannone dicendo al soldato ti ascolto cosa facevi nei boschi seguivo il baronetto Rosenthal esclamò Sandokan mentre un cupolampo gli brillava negli sguardi lui Lord Gillon che aveva saputo che l'uomo raccolto moribondo e che aveva curato nella propria casa non era un principe malese ma invece la terribile tigre della Malesia e d'accordo col baronetto e col governatore di Vittoria aveva preparato l'agguato e come l'aveva saputo lo ignoro continua furono raccolti cento uomini e ci mandarono a circondare la villa per impedire a voi la fuga questo lo so dimmi cos'è avvenuto dopo quando io riuscii a forzare le linee e mi rifugiai nei boschi quando il baronetto entrò nella villa trovò Lord Gillon che impredo ad una tremenda eccitazione aveva una ferita alla gamba fattagli da voi da me esclamò Sandokan forse inavvertitamente lo credo perché se avessi voluto ucciderlo nessuno avrebbe potuto impedirmelo e Lady Marianna piangeva sembrava che fra la bella fanciulla e suo zio fosse avvenuto una scena violentissima il Lord l'accusava di aver favorito la vostra fuga ed ella invocava a pietà per voi povera fanciulla esclamò Sandokan mentre una rapida commozione alterava i suoi lineamenti lodi Janetz continua disse il portoghese al soldato vada però di dire il vero poiché tu rimarrai qui fino al nostro ritorno dalla Boan se avrai mentito non sfuggirai alla morte è inutile che io vi inganni rispose il caporale riuscito infruttuoso l'inseguimento noi restammo accampati presso la villa per proteggerla contro il possibile attacco dei pirati di Montpracem correvano delle voci poco rassicurabili si diceva che dei tigrotti erano sbarcati e che la tigre della Malesia stava nascosta nei boschi pronta a piombare sulla villa e a rapire la fanciulla cosa sia poi avvenuto io lo ignoro devo però dirvi che Lord Gillon che aveva preso gli accordi opportuni per ritirarsi a vittoria sotto la protezione degli incrociatori e dei forti e il baronetto Rosenthal sposerà fra breve Lady Marianna hai detto gridò Sandokan scattando in piedi che egli vi prenderà la fanciulla vuoi ingannarmi a quale scopo vi dico che fra un mese quel matrimonio si farà ma Lady Marianna detesta quell'uomo cosa importa Lord Gillonk Sandokan mandò un urlo di belva ferita e barcollò chiudendo gli occhi uno spasimo tremendo aveva scomposto il suo volto si avvicinò al soldato e scuotendolo furiosamente gli disse con voce similante tu non mi hai ingannato è vero vi giuro che ho detto la verità tu rimarrai qui e noi andremo alla Buan se non avrai mentito ti darò tanto oro quanto pesi poi volgendosi verso Ianez gli disse con voce decisa partiamo sono pronto a seguirti rispose semplicemente il portoghese tutto è pronto? non manca che di scegliere gli uomini che dovranno seguirci condurremo con noi più valorosi poiché si tratta di giocare una partita suprema lascia però qui forze sufficienti per difendere il nostro rifugio cosa temi Ianez gli inglesi potrebbero approfittare della nostra assenza per gettarsi sulla nostra isola non oseranno tanto Ianez credo il contrario ormai alla Buan sono abbastanza forti per tentare la lotta Sandokan un giorno o l'altro l'urto decisivo dovrà avvenire ci troveranno pronti e vedremo se saranno più decise e valorose le tigri di Monpracem o i lopardi di La Buan Sandokan fece schierare le sue bande che contavano più di 250 uomini reclutate fra le più guerriere tribù del Borneo e delle isole del Marmalese e ne scelse 90 tigrotti i più coraggiosi ed i più robusti vere anime dannate che ad un suo cenno non avrebbero esitato a scagliarsi anche contro i forti di Vittoria la cittadella di La Buan chiamò poi Giro Batol e mostratolo alle bande che rimanevano a difesa dell'isola disse ecco un uomo che ha la fortuna di essere uno dei più valenti della pirateria l'unico che sopravvisse dei miei equipaggi nella disgraziata spedizione di La Buan durante la mia assenza obbedite a lui come fosse la mia persona e ora imbarchiamoci Yanez la spedizione contro la Buan i 90 uomini si imbarcarono sui Prahos Yanez e Sannokan presero posto sul più grande e più solido che portava doppi cannoni e una mezza dozzina di grosse spingarde e che per di più era difeso da grosse lamine di ferro le ancore vennero salpate le vele orientate e la spedizione uscì dalla baia fra le acclamazioni delle bande affollate sulla riva e sui bastoni il cielo era sereno e il mare liscio come se fosse d'olio però verso il sud apparivano alcune nuvolette di una tinta particolare di una forma strana e che nulla presagivano di buono Sannokan che oltre ad essere un cannocchiale eccellente era anche un buon barometro fiutò un prossimo perturbamento atmosferico tuttavia non si inquietò se gli uomini non sono capaci di arrestarmi tantomeno lo farà la tempesta mi sento tanto forte da sfidare anche i furori della natura disse temi un violento uragano chiese Yanez sì ma non mi farà tornare indietro anzi ci sarà favorevole fratellino mio poiché potremo sbarcare senza essere inquietati dagli incrociatori e appena terra cosa farai? non lo so ancora ma mi sento capace di tutto di affrontare anche l'intera squadra inglese se cercasse di sbarrarmi la via come di lanciare i miei uomini contro la villa per espugnarla se tu annunci lo sbarco con qualche battaglia il lord non rimarrà più fra i boschi ma fuggirà a vittoria sotto la protezione del forte e dei navigli è vero Yanez rispose Sannokan sospirando e tuttavia bisogna che Marianna sia la mia sposa poiché sento che senza di lei mi si spegnerebbe il fuoco che mi divora il cuore ragioni di più per agire con la massima prudenza onde sorprendere il lord sorprenderlo e credi tu che il lord non stia in guardia e gli sa che io sono capace di tutto e avrà radunato nel suo parco dei soldati e dei marinai può essere ma ricorreremo a qualche astuzia chissà qualche cosa mi frulla già per il capo e potrebbe mutare ma dimmi amico mio si lascerà rapire Marianna oh sì me lo ha giurato e la condurrai a Monpracem sì e dopo averla sposata ve la terrai per sempre non lo so Yanez disse Sandokan emettendo un profondo sospiro vuoi tu che la releghi nella mia selvaggia isola per sempre vuoi tu che ella viva per sempre fra i miei tigrotti che non sanno altro che trarre archibugiate menare il Chris e la scure vuoi tu che io mostri ai suoi dolci occhi spettacoli orrendi sangue e stragi per ogni dove che la sordi con le urla dei combattenti e il ruggito dei cannoni e che la esponga ad un continuo pericolo dimmi Yanez nel mio caso faresti tu tutto ciò ma pensa Sandokan a ciò che diverrà Monpracem senza la sua tigre della Malesia con te tornerebbe a brillare tanto da eclissare la Boan e tutte le altre isole e farebbe ancora fremere i figli di quegli uomini che distrussero la tua famiglia e il tuo popolo vi sono migliaia di Dayaki e di Malesi che altro non aspettano che un appello per accorrere ed ingrossare la banda delle tigri di Monpracem ho pensato a tutto ciò Yanez e cosa ti ha detto il cuore l'ho sentito sanguinare e non di meno lasceresti perire la tua potenza per quella donna l'amo Yanez ah non vorrei essere stato mai la tigre della Malesia il pirata che cosa insolita era estremamente commosso si sedette sull'affusto di un cannone prendendosi il capo fra le mani come se volesse soffocare i pensieri che gli tumultuavano nel cervello Yanez lo guardò a lungo in silenzio poi si mise a passeggiare per il ponte crollando a più riprese il capo intanto i tre legni continuavano a veleggiare verso l'oriente spinti però da un vento leggero e che per di più soffiava irregolarmente facendo talora rallentare di molto la loro corsa in vano gli equipaggi che erano in predo ad una vivissima impazienza che calcolavano metro per metro la via percorsa aggiungevano nuove vele fiocchi piccole rande scopamari per raccogliere maggior vento la corsa diventava sempre più lenta di mano in mano che le nubi si alzavano sull'orizzonte ciò però non doveva durare infatti verso le nove di sera il vento cominciò a soffiare con qualche violenza venendo dalla direzione dove si alzavano le nubi segno evidente che qualche tempesta sconvolgeva l'oceano meridionale gli equipaggi salutarono con liete grida a quei soffi vigorosi nient'affatto spaventati dall'uragano che gli minacciava e che poteva diventare funesto per i loro legni il solo portoghese cominciò a diventare inquieto e avrebbe voluto diminuire almeno la superficie delle vele ma Sandokan non glielo permise ansioso come era di giungere presto sulle rive di Labuan che a lui questa volta sembrava immensamente lontana all'indomani il mare era cattivissimo lunghe ondate che salivano dal sud percorrevano quel vasto spazio cozzandosi le une con le altre con profondi mugiti facendo vivamente rollare e beccheggiare i tre legni in cielo poi correvano sbrigliatamente immensi nuvoloni neri come la pece e con le frange tinte di un rosso fuoco alla sera il vento raddoppiò di violenza minacciando di spezzare gli alberi se non si diminuiva alla superficie delle vele qualunque altro navigante vedendo quel mare e quel cielo si sarebbe affrettato a poggiare verso la terra più vicina ma Sandokan che sapeva ormai di essere a settanta odottanta miglia ad Labuan e che piuttosto di perdere una sola ora avrebbe perduto volentieri uno dei suoi legni non lo pensò nemmeno Sandokan disse Yanez che diventava sempre più inquieto vada che noi corriamo un grave pericolo di che temi fratello mio chiese la tigre temo che l'uragano ci mandi tutti a bere nella grande tazza i nostri legni sono solidi ma l'uragano mi pare che minacci di diventare tremendo non lo temo Yanez andiamo innanzi che Labuan non è lontana scorgi gli altri legni mi pare di vederne uno verso il sud l'oscurità è così profonda che non ci si vede al di là di cento metri se ci perdono sapranno ritrovarci ma possono anche perdersi per sempre Sandokan non retrocedo Yanez sta in guardia fratello in quel momento un lampo abbagliante squarciò le tenebre illuminando il mare fino agli estremi limiti dell'orizzonte subito seguito da un tuono spaventevole Sandokan che era seduto si alzò di scatto guardando fieramente le nubi e stendendo la mano verso il sud disse vieni a lottare con me o uragano io ti sfido attraversò il ponte e si mise alla ribolla del timone mentre i suoi marinai assicuravano i cannoni e le spingarde armi che non volevano perdere a nessun patto e tiravano in coperta l'imbarcazione da sbarco e rafforzavano le manovre fisse triplicando i cavi le prime raffiche giungevano già dal sud con quella rapidità che sogliono acquistare i venti nelle tempeste spingendo innanzi a loro le prime montagne d'acqua il prago con la velatura ridotta si mise a filare con la rapidità di una freccia verso oriente tenendo bravamente testa agli elementi scatenati e senza deviare di una sola linea dalla sua rotta sotto la ferrea mano di Sandokan per mezz'ora durò un po' di calma rotta solo dai mugiti del mare e dallo scrosciare delle scariche elettriche che crescevano ad ogni istante di intensità ma verso le undici l'uragano si scatenò quasi improvvisamente in tutta la sua terribile maestà mettendo sotto sopra cielo e mare le nubi accavallate sin dal giorno innanzi correvano allora furiosamente attraverso lo spazio ora sospinte in alto ed ora cacciate così a basso da toccare coi loro neri lembi le onde mentre il mare si precipitava con impeto verso il nord quasi che fosse un'immensa fiumana il prago vero guscio di noce che sfidava la natura irritata affogato dai marosi che lo assalivano d'ogni parte parcollava disordinatamente ora sulle creste spumeggianti delle onde e ora nel fondo di mobili abissi rovesciando gli uomini facendo scricchiolare gli alberi sbattere i boscelli e crepitare le vele con tanta forza che parevano fossero sempre lì lì per scoppiare ma Sandokan malgrado quel furioso rimescolamento d'acqua non cedeva e guidava il legno verso la buan sfidando impavido la tempesta era bello vedere quell'uomo fermo alla ribolla del timone con gli occhi in fiamma coi lunghi capelli sciolti al vento irremovibile fra gli scatenati elementi che ruggivano a lui dintorno era ancora la tigre della Malesia che non contento di aver sfidato gli uomini sfidava ora i furori della natura i suoi uomini non erano da meno di lui aggrappati alle manovre miravano impassibili quegli assalti del mare pronti ad eseguire la più pericolosa manovra dovesse costare la vita a tutti e intanto l'uragano cresceva sempre di intensità quasi volesse spiegare tutta la sua potenza per tenere testa a quell'uomo che lo sfidava il mare si alzava in montagne d'acqua che correvano all'assalto con mille urla mille tremendi ruggiti avvallandosi le une e le altre e scavando abissi profondi che parevano dovessero giungere fino alle sabbie dell'oceano il vento urlava su tutti i toni spingendo innanzi a sé vere colonne d'acqua e rimescolando orribilmente le nubi entro le quali rombava incessantemente il tuono il prago lottava disperatamente opponendo alle onde che volevano trascinarlo al nord i robusti fianchi si sbandava sempre più spaventosamente si raddrizzava pari ad un cavallo imbizzarrito si tuffava sferzando l'acqua con la prua gemeva come fosse lì per aprirsi in due e certi momenti rollava così tanto da temere che non si sarebbe più rimesso in equilibrio lottare ancora contro quel mare che diventava sempre più impetuoso era follia bisognava assolutamente lasciarsi trasportare al nord come forse avevano già fatto altri due praos che da parecchie ore erano scomparsi janez che comprendeva quanto era imprudente ostinarsi in quella lotta stava per regarsi a poppa onde pregare Sandokan di cambiare rotta quando una detonazione che non si poteva confondere con lo scroscio d'una folgore e che giò a largo un istante dopo una palla passava fischiando sopra la coperta smussando il pennone di trinchetto un urlo di rabbia scoppiò a bordo del prao a quell'inaspettata aggressione che nessuno certamente aspettava con un simile tempo e in momenti così critici Sandokan abbandonata la ribolla ad un marinaio si slanciò a prua cercando di scoprire la dace che lo assaliva in mezzo alla tempesta ah esclamò egli sono degli incrociatori che vegliano ancora infatti l'aggressore che in mezzo a quel formidabile rimescolamento del mare aveva lanciata così bene quella palla era un grosso vascello a vapore sul cui picco sventolava una bandiera inglese e sulla cima dell'alberetto di maestro il gran nastro dei legni da guerra cosa faceva in piano mare con quel tempo incrociava dinanzi le coste di Labuan o veniva da qualche vicina isola feriamo Sandokan disse Yanez che l'aveva raggiunto sì fratellino mio quel legno sospetta in noi dei pirati diretti a Labuan un secondo colpo di cannone tuonò sul ponte del vascello e una seconda palla fischiò attraverso l'attrezzatura del prago i pirati nonostante i violenti rollii si precipitarono verso i cannoni e le spingarde per rispondere ma Sandokan li arrestò con un gesto infatti non vi era bisogno il gran vascello che si sforzava di tenere testa alle onde che la salivano a prua inabissandosi quasi tutto sotto il peso della sua costruzione in ferro veniva a suo malgrado trascinato verso il nord in brevi istanti fu tanto lontano da non temere più le sue artiglierie peccato che mi abbia trovato in mezzo a questa tempesta disse Sandokan con accento tetro l'avrei assalita ed espugnato malgrado la sua mole ed il suo equipaggio meglio così Sandokan disse Yanez che il diavolo se lo porti e lo cacci in fondo al mare ma cosa faceva quel legno in pieno mare mentre tutti cercano un rifugio che siamo vicini alla Wuhan lo sospetto anch'io vedi nulla dinanzi a noi nulla fuorché montagna d'acqua eppure sento che il mio cuore batte forte Yanez i cuori talvolta si ingannano non il mio ah cosa hai veduto un punto oscuro verso l'est l'ho distinto al chiarore di un lampo ma quando anche fossimo presso la Wuhan come vorresti approdare con simile tempo approderemo Yanez dovessimo andare in frantumi il mio legno in quel momento si udì un malese gridare dall'alto del pennone di trinchetto terra dritto l'asta di prua Sandokan mandò un grido di gioia la Wuhan la Wuhan esclamò a me la ribulla riattraversò il ponte malgrado le onde che lo spazzavano ad ogni istante e si mise al timone lanciando il pravo sulla via dell'est mentre però si avvicinava alla costa il mare pareva che raddoppiasse di furore come se volesse impedire ad ogni costo lo sbarco onde mostruose prodotte dai cosiddetti flutti di fondo balzavano in tutte le direzioni mentre il vento raddoppiava di violenza rotto dalle alture dell'isola Sandokan però non cedeva e con gli occhi fissi verso l'est continuava impavido la sua via valendosi della luce dei lampi per dirigersi ben presto si trovò a poche gomene dalla costa prudenza Sandokan disse Yanez che gli si era messo al fianco non temere fratello vada alle scogliere le eviterò ma dove troverai un riparo lo vedrai a due gomene si disegnava confusamente la costa contro la quale rompevasi con furia indicibile il mare Sandokan la esaminò per alcuni secondi poi con un vigoroso colpo di barra piegò a babordo attenzione gridò ai pirati che stavano ai bracci delle manovre spinse il prao innanzi con una temerità da far drizzare i capelli a più intrepidi lupi di mare attraversò uno stretto passo aperto fra due grandi lupi ed entrò in una piccola ma profonda baia che pareva terminasse in un fiume la risacca era però così violenta entro quel rifugio da mettere il prao in gravissimo pericolo era meglio sfidare l'ira del mare aperto che un approdo su quelle sponde spazzate dalle onde rotolanti ed accavallantesi non si può tentare nulla sandokan disse janez se cerchiamo di accostarci manderemo il nostro legno in frantumi tu sei un abile nuotatore vero chiese sandokan come i nostri malesi delle onde non hai paura non le temo allora noi approderemo ugualmente cosa vuoi tentare invece di rispondere sandokan gridò paranoa alla barra il daiaco si slanciò verso poppa afferrando la ribolla che sandokan gli abbandonava cosa devo fare gli chiese mantenere per ora il prao attraverso il vento rispose sandokan vada di non mandarlo attraverso i banchi non temete tigre della malesia si rivolse verso i marinai e disse loro preparate la scialuppa e issatela sulla murata quando l'onda spazzerà il bordo la lascerete andare quale intenzioni aveva la tigre della malesia voleva tentare lo sbarco in quella scialuppa misero giocattolo fra quelle tremende ondate i suoi uomini udendo quel comando si guardarono l'un l'altro con viva ansietà pure si affrettarono ad obbedire senza chiedere spiegazioni alzarono a forza di braccia la scialuppa e laissarono sulla murata di tribordo dopo ad avervi messo dentro per ordine di sandokan due carabine delle munizioni e dei viveri la tigre della malesia si avvicinò a janez dicendogli sali nella scialuppa fratellino mio cosa vuoi tentare sandokan io voglio approdare noi andremo a fracassarci contro la spiaggia ah sali janez tu sei pazzo invece di rispondere sandokan lo prese e lo depose nella scialuppa poi a sua volta vi balzò dentro un'onda mostruosa entrava allora nella baia mugendo tremendamente paranoa gridò sandokan sta pronto a virare di bordo devo uscire ancora in mare chiese il dagliaco risali verso il nord mettendote alla cappa quando il mare si sarà calmato tornerai qui va bene capitano ma voi approderò e lascerete la vita taci state attenti a lasciare la scialuppa ecco l'onda il cavallone si avvicinava con la cresta coperta di candida spuma si spezzò a metà dinanzi le due sponde poi entrò nella baia precipitandosi addosso al prao in un baleno gli fu addosso avvolgendoli in un nembo di spuma e balzando attraverso le murate lascia andare urlò sandokan la scialuppa abbandonata a se stessa fu portata via assieme ai due coraggiosi che la montavano quasi nel medesimo istante il prao virava di bordo e approfittando di una controondata usciva a largo scomparendo dietro una delle scogliere arranchiamo i anez disse sandokan afferranno un remo noi sbarcheremo alla buan malgrado la tempesta per giove è una pazzia arranca è l'urto zitto attento alle onde l'imbarcazione si dondolava spaventosamente fra la spuma della risacca ora scendendo ed ora librandosi fra le creste le onde però la spingevano verso la spiaggia la quale per buona fortuna scendeva dolcemente ed era priva di scogliere sollevata da un'altra ondata percorse cento metri salì una cresta poi precipitò quindi avvenne un urto violentissimo i due coraggiosi si sentirono mancare il fondo sotto i piedi la chiglia era stata frantumata di colpo sandokan gridò janez che vedeva entrare l'acqua attraverso le squarciature non abbandonare la voce fu soffocata da un tremendo colpo di mare succeduto sia il primo la scialuppa fu nuovamente sollevata si dondolò un istante sulla cresta del cavallone poi precipitò innanzi toccando nuovamente ma le onde rotolanti la spinsero ancora più innanzi sbattendola contro il tronco di un albero con tale violenza che i due pirati furono sbalzati fuori sandokan che era andato a cadere in mezzo ad un ammasso di foglie e di rami si era subito rialzato raccogliendo le due carabine e le munizioni una nuova ondata risaliva allora la sponda trovata la scialuppa la rotolò per qualche tratto poi la spazzo via sommergendola all'inferno tutti gli innamorati gridò janez che si era alzato tutto pesto sono cose da pazzi queste ma sei ancora vivo disse sandokan ridendo volevi che mi fossi accoppato non me ne sarei più consolato janez eh guarda il prao come non ha preso il largo il veliero ripassava allora dinanzi all'imboccatura della baia filando con la rapidità di una freccia che fedeli compagni disse sandokan prima di allontanarsi hanno voluto accertarsi se noi siamo approdati si strappò di dosso la larga fascia di seta rossa e la spiegò al vento un istante dopo uno sparo echeggiava sul ponte del veliero ci hanno scorti disse janez speriamo che si salvino il prao aveva virato di bordo riprendendo la sua corsa verso il nord janez e sandokan stettero sulla spiaggia affinché poterono scorgerli poi si cacciarono sotto i grandi vegetali per mettersi al coperto dalla pioggia che cadeva a catinelle dove andiamo sandokan gli chiese janez non lo so non sai dove ci troviamo è impossibile per ora suppongo però di non essere lontano dal fiumicello di quale fiume parli? di quello che servì di rifugio al mio prao dopo la battaglia contro l'incrociatore si trova presso quel luogo la villa di lord james a qualche miglio bisognerà quindi cercare prima quel corso d'acqua certamente janez domani perlustreremo la costa domani esclamò sandokan e credi tu che io possa attendere tante ore e rimanermene qui inoperoso ma non sai tu adunque che ho il fuoco nelle vene non ti sei accorto che noi siamo alla buon sulla terra dove brilla la mia stella vuoi che non lo sappia che ci troviamo sull'isola delle giacche rosse allora tu devi comprendere le mie impazienze niente affatto sandokan rispose pacatamente il portoghese per giove sono ancora tutto scombussolato e tu pretendi che ci mettiamo in cammino con questa notte d'inferno tu sei pazzo fratellino mio il tempo fugge janez non ti ricordi di ciò che ha detto il sergente perfettamente sandokan da un momento all'altro lord james può riparare in vittoria non lo farà certamente con questo tempaccio cane non scherzare janez non ne ho alcuna voglia sandokan forse discutiamo con calma fratellino mio tu vuoi andare alla villa a cosa fare per vederla almeno disse sandokan con un sospiro e per commettere qualche imprudenza non è vero no so di cosa sei capace calma fratellino mio pensa che siamo in due soli e che alla villa vi sono dei soldati aspettiamo che i praos ritornino poi agiremo ma se tu sapessi cosa provo trovandomi su questa terra esclamò sandokan con voce raoka me lo immagino ma io non posso permetterti di commettere delle pazzie che possono esserti fatali vuoi recarti alla villa per accertarti che marianna vi si trova ancora vi andremo dopo però che l'uragano sarà cessato con questa oscurità e questa pioggia non potremmo né orientarci né trovare il fiumicello domani quando il sole sarà spuntato ci metteremo in cammino per ora cerchiamo un rifugio ed io dovrò aspettare fino a domani non mancano che tre ore all'alba un'eternità una miseria sandokan e poi nel frattempo il mare può calmarsi il vento diminuire di violenza e i praos ritornare qui or su gettiamoci sotto quella recchia delle foglie smisurate che ci proteggeranno meglio d'una tenda e aspettiamo che spunti l'alba sandokan era indeciso a seguire il consiglio guardò il fedele amico sperando di risolverlo ancora a partire poi cedette e si lasciò cadere presso il tronco dell'albero mandando un lungo sospiro la pioggia continuava a cadere con estrema violenza e sul mare l'uragano infuriava sempre tremendamente attraverso gli alberi i due pirati scorgevano le onde a cavallarsi rabbiosamente e scagliarsi contro la spiaggia con impeto irresistibile frangendosi e rifrangendosi scorgendo quelle ondate che invece di scemare sempre più ingigantivano Yanez non poté trattenersi dal chiedersi cosa accadrà dei nostri praos con simile tempesta credi tu sandokan che si salveranno se dovessero naufragare cosa succederebbe di noi i nostri uomini sono valenti marinai rispose sandokan essi sapranno trarsi di impiccio e se naufragassero cosa potresti fare tu senza il loro aiuto cosa farei rapirei ugualmente la fanciulla tu corri troppo sandokan due soli uomini siano pure due tigri della selvaggia maonpracem non possono affrontare venti trenta e forse cinquanta moschetti ricorreremo all'astuzia mi crederesti capace di rinunziare al mio progetto janez no io non tornerò a monpracem senza marianna janez non rispose accese una sigaretta e si sdraiò in mezzo all'erba che era quasi asciutta essendo protetta dalle larghe foglie dell'albero chiudendo gli occhi sandokan invece salzò spingendosi verso la spiaggia il portoghese che non dormiva lo vide aggirarsi sul margine della foresta ora salendo verso il nord ed ora ridiscendendo verso il sud certamente cercava di orientarsi e di riconoscere quella costa che forse aveva già percorsa durante il suo soggiorno in quell'isola quando ritornò cominciava ad albeggiare la pioggia da qualche ora era cessata ed anche il vento non rugiva più così forte attraverso i mille alberi della foresta so dove ci troviamo disse a janez ah fece questi preparandosi ad alzarsi il fiumicello deve trovarsi verso il sud e forse non è lontano vuoi che andiamo a cercarlo sì janez spero che non ardirai avvicinarti alla villa di giorno ma questa sera nessuno mi tratterrà poi aggiunse con l'intonazione di una persona che voglia esprimere l'eternità dodici ore ancora quale tortura nella foresta il tempo passa presto sandokan rispose janez sorridendo andiamo sono pronto a seguirti si gettarono in ispalla alle carabine si cacciarono nelle tasche le munizioni e si internarono nella grande foresta cercando però di non allontanarsi troppo dalla spiaggia eviteremo le profonde insenature che descrive la costa disse sandokan la via sarà meno facile ma più breve padiamo a non smarrirci non temere janez la foresta non presentava che rari passaggi ma sandokan era un vero uomo dei boschi che sapeva strisciare come un serpente e dirigersi anche senza stelle e senza sole si diresse verso il sud tenendosi a breve distanza dalla costa onde cercare prima di tutto il fiumicello entro cui erasi cacciato nella precedente spedizione giunto là non era difficile raggiungere la villa che il pirata sapeva essere lontana forse un paio di chilometri la via però di mano in mano che procedevano verso il sud diventava più difficile in causa della strage fatta dall'uragano numerosi alberi combattuti dal vento sbarravano i passaggi costringendo i due pirati a fare ardite ascensioni e lunghi giri poi erano ammassi immensi di rami che imbarazzavano la loro via e immense quantità di liane che si allacciavano alle loro gambe ritardando il loro cammino tuttavia lavorando con i cris salendo e scendendo saltando e scalando alberi e tronchi atterrati tiravano innanzi cercando sempre di non allontanarsi troppo dalla costa verso il mezzodì Sandokan si arrestò dicendo al portoghese siamo vicini al fiume o alla villa al corso d'acqua rispose Sandokan non odi questo gorgoglio che si ripercuote sotto queste fitte volte di verzura sì disse Janetz dopo aver ascoltato qualche istante sì disse Janetz che sia proprio il fiumicello che noi cerchiamo non posso ingannarmi io ho percorso questi luoghi andiamo innanzi attraversarono lestamente l'ultimo lembo della grande foresta e dieci minuti dopo si trovavano dinanzi ad un piccolo corso d'acqua il quale sboccava in una baia graziosa cinta d'alberi immensi il caso li aveva condotti in quel medesimo luogo dove avevano approdato i prahas della prima spedizione vi si vedevano ancora le travi lasciatevi dal secondo quando respinto dalle tremende cannonate dell'incrociatore era sicolar rifugiato per riparare le sue gravi avarie sulla riva verano pezzi di pennoni frammenti di murate lembi di tela cordami delle palle da cannone delle scimitarre e delle scuri infrante e dei rimasugli di attrezzi sandokan gettò un cupo sguardo su quegli avanzi che gli rammentavano la sua prima sconfitta e sospirò pensando a quei prodi che erano stati distrutti dal fuoco implacabile dell'incrociatore riposano laggiù fuori della baia in fondo al mare disse a janez con voce triste poveri morti ancora invendicati è qui che tu sei approdato sì qui janez allora ero l'invincibile tigre della malesia allora non avevo catene attorno al cuore né visioni dinanzi agli occhi mi sono battuto come un disperato trascinando i miei uomini all'abordaggio con furore selvaggio ma mi hanno schiacciato il maledetto che ci copriva di ferro e di piombo era là mi pare ancora di vederlo come in quella tremenda notte che io l'ho assalito alla testa di pochi prodi che momento terribile janez quale strage tutti sono caduti tutti meno uno io rimpiangi quella sconfitta sandokan non lo so senza quella palla che mi colpì forse non avrei conosciuto la fanciulla dai capelli d'oro tacque e discese verso la spiaggia spingendo gli sguardi sotto le azzurre acque della baia poi si arrestò con le braccia tese additando a janez il luogo dove era avvenuto il tremendo abbordaggio i praos riposano laggiù disse chissà quanti morti contengono ancora nei loro scafi si sedette sul tronco di un albero caduto forse per decrepitezza si prese il capo fra le mani e si immerse in profondi pensieri janez lo lasciò assorto nelle sue meditazioni e si avventurò fra le scogliere frugando con un bastone accuminato nei crepacci per vedere se riusciva a scoprire qualche ostrica gigante dopo d'aver girovagato per un quarto d'ora tornò alla spiaggia portandone una così grossa che era imbarazzato ad alzarla accendere un bel fuoco ed aprirla fu per lui l'affare di pochi istanti por su fratellino mio lascia i praos sott'acqua ed i morti in bocca ai pesci e viene a dare un colpo di dente a questa polpa squisita già anche pensando e ripensando non fa venire a galla negli uni negli altri è vero Janetz rispose Sandokan sospirando quei prodi non torneranno in vita più mai la colazione fu squisita quell'ostrica gigantesca conteneva una polpa così delicata da far andare in sollucero quell'ottimo portoghese a cui l'aria marina unita ai profumi della foresta avevano guzzato straordinariamente l'appetito terminato quel pasto abbondantissimo Janetz si preparava a sdraiarsi sotto un superbo durion che torreggiava sulla riva del fiume per fumarsi beatamente un paio di sigarette ma Sandokan con un gesto gli indicò la foresta la villa è forse lontana non sai precisamente dove si trova pagamente avendo percorso questi luoghi in preda al delirio diavolo ah non temere Janetz io saprò trovare il sentiero che conduce al parco andiamo già che lo vuoi basta però di non commettere imprudenze sarò calmo Janetz una parola ancora fratellino cosa vuoi spero che attenderai la notte per entrare nel parco sì Janetz me lo prometti hai la mia parola allora in marcia seguirono per qualche tratto la riva destra del fiumicello poi si gettarono risolutamente nella grande foresta pareva che l'uragano avesse infuriato tremendamente in quella parte dell'isola numerosi alberi abbattuti o dal vento o dalle folgori giacevano al suolo alcuni si trovavano ancora semisospesi essendo stati trattenuti dalle liane ed altri interamente coricati dappertutto poi cespugli lacerati e contorti ammassi di fogliami e di frutta rami spezzati in mezzo ai quali urlavano parecchie scimmie rimaste ferite malgrado quei numerosi ostacoli Sandokan non si arrestava continuò a marciare fino al tramonto senza mai esitare sulla via da prendere calava la sera e già Sandokan disperava di trovare il fiumicello quando si trovò improvvisamente dinanzi ad un largo sentiero cosa hai veduto chiese il portoghese vedendolo fermarsi siamo presso la villa rispose Sandokan con voce soffocata questo sentiero conduce al parco perbacco che bella fortuna fratellino mio tira innanzi ma bada di non commettere pazzie Sandokan non aspettò che terminasse la frase armata la carabina onde non venire sorpreso o disarmato si slanciò sul sentiero con tanta rapidità che il portoghese penava a stargli vicino Marianna fanciulla divina amor mio esclamava divorando la via con crescente rapidità non aver più paura ora che ti sono vicino in quel momento il formidabile pirata avrebbe rovesciato un reggimento intero pur di giungere alla villa non aveva paura più di nessuno la morte stessa non l'avrebbe fatto retrocedere anelava si sentiva invaso da un fuoco intenso che ardevagli nel cuore e nel cervello agitato da mille timori temeva di giungere troppo tardi di non ritrovare più la donna così immensamente amata e correva sempre più dimenticando ogni prudenza fracassando e schiantando i rami dei cespugli lacerando impetuosamente le liane saltando con slanci dalle une i mille ostacoli che gli sbarravano la via ehi Sandokan pazzo indemoniato diceva Yanez che trottava come un cavallo aspetta un po' che ti raggiunga fermati per mille spingarde o mi farai scoppiare alla villa alla villa rispondeva invariabilmente il pirata non si arrestò che dinanzi alle palizzate del parco più per aspettare il compagno che per prudenza o stanchezza oh esclamò il portoghese raggiungendolo credi che io sia un cavallo per farmi correre così la villa non scappa te l'assicuro io e poi tu non sai chi può celarsi dietro a quella cinta non ho paura degli inglesi rispose la tigre che era in preda ad una viva esaltazione lo so ma se tu ti fai ammazzare non vedrai più la tua Marianna ma io non posso rimanere qui bisogna che io veda la lady calma fratellino mio ubbidiscimi e vedrai che qualche cosa potrai vedere gli fece cenno di stare zitto e si arrampicò sulla cinta con l'agilità di un gatto guardando attentamente nel parco mi pare che non ci sia alcuna sentinella disse entriamo dunque si lasciò cadere dall'altro lato mentre Sandokan faceva altrettanto e tutti e due si inoltrarono silenziosamente nel parco tenendosi nascosti dietro ai cespugli e alle aiuole e con gli occhi fissi sulla palazzina che scorgeva confusamente tra le tenebre erano così giunti ad un tiro d'archivugio quando Sandokan si arrestò di botto spingendo innanzi a sé la carabina fermati Yanez murmurò cos'hai veduto degli uomini sono fermi dinanzi alla palazzina che si è lord con Marianna Sandokan a cui batteva furiosamente il cuore si alzò lentamente e aguzzò gli occhi guardando quelle figure umane con profonda attenzione maledizione mormorò diglignando i denti dei soldati oh oh la matassa si imbroglia prontolò il portoghese cosa si fa se vi sono dei soldati è segno che Marianna si trova ancora nella villa parrebbe anche a me attacchiamogli adunque sei pazzo puoi farti uccidere noi siamo in due e loro forse sono in dieci quindici forse anche in trenta ma bisogna che io la veda esclamò Sandokan guardando il portoghese con due occhi che parevano quelli d'un pazzo calmati fratellino mio disse Janez afferrandolo strettamente per un braccio onde impedirgli di commettere qualche pazia calmati e forse la vedrai in qual modo aspettiamo che faccia tardi e poi ho il mio progetto sdraiati qui vicino frena gli impeti del cuore non avrai da pentirti ma i soldati per giove spero che andranno a dormire hai ragione Janez aspetterò si coricarono dietro un folto cespuglio ma in modo da non perdere di vista i soldati e attesero il momento opportuno per agire passarono due tre quattro ore lunghe per Sandokan come quattro secoli poi finalmente i soldati rientrarono nella villa chiudendo fragorosamente la porta la tigre fece atto di slanciarsi innanzi ma il portoghese lo trattenne rapidamente poi trascinando sotto la fitta ombra ad un grandissimo pombo gli disse incrogiando le braccia e guardandolo fisso dimmi Sandokan cosa speri di fare tu questa notte vederla e credi che sia così facile hai trovato il modo di poterla vedere innanzi a tutto no ma sa la tua fanciulla che tu sei qui non è possibile bisognerebbe quindi chiamarla sì ed i soldati usciranno poiché non si può ammettere che siano sordi e ci prenderanno a colpi di carabina Sandokan non rispose vedi bene mio povero amico che questa notte nulla potresti fare posso arrampicarmi fino alle sue finestre disse Sandokan e non hai veduto quel soldato imboscato presso l'angolo del padiglione un soldato sì Sandokan guarda si vede brillare la canna del suo fucile cosa mi consigli di fare adunque parla la febbre mi divora sai tu quale parte del parco frequenta la tua fanciulla tutti i giorni si recava a ricamare nel chiosco cinese benissimo dove si trova è qui vicino conduci Micolà cosa vuoi fare Yanez bisogna avvertirla che noi stiamo qui la tigre della Malesia la tigre della Malesia quantunque provasse tutte le pene dell'inferno nell'allontanarsi da quel luogo si cacciò in un viale laterale e condusse Yanez nel chiosco era quello un grazioso padiglioncino dalle pareti traforate e dipinto a vivaci colori e sormontato da una specie di cupola di metallo dorato irta di punte e di draghi cigolanti all'intorno si estendeva un boschetto di lillae di grandi cespi di rose della Cina esalanti acuti profumi Yanez e Sandokan dopo ad aver armate le carabine non essendo certi che fosse deserto ventrarono non vi era nessuno Yanez accese uno zolfanello e vide sopra un leggerissimo tavolo lavorato un cestello contenente dei pizzi e del filo e presso di esso una mandola intarsiata di madreperla cose sue chiese a Sandokan sì rispose questi con un accento di infinita tenerezza sei certo che qui ritorni è il suo luogo preferito è qui che quella divina fanciulla viene a respirare l'aria imbalsamata dai lillae in fiore che viene a cantare le sue dolci canzoni del paese natio ed è qui dove ella mi giurò eternamente affezione Yanez staccò da un libricino un foglio di carta si frugò in tasca e trovato un pezzo di matita mentre Sandokan accendeva un altro zolfanello scrisse le seguenti parole siamo sbarcati ieri durante l'uragano domani sera alla mezzanotte saremo sotto le vostre finestre procurate una fune per aiutare la scalata a Sandokan Yanez de Gomera spero che il mio nome non le sarà ignoto disse oh no rispose Sandokan ella sa che tu sei il mio migliore amico piegò la carta e la mise nella cesta da lavoro in modo che si potesse subito vedere mentre Sandokan strappate alcune rose della cina ve le gettava sopra i due pirati si guardarono in viso l'un l'altro alla livida luce ad un lampo l'uno era calmo l'altro era in preda ad una grande emozione andiamo Sandokan disse Yanez ti seguo rispose la tigre della Malesia con un sospiro represso cinque minuti dopo parcavano le palizzate del parco ricacciandosi in mezzo alla tenebrosa foresta l'appuntamento notturno la notte era tempestosa non essendosi ancora calmato l'uragano il vento rugiva e ululava su mille toni sotto le boscaglie torcendo i rami delle piante e facendo volteggiare in alto masse di fogliame piegando e sradicando i giovani alberi e scuotendo poderosamente quelli annusi e tratto in tratto dei lampi abbaglianti rompevano le fitte tenebre e le folgori cadevano abbattendo ed incendiando le più alte piante della foresta era una vera notte d'inferno una vera notte propizia per tentare un audace colpo di mano sulla villa disgraziatamente gli uomini dei prajos non erano lì ad aiutare Sandokan nella temeraria impresa quantunque l'uragano infuriasse i due pirati non si arrestavano guidati dalla luce dei lampi cercavano di giungere al fiumicello per vedere se qualche prajo avesse potuto rifugiarsi nella piccola baia senza curarsi della pioggia che cadeva a torrenti ma guardandosi bene dal farsi schiacciare dai grossi rami che il vento schiantava dopo due ore giungevano inaspettatamente presso la foce del fiumicello mentre per recarsi alla villa avevano impiegato doppio tempo in mezzo all'oscurità ci siamo guidati meglio che in piano giorno disse Janetz una vera fortuna con simile notte Sandokan scese la riva e atteso un lampo lanciò un rapido sguardo sulle acque della baia nulla disse con la voce sorda che sia toccata qualche disgrazia ai miei legni io credo che non abbiano ancora abbandonato i loro rifugi rispose Janetz si saranno accorti che un altro uragano minacciava di scoppiare e da gente prudente non si saranno mossi tu sai che non è cosa facile approdare qui quando infuriano le onde e i diventi ho delle vaghe inquietudini Janetz cosa temi che siano naufragati ah i nostri legni sono solidi fra qualche giorno noi li rivedremo aggiungere hai dato l'appuntamento in questa piccola baia è vero si Janetz verranno cerchiamo un ricovero Sandokan piove addirutto e quest'uragano non si calmerà tanto presto dove andare vi sarebbe la capanna costruita da Girobatol durante il suo soggiorno in quest'isola ma dubito di poterla trovare gettiamoci in mezzo a quel macchione di banani le gigantesche foglie di quelle piante ci ripareranno alla meglio meglio costruire una tap Janetz non ci avevo pensato fra pochi minuti possiamo averlo servendosi dei Chris tagliarono alcuni bambù che crescevano sulle rive del fiumicello e li piantarono sotto un superbo pombo le cui fronde assai fitte erano quasi bastanti per ripararli dalla pioggia incrociatili come lo scheletro di una tenda a due tetti pioventi li coprirono con le gigantesche foglie dei banani sovrapponendole in modo da formare due tetti pioventi come Janetz aveva detto pochi minuti furono sufficienti per costruire quel riparo i due pirati vi si cacciarono sotto portando con loro un grappolo di banani poi dopo una parca cena composta unicamente di quelle frutta cercarono di addormentarsi mentre l'uragano si scatenava con maggior violenza con accompagnamento di lampi e di tuoni assordanti la notte fu pessima parecchie volte Janetz e Sandokan furono costretti a rafforzare la capannuccia e a ricoprirla di frasche e di foglie di banani per ripararsi dalla pioggia diluviale ed incessante verso l'alba però il tempo si rimise un po' in calma permettendo ai due pirati di dormire tranquillamente fino alle dieci del mattino andiamo a cercare la colazione disse Janetz quando si svegliò spero di trovare ancora qualche ostrica colossale si spinsero verso la baia seguendo la sponda meridionale e frugando le numerose scogliere riuscirono a procurarsi parecchie dozzine di ostriche di incredibile grossezza ed anche alcuni crostacei Janetz vaggiunse dei banani ed alcuni pombo aranci grossi assai e molto succolenti terminata la colazione risalirono la costa verso il settentrione sperando di scoprire qualcuno dei loro praos ma non ne videro alcuno veleggiare a largo la borrasca non avrà permesso loro di ridiscendere al sud disse Janetz a Sandukan il vento ha soffiato costantemente da mezzodì pure sono inquieto assai sulla loro sorte amico rispose la tigre della Malesia questo ritardo mi fa nascere dei gravi timori ah i nostri uomini sono marinai abilissimi durante gran parte della giornata si aggirarono per quelle spiagge poi verso il tramonto si ricacciarono sotto i boschi per avvicinarsi alla villa di Lord James Gilonk credi tu che Marianna abbia trovato il nostro biglietto chiese Janetz a Sandukan ne sono certo rispose la tigre allora verrà l'appuntamento purché sia libera cosa vuoi dire Sandukan temo che Lord James la sorvegli strettamente diavolo noi però andremo ugualmente all'appuntamento Janetz il cuore mi dice che io la vedrò vada a non commettere delle imprudenze però nel parco e nella villa vi saranno certamente dei soldati di questo sono certo cerchiamo di non farci sorprendere agirò con calma me lo prometti sì allora andiamo procedendo ad agio con gli occhi in guardia gli orecchi tesi spiando prudentemente i fitti cespuglie di macchioni onde non cadere in qualche imboscata verso le sette della sera giungevano nelle vicinanze del parco rimanevano ancora a pochi minuti di crepuscolo e potevano bastare per esaminare la villa dopo essersi accertati che nessuna sentinella si trovava nascosta in quei macchioni si avvicinarono alla palizzata e aiutandosi l'un l'altro la scalarono lasciatisi cadere dall'altra parte si cacciarono in mezzo alle aiuole devastate in gran parte dall'uragano e si nascosero fra un gruppo di peoni e di cina da quel luogo potevano osservare comodamente ciò che succedeva nel parco e anche nel villino non avendo dinanzi che di radi alberi vedo un ufficiale alla finestra del villino disse Sandokan e io ho una sentinella che veglia presso l'angolo del padiglione disse Ianez se quell'uomo rimane colà anche dopo calate le tenebre ci daranno un poco fastidio lo spacceremo rispose Sandokan risolutamente sarebbe meglio sorprenderlo ed imbavagliarlo hai qualche corda tu ho la mia fascia benissimo e la bricconi cosa hai Ianez non hai osservato che hanno messo le inferriate a tutte le finestre maledizione di Allah esclamò Sandokan coi denti stretti fratellino mio Lord James deve conoscere molto l'audacia della tigre della Malesia perbacco quante precauzioni l'ora Marianna sarà sorvegliata certamente Sandokan e non potrà recarsi al mio appuntamento è probabile Sandokan ma la vedrò ugualmente in quale modo scalando la finestra tu già avevi previsto ciò e le abbiamo scritto che si procurasse una fune e se i soldati ci sorprendono le daremo battaglia tu sai che hanno paura di noi non dico di no e che noi ci battiamo come dieci uomini sì quando le palle non fioccano troppo fitte ehi guarda Sandokan cosa vedi un trappello di soldati che lascia la villa rispose il portoghese che si è reissato su di una grossa radice di un vicino pombo per meglio osservare dove vanno lasciano il parco che vadano a sorvegliare i dintorni lo temo meglio per noi sì forse e ora aspettiamo la mezzanotte accese con precauzione una sigaretta e si sdraiò a fianco di Sandokan fumando tranquillamente come si trovasse sul ponte di uno dei suoi praos Sandokan invece roso dall'impazienza non poteva starsene fermo un istante di quando in quando si alzava per scrutare cercando di discernere ciò che accadeva nella palazzina del Lord o di scoprire la giovanetta dei vaghi timori lo agitavano credendo che gli fosse preparato qualche agguato nei dintorni dell'abitazione forse il biglietto poteva essere stato trovato da qualche d'uno e recato a Lord James invece che a Marianna non sapendo più frenarsi continuava ad interrogare Yanez ma questi continuava a fumare senza rispondere finalmente giunse la mezzanotte Sandokan si era alzato di scatto pronto a slanciarsi verso la palazzina anche a rischio di trovarsi improvvisamente dinanzi i soldati di Lord James Yanez però che era pure balzato in piedi l'aveva afferrato per un braccio ad agio fratellino gli disse tu mi hai promesso di essere prudente non temo più nessuno disse Sandokan sono deciso a tutto mi preme la pelle amico tu dimentichi che aveva una sentinella presso il padiglione andiamo a ucciderla dunque basta che non dia l'allarme la strangoleremo lasciarono il macchione di peoni e si misero a strisciare fra le aiuole nascondendosi dietro ai cespugli e dietro i rosai di Cina che crescevano numerosi erano giunti a circa a cento passi dalla palazzina quando Yanez fermò Sandokan lo vedi quel soldato gli chiese sì mi pare che si sia addormentato appoggiato al suo fucile tanto meglio Yanez vieni e sii pronto a tutto ho preparato il mio fazzoletto per imbavagliarlo e ho in mano il Chris se manda un grido lo uccido si cacciarono entrambi in mezzo ad una fitta aiuola che si prolungava in direzione del padiglione e strisciando come due serpenti giunsero a soli pochi passi dal soldato quel povero giovanotto certo di non venire disturbato si era appoggiato al muro del padiglione e sonnecchiava tenendo il fucile tra le mani sei pronto Yanez chiese Sandokan con un filo di voce avanti Sandokan con un salto da tigre si avventò sul giovane soldato e afferrato lo strettamente per la gola con una spinta irresistibile lo atterrò Yanez si era pure slanciato con mano lesta imbavagliò il prigioniero poi gli legò le mani e le gambe dicendogli con voce minacciosa vada se fai un solo gesto ti pianto il mio Chris nel cuore poi volgendosi verso Sandokan alla tua fanciulla ora sai quali sono le sue finestre oh sì esclamò il pirata che già le fissava eccole là sopra quel pergolato ah Marianna se tu sapessi che sono qui abbi pazienza fratellino mio e se il diavolo non ci mette la coda la vedrai a un tratto Sandokan retrocesse mandando un vero ruggito che hai? chiese Yanez impallidendo hanno chiuso le sue finestre con un'inferriata diavolo ma non importa raccolse una manata di sassolini e ne lanciò uno contro i vetri producendo un leggero rumore i due pirati attesero rattenendo il respiro in preda ad una viva emozione nessuna risposta Yanez lanciò un secondo sassolino poi un terzo indi un quarto d'improvviso i vetri si aprirono e Sandokan alla azzurra luce dell'astro notturno scorse una forma bianca che riconobbe subito Marianna sibilò alzando le braccia verso la giovanetta che si era curvata sull'inferriata quell'uomo così energico così forte vacillò come se avesse ricevuto una palla in mezzo al petto e rimase lì come trasognato con gli occhi sbarrati pallido tremante un leggero grido irruppe dal petto della giovane lady che aveva subito riconosciuto il pirata andiamo Sandokan disse Yanez salutando galantemente la giovanetta raggiungi la finestra ma spicciati che qui non tira buon vento per noi Sandokan si slanciò verso la palazzina si arrampicò sul pergolato e si aggrappò ai ferri della finestra tu tu esclamò la giovinetta a pazza di gioia grandio Marianna oh mia adorata fanciulla mormorò egli con voce soffocata coprendole le mani di baci finalmente ti rivedo tu sei mia è vero mia ancora mia si tu a Sandokan in vita e in morte rispose la vaga lady vederti ancora dopo d'averti pianto per morto è troppa gioia amor mio mi credevi adunque spento si ho sofferto assai immensamente credendoti perduto per sempre no diletta Marianna non muore così presto la tigre della Malesia sono passato senza essere ferito in mezzo al fuoco dei tuoi compatrioti ho attraversato il mare ho fatto appella ai miei uomini e sono tornato qui alla testa di cento tigri pronto a tutto per salvarti Sandokan Sandokan ascolta ora perla di Labuan rispose il pirata è qui il lord si e mi tiene prigioniera temendo la tua ricomparsa ho veduto dei soldati si e ve ne sono molti che vegliano di e notte nelle stanze inferiori sono circondato dappertutto chiusa fra le baionette e le inferriate nell'assoluta impossibilità di fare un passo all'aperto mio prode amico temo di non poter mai diventare tua moglie di non poter mai essere felice perché mio zio che ora mi odia non acconsentirà mai ad imparentarsi con la tigre della Malesia e tutto farà per allontanarci per frapporre fra me e te e l'immensità dell'oceano e l'immensità dei continenti due lacrime due perle caddero dai suoi occhi tu piangi esclamò questi con istrazio amor mio non piangere o io divento pazzo e commetto qualche follia odimi Marianna i miei uomini non sono lontani oggi sono pochi ma domani o postdomani saranno molti e tu sai quali uomini sono i miei per quanto il lord barricchi la villa noi entreremo dovessimo incendiarla a rovesciare le muraglie io sono la tigre e per te mi sento capace di mettere a ferro e fuoco non la villa di tuo zio ma la buona intera vuoi che io ti rapisca questa notte non siamo che due ma se vuoi noi infrangeremo i ferri che ti tengono prigioniera dovessimo pagare con la nostra vita la tua libertà parla parla Marianna che il mio affetto per te mi rende pazzo e mi infonde tanta forza da espugnare da solo questa villa no no esclamò ella no mio valoroso morto tu cosa sarebbe di me credi tu che io ti sopravvivrei ho fiducia in te sì tu mi salverai ma quando saranno giunti i tuoi uomini quando tu sarai forte potente tanto da schiacciare gli uomini che mi tengono prigioniera o da rompere le sbarre che mi rinchiudono in quell'istante si udì sotto il pergolato un leggero fischio Marianna trasalì hai udito chiese sì rispose Sandokan è Yanez che si impazienta forse ascolto un pericolo Sandokan nelle ombre della notte forse si c'era qualche cosa di grave per te o mio prode amico grandio l'ora della separazione è giunta Marianna se non ci vedessimo più mai non dirlo amor mio poiché dovunque avessero a portarti io saprei raggiungerti ma intanto si tratta di poche ore mia diletta domani forse i miei uomini giungeranno e sfonderemo queste muraglie il fischio del portoghese sudì un'altra volta parti mio nobile amico disse Marianna tu corri forse dei grandi pericoli ah io non li temo parti Sandokan ti prego prima che ci sorprendano lasciarti non so decidermi ad abbandonarti perché non ho condotto i miei uomini qui avrei potuto assalire improvvisamente questa casa e rapirti ma fuggi Sandokan ho udito un passo nel corridoio Marianna in quel momento nella stanza ekeggiò un urlo feroce miserabile suonò una voce il lord poiché era proprio lui afferrò Marianna per le spalle cercando di staccarla dai ferri mentre si udivano le vari chiavistelli alla porta del pianterreno fuggi gridò Yanez fuggi Sandokan ripetè Marianna non vi era un solo momento da perdere Sandokan che ormai si vedeva perduto se non fuggiva con un salto immenso attraversò il pergolato precipitandosi nel giardino due pirati in una stufa ogni altro uomo che non fosse stato un malese si sarebbe senza dubbio rotto le gambe in quel salto ma non così accadde a Sandokan che oltre ad essere solido come l'acciaio possedeva un'agilità da quadrumane aveva appena toccato terra sprofondando in mezzo ad una aiuola che era di già in piedi col crisi in pugno pronto a difendersi il portoghese fortunatamente era già lì gli saltò addosso e afferratolo per le spalle lo spinse bruscamente verso un gruppo d'alberi dicendogli ma fuggi disgraziato vuoi farti fucilare lasciami Yanez disse il pirata che era in preda ad una vive esaltazione assaltiamo la villa tre o quattro soldati apparvero ad una finestra prendendoli di mira con i fucili salvati Sandokan si udì a gridare Mariana il pirata fece un salto di dieci passi salutato da una scarica di fucili e una palla gli attraversò il turbante si voltò ruggendo come una fiera e scaricò la sua carabina contro una finestra frantumando i vetri e colpendo in fronte un soldato vieni gridò Yanez trascinandolo verso la palizzata vieni testardo imprudente la porta della palazzina era si aperta e dieci soldati seguiti da altrettanti indigeni armati di torce si slanciarono all'aperto il portoghese fece fuoco attraverso il fogliame il sergente che comandava la piccola squadra cadde gioca di gambe fratellino mio disse Yanez mentre i soldati si erano fermati attorno al loro capo non so decidermi a lasciarla sola disse Sandokan a cui la passione sconvolgeva il cervello ti ha detto di fuggire vieni o io ti porto due soldati comparvera soli trenta passi e dietro a loro un trappello numeroso i due pirati non esitarono più si cacciarono in mezzo ai cespugli e alle aiuole e si misero a correre verso la cinta salutati da alcuni colpi di fucile sparati a casaccio filadritto fratellino mio disse il portoghese che caricava la carabina sempre però correndo domani restituiremo a quei messeri le fucilate che ci hanno sparato dietro temo di aver rovinato tutto Yanez disse il pirata con voce triste perché amico mio ora che sanno che io sono qui non si lasceranno più sorprendere non dico di no ma se i praos sono giunti avremo cento tigri da lanciare all'assalto chi resisterà a simile carica ho paura del lord cosa vuoi che faccia è un uomo capace di ammazzare sua nipote piuttosto di lasciarla cadere nelle mie mani diavolo esclamò Yanez grattandosi furiosamente la fronte non avevo pensato a questo stava per fermarsi onde riprendere lena e trovare una soluzione a quel problema quando in mezzo alla profonda oscurità vide correre dei riflessi rossastri gli inglesi esclamò hanno trovate le nostre tracce e ci inseguono attraverso il parco via di trotto sandokan tutti e due partirono correndo inoltrandosi sempre più nel parco onde giungere alla cinta di passo in passo però che si allontanavano la marcia diventava sempre più difficile dappertutto alberi grandissimi lisci gli uni e dritti nudosi e contorti gli altri si argevano senza lasciare quasi passaggi essendo però uomini che sapevano orizzontarsi anche per istinto erano certi di giungere in breve alla cinta infatti attraversata la parte boscosa del parco si ritrovarono sui terreni coltivati passarono senza arrestarsi dinanzi al chiosco cinese essendo tornati indietro per non smarrirsi fra quelle gigantesche piante si cacciarono nuovamente in mezzo alle aiuole e correndo attraverso i fiori giunsero finalmente presso la cinta senza essere stati scoperti dai soldati che perlustravano già tutto il parco adagio sandokan disse Yanez trattenendo il compagno il quale stava per slanciarsi verso la palizzata gli spari possono aver attirati i soldati che abbiamo veduti partire dopo il tramonto sarebbero già entrati nel parco eh taci accovacciati qui vicino ed ascolta sanno che han tese le orecchie ma non ho di altro che lo stormire delle foglie hai veduto qualcuno chiese ho udito un ramo spezzarsi dietro la palizzata può essere stato qualche animale e possono essere stati i soldati vuoi che ti dica di più mi è sembrato di aver udito delle persone chiacchierare scommetterei il diamante del mio Chris contro una piastra che dietro a questa palizzata vi sono delle giacche rosse imboscate non ti ricordi il trappello che ha lasciato il parco sì Yanez noi però non ci fermeremo nel parco cosa vuoi fare assicurarmi se la via è libera sandokan diventato ora assai più prudente si alzò senza far rumore e dopo di aver lanciato un rapido sguardo sotto gli alberi del parco si arrampicò con la leggerezza ad un gatto sulla palizzata aveva appena raggiunta la cima quando udì dall'altra parte voci sommesse Yanez non si era ingannato mormorò si curvò innanzi e guardò sotto gli alberi che crescevano dall'altra parte della cinta quantunque l'oscurità fosse profonda scorse vagamente delle ombre umane radunate presso il tronco di una colossale casuarina si affrettò a scendere e raggiunse Yanez il quale non si era mosso tu avevi ragione gli disse al di là della cinta vi sono degli uomini in acquato sono molti mi parevano una mezza dozzina per Giove cosa fare Yanez allontanarci subito e cercare altrove una via di scampo temo che sia troppo tardi povera Marianna forse ci crederà già persi e forse uccisi non pensiamo alla fanciulla per ora siamo noi che corriamo un grave pericolo andiamocene taci Sandokan al di là della cinta odo parlare infatti si udivano delle voci una rauca e l'altra imperiosa che parlavano presso la palizzata il vento che soffiava dalla foresta le portava distintamente agli orecchi dei due pirati ti dico diceva la voce imperiosa che i pirati sono entrati nel parco per tentare un colpo di mano sulla villa non credo sergente Bell rispose l'altra vuoi stupido che i nostri camerati sparino delle cartucce per divertimento tu hai un cervello vuoto Willis allora non potranno sfuggirci lo spero siamo in 36 e possiamo vegliare tutta la cinta e radunarci al primo segnale su Lesti distendetevi e aprite bene gli occhi forse abbiamo da fare con la tigre della Malesia dopo quelle parole si udirono dei rami spezzarsi e delle foglie a scrosciare poi più nulla quei bricconi sono cresciuti ben di numero mormorò Yannet scurvandosi verso Sandokan noi stiamo per venire circondati fratellino mio e se non agiamo con somma prudenza cadremo nella rete che ci hanno tesa taci disse la tigre della Malesia odo a parlare la voce imperiosa aveva ripreso allora tu Bob rimarrai qui mentre io vado ad imboscarmi dietro a quell'albero della canfora tieni il fucile armato e gli occhi fissi sulla cinta non temete sergente rispose colui che era stato chiamato Bob credete che abbiamo proprio a che fare con la tigre della Malesia quella audace pirata si è pazzamente innamorato della nipote di Lord Gillong un bocconcino destinato al baronetto Rosenthal e puoi immaginarti se quell'uomo rimarrà tranquillo io sono sicurissimo che questa notte ho tentato di rapirla malgrado la sorveglianza dei nostri soldati e come ha fatto a sbarcare senza che sia stato veduto dai nostri incrociatori avrà approfittato dell'uragan si dice anzi che dei prajos siano stati veduti a veleggiare a largo della nostra isola quale audacia ah ne vedremo ben altre la tigre della Malesia ci darà da fare te lo dico io Bob è l'uomo più audace che io abbia conosciuto ma questa volta non ci sfuggirà se si trova nel parco non uscirà così facilmente basta al tuo posto Bob tre carabine ogni cento metri possono essere sufficienti ad arrestare la tigre della Malesia e di suoi compagni non scordarti che ci sono mille sterline da guadagnare se noi riusciamo ad uccidere il pirata una bella cifra in fede mia disse Yanez sorridendo lord james divaluta molto fratellino mio aspettino di guadagnarle rispose Sandokan si alzò e guardò verso il parco in lontananza vide dei punti luminosi apparire e scomparire fra le aiuole i soldati della villa avevano perdute le tracce dei fuggiaschi e cercavano a casaccio aspettando probabilmente l'alba per intraprendere una vera battuta per ora non abbiamo nulla da temere da parte di quegli uomini disse vuoi che cerchiamo di fuggire da qualche altra parte disse Yanez il parco è vasto e forse tutta la cinta non è sorvegliata no amico se ci scorgono avremo alle spalle una quarantina di soldati e non potremo così facilmente sfuggire ai loro colpi ci conviene per ora nasconderci nel parco e dove? vieni con me Yanez ne vedrai delle belle tu mi hai detto di non commettere pazzie ed io voglio mostrarti se sarò prudente se mi uccidessero la mia fanciulla non sopravviverebbe alla mia morte dunque non tentiamo un passo disperato e non ci scopriranno i soldati non lo credo d'altronde noi non ci fermeremo molto qui domani sera accada quel che si vuole noi prenderemo il volo vieni Yanez ti condurrò in un luogo sicuro i due pirati si alzarono mettendosi le carabine sotto il braccio e si allontanarono dalla cinta tenendosi nascosti in mezzo alle aiuole Sandokan fece attraversare al compagno una parte del parco e lo condusse in un piccolo fabbricato ad un solo piano che serviva da serra per i fiori e che sorgeva circa a 500 passi dalla palazzina di Lord Gillong aprì senza far rumore la porta e si avanzò a tentoni dove andiamo? chiese Yanez accenni un pezzo d'esca rispose Sandokan non scorgeranno la luce dal di fuori non vi è pericolo questo fabbricato è circondato da piante foltissime Yanez obbedì quella stanza era piena di grandi vasi contenenti delle piante esalanti acuti profumi essendo ormai quasi tutte in fiore ed ingombra di sedie e di tavolini di bambù d'estrema leggerezza all'estremità opposta il portoghese vide una stufa di dimensioni gigantesche capace di contenere una mezza dozzina di persone è qui che ci nasconderemo chiese a Sandokan il luogo non mi sembra poi tanto sicuro i soldati non mancheranno di venire ad esplorarlo specialmente con quel migliaio di sterline che Lord James ha promesso per la tua cattura non ti dico che non vengano e allora ci prenderanno ad agio amico Yanez vuoi dire che non verrà a loro l'idea di andarci a cercare entro una stufa Yanez non seppe frenare uno scoppio di risa in quella stufa esclamò sì ci nasconderemo là dentro diventeremo più neri degli africani fratello mio la foligine non deve scarseggiare in quel monumentale calorifero ci la vedremo più tardi Yanez ma Sandokan se non vuoi venire spicciatela tu con gli inglesi non v'è da scegliere Yanez o nella stufa o farsi prendere non si può esitare sulla scelta disse Yanez ridendo andiamo intanto a visitare il nostro domicilio per vedere se è almeno comodo aprì lo sportello di ferro accese un altro pezzo d'esca e si cacciò risolutamente nell'immensa stufa starnutendo sonoramente Sandokan l'aveva seguito senza esitare posto venera a sufficienza ma vi era anche grande abbondanza di cenere e di foligine il forno era così alto che i due pirati potevano mantenersi comodamente diritti il portoghese a cui l'umore allegro non faceva mai difetto si abbandonò ad un'ilarità clamorosa nonostante la pericolosa situazione chi mai potrà immaginarsi che la terribile tigre della Malesi è venuta a rifugiarsi qui disse per giove sono sicuro che noi la passeremo liscia non parlare così forte amico disse Sandokan potrebbero udirci ah devono essere ancora lontani non quanto credi prima di entrare nella serra ho veduto due uomini visitare le aiuole a poche centinaia di passi da noi che vengano a visitare anche questo luogo ne sono certo diavolo se volessero vedere anche la stufa non ci faremo prendere tanto facilmente Yanez abbiamo le nostre armi quindi possiamo sostenere un assedio e nemmeno un biscotto Sandokan spero che non ti accontenterai di mangiare della fuligine e poi le pareti della nostra fortezza non mi sembrano molto solide con un buon colpo di spalla si possono diroccare prima che atterrino le pareti ci slanceremo noi all'attacco disse Sandokan che aveva come sempre un'immensa fiducia nella propria audacia e nel proprio valore bisognerebbe però procurarci dei viveri ne troveremo Yanez ho veduto dei banani e dei pombo crescere intorno a questa serra e noi andremo a saccheggiarli quando? taci odo delle voci mi fai venire i brividi tieni pronta la carabina e non temere ascolta al di fuori si udivano delle persone a parlare e ad avvicinarsi le foglie scrosciavano e i sassolini del viale che conduceva alla serra stridevano sotto i piedi dei soldati Sandokan fece spegnere l'esca disse a Yanez di non muoversi poi aprì con precauzione lo sportello di ferro e guardò fuori la serra era ancora tutta oscura però attraverso i vetri vide alcune torce a brillare in mezzo ai macchioni di banani che crescevano lungo il viale guardando con maggiore attenzione scorse cinque o sei soldati preceduti da due negri che si preparino a visitare la serra si chiese con una certa ansietà rinchiuse con precauzione lo sportello e raggiunse Yanez nel momento che uno sprazzo di luce illuminava all'interno del piccolo edificio vengono disse al compagno il quale non osava quasi più respirare teniamoci pronti a tutto anche a slanciarci contro quegli importuni è montata la tua carabina ho già il dito sul grilletto benissimo sguaina anche il Chris il drappello entrava allora nella serra illuminandola completamente Sandokan che si teneva presso lo sportello vide i soldati smuovere i vasi e le sedie visitando tutti gli angoli dello stanzone malgrado il suo immenso coraggio non seppe reprimere un fremito se gli inglesi rovistavano in quel modo era probabile che non sfuggisse ai loro occhi l'ampiezza della stufa era quindi da aspettarsi da un momento all'altro la loro poco gradita visita Sandokan si affrettò a raggiungere Yanez il quale si era accovacciato in fondo semituffato nelle ceneri e nella fuligine non muoverti gli sussurrò Sandokan forse non ci scopriranno taci disse Yanez ascolta una voce diceva che quel dannato pirata abbia proprio preso il volo o che si sia inabissato sottoterra disse un altro soldato ah quell'uomo è capace di tutto amici miei disse un terzo se vi dico che quel sacripante non è un uomo come noi ma un figlio di compare Belzebù io non sono di parere contrario Varrez rispose la prima voce con un certo tremito che indicava come il suo proprietario avesse indosso una buona dose di paura non l'ho veduto che una sola volta quell'uomo tremendo e mi è bastato non era un uomo ma una vera tigre e vi dico che ha avuto il coraggio di scagliarsi contro 50 uomini senza che una palla potesse coglierlo tu mi fai paura Bob disse un altro soldato e a chi non farebbe paura riprese colui che si chiamava Bob io credo che nemmeno Lord Gillong si sentirebbe l'animo di affrontare quel figlio dell'inferno comunque sia noi cercheremo di prenderlo è impossibile che ormai ci sfugga il parco è tutto circondato e se vorrà scalare la cinta vi lascerà le ossa scommetterei due mesi della mia paga contro due penni che noi lo cattureremo gli spiriti non si prendono tu sei pazzo Bob a crederlo un essere infernale forse che i marinai dell'incrociatore che sconfissero i due prahos alla foce del fiumicello non gli hanno cacciato una palla nel petto Lord Gillong che ebbe la sventura di curare la ferita asserì che la tigre è un uomo come noi e che dal suo corpo usciva sangue uguale al nostro ora tu ammetti che gli spiriti abbiano del sangue no allora quel pirata non è altro che un briccone molto audace molto valoroso ma sempre un furfante degno del capestro canaglia mormoro Sandokan se non mi trovassi qui dentro ti farei vedere chi sono io orsu riprese la voce di prima cerchiamolo o perderemo le mille sterline che Lord James Gillong ci ha promesso qui non vi è andiamo a cercarlo altrove adagio Bob vedo là una stufa monumentale capace di servire di rifugio a parecchie persone mano alle carabine e andiamo a vedere puoi burlarti di noi camerata disse un soldato chi vuoi che si vada a nascondere là dentro non vi starebbero là dentro nemmeno i pigmei del re d'Abissinia andiamo a visitarla vi dico Sandokan e Janez si ritrassero più che poterono all'estremità opposta della stufa e si sdraiarono fra la cenere e la fuligine per meglio sfuggire agli sguardi di quei curiosi un istante dopo lo sportello di ferro veniva aperto e una striscia di luce si proiettava nell'interno insufficiente però per illuminare l'intera stufa un soldato introdusse il capo ma subito lo ritrasse starnutendo sonoramente una manata di fuligine lanciatagli sul viso da Sandokan l'aveva reso più nero d'uno spazzacamino e l'aveva mezzo accecato al diavolo che ha avuto l'idea di farmi mettere il naso entro questo magazzino di nero fumo esclamò l'inglese era ridicola disse un altro soldato noi perdiamo qui del tempo prezioso senza nessun risultato la tigre della Malesia deve trovarsi nel parco e forse a quest'ora cerca di superare la cinta affrettiamoci ad uscire dissero tutti non sarà qui che noi guadagneremo le mille sterline promesse dal lord i soldati batterono precipitosamente in ritirata chiudendo con fracasso la porta della serra per alcuni istanti si udirono i loro passi e le loro voci poi più nulla il portoghese quando non udì più nulla respirò a lungo corpo di centomila spingarde esclamò mi pare d'essere vissuto cento anni in soli pochi minuti io ormai non davo una piastra della nostra pelle per poco che quel soldato si fosse allungato ci scopriva tutti o due si potrebbe accendere un cero alla madonna del pilar non nego che il momento sia stato terribile rispose Sandokan quando ho veduto a soli pochi palmi da me quella testa ho veduto rosso dinanzi ai miei occhi e non so chi mi abbia trattenuto dal far fuoco che brutto affare sarebbe stato ora però non avremo più nulla da temere continueranno le loro ricerche nel parco poi finiranno col persuadersi che noi qua non ci siamo più e quando ce ne andremo non avrai certamente l'idea di rimanere qui qualche settimana pensa che i praos possono ormai essere già giunti alla foce del fiumicello non ho alcuna intenzione di fermarmi qui tanto più che i viveri non abbonderanno aspettiamo che la sorveglianza degli inglesi si rallenti un po' e vedrai che prenderemo il volo anch'io ho vivissimo desiderio di sapere se i nostri uomini sono giunti poiché senza il loro concorso non sarà possibile rapire la mia Marianna Sandokan mio andiamo a vedere se vi è qualche cosa da porre sotto i denti o da bagnare la gola usciamo Janetz il portoghese che si sentiva soffocare entro quella stufa foliginosa spinse innanzi la carabina poi strisciò fino allo sportello saltando lestamente su di un vaso che era vicino onde non lasciare sul suolo tracce della foligine Sandokan imitò quella prudente manovra e balzando di vaso in vaso giunsero alla porta della serra si vede nessuno chiese tutto è oscuro all'esterno allora andiamo a saccheggiare i banani si spinsero fino ai macchioni che crescevano lungo il viale e trovati alcuni banani e dei pombo fecero un'ampia provvista onde calmare gli stiracchiamenti dello stomaco e gli ardori della sete stavano per ritornare nella serra quando Sandokan si arrestò dicendo aspettami qui Janetz voglio andare a vedere dove sono i soldati è un'imprudenza quella che vuoi commettere rispose il portoghese lascia che cerchino dove vogliono cosa importa ormai a noi ho un progetto in testa dà al diavolo il tuo piano per questa notte nulla si può fare chi lo sa rispose Sandokan forse noi possiamo andarcene senza aspettare il domani d'altronde la mia assenza sarà breve forse a Janetz la carabina afferrò il Chris e si allontanò silenziosamente tenendosi sotto la fosca ombra dei macchioni giunto presso l'ultimo gruppo di banani scorse a grande distanza alcune torce che si dirigevano verso la cinta pare che si allontanino mormorò vediamo cosa succede nella palazzina di Lord James ah se potessi vedere sia pure per un istante la mia fanciulla me ne andrei di qui più tranquillo soffocò un sospiro e si diresse verso il viale procurando di tenersi al riparo dei tronchi degli alberi e dei cespugli giunto in vista della palazzina si fermò sotto una macchia di manghi e guardò il suo cuore sussultò vedendo la finestra di Marianna illuminata ah se potessi rapirla mormorò fissando ardentemente il lume che brillava attraverso l'inferriata fece ancora tre o quattro passi tenendosi curvo al suolo onde non farsi scoprire da qualche soldato che poteva trovarsi imboscato in quei dintorni poi si arrestò nuovamente aveva scorto un'ombra a passare dinanzi al lume e le era sembrata quella della fanciulla amata stava per slanciarsi innanzi quando abbassando gli sguardi vide una forma umana ferma dinanzi alla porta della palazzina era una sentinella che stava appoggiata alla sua carabina che mi abbia scorto chiese la sua esitazione durò solo un istante aveva ancora veduto l'ombra della fanciulla ripassare dietro l'inferriata senza badare al pericolo si slanciò innanzi aveva fatti appena dieci passi quando vide la sentinella imbracciare rapidamente la carabina chi vive gridò Sandokan si era arrestato il fantasma delle giacche rosse la partita ormai era irrimediabilmente perduta anzi minacciava di diventare seriamente pericolosa per il pirata e per il suo compagno non era da presumersi che la sentinella stante l'oscurità e la distanza avesse potuto scorgere distintamente il pirata che era sì prontamente nascosto dietro un cespuglio però poteva abbandonare il posto e andarlo a scovare o chiamare altri compagni Sandokan comprese subito che stava per esporsi ad un grande pericolo perciò invece di avanzare rimase immobile dietro a quel riparo la sentinella ripete l'intimazione poi non ricevendo alcuna risposta fece qualche passo innanzi piegandosi a destra e a sinistra per meglio accertarsi cosa si nascondeva dietro al cespuglio poi ritenendo forse di essersi ingannato tornò verso la palazzina mettendosi a guardia dell'entrata Sandokan quantunque si sentisse indosso vivissimo il desiderio di compiere la sua temeraria impresa si mise ad indietreggiare lentamente con mille precauzioni passando da un tronco all'altro e strisciando dietro i cespugli senza staccare gli sguardi dal soldato il quale teneva sempre il fucile in mano pronto a scaricarlo giunto in mezzo alle aiuole affrettò il passo e si cacciò nella serra dove il portoghese lo aspettava in preda a mille ansie cos'hai veduto? gli chiese Yanez io ho tremato per te nulla di buono per noi rispose Sandokan con sorda collera la palazzina è guardata da sentinelle e il parco è percorso in tutti i sensi da numerosi soldati questa notte noi non potremo tentare assolutamente nulla approfitteremo per schiacciare un sonnellino qui non torneranno più di certo a disturbarci chi può assicurarlo? vuoi farmi venire la febbre Sandokan? qualche altro drappello può passare in queste vicinanze e fare una nuova esplorazione mi pare che la vada male per noi fratellino mio se la tua fanciulla potesse trarci da questa cattiva situazione povera Marianna chissà come sarà sorvegliata e chissà come soffrirà non avendo nostre nuove darei cento gocce del mio sangue per dirle che noi siamo ancora vivi si trova in condizioni ben migliori di noi fratellino mio non darti pensiero per lei ora poiché approfittiamo di questo momento di sosta per dormire qualche ora un po' di riposo ci farà bene sì ma con un occhio aperto vorrei dormire con tutti e due gli occhi aperti orsù sdraiamoci dietro a questi vasi e cerchiamo di dormire il portoghese e il suo compagno quantunque non si sentissero completamente tranquilli si accomodarono alla meglio in mezzo ai rosai di Cina cercando di gustare un po' di riposo malgrado tutta la loro buona volontà non furono capaci di chiudere gli occhi la tema di veder comparire ancora i soldati di Lord James li tenne costantemente svegliati anzi parecchie volte per calmare la loro crescente ansietà si alzarono e uscirono dalla serra per vedere se i loro nemici si avvicinavano quando spuntò all'alba gli inglesi rovistavano ancora il parco con maggior accanimento frugando i macchioni di bambù e di banani i cespugli e le aiuole pareva che fossero sicuri di scovare presto o tardi i due audaci pirati che avevano commessa l'imprudenza di superare le cinte del parco Yanez e Sandokan vedendoli lontani approfittarono per saccheggiare una pianta di aranci che produceva delle frutta grosse come la testa di un bambino e assai succulente conosciute dai malesi col nome di Buakanangza poi tornarono a nascondersi nella stufa dopo ad aver avuto la precauzione di cancellare accuratamente le tracce di fuligine lasciate sul suolo quantunque la serra fosse stata ormai perlustrata gli inglesi potevano ritornarvi per meglio assicurarsi alla luce del giorno che non si nascondevano colà i due audaci pirati Sandokan e Yanez divorata la loro magra colazione accesero le sigarette e si accomodarono fra la cenere e la fuligine aspettando che la notte tornasse a calare per tentare la fuga si trovavano colà da parecchie ore quando Yanez parve udire al di fuori dei passi entrambi si alzarono tenendo in pugno i Cris che ritornino si chiese il portoghese e ti sia ingannato disse Sandokan no qualcuno è passato per il viale se fossi certo che si trattasse di un solo uomo uscirei per farlo prigioniero sei pazzo Sandokan da lui potremmo sapere dove si trovano i soldati e da quale parte potremmo passare sono certo che ci ingannerebbe non lo sarebbe con noi Yanez vuoi che andiamo a vedere non fidarti Sandokan pure qualcosa bisogna tentare amico mio lascia che esca io e dovrò io rimanermene qui inoperoso se vi sarà bisogno d'aiuto ti chiamerò ho di più nulla va pure Yanez io mi terrò pronto a slanciarmi fuori Yanez stette prima alcuni istanti in ascolto poi attraversò la serra e uscì all'aperto guardando attentamente sotto i macchioni dei banani stando nascosti in mezzo ad un cespuglio vede ancora alcuni soldati che battevano svogliatamente però le aiuole del parco gli altri dovevano ormai essersi spinti fuori della cinta avendo perduta la speranza di ritrovare i due pirati nei pressi della villa speriamo disse Yanez se entro oggi non ci trovano si persuaderanno forse che noi siamo riusciti a prendere il largo malgrado la loro sorveglianza se tutto va bene questa sera potremo lasciare il nostro nascondiglio e gettarci nella foresta stava per ritornare quando girando gli sguardi verso la palazzina vide un soldato avanzarsi sul viale che conduceva alla serra che mi abbia scorto si chiese ansiosamente si gettò in mezzo ai banani e tenendosi nascosto dietro a quelle gigantesche foglie raggiunse prontamente Sandokan questi vedendolo col viso sconvolto si immaginò subito che qualcosa di grave doveva essere accaduto sei inseguito forse gli chiese temo che mi abbiano veduto rispose Yanez un soldato si dirige verso il nostro rifugio un soldato? si solo ecco l'uomo che mi occorre che vuoi dire? sono lontani gli altri stanno presso la cinta allora lo prenderemo chi? domandò Yanez con il spavento il soldato che si dirige a questa volta ma tu puoi perderci Sandokan quest'uomo mi è necessario presto seguimi Yanez voleva protestare ma già Sandokan si trovava fuori dalla serra di buona o cattiva voglia fu quindi costretto a seguirlo onde impedirgli almeno di commettere qualche grossa imprudenza il soldato che Yanez aveva scorto non distava più di 200 passi era un giovanotto mingerlino pallido coi capelli rossi e ancora in berbe probabilmente un soldato novellino si avanzava con non curanza fischiando fra i denti e tenendo il fucile ad armacollo certamente non si era nemmeno avveduto della presenza di Yanez poiché diversamente avrebbe impugnato l'arma e non si sarebbe avanzato senza prendere qualche precauzione o chiamare in suo soccorso qualche camerata la sua cattura sarà facile disse Sandokan corvandosi verso Yanez che l'aveva già raggiunto teniamoci nascosti in mezzo a questo macchione di banani e appena quel giovanotto sarà passato gli piomberemo alle spalle prepara un fazzoletto per imbavagliarlo sono pronto disse Yanez ma ti dico che tu commetti un'imprudenza l'uomo non potrà opporre molta resistenza e se manda un grido non ne avrà il tempo eccolo il soldato aveva già oltrepassato il macchione senza essersi accorto di nulla Yanez e Sandokan di comune accordo gli piombarono alle spalle con un solo slancio mentre la tigre lo afferrava pel collo il portoghese gli gettava il bavaglio alla bocca quantunque quell'attacco fosse stato fulmineo il giovanotto ebbe ancora il tempo di mandare un urlo acuto presto Yanez disse Sandokan il portoghese prese tra le braccia il prigioniero e lo trasportò rapidamente nella stufa Sandokan dopo pochi istanti lo raggiunse era assai inquieto perché non aveva avuto il tempo di raccogliere la carabina del prigioniero avendo scorto due soldati slanciarsi verso il viale siamo minacciati Yanez disse cacciandosi frettolosamente nella stufa si sono accorti che abbiamo rapito il soldato chiese Yanez impallidendo devono aver udito il grido allora siamo perduti non ancora però se vedranno a terra alla carabina del loro camerata verranno di certo qui a cercare non perdiamo tempo fratellino mio usciamo di qui e corriamo verso la cinta ci fucileranno prima di aver percorso 50 passi restiamo qui nella stufa e aspettiamo con calma gli avvenimenti d'altronde siamo armati e decisi a tutto mi pare che vengano non spaventarti Yanez il portoghese non si era ingannato alcuni soldati erano già giunti presso la serra e commentavano la misteriosa sparizione del loro camerata se ha lasciato qui l'arma vuol dire che qualcuno l'ha sorpreso è portato via diceva un soldato mi sembra impossibile che i pirati si trovino ancora qui e che abbiano avuto tanta audacia da tentare un simile colpo diceva un altro che Barry abbia voluto burlarsi di noi non mi pare che sia il momento di scherzare pure non sono convinto che gli sia toccato una disgrazia ed io vi dico che è stato assalito dai due pirati disse una voce nasale dalla pronuncia scozzese chi ha veduto quei due uomini barcare la palizzata e dove vuoi che si siano nascosti abbiamo visitato tutto il parco senza trovare le loro tracce che quei furfanti siano veramente due spiriti infernali da potersi nascondere sotto terra o nel tronco degli alberi oe Barry gridò una voce tuonante lascia gli scherzi briccone o ti faccio frustare come un marinaio naturalmente nessuno rispose il giovanotto ne avrebbe avuto ben voglia ma imbavagliato come si trovava e per di più minacciato dai cristi sandokane di janez non poteva assolutamente farlo quel silenzio confermò maggiormente nei soldati il sospetto che a loro camerata fosse toccata una disgrazia orso cosa facciamo disse lo scozzese cerchiamoli amici disse un altro abbiamo già frugati i macchioni entriamo nella serra disse un terzo i due pirati odendo quelle parole si sentirono invadere da una viva inquietudine cosa facciamo chiese janez ammazziamo prima di tutto il prigioniero disse sandokane risolutamente il sangue ci tradirebbe credo d'altronde che questo povero giovanotto sia mezzo morto dallo spavento e che non possa nuocere sia pure lasciamogli la vita tu mettiti presso lo sportello e fracassa il cranio al primo soldato che tenta di entrare e tu preparerò una bella sorpresa alle giacche rosse janez prese la carabina larmò e si sdraiò fra la cenere sandokane si curvò verso il prigioniero dicendogli vada che se tu cerchi di mandare un solo grido ti pianto il mio pugnale nella gola e ti avverto che la punta è stata avvelenata col succo mortale del lupas se vuoi vivere non devi fare un gesto ciò detto si alzò ed urtò le pareti della stufa in diversi luoghi sarà una splendida sorpresa disse aspettiamo il momento opportuno per mostrarci intanto i soldati erano entrati nella serra e rimuovevano con rabbia i vasi imprecando contro la tigre della malesia e anche contro il loro camerata non trovando nulla fissarono i loro sguardi sulla stufa per mille cannoni esclamò lo scozzese che il nostro camerata sia stato assassinato e poi nascosto là dentro andiamo a vedere disse un altro ad agio compagni disse un terzo la stufa è abbastanza ampia per nascondere più di un uomo Sandokan si era allora appoggiato contro le pareti pronto a dare un urto tremendo Yanez disse preparati a seguirmi sono pronto Sandokan udendo aprirsi lo sportello si allontanò di qualche passo e poi si scagliò sudì un sordo screpolio poi la parete sfondata da quella scossa poderosa cedette la tigre gridarono i soldati gettandosi a destra e a manca fra il rovinare dei mattoni era improvvisamente apparso Sandokan con la carabina in pugno e il Chris fra i denti sparò sul primo soldato che si vide dinanzi poi si scagliò con impeto irresistibile addosso agli altri atterrandone ancora due quindi attraversò la serra seguito da Yanez attraverso le foreste lo spavento provato dai soldati nel vedersi comparire dinanzi il formidabile pirata era stato tale che subito nessuno aveva pensato a far uso delle proprie armi quando rimessisi dalla sorpresa vollero riprendere l'offensiva era ormai troppo tardi i due pirati senza badare agli squilli di tromba che partivano dalla villa e ai colpi di fucile dei soldati sparsi nel parco colpi sparati a casaccio non sapendo ancora quegli uomini di cosa si trattava erano già in mezzo alle aiuole e ai macchioni di cespugli in due minuti Yanez e Sandokan trottando furiosamente giunsero in mezzo ai grandi alberi tirarono il fiato e si guardarono intorno i soldati che avevano cercato di bloccarli nella stufa si erano slanciati fuori dalla serra urlando a squarciagora e facendo fuoco in mezzo agli alberi quelli della villa comprendendo finalmente che si trattava di qualche cosa di grave e forse sospettando che i loro compagni avessero scovata la formidabile tigre della Malesia correvano attraverso il parco per giungere alle palizzate troppo tardi miei cari disse Yanez noi giungeremo prima via di corsa disse Sandokan non lasciamoci tagliare la strada le mie gambe sono pronte ripartirono entrambi con egualena tenendosi celati in mezzo agli alberi e giunti alla cinta in due slanci la varcarono lasciandosi cadere dall'altra parte nessuno chiese Sandokan non si vede anima viva gettiamoci nel bosco faremo perdere loro le nostre tracce la foresta non era che a due passi entrambi vi si cacciarono dentro correndo a perdifiato di passo in passo che si allontanavano la marcia diventava difficilissima dappertutto sorgevano fitti cespugli stretti incassati fra alberi enormi che lanciavano i loro grossi e nodosi fusti a delle altezze straordinarie e dappertutto strisciavano intrecciandosi come boa mostruosi miriadi di radici dall'alto poi scendevano per risalire aggrappandosi ai tronchi e ai rami dei grandi vegetali i calamus i rotang i gambir delle vere reti che resistevano tenacemente a tutti gli sforzi sfidando perfino le lame dei coltelli mentre più sotto il piper nigrum dal prezioso granello formava degli ammassi tali da rendere vano qualsiasi tentativo di passaggio a destra a sinistra dinanzi e di dietro si slanciavano in alto durion dai fusti dritti lucidi carichi di frutta già quasi mature proiettili eccessivamente pericolosi essendo rivestiti da punte durissime come fossero di ferro o gruppi immensi di banani dalle foglie smisurate o di betel o di arenghe saccarifere dalle piume eleganti o di aranci portanti frutta grosse come la testa di un bambino i due pirati perduti in mezzo a quella fitta foresta che poteva chiamarsi veramente vergine si trovarono ben presto nell'impossibilità di avanzare sarebbe stato necessario e il cannone per sfondare quella muraglia di tronchi d'alberi di radici e di calamus dove andiamo sandokan chiese janez io non so più da che parte passare imiteremo le scimmie disse la tigre della malesia è una manovra a noi familiare è molto apprezzabile anzi in questi momenti si poiché faremo perdere le nostre tracce agli inglesi che ci inseguono sapremo poi dirigerci tu sai che noi bornesi non perdiamo mai la buona direzione anche se manchiamo di bussola il nostro istinto di uomini dei boschi è infallibile che siano già entrati in questa foresta gli inglesi lo dubito janez rispose sandokan se fatichiamo noi già abituati a vivere in mezzo ai boschi essi non avranno potuto fare dieci passi non di meno cerchiamo di allontanarci presto so che il lord tiene dei grossi cani e quei dannati animali potrebbero giungerci alle spalle abbiamo dei pugnali per sventrarli sandokan sono più pericolosi degli uomini orso janez forza di braccia aggrappati ai rotang ai calamus ai sarmenti dei piper i due pirati si misero a scalare la muraglia di verzura con un'agilità da fare invidia alle stesse scimmie salivano scendevano poi tornavano a risalire passando fra le maglie di quell'immensa rete vegetale e scivolando fra le smisurate foglie dei foltissimi banani o dei tronchi colossali degli alberi alla loro inattesa comparsa fuggivano schiamazzando le splendide colombe coronate o quelle dette morobo i tocani dal becco enorme e dal corpo scintillante di piume russe ed azzurre scappavano mandando delle note stridenti somiglianti al cigolare d'un carro maleunto si innalzavano come fulmini gli argo dalle lunghe code macchiate e sparivano le belle alude dalle penne color turchese facendo udire dei lunghi fischi anche delle scimmie dal naso lungo sorprese da quell'apparizione si slanciavano precipitosamente verso gli alberi vicini mandando grida di spavento correndo poi a nascondersi nei cavi dei tronchi janez e sandokan per nulla inquieti proseguivano le loro ardite manovre passando di pianta in pianta senza mai porre il piede in fallo si slanciavano fra i calamus con sicurezza straordinaria rimanendo appesi poi con un nuovo slancio passavano sui rotang per poi aggrapparsi ai rami di questo o di quell'altro albero percorsi cinque o seicento metri non senza aver corso più volte il pericolo di capitombolare da altezze che mettevano le vertigini si arrestavano fra i rami di una bua manplam pianta che produce delle frutta piuttosto detestabili per i palati europei essendo impregnate ad un forte odore di resina ma che pure sono assai nutritive e anche non sgradite agli indigeni possiamo riposarci qualche ora disse sandokan nessuno verrà di certo a disturbarci in mezzo a questa foresta è come se noi ci trovassimo in una cittadella ben bastionata sai fratellino mio che noi siamo stati fortunati a fuggire a quei bricconi trovarci in una stufa con otto o dieci soldati intorno e salvare ancora la pelle è una cosa veramente miracolosa devono avere una gran paura di te pare che sia così disse sandokan sorridendo che l'abbia saputo la tua fanciulla che sei riuscito a prendere il largo lo suppongo rispose sandokan con un sospiro temo però che questa nostra impresa decida il lord a cercare un sicuro asilo a vittoria lo credi chiese sandokan facendosi cupo in volto non si terra più sicuro ora che sa che noi siamo così vicini alla villa è vero janez bisogna che ci mettiamo in cerca dei nostri uomini che siano approdati li ritroveremo alla foce del fiumicello se non è toccata loro qualche disgrazia non mettermi dei timori in dosso d'altronde lo sapremo presto e piomberemo subito sulla villa vedremo cosa ci converrà a fare vuoi un consiglio sandokan parla janez invece di tentare l'espugnazione della villa aspettiamo che il lord esca vedrai che non rimarrà molto in questi luoghi e vorresti assalire il drappello lungo la via in mezzo ai boschi un assalto può andare per le lunghe costare dei sacrifici enormi il consiglio è buono distrutta offogata alla scorta rapiremo la fanciulla e torneremo subito a monpracem e il lord lo lasceremo andare dove vorrà cosa importa a noi di lui vada a Sarawak o in Inghilterra poco munta non andrà né in un luogo né nell'altro janez vuoi dire che non ci lascerà un momento di tregua e che rovescerà su di noi tutte le forze di Labuan e ti inquieteresti perciò io forse che la tigre della Malesia ha paura di costoro verranno numerosi e potentemente armati per espugnare la mia isola ma troveranno pane per i loro denti nel Borneo vi sono legioni di selvaggi pronti ad accorrere sotto le mie bandiere basterebbe che io mandassi emissari alle Romades sulle coste della grande isola per veder giungere delle decine di Prahos lo so Sandukan come vedi janez io potrei se volessi scatenare la guerra anche sulle sponde del Borneo e rovesciare orde di selvaggi feroci su questa borrita isola tu però non lo farai Sandukan perché quando avrai repita Marianna Ginnonk tu non ti occuperai più né di Montpracem né dei suoi tigrotti è vero fratellino Sandukan non rispose dalle sue labbra però uscì un sospiro così potente da sembrare un lontano ruggito la fanciulla è piena di energia è una di quelle donne che non si farebbero pregare per combattere intrepidamente a fianco dell'uomo amato ma Miss Mary non diverrà mai la regina di Montpracem è così Sandukan anche questa volta il pirata era rimasto silenzioso si era preso il capo fra le mani e i suoi occhi animati da una copa fiamma guardavano nel vuoto forse molto lontano cercando di leggere nell'avvenire tristi giorni si preparano per Montpracem continua Yanez la formidabile isola fra pochi mesi forse meno ancora fra alcune settimane avrà perduto tutto il suo prestigio e anche le sue terribili tigri forse così doveva accadere abbiamo tesori immensi e andremo a godere una vita tranquilla in qualche opulenta città dell'estremo oriente taci disse Sandukan con voce sorda taci Yanez tu non puoi sapere quale possa essere il destino delle tigri di Montpracem lo si può indovinare forse può ingannarti quali idee hai tu adunque non te le posso dire ancora aspettiamo gli avvenimenti vuoi che andiamo è ancora un po' presto sono impaziente di rivedere i praos gli inglesi ci possono aspettare sul margine della foresta non li temo più pada Sandukan tu stai per gettarti in un brutto ginepraio una palla di carabina bene aggiustata può mandarti all'altro mondo sarò prudente guarda laggiù la foresta mi pare che si dirà di un po' andiamo Yanez la febbre mi divora facciamo come vuoi il portoghese quantunque temesse una sorpresa da parte degli inglesi i quali potevano essersi avanzati nel bosco strisciando come serpenti era del pari impaziente di sapere se i praos erano sfuggiti alla tremenda burrasca che aveva battute le coste dell'isola i setati col succo di alcuni buaman plum si aggrapparono ai rotang e ai calamus che serravano l'albero e si calarono al suolo non era però cosa facile uscire dalla foresta al di là di un piccolo spazio poco coperto gli alberi tornavano più fitti di prima anche Sandukan si trovava un poco smarrito e non sapeva quale direzione tenere per giungere approssimativamente nei pressi del fiumicello ci troviamo in un bell'impiccio Sandukan disse Yanez che non era capace di vedere nemmeno il sole per orizzontarsi da qual parte andremo ti confesso che non so se piegare a manca o a destra rispose Sandukan mi pare però di vedere laggiù un piccolo sentiero le erbe l'hanno ormai ricoperto pure spero che ci conduca fuori da questo ginepraio e un latrato è vero sì rispose il pirata la cui fronte si era oscurata i cani hanno scoperto le nostre tracce cacciano a casaccio ascolta in lontananza in mezzo alla fitta foresta si era udito un secondo latrato qualche cane era entrato nell'immensa macchia vergine e cercava di raggiungere i fuggiaschi che sia solo ho seguito da degli uomini chiese Yanez forse da qualche negro un soldato non avrebbe potuto cimentarsi fra questo caos cosa vuoi fare aspettare a piefermo l'animale e ucciderlo con un colpo di fucile lo sparo ci tradirebbe Yanez impugna il tuo Chris e aspettiamo in caso di pericolo ci arrampicheremo su questo pombo si nascosero tutti e due dietro il grosso tronco dell'albero il quale era cinto da radici e da rotang formanti una vera rete e attesero la comparsa di quell'avversario a quattro gambe l'animale guadagnava via rapidamente si udivano a non molta distanza a spostarsi dei rami e delle foglie e dei latrati sordi doveva aver già scoperto le orme dei due pirati e si affrettava per impedire loro di allontanarsi forse dietro a lui a distanza vi erano degli indigeni eccolo disse ad un tratto Ianez un cagnaccio nero dal pelo irto e le mascelle formidabilmente armate da cuti denti era comparso in mezzo ad un cespuglio doveva appartenere a quella razza feroce usata dai piantatori delle antille e dell'America meridionale per dar la caccia agli schiavi vedendo i due pirati si arrestò un momento guardandoli con due occhi ardenti poi balzando sopra le radici con uno slancio da leopardo si scagliò perdutamente innanzi mandando un ringhio pauroso Sandokan si era prontamente inginocchiato tenendo il crisso orizzontalmente mentre Ianez aveva afferrato la carabina per la canna volendo servirsene come di mazza il cagnaccio con un ultimo slancio rovinò addosso a Sandokan che era il più vicino cercando di azzannarlo per la gola se quella bestia era feroce la tigre della Malesia non lo era da meno la sua destra rapida come il fulmine si spinse innanzi e la lama scomparve quasi intera tra le fauci dell'animale contemporaneamente Ianez gli assestava sul cranio una tale mazzata da sfondarlo di colpo mi pare che ne abbia abbastanza disse Sandokan alzandosi e respingendo col piede il cagnaccio già agonizzante se gli inglesi non hanno altri alleati da mandarci alle calcagna perderanno inutilmente il loro tempo vada che dietro al cane non vi siano degli uomini a quest'ora avrebbero fatto fuoco su di noi andiamo Ianez trottiamo sul sentiero i due pirati senza occuparsi d'altro si cacciarono fra gli alberi cercando di seguire il vecchio sentiero le piante le radici e soprattutto i rotang e i calamus l'avevano invaso non di meno una traccia abbastanza visibile era rimasta e si poteva seguirlo con minor fatica ad ogni istante però davano il capo contro certe ragnatele così smisurate e così tenaci da poter imprigionare senza spezzarsi i piccoli volatili oppure incespicavano contro le radici serpeggianti fra le erbe facendo sovente dei brutti capitomboli numerose lucertole volanti spaventate dalla comparsa dei due pirati fuggivano disordinatamente in tutte le direzioni e qualche rettile disturbato nel suo sonno si allontanava precipitosamente facendo udire qualche sibilo minaccioso ben presto però anche il sentiero scomparve e Yanez e Sandokan furono costretti a ricominciare le loro manovre aeree fra i rotang i gambir e i calamus mettendo in fuga ed irritando i bighit scimmie dal pellame nerissimo che abbondano nel borneo e nelle vicine isole e che sono dotate di un'agilità incredibile quei quadrumani vedendo invasi i loro aerei possessi non sempre cedevano il passo e talvolta ricevevano i due disturbatori con una vera pioggia di frutta e ramoscelli procedettero così un paio d'ore a casaccio non potendo rilevare la posizione del sole per potersi orientare poi avendo veduto scorrere sotto di loro un torrentello dalle acque nere scesero verso il suolo non vi saranno serpenti d'acqua là dentro chiese Yanez a Sandokan non troveremo che delle sanguisughe rispose il pirata vuoi che approfittiamo di questo passaggio lo preferisco a quello aereo vediamo se l'acqua è profonda non sarà alta più d'un piede Yanez tuttavia assicuriamoci il portoghese ruppe un ramo e lo immerse in quel torrentello non ti eri ingannato Sandokan disse scendiamo abbandonarono il ramo sul quale si erano tenuti fino allora e si calarono nel piccolo corso d'acqua si vede nulla chiese Sandokan Yanez si era curvato cercando di distinguere qualche cosa attraverso le infinite arcate di verzura che si piegavano sul ruscello mi pare di scorgere un po' di luce in fondo disse che la foresta si diradi è probabile Sandokan andiamo a vedere reggendosi con molta fatica in causa del fondo limaccioso e del piccolo corso d'acqua si spinsero innanzi aggrappandosi di quando in quando ai rami che si prolungavano sulla corrente degli odori nauseabondi salzavano fra quelle acque nere esalazioni prodotte dal corrompersi delle foglie e delle frutta accumulatesi sul letto vi era il pericolo di prendersi una potente febbre i due pirati avevano percorso un quarto di chilometro quando Yanez si arrestò bruscamente aggrappandosi ad un grosso ramo che si prolungava da una parte all'altra del torrente cosa Yanez chiese Sandokan levando il fucile dalla spalla odi il pirata si curvò innanzi ascoltando poi dopo qualche istante disse qualcuno si avvicina nel medesimo istante un mugito possente che si sarebbe detto mandato da un toro spaventato e irritato risuonò sotto le arcate di verzura facendo tacere di colpo i cicalecci degli uccelli e le risa stridule delle piccole scimmie in guardia Yanez disse Sandokan abbiamo un maias dinanzi a noi e anche un altro nemico peggiore forse dell'altro cosa vuoi dire guarda là su quel grosso ramo che attraversa il fiumicello Sandokan si alzò sulla punta dei piedi e lanciò un rapido sguardo dinanzi a sé ah mormorò senza manifestare la meno mapprensione un maias da una parte un hariman bintang dall'altra vedremo se saranno capaci di chiuderci il passo prepara il fucile e teniamoci pronti a tutto l'assalto della pantera due formidabili nemici stavano di fronte ai due pirati l'uno non meno pericoloso dell'altro ma pareva per il momento non avessero alcuna intenzione di occuparsi dei due uomini poiché invece di scendere lungo il torrente si muovevano rapidamente incontro come se avesse avuto intenzione di misurare le loro forze l'animale che Sandokan aveva chiamato Ariman bintang era una splendida pantera della sonda l'altro invece era uno di quei grandi scimmioni un orangutan che sono ancora così numerosi nel borneo e nelle isole vicine e che sono sì tanto temuti per la loro forza prodigiosa e anche per la loro ferocia la pantera forse affamata vedendo l'uomo dei boschi passare sulla riva opposta si era prontamente slanciata su di un grosso ramo che si curvava quasi orizzontalmente sulla corrente formando una specie di ponte come si disse era una fiera bellissima e altrettanto pericolosa anche aveva la taglia e un po' anche l'aspetto di una piccola tigre con la testa invece più rotonda e poco sviluppata gambe corte e robuste ed il pelame giallo oscuro a macchie e a rosette più fosche doveva misurare almeno un metro e mezzo di lunghezza quindi doveva essere una delle più grosse della famiglia il suo avversario era un brutto scimmione alto circa un metro e quaranta centimetri ma con delle braccia così smisurate da toccare i due metri e mezzo complessivamente la sua faccia assai larga e rugosa aveva un aspetto ferocissimo specialmente con quegli occhietti mobilissimi e quel pelame rossastro che la incorniciava il petto di quel quadrumane aveva uno sviluppo veramente enorme e i muscoli delle braccia e delle gambe formavano delle vere nodosità indizio di una forza prodigiosa questi scimmioni che gli indigeni chiamano meias mias e anche mayas abitano nel folto più profondo dei boschi e preferiscono le regioni piuttosto basse e umide si costruiscono dei nidi assai spaziosi sulle cime degli alberi adoperando dei rami grossissimi che sanno disporre abilmente in forma di croce sono di umore piuttosto triste e non amano la compagnia ordinariamente evitano l'uomo e anche gli altri animali minacciati però irritati diventano tremendi e quasi sempre la loro forza straordinaria trionfa sugli avversari il maias odendo il rauco brontolio della pantera si era arrestato di colpo egli si trovava sulla riva opposta del piccolo corso d'acqua dinanzi ad un gigantesco durion il quale lanciava il suo splendido ombrello di foglie a 60 metri dal suolo probabilmente era stato sorpreso nel momento in cui stava per dare la scalata all'albero onde saccheggiarlo delle sue numerose frutta vedendo quella pericolosa vicina da prima si era accontentato di guardarla più con stupore che con ira poi tutto ad un tratto aveva mandato due o tre fischi gutturali indizio d'un prossimo scoppio di collera io credo che noi assisteremo ad una terribile lotta fra quei due animalacci disse Yanez che si era ben guardato da muoversi non l'hanno con noi finora rispose Sandokan temevo che ci volessero attaccare anch'io fratellino mio vuoi che cambiamo rotta Sandokan guardò le due rive e vide che in quel luogo era impossibile dare la scalata e cacciarsi nella foresta due vere muraglie di tronchi di foglie di spine di radici e di liane rinchiudevano il corso d'acqua per aprirsi il passo avrebbero dovuto mettere mano ai Chris e lavorare per bene non possiamo salire disse al primo colpo di coltello Maias e Pantera si getterebbero contro di noi di comune accordo restiamo qui e cerchiamo di non farci scorgere la lotta non sarà lunga dovremo poi affrontare il vincitore probabilmente si troverà in così cattive condizioni da non contrastarci il passo ci siamo la Pantera si impazienta e il Maias non ne può più dal desiderio di fracassare le costole alla vicina arma il fucile Sandokan non si sa mai quello che può accadere sono pronto a fucilare l'una e l'altro e un ululato spaventoso somigliante un po' al mugito ad un toro in furore gli troncò la parola l'orangotan aveva raggiunto il colmo della rabbia vedendo che la Pantera non si decideva ad abbandonare il ramo e scendere verso la riva l'orangotan si fece minacciosamente innanzi mandando un secondo ululato e percuotendosi fortemente il petto il quale risuonava come un tamburone quello scimmione faceva paura il suo pelame rossastro era diventato irto il suo volto aveva assunto un'espressione di inaudita ferocia e i suoi lunghi denti che sono così solidi da schiacciare la canna ad un fucile come un semplice bastoncino stridevano la Pantera vedendola accostarsi si era rannicchiata su se stessa come se si preparasse a slanciarsi però non pareva che avesse fretta ad abbandonare il ramo l'orangotan con un piede si aggrappò ad una grossa radice serpeggiante al suolo poi sporgendosi sul fiume prese con ambo le mani il ramo su cui tenevasi l'avversario e lo scosse con forza Erculea facendolo scricchiolare la scossa fu così potente che la Pantera nonostante avesse piantati nel legno i suoi acuti artigli non poter reggere e cadde nel fiume fu però un lampo aveva appena toccata l'acqua che si era già slanciata nuovamente sul ramo sostò un momento quindi si avventò a corpo perduto sulla scimmia gigante piantandogli le unghie sulle spalle e nelle cosce il quadrumane aveva mandato un ululato di dolore il sangue era subito sgorgato e scorreva fra i peli gocciolando nel fiumicello soddisfatta del felice risultato di quel fulminio attacco la fiera cercò di staccarsi per riguadagnare il ramo prima che l'avversario tornasse alla riscossa con un capitombolo magistrale volteggiò su se stessa servendosi del largo petto della scimmia come un punto d'appoggio e scattò indietro le due zampe si aggrapparono al ramo cacciando le unghie nella corteccia ma non potè però spingersi più innanzi come ne avrebbe avuta l'intenzione l'orangutan malgrado le spaventevoli lacerazioni aveva allungato rapidamente le braccia e aveva afferrata la coda dell'avversario quelle mani dotate di una forza terribile non dovevano più lasciare quell'appendice esse si strinsero come due morse strappando alla fiera un mugolio di dolore povera pantera disse Yanez che seguiva con vivo interesse le diverse fasi di quella lotta selvaggia è perduta disse Sandokan se la coda non si strappa cosa impossibile non sfuggerà più alle strette del maias il pirata non doveva ingannarsi l'orangutan sentendosi fra le mani la coda era balzata innanzi salendo sul ramo radunando le sue forze sollevò di peso la fiera la fece volteggiare in aria come se fosse un topo poi la scagliò con impeto irresistibile contro l'enorme tronco del durion si udì un colpo secco comendo una scatola ossea che si infrange indi la povera bestia abbandonata dal suo nemico rotolò inanimata al suolo scivolando poi fra le nere acque del fiumicello il cranio spaccato di colpo aveva lasciato sul tronco dell'albero una grande chiazza sanguigna mista a brani di materia cerebrale per giove che colpo maestro mormorò janez non credevo che quello scimmione potesse sbarazzarsi così presto della pantera vince tutti gli animali della foresta perfino i serpenti pitoni rispose sandokan c'è pericolo che se la prenda anche con noi è tanto irritato da non risparmiarci se ci vede mi pare però che sia in ben cattive condizioni bronda sangue da tutte le parti sono però animalacci maia sta sopravvivere anche dopo d'aver ricevuto parecchie palle nel corpo vuoi che attendiamo la sua partenza temo che la cosa vada troppo per le lunghe non ha più nulla da fare qui io ritengo invece che abbia il suo nido su quel durion mi pare di scorgere fra il fogliame una massa oscura e delle travi gettate trasversalmente fra i rami allora bisogna tornare nemmeno a questo ci penso dovremmo fare un giro immenso janet fuciliamo quello scimmione e andiamo innanzi seguendo questo ruscello era proprio quello che volevo proporti disse sandokan siamo abili tiratori e sappiamo lavorare di chris meglio dei malesi avviciniamoci un po' onde non mancare i nostri colpi ci sono tanti rami qui da far deviare facilmente le nostre palle mentre si preparavano ad assalire l'orangotan questo si era accovacciato sulla riva del fiumicello e si gettava con le mani dell'acqua sulle ferite la pantera l'aveva conciato orribilmente le sue potenti unghie avevano lacerato le spalle del povero scimmione e così profondamente da mettere a nudo le clavicole anche le cosce erano state atrocemente dilaniate ed il sangue sgorgava copiosamente formando al suolo una vera puzza dei gemiti che avevano qualche cosa di umano uscivano di quando in quando dalle labbra del ferito seguiti da ololati feroci il bestione non si era ancora calmato e anche in mezzo agli spasmi tradiva il suo selvaggio furore sandokanejanez si erano accostati all'arrivo opposta onde potersi cacciare prontamente nella foresta nel caso che avessero mancato i loro colpi e che l'orangotan non fosse caduto sotto la doppia scarica già si erano arrestati dietro ad un grosso ramo che si slanciava sopra il fiumicello ed avevano appoggiati i loro fucili per meglio mirare quando videro l'orangotan balzare improvvisamente in piedi percuotendosi furiosamente il petto e digrignando i denti cosa? chiese janez che ci abbia scorti no disse sandokan non è con noi che sta per prendersela che qualche altro animale cerchi di sorprenderlo sta zitto vedo dei rami e delle foglie a muoversi per giove che siano gli inglesi taci janez sandokan si so silenziosamente sul ramo e tenendosi nascosto dietro un cespo di rotang scendente dall'alto guardò verso la riva opposta là dove si trovava l'orangotan qualcuno si avvicinava muovendo con precauzione le foglie ignaro forse del grave pericolo che l'attendeva pareva che si dirigesse precisamente là dove s'alzava il colossale durion il gigantesco quadruma ne aveva già sentito e si era gettato dietro il tronco dell'albero pronto a piombare su quel nuovo avversario e a metterlo a pezzi non gemeva né urlava più solamente un rauco respiro poteva tradire ancora la sua presenza dunque cosa succede? chiese janez a sandokan qualcuno si avvicina incautamente al mayas un uomo o un animale? non riesco ancora a scorgere l'imprudente se fosse qualche povero indigeno siamo qui noi e non lasceremo tempo al quadrumane di massacrarlo me l'ero immaginato ho scorto una mano bianca o nera? nera janez mira l'orangutan sono pronto in quell'istante si vide la scimmia gigante a precipitarsi in mezzo ad una fitta macchia mandando un ululato spaventevole i rami e le foglie strappate di colpo dalle possenti mani del bestione caddero lasciando vedere un uomo si udì un urlo di spavento seguito subito da due colpi di fucile Sandokan e janez avevano fatto fuoco il quadrumane colpito in pieno d'orso si volse ululando e vedendo i due pirati senza più occuparsi dell'incauto che gli si era avvicinato con un salto immenso balzò nel fiume Sandokan aveva abbandonato il fucile ed impugnato il Chris risoluta di impegnare una lotta corpo a corpo janez invece balzato sul ramo cercava di ricaricare precipitosamente l'arma l'orangutan quantunque nuovamente ferito si era scagliato addosso a Sandokan già stava per allungare le villose zampe quando si udì sulla riva opposta un grido il capitano poi uno sparo rintronò l'orangutan si era arrestato portandosi le mani al capo rimase un istante ritto dardeggiando su Sandokan un ultimo sguardo ripiano di rabbia feroce poi stramazzò in acqua sollevando un gigantesco spruzzo nel medesimo istante l'uomo che per poco non era caduto nelle mani dello scimmione si era pure slanciato nel fiumicello gridando il capitano il signor janez sono ben lieto di aver cacciato una palla nel cranio di quel maias janez e Sandokan erano balzati rapidamente sul ramo paranoa esclamò allegramente in persona mio capitano rispose il malese che fai in questa foresta chiese Sandokan vi cercavo capitano e come sapevi tu che noi ci trovavamo qui girando sui margini di questa selva avevo scorto degli inglesi ronzare accompagnati da parecchi cani e mi ero immaginato che cercassero voi e hai osato cacciarti solo qui dentro chiese janez delle belve non ho paura però per poco l'orangotanti faceva a pezzi non mi aveva ancora preso signor janez e come avete veduto gli ho piantato una palla nella sua testaccia e i praos sono giunti tutti chiese Sandokan quando sono partito per mettermi in cerca di voi nessun altro legno era giunto oltre il mio nessun altro esclamò Sandokan con ansietà no mio capitano quando hai lasciato la foce del fiumicello ieri mattina che agli altri legni sia accaduta qualche disgrazia si chiese janez guardando Sandokan con angoscia forse la tempesta li avrà trasportati molto al nord rispose la tigre può essere avvenuto questo mio capitano disse paranoa il vento del sud soffiava tremendamente e non era possibile resistergli in modo alcuno io ho avuto la fortuna di cacciarmi entro una piccola baia bene riparata però situata a 60 miglia da qui perciò ho potuto ridiscendere presto e trovarmi prima di tutti all'appuntamento d'altronde come vi dissi sono sbarcato ieri mattina e in questo frattempo anche gli altri legni potrebbero essere giunti tuttavia sono molto inquieto paranoa disse Sandokan vorrei già essere alla foce del fiumicello per levarmi queste inquietudini hai perduto nessun uomo durante la borrasca nemmeno uno mio capitano e il legno ha sofferto ha avuto pochissimi guasti che sono già stati riparati si trova nascosto nella baia l'ho lasciato a largo per tema di qualche sorpresa sei sbarcato solo sì mio capitano hai veduto nessun inglese ronzare nei pressi della baia no però come vi dissi ne ho veduto alcuni battere i margini di questa foresta quando? questa mattina da quale parte? verso l'est venivano dalla palazzina di Lord James disse Sandokan guardando Yanez poi volgendosi verso Paranoa gli disse siamo molto lontani dalla baia non vi giungeremo prima del tramonto tanto ci siamo allontanati esclamò Yanez non sono che le due pomeridiane abbiamo un bel tratto di via da superare questa foresta è molto vasta signor Yanez è anche assai difficile da attraversare ci vorranno almeno quattro ore prima di raggiungere le ultime macchie partiamo disse Sandokan che pareva fosse in preda ad una viva agitazione hai fretta di giungere alla baia è vero fratellino? sì Yanez io temo una sventura e forse non mi inganno temi che i due Praos si siano perduti purtroppo Yanez se noi non li troviamo alla baia non li rivedremo mai più per Giove quale disastro per noi una vera rovina Yanez disse Sandokan con un sospiro io non so si direbbe che la fatalità comincia a pesare su di noi come se fosse ansiosa di dare un colpo mortale ai tigrotti di Montpracem e se la disgrazia si avverasse cosa faremo noi Sandokan? cosa faremo? e tu me lo chiedi Yanez forse la tigre della Malesia è un uomo da spaventarsi o da piegare dinanzi al destino noi continueremo la lotta al ferro del nemico opporremo il ferro al fuoco il fuoco pensa che a bordo del nostro prao non vi sono che 40 uomini sono 40 tigri Yanez guidati da noi faranno miracoli e nessuno saprà arrestarli vuoi scagliarli contro la vilda? questo lo si vedrà ti giuro però che io non abbandonerò quest'isola senza condurre con me Marianna Gillong fossi certo di dover lottare contro l'intera guarnigione di vittoria chissà forse dalla fanciulla dipende la salvezza o la caduta di Monpracem la nostra stella sta per rispegnersi perché la vedo sempre più in pallidire ma non dispero ancora e forse io la vedrò risplendere più viva che mai ah se quella fanciulla lo volesse il destino di Monpracem sta nelle sue mani Yanez e nelle tue rispose il portoghese con un sospiro orsù è inutile parlarne per ora cerchiamo di giungere al fiumicello per accertarci se gli altri due praos sono tornati sì andiamo disse Sandokan con un simile rinforzo mi sentirei capace di tentare anche la conquista dell'intera la Wuhan guidati da paranoa risalirono la riva del fiumicello e si cacciarono su di un vecchio sentiero che il malese aveva scoperto qualche ora prima le piante e specialmente le radici l'avevano invaso però rimaneva ancora uno spazio sufficiente per permettere ai pirati di inoltrarsi senza troppe fatiche per cinque ore continue si avanzarono attraverso la grande foresta facendo di quando in quando una breve fermata per riposarsi e al tramonto giungevano presso le rive del fiumicello sboccante nella baia non scorgendo alcun nemico scesero verso l'ovest attraversando una piccola palude che andava a terminare verso il mare quando giunsero sulle rive della piccola baia le tenebre erano di già scese da qualche ora Paranoa e Sandokan si spinsero verso le ultime scogliere e scrutarono attentamente il fosco orizzonte guardate mio capitano disse Paranoa indicando alla tigre un punto luminoso appena distinto che si poteva scambiare anche con una stella il fanale del nostro prao chiese Sandokan sì mio capitano non lo vedete scivolare verso il sud quale segnale devi fare perché il legno si avvicini accendere sulla spiaggia due fuochi rispose Paranoa andiamo verso la punta estrema della piccola penisola disse Janetz segnaleremo al prao la rotta esatta si cacciarono in mezzo ad un vero caos di scoglietti cosparsi di gusci di conchiglie davanzi di crostacei e di ammassi di alghe e giunsero verso la punta estrema d'un isolotto boscoso accendendo qui i fuochi il prao potrà imboccare la baia senza correre il pericolo da renarsi disse Janetz lo faremo risalire verso il fiumicello però disse Sandokan mi preme nasconderlo agli sguardi degli inglesi mi incarico io di questo rispose Janetz noi lo nasconderemo nella palude in mezzo alle canne coprendoli interamente con rami e con foglie dopo ad averlo privato degli alberi e di tutte le manovre ehi Paranoa fai il segnale il malese non perdette tempo sul margine d'un boschetto fece raccolta di legna secca formò due castelli e collocatili ad una certa distanza l'uno dall'altro li accese un momento dopo i tre pirati videro il fanale bianco del prago scomparire e brillare in sua vice un punto rosso ci hanno veduti disse Paranoa possiamo spegnere i fuochi no disse Sandokan serviranno ad indicare ai tuoi uomini la vera direzione nessuno conosce la baia è vero no capitano guidiamoli adunque i tre pirati si sedettero sulla spiaggia tenendo gli occhi fissi sul fanale rosso il quale aveva cambiata direzione dieci minuti dopo il prago era visibile le sue immense vele erano spiegate e si udiva l'acqua a gorgogliare dinanzi alla prora visto fra l'oscurità sembrava un uccello gigantesco scivolare sul mare con due bordate giunse dinanzi alla baia ed imboccò il canale inoltrandosi verso la foce del fiumicello Ianez, Sandokan e Paranoa avevano abbandonato l'isolotto ed erano retrocessi rapidamente fino sulle rive della piccola palude appena videro il prago a gettare l'ancora presso i canniti fittissimi della riva si recarono a bordo Sandokan con un gesto intimò il silenzio all'equipaggio il quale stava per salutare i due capi della pirateria con un intempestivo scoppio di gioia I nemici non sono forse lontani disse egli vi ordino quindi il più assoluto silenzio onde non farci sorprendere prima del compimento dei miei progetti poi volgendosi verso un sottocapo gli chiese con un'emozione così viva da rendergli la voce quasi tremula non sono giunti gli altri due praos no tigre della malesia rispose il pirata durante l'assenza di Paranoa ho visto tutte le coste vicine spingendomi anche verso quelle del Borneo ma nessuna delle nostre navi fu veduta in alcuna direzione e tu credi il pirata non rispose esitava parla disse Sandokan io credo tigre della malesia che i nostri due legni si siano fracassati sulle coste settentrionali del Borneo Sandokan si cacciò le unghie nel petto mentre un sospiro sibilante gli irrompeva dalle labbra fatalità fatalità mormorò con voce sorda la fanciulla dai capelli d'oro porterà sventura alle tigri di Montpracem coraggio fratellino mio gli disse Yanez posandogli una mano sulle spalle non disperiamo ancora forse i nostri praos sono stati spinti molto lontani e così gravemente danneggiati da non poter riprendere subito il mare finché non si troveranno i rottami non possiamo credere che siano sommersi a noi non possiamo aspettare Yanez chi mi dice che il lord si fermerà ancora molto nella sua villa anzi non lo desidererei amico cosa vuoi dire Yanez che noi abbiamo uomini sufficienti per assalirlo se dovesse abbandonare la sua villa per rapirgli la graziosa nipote vorresti tentare un simile colpo e perché no i nostri tigrotti sono tutti valorosi e se anche il lord avesse con sé un numero doppio di soldati non esiterebbero di certo ad impegnare la lotta ma sto maturando un bel piano e spero che avrà una splendida riuscita lasciami riposare questa notte e domani noi cominceremo ad agire confido in te Yanez non dubitare Sandokan il prao però non possiamo lasciarlo qui può venire scoperto da qualche legno che si spinga nella baia o da qualche cacciatore che scende il fiumicello per venire qui a fucilare gli uccelli acquatici ho pensato a tutto Sandokan Paranoa ha ricevuto delle istruzioni in proposito vieni Sandokan andiamo a mangiare un boccone poi gettiamoci sui nostri lettucci io ti confesso non ne posso più mentre i pirati sotto la direzione di Paranoa smontavano tutte le manovre del legno e Yanez e Sandokan scesero nel piccolo quadro di poppa e diedero il sacco alle provviste calmata la fame che da tante ore li tormentava si gettarono vestiti come erano sui lettucci il portoghese che non si reggeva più si addormentò subito profondamente Sandokan invece penò assai a chiudere gli occhi tetri pensieri e sinistre inquietudini lo tennero sveglio parecchie ore fu solamente verso l'alba che poté prendere un po' di riposo ma anche questo fu brevissimo quando risali in coperta i pirati avevano ultimati i loro lavori per rendere il prago invisibile agli incrociatori che potevano passare dinanzi alla baia o agli uomini che potevano scendere lungo il fiume il legno era stato spinto verso il margine della palude in mezzo ad un canneto foltissimo gli alberi con le manovre fisse e correnti erano stati abbassati e al di sopra della tolda erano stati gettati a massi di canne di rami e di foglie disposti così abilmente e da coprire l'intero legno un uomo che fosse passato in quei dintorni l'avrebbe potuto scambiare per qualche macchione di piante dissecate o per un enorme ammasso di erbe e di radici con la arenatosi cosa ne dici Sandokan? chiese Yanez il quale si trovava già sul ponte sotto una piccola tettoia di canne innalzata a poppa l'idea è stata buona ora vieni con me dove? a terra ci sono già uomini che ci aspettano cosa vuoi fare Yanez lo saprai poi oi in acqua la scialuppa e fate buona guardia il prigioniero attraversato il fiumicello Yanez condosse Sandokan in mezzo ad una folta macchia dove si trovavano imboscati venti uomini completamente armati e muniti ognuno di un sacchetto di viveri e di una coperta di lana paranoia ed il suo sotto capo i Kaut vi erano pure vi siete tutti? chiese Yanez tutti risposero allora ascoltami attentamente i Kaut riprese il portoghese tu tornerai a bordo e qualunque cosa succeda manderai qui un uomo il quale troverà un camerata sempre in attesa di ordini noi ti trasmetteremo i nostri comandi che dovrai eseguire immediatamente senza il menomo ritardo bada di essere prudente e di non farti sorprendere dalle giacche rosse e non dimenticare che noi anche se lontani in un momento possiamo venire informati o informarti di quello che può succedere contate su di me signor Yanez torna a bordo ora e veglia mentre il sotto capo balzava nel canotto Yanez posatosi alla testa del drappello si metteva in cammino risalendo il corso del piccolo fiume dove mi conduci? chiedeva Sandokan che non capiva nulla aspetta un po' fratellino mio dimmi innanzitutto quanto può di stare dal mare la villa di Lord Gillong circa a due miglia in linea retta allora abbiamo uomini più che sufficienti per cosa fare? un po' di pazienza Sandokan si orientò con la bussola che aveva presa a bordo del prao e si cacciò sotto i grandi alberi marciando rapidamente percorsi 400 metri si fermò presso un colossale albero della canfora che si rizzava in mezzo ad un fitto gruppo di cespugli e volgendosi ad uno dei marinai gli disse tu pianterai qui il tuo domicilio e non lo lascerai per nessun motivo senza nostro ordine il fiume non dista che 400 metri e quindi puoi comunicare facilmente col prao a ugual distanza verso l'est vi sarà uno dei tuoi camerati qualunque ordine ti venga trasmesso dal prao lo comunicherai al tuo compagno più prossimo mi hai compreso? si signor Gnanez continuiamo dunque mentre il malese si preparava ad una piccola tettoia alla base del grandalbero il drappello si rimetteva in marcia lasciando un altro uomo alla distanza indicata comprendi ora? chiese Gnanez a Sandukan si e ammiro la tua furberia con queste sentinelle scaglionate nella foresta noi potremo in pochi minuti comunicare col prao anche dai dintorni della villa di Lord James si Sandukan e avvertire Icaut di armare prontamente il prao per prendere subito il mare o per mandarci dei soccorsi e noi dove andremo ad accamparci sul sentiero che conduce a Vittoria di là vedremo chi si reca o chi esce dalla villa e in pochi momenti potremo prendere le nostre misure per impedire al Lord di fuggire a nostra insaputa se vorrà andarsene dovrà fare prima i conti con i nostri tigrotti e vedrai che chi avrà la peggio non saremo certo noi e se il Lord non si decidesse ad andarsene per Giove assaliremo la villa o cercheremo qualche altro mezzo per rapire la fanciulla non spingiamo però le cose agli estremi Janetz Lord James è capace di uccidere sua nipote piuttosto di vederla cadere nelle mie mani per mille spingarde è un uomo deciso a tutto Janetz allora giocheremo d'astuzia hai qualche progetto? lo troveremo Sandokan non mi consolerei più mai se quel briccone dovesse fracassare il capo a quell'adorabile miss ed io sarebbe la morte anche della tigre della Malesia poiché non potrei sopravvivere senza la fanciulla dai capelli d'oro lo so purtroppo disse Janetz con un sospiro quella donna ti ha stregato o meglio mi ha dannato Janetz chi l'avrebbe detto che un giorno io che non avevo mai sentito il mio cuore battere che non avevo saputo amare altro che il mare le pugne tremende le stragi sarei stato domato da una fanciulla da una figlia di quella razza alla quale avevo giurato una guerra di esterminio quando vi penso il mio sangue lo sento ribollire io sento le mie forze a rivellarsi e il mio cuore fremere di furore eppure la catena che mi avvince non saprò mai più spezzarla Janetz ne saprei mai più cancellare quegli occhi azzurri che mi hanno stregato or su non ne parliamo più e lasciamo che si compia il mio destino un destino che sarà fatale alla stella di Montpracem è vero Sandokan disse Janetz forse rispose la tigre della Malesia con voce sorda erano allora giunti sul margine di una foresta al di là si estendeva una piccola prateria cosparsa di cespugli e di gruppi da recche e di gambir tagliata a metà da un largo sentiero che pareva però fosse stato poco battuto essendo l'erba nuovamente cresciuta che sia questa la via che conduce a vittoria chiese Janetz a Sandokan si rispose questi la villa di Lord James non deve essere lontana scorgò laggiù dietro a quegli alberi le palizzate del parco benissimo disse Janetz si volse verso Paranoa che li aveva seguiti con sei uomini e gli disse va a rizzare le tende sul margine del bosco in luogo protetto da qualche folta macchia il pirata non si fece ripetere il comando trovato un luogo a concio fece spiegare la tenda riparandola all'intorno con una specie di cinta formata di rami e di foglie di banano sotto vi mise i viveri che aveva fatto trasportare fino là consistenti in conserve carne affumicata biscotti e in alcune bottiglie di vino di spagna poi lanciò i suoi sei uomini a destra e a manca onde battessero il bosco per essere certo che non si nascondesse qualche spia sandokan e janez dopo essersi spinti fino a 200 metri dalle palizzate del parco erano tornati nel bosco sdraiandosi sotto la tenda sei soddisfatto sandokan del piano chiese il portoghese sì fratello rispose la tigre della malesia non siamo che a pochi passi dal parco sulla via che conduce a vittoria se il lord vorrà abbandonare la villa sarà costretto a passarci a tiro di fucile in meno di mezz'ora noi possiamo radunare 20 uomini risoluti decisi a tutto e in un'ora avere con noi tutto l'equipaggio del prago che si muova e noi gli saremo addosso sì tutti disse sandokan io sono pronto a tutto anche a scagliare i miei uomini contro un reggimento intero allora facciamo colazione fratellino mio disse jane zaridendo questa gita mattutina mi ha gozzato l'appetito in modo straordinario avevano già divorato la colazione e stavano fumando alcune sigarette centellinando una bottiglia di whisky quando videro entrare precipitosamente paranoa il bravo malesia aveva il viso alterato e pareva in preda ad una viva agitazione che cos'hai gli chiese sandokan alzandosi rapidamente e allungando una mano verso il fucile qualcuno s'avvicina mio capitano disse gli ho udito il galoppo d'un cavallo che qualche inglese si recchia vittoria no tigre della malesia deve venire da vittoria è ancora lontano chiese janez lo credo vieni sandokan presero le carabine e si slanciarono fuori dalla tenda mentre gli uomini della scorta si imboscavano in mezzo ai cespugli armando precipitosamente i fucili sandokan si spinse verso il sentiero e si gettò in ginocchio appoggiando un orecchio contro il suolo la superficie della terra trasmetteva distintamente il galoppo affrettato di un cavallo sì un cavaliere si avvicina disse gli rialzandosi lestamente ti consiglio di lasciarlo passare senza disturbarlo disse janez e tu lo pensi noi lo faremo prigioniero mio caro a quale scopo può recare alla villa qualche messaggio importante se noi lo assaliamo egli si difenderà sparerà il moschetto forse anche le pistole e quelle detonazioni possono essere udite dai soldati della villa lo faremo cadere nelle nostre mani senza lasciargli il tempo di porre mano alle armi una cosa un po' difficile Sandokan anzi più facile di quello che tu credi spiegati il cavallo si avanza di galoppo quindi non potrai evitare un ostacolo il cavaliere verrà sbalzato di colpo e noi gli piomberemo addosso impedendogli di reagire e quale ostacolo vorrai preparare vieni Paranoa va a prendere una fune e raggiungimi subito comprendo disse Yanez splendida idea si prendiamo lo Sandokan per giove come lo utilizzeremo non ci avevo pensato di quale idea parli Yanez lo saprai più tardi che bel gioco ridi ho motivo di ridere vedrai Sandokan come giocheremo il lord Paranoa sbrigati il malese aiutato da due uomini aveva stesa una solida fune attraverso il sentiero tenendola però così bassa da non potersi scorgere in causa delle alte erbe che crescevano in quel luogo ciò fatto era andato a nascondersi dietro un cespuglio tenendo il Chris in pugno mentre i suoi compagni si disperdevano più innanzi per impedire al cavaliere di continuare la corsa nel caso che avesse evitato l'acquato il galoppo si avvicinava rapidamente ancora pochi secondi e il cavaliere doveva comparire allo svolto del sentiero eccolo mormorò Sandokan che si era pure imboscato assieme a Yanez pochi istanti dopo un cavallo oltrepassato un macchione si slanciava sul sentiero lo montava un bel giovinotto di ventidue o ventiquattro anni il quale indossava la divisa dei sipai indiani pareva assai inquieto perché spronava furiosamente il cavallo lanciando all'intorno sguardi sospettosi attento Yanez mormorò Sandokan il cavallo vivamente spronato si slanciò innanzi muovendo rapidamente verso la fune a un tratto lo si vide stramazzare pesantemente al suolo agitando pazzamente le gambe i pirati erano lì prima ancora che il sipai potesse trarsi di sotto al cavallo Sandokan gli fu addosso strappandogli la sciabola mentre giù Yoko lo rovesciava al suolo puntandogli sul petto il Chris non opporre resistenza se ti preme la vita gli disse Sandokan miserabili esclamò il soldato cercando di battersi giù Yoko aiutato dagli altri pirati lo regò per bene e lo trascinò presso una folta macchia mentre Yanez visitava il cavallo temendo che nella caduta si fosse spezzata qualche gamba perbacco esclamò il buon portoghese che pareva contentissimo farò una bella figura alla villa Yanez sergente dei sipai ecco un grado che non mi aspettavo di certo legò l'animale ad un albero e raggiunse Sandokan che stava frugando per bene il sergente nulla? chiese nessuna carta rispose Sandokan parlerai almeno disse Yanez piantando gli occhi sul sergente no rispose questi vada gli disse Sandokan con accento da far fremere dove eri diretto? passeggiavo parla ho parlato rispose il sergente che ostentava una tranquillità che non poteva avere aspetta dunque la tigre della Malesia si strappò dalla cintura il Chris e lo puntò alla gola del soldato dicendogli con accento da non mettere in dubbio la minaccia parla o ti uccido no rispose il soldato parla ripete Sandokan premendo l'arma l'inglese mandò un urlo di dolore il Chris era entrato nella carne e beveva sangue parlerò rantolò il prigioniero che era diventato pallido come un cadavere dove andavi? chiese Sandokan the lord James Gillong per quale motivo? il soldato esitò ma vedendo il pirata avvicinare nuovamente il Chris riprese per recare una lettera del baronetto William Rosenthal un lampo di furore balenò negli occhi di Sandokan a quel nome dammi quella lettera esclamò con voce rauca è nel mio elmo nascosta sotto la fodera Yanez raccolse il cappello del sipai strappò la fodera e fece saltare fuori la lettera che subito aperse ah cose vecchie disse dopo averla letta cosa scrive quel cane di baronetto? chiese Sandokan avverte il lord del nostro imminente sbarco alla Boan dice che un incrociatore ha visto uno dei nostri legni correre verso queste coste e lo consiglia di vegliare attentamente null'altro? si corbezzoli invia mille rispettosi saluti alla tua cara Marianna con un giuramento di eterno amore che Dio danni quel maledetto guai a lui il giorno che lo incontrerò sulla mia via giuyoco disse il portoghese che pareva osservasse con profonda attenzione la calligrafia della lettera manda un uomo al prao e fammi portare della carta delle penne e un calamaio cosa vuoi fare di questi oggetti? chiese Sandokan con stupore occorrono al mio progetto ma di quale progetto parli? di quello che sto meditando da mezz'ora spiegati una buona volta se non vuoi altro io sto per recarmi alla villa di Lord James tu? sì proprio io rispose Yannetz con calma perfetta ma in qual modo? nella pelle di quel sipai per Giove vedrai che bel soldato comincio a comprendere tu indossi le vesti del sipai fingi di giungere da vittoria e consiglio il lordo di partire a quella volta per farlo cadere nell'agguato che tu gli preparerai ah Yannetz esclamò Sandokan stringendoselo al petto piano fratellino mio che non mi guasti qualche braccio ti dovrò tutto se riuscirai spero di riuscire ma tu ti esponi ad un grande pericolo ah mi leverò d'impiccio con onore senza guastarmi ma perché il calamaio? per scrivere una lettera al lord ti sconsiglio Yannetz è un uomo sospettoso e se vede che il carattere non è preciso può farti fucilare hai ragione Sandokan è meglio che io gli dica ciò che volevo scrivere or su fai spogliare il sipai a un cenno di Sandokan due pirati slegarono il soldato e lo spogliarono della divisa il povero diavolo si credette perduto mi uccidete chiese a Sandokan no la tua morte non mi sarebbe d'alcuna utilità e ti faccio dono della vita però resterai prigioniero sul mio prao finché noi rimarremo qui grazie signore Yannetz intanto si vestiva la divisa era un po' stretta ma tanto fece che in breve fu completamente equipaggiato guarda fratellino mio che bel soldato disse allacciandosi la sciabola non credevo di fare una così splendida figura sì davvero che sei un bel sipai rispose Sandokan ridendo ora dammi le tue ultime istruzioni ecco qui disse il portoghese tu rimarrai imboscato su questo sentiero con tutti gli uomini disponibili e non ti muoverai io andrò dal lord gli dirò che voi siete stati assaliti e dispersi ma che si sono veduti degli altri prahos e lo consiglierò ad approfittare del buon momento per rifugiarsi a Vittoria benissimo quando noi passeremo voi assalirete la scorta io prenderò Marianna e la porterò al praho siano d'accordo? sì va mio valoroso amico dirai alla mia Marianna che io l'amo sempre che abbia fiducia di me va e che Dio ti guardi addio fratellino mio rispose Yanez abbracciandolo balzò leggermente sul cavallo del sipai raccolse le briglie sguainò la sciabola e partì di galoppo fischiando allegramente una vecchia barcarola Yanez alla villa la missione del portoghese era senza dubbio una delle più arrischiate delle più audaci che quel bravo uomo avesse affrontato in vita sua perché sarebbe bastato una parola un sospetto solo per lanciarlo sulla cima ad un'antenna con una buona corda al collo non di meno il pirata si preparava a giocare la pericolosissima carta con grande coraggio e con molta calma fidando nel proprio sangue freddo e soprattutto nella sua buona stella che mai era si stancata di proteggerlo si rizzò fieramente in sella si arricciò i baffi per fare più bella figura si accomodò il cappello inclinandolo civettosamente sull'orecchio e spinse il cavallo alla carriera non risparmiando i colpi di sprone e le sferzate dopo due ore di quella corsa furiosa si trovava improvvisamente dinanzi ad una cancellata dietro la quale dietro la quale si elevava alla graziosa villa di Lord James chi vive? chiese un soldato che stava imboscato dinanzi al cancello nascosto dietro il tronco di un albero ehi giovanotto abbassa il fucile che io non so né una tigre né un babirussa disse il portoghese rattenendo il cavallo per giove non vedi che io sono un tuo collega anzi un tuo superiore scusate ma ho l'ordine di non lasciare entrare nessuno senza sapere da che parte viene e cosa desidera animale io vengo qui per ordine del baronetto William Rosenthal e mi reco dal lord passate aprì il cancello chiamò alcuni camerati che passeggiavano nel barco per avvertirli di ciò che accadeva e si fece da una parte hm fei il portoghese stringendosi nelle spalle e spingendo innanzi il cavallo quante precauzioni e quanta paura regna qui si fermò dinanzi alla palazzina e balzò a terra fra sei soldati che l'avevano circondato coi fucili in mano dove è il lord? chiese egli nel suo gabinetto rispose il sergente comandante del trappello conducetemi subito da lui che mi preme parlargli venite da vittoria precisamente e non avete incontrato i pirati di Montpracem nemmeno uno camerata quei furfanti hanno ben altro da fare in questo momento che di ronzare qui or su conducetemi dal lord venite il portoghese fece appello a tutta la sua audacia per affrontare il pericoloso uomo e seguì il comandante affettando la calma e la rigidezza della razza anglosassone aspettate qui disse il sergente dopo d'averlo fatto entrare in un salotto il portoghese rimasto solo si mise ad osservare attentamente tutto per vedere se era possibile un colpo di mano ma dovette convincersi che ogni tentativo sarebbe stato inutile essendo altissime le finestre e grosse le muraglie e le porte non importa mormorò il colpo lo faremo nel bosco in quel momento rientrava il sergente il lord vi aspetta disse additandogli la porta lasciata aperta il portoghese si sentì correre per le ossa un brivido e impallidì un po ianez mio sii prudente e saldo mormorò entrò con la mano dritta sul cappello e si trovò in un grazioso gabinetto arredato con molta eleganza in un angolo seduto dinanzi ad un tavolo da lavoro stava il lord vestito semplicemente di bianco col volto tetro e lo sguardo corrucciato egli guardò in silenzio ianez figgendogli gli occhi addosso come se volesse indagare i pensieri del nuovo venuto poi disse con un accento secco venite da vittoria? si mi lord da parte del baronetto si vi ha dato qualche lettera per me? nessuna avete da dirmi qualche cosa? si mi lord parlate mi ha mandato a dirvi che la tigre della malesia è circondata dalle truppe in una baia del sud il lord balzò in piedi con gli occhi sfavillanti e il viso raggiante la tigre circondata dai nostri soldati esclamò si e pare che sia finita per sempre per quel forfante poiché non ha più scampo ma siete ben certo di quel che dite? certissimo mi lord chi siete voi? un parente del baronetto william rispose janez audacemente ma da quanto tempo vi trovate alla buon da quindici giorni voi adunque saprete anche che mia nipote è la fidanzata di mio cugino william disse janez sorridendo ho molto piacere di fare la vostra conoscenza signore disse il lord stringendogli la mano ma ditemi quando venne assalito sandokan stamane all'alba mentre attraversavo un bosco alla testa di una grossa banda di pirati ma quell'uomo è adunque il demonio ieri sera era qui possibile che in sette odotto ore abbia percorso tanta strada si dice che avesse dei cavalli con sé ora comprendo e dov'è il mio amico william è alla testa delle truppe eravate assieme a lui sì mi lord e sono molto lontani i pirati una decina di miglia vi ha dato nessun altro incarico mi ha pregato di dirvi di abbandonare subito la villa e di portarvi senza indugio a vittoria perché voi sapete milord che razza d'uomo è la tigre della malesia ha con sé 80 uomini 80 tigrotti e potrebbe vincere le nostre truppe attraversare in un baleni boschi e gettarsi sulla villa il lord lo guardò in silenzio come fosse stato colpito da quel ragionamento poi disse come parlando a sé stesso infatti ciò potrebbe accadere sotto i forti e le navi di vittoria mi sentirei più sicuro di qui quel caro william ha proprio ragione tanto più che la via per il momento è libera mia signora nipote ve la strapperò io la passione che avete per quell'eroe da fork dovessi spezzarvi come una canna mi obbedirete sposerete l'uomo che io vi ho destinato janez portò involontariamente la mano all'elsa della sciabola ma si trattenne ben comprendendo che la morte del feroce vecchio a nulla avrebbe giovato con tanti soldati che si trovavano nella villa milord disse invece mi permettereste di visitare la mia futura parente avete qualcosa da dirle da parte di william sì milord vi accoglierà male non importa milord rispose janez sorridendo io le dirò ciò che disse william poi tornerò qui il vecchio capitano premè un bottone un servo subito entrò conducete questo signore da miledi disse il lord grazie rispose janez cercate di convertirla e poi raggiungetemi che pranzeremo assieme janez si inchinò e seguì il servo che lo introdusse in un salotto tappezzato in azzurro e ornato da un gran numero di piante che spandevano all'intorno deliziosi profumi il portoghese lasciò che il servo uscisse poi si inoltrò lentamente e attraverso le piante che trasformavano quel salotto in una serra scorse una forma umana coperta di una candida veste egli quantunque preparata a qualunque sorpresa non potè frenare un grido di ammirazione dinanzi a quella splendida giovinetta e la era coricata in una posa graziosa con un abbandono pieno di malinconia su di un ottomano orientale della cui serica stoffa scaturivano sprazzi d'oro con una mano si sosteneva la testolina da cui cadevano come pioggia d'oro quegli splendidi capelli che formavano l'ammirazione di tutti e con l'altra strappava nervosamente i fiori che le stavano vicini era tetra pallida e i suoi occhi azzurri ordinariamente così tranquilli mandavano lampi che tradivano la collera malrepressa vedendo Yanez avanzarsi ella si scosse passandosi una mano sulla fronte a più riprese come se si risvegliasse da un sonno e fissò su di lui uno sguardo acuto chi siete voi chiese con voce fremente chi vi ha data la libertà di entrare qui il lord milady rispose Yanez che divorava con gli occhi quella creatura che trovava immensamente bella più di quanto gliel'aveva descritta Sandokan e che volete da me una domanda prima di tutto disse Yanez guardandosi attorno per assicurarsi che erano proprio soli parlate credete che nessuno possa udirci ella corrugò la fronte e lo guardò fisso come se volesse leggergli nel cuore e indovinare il motivo di quella domanda siamo soli rispose ebbene milady io vengo da assai lontano da dove da Montpracem Marianna balzò in piedi come spinta da una molla e il suo pallore scomparve per incanto da Montpracem esclamò arrossendo voi un bianco un inglese vi ingannate lady Marianna io non sono inglese io sono Yanez Yanez l'amico il fratello di Sandokan signore quale audacia entrare in questa villa ditemi dov'è Sandokan che fa egli si è salvato o è ferito parlatemi di lui o mi farete morire abbassate la voce milady le pareti possono avere delle orecchie parlatemi di lui valoroso amico parlatemi del mio Sandokan egli è vivo ancora più vivo di prima milady siamo sfuggiti all'inseguimento dei soldati senza troppa fatica e senza riportare ferite Sandokan ora si trova imboscato sul sentiero che mena a vittoria pronto a rapirvi ah dio mio quanto vi ringrazio di averlo protetto esclamò la giovanetta con le lacrime agli occhi ascoltatemi ora milady parlate mio prode amico io sono venuto qui per decidere il lord ad abbandonare la villa e ritirarsi a vittoria a vittoria ma giunti là come mi rapirete Sandokan non aspetterà tanto milady disse janez sorridendo è imboscato con i suoi uomini assalirà la scorta e vi rapirà appena fuori dalla villa e mio zio lo risparmieremo ve lo assicuro e mi rapirete sì milady e dove mi condurrà Sandokan alla sua isola marianna chino il capo sul petto e tacque milady disse janez con voce grave non temete Sandokan è uno di quegli uomini che sanno far felice la donna che amano fu uomo terribile crudele anche ma l'amore l'ha cambiato e vi giuro signorina che mai vi pentirete di essere diventata la moglie della tigre della malesia vi credo che importa se il suo passato fu tremendo si ha immolato vittime a centinaia si ha commesso vendette atroci egli mi adora egli farà per me tutto ciò che io gli dirò io farò di lui un altro uomo io abbandonerò la mia isola egli abbandonerà la sua monprocem andremo lontani da questi mari funesti tanto lontani da non udirne in più mai parlare in un angolo del mondo dimenticati da tutti ma felici noi vivremo assieme e nessuno mai saprà che il marito della perla di Labuan è l'antica tigre della malesia l'uomo che ha fatto tremare regni e che ha versato tanto sangue sì io sarò sua sposa oggi domani sempre e l'amerò sempre ah divina lady esclamò Yannet scadendo alle sue ginocchia ditemi cosa posso fare per voi pur di liberarvi e di condorvi da Sandokan dal mio buon amico dal mio fratello avete fatto fin troppo venendo qui e vi serberò riconoscenza fino alla morte ma ciò non basta bisogna decidere il lord a ritirarsi a vittoria per dar campo a Sandokan di agire ma se io parlo mio zio che è diventato estremamente sospettoso temerà qualche tradimento e non abbandonerà la villa avete ragione adorabili miledi ma credo che ormai abbia deciso di lasciare la villa e di ritirarsi a vittoria se ha qualche dubbio cercherò io di farlo risolvere state in guardia signor Yannet perché egli è assai diffidente e potrebbe fiutare qualche cosa siete un bianco è vero ma quell'uomo forse sa che Sandokan ha un amico dalla pelle pallida sarò prudente vi aspetta il lord sì miledi mi ha invitato a cena andateci onde non si mette in sospetto e voi verrete sì più tardi ci rivedremo addio miledi disse Yannet baciandole cavalieriscamente la mano andate nobile cuore io non vi dimenticherò mai il portoghese uscì come ubriaco abbarbigliato da quella splendida creatura per giove esclamò dirigendosi verso il gabinetto del lord non ho mai veduto una donna così bella e davvero cominciò ad invidiare quel briccone di Sandokan il lord la tendeva passeggiando innanzi e indietro con la fronte aggrottata e le braccia strettamente incrociate ebbene giovinotto che accoglienza vi ha fatto mia nipote chiese con voce dura e ironica pare che non ami udir parlare di mio cugino William rispose Yannet poco mancò che mi scacciasse il lord crollò il capo e le sue rughe divennero profonde sempre così sempre così mormorò con i denti stretti si rimise a passeggiare rinchiuso in un silenzio feroce agitando nervosamente le dita poi fermandosi dinanzi a Yannet che lo guardava senza fare un gesto gli chiese che cosa mi consigliate di fare vi ho già detto milord che la miglior cosa da fare è quella da andare a vittoria è vero credete voi che mia nipote possa amare un giorno William gli domandò lo spero milord bisogna prima che la tigre della malesia muoia rispose Yannet riusciranno a ucciderla la banda è circondata dalle nostre truppe William le comanda sì è vero lo ucciderà o si farà uccidere da Sandoken lo conosco quel gioinotto è destro e coraggioso tacque ancora e si mise alla finestra guardando il sole che lentamente tramontava rientrò dopo pochi minuti dicendo voi dunque mi consigliate di partire sì milord rispose Yannet approfittate della buona occasione per abbandonare la villa e rifugiarvi a vittoria e se Sandoken avesse lasciati alcuni uomini imboscati nei dintorni del parco mi hanno detto che vera con lui quell'uomo bianco che si chiama Yannet una odace che forse non cede alla tigre della malesia grazie del complimento mormorò in cuor suo Yannet facendo uno sforzo supremo per trattenere l'erisa poi guardando il lord disse voi avete una scorta sufficiente per respingere un attacco prima era numerosa ma ora non lo è più ho dovuto rimandare al governatore di vittoria molti uomini avendone lui urgente bisogno voi sapete che la guarnigione dell'isola è molto scarsa questo è vero milord il vecchio capitano si era rimesso a passeggiare con una certa agitazione pareva che fosse tormentato da un grave pensiero o da una profonda perplessità a un tratto si avvicinò bruscamente a Yannet chiedendogli voi non avete incontrato nessuno venendo qui è vero nessuno milord non avete notato nulla di sospetto non milord quindi si potrebbe tentare la ritirata lo credo eppure dubito che cosa milord che tutti i pirati siano partiti milord io non ho paura di quei forfanti volete che faccia una gita nei dintorni ve ne sarei grato volete una scorta no milord preferisco andarmene solo un uomo può cacciarsi anche in mezzo ai boschi senza attirare l'attenzione dei nemici mentre più uomini difficilmente potrebbero sfuggire ad una sentinella vigilante avete ragione giovinotto quando partirete subito in un paio d'ore si può fare molto cammino il sole è prossimo al tramonto meglio così milord non avete paura quando sono armato non temo chi che sia buon sangue quello dei rosenthal mormorò il lord andate giovinotto io vi aspetto a cena a milord un soldato forse che non siete un gentleman e poi fra breve noi possiamo diventare parenti grazie milord disse janez fra un paio d'ore sarò di ritorno salutò militarmente si mise la sciabola sotto il braccio e scese flemmaticamente le scale inoltrandosi nel parco andiamo a cercare sandokan mormorò quando fu lontano diamine bisogna accontentare il lord vedrai mio caro che esplorazione farò io puoi essere certo fin d'ora che io non avrò incontrato nemmeno una traccia di pirati per giove che magnifica germinella non credevo che dovesse avere una così superba riuscita la cosa non andrà tanto liscia ma quel birbone di mio fratello sposerà la fanciulla dai capelli d'oro perbacco non era mica di cattivo gusto l'amico non ho mai veduto una ragazza così bella e così graziosa ma dopo cosa accadrà povera monpracem ti vedo in pericolo or su non pensiamoci se tutto dovesse finire male andrò a finire la mia vita in qualche città dell'estremo oriente a Canton o al Macau e darò un addio a questi luoghi così monologando il bravo portoghese aveva attraversato una parte del vasto parco fermandosi dinanzi ad uno dei cancelli un soldato stava di sentinella aprite mi amico disse Janetz ripartite sergente no vado ad esplorare i dintorni e i pirati non ve ne sono più da queste parti volete che vi accompagni sergente è inutile sarò di ritorno fra un paio d'ore uscì dal cancello e si avviò sul sentiero che conduceva a vittoria finché fu sotto gli sguardi della sentinella procedette lentamente ma appena si trovò protetto dalle piante affrettò il passo cacciandosi in mezzo agli alberi aveva percorsi mille passi quando vide un uomo slanciarsi fuori da un cespuglio e chiudergli il passo un fucile lo prese subito di mira mentre una voce minacciosa gli gridava arrenditi o sei morto non mi si conosce più adunque disse Yanez levandosi il cappello non hai buona vista mio caro paranoa il signor Yanez esclamò il malese in carne ed ossa mio caro cosa fai qui così vicino alla villa di lord gilong spiavo la cinta dov'è sandokan a un miglio di qui abbiamo buone nuove signor Yanez migliori non potrebbero essere cosa devo fare signore correre da sandokan e dirgli che lo aspetto qui contemporaneamente ordinerai a giu Yoko di allestire il prao partiamo forse questa notte corro subito un momento sono giunti i due praos no signor Yanez e si comincia a temere che siano perduti per giove tonante abbiamo poca fortuna con le nostre spedizioni va avremo uomini bastanti per sgominare la scorta del lord va paranoa e si lesto sfido un cavallo il pirata partì con la velocità di una freccia Yanez accese una sigaretta poi si sdraiò sotto un superbo arecche fumando tranquillamente non erano trascorsi venti minuti quando vide avanzarsi a passo accelerato Sandokan era accompagnato da paranoa e da quattro altri pirati armati fino ai denti Yanez amico mio esclamò Sandokan precipitandogli s'incontro quanto ho tremato per te l'hai veduta parlami di lei fratello mio raccontami io ardo dalla curiosità corri come un incrociatore disse il portoghese ridendo come vedi ho compiuta la mia missione davvero inglese anzi davvero parente di quel forfante di baronetto che accoglienza mio caro nessuno ha dubitato un solo istante di me nemmeno il lord lui meno di tutti ti basti sapere che mi aspetta a cena e Marianna l'ho veduta e l'ho trovata così bella da farmi girare il capo quando poi l'ho vista piangere l'hai vista piangere gridò Sandokan con accento che aveva dello strazio dimmi chi è stato a farle spargere delle lacrime dimmelo e io andrò a strappare il cuore a quel maledetto che ha fatto piangere quei begli occhi diventi idrofobo Sandokan e l'ha pianto per te ah sublime creatura esclamò il pirata raccontami tutto Yanez te ne prego il portoghese non se lo fece dire due volte e gli narrò quant'era venuto prima fra lui il lord e quindi con la fanciulla il vecchio sembra ormai deciso a partire concluse egli quindi tu puoi ormai essere certo di non ritornare solo a Monpracem sii prudente fratellino poiché vi sono non pochi soldati nel parco e dovremo lottare bene per sgominare la scorta e poi non mi fido molto di quel vecchio sarebbe capace di uccidere sua nipote piuttosto di lasciarsela rapire da te la rivedrai tu questa sera certo ah se potessi entrare anch'io nella villa quale pazzia quando si metterà in marcia il lord non lo so ancora però credo che prenderà questa sera una decisione che parta questa notte lo suppongo come poterlo sapere con certezza non vi è che un mezzo quale andare uno dei nostri uomini nel chiosco cinese o nella serra e attendere colà i miei ordini vi sono delle sentinelle sparse nel parco non ne ho veduto che ai cancelli rispose Yanez se andassi io nella serra no Sandokan tu non devi abbandonare questo sentiero il lord potrebbe precipitare la partenza e la tua presenza è necessaria per guidare i nostri uomini tu sai bene che conti per dieci manderò Paranoa è destro è prudente e giungerà nella serra senza farsi scorgere appena tramontato il sole varcherà la cinta e andrà ad attendere i tuoi ordini stette un momento silenzioso poi disse e se il lord cambiasse pensiero e rimanesse nella villa diavolo che brutto affare non potresti tu aprirci la porta di notte e lasciarci entrare nella villa e perché no mi sembra un progetto attuabile è a me difficile Sandokan la guarnigione è numerosa potrebbe barricarsi nelle stanze opporre una lunga resistenza e poi il lord trovandosi alle strette potrebbe lasciarsi trasportare dall'ira e scaricare le sue pistole sulla fanciulla non fidarti di quell'uomo Sandokan è vero disse la tigre con un sospiro lord james sarebbe capace di assassinare la fanciulla piuttosto di lasciarsela rapire da me aspetterai sì janet se però non si decide a partire presto io tenterò un colpo disperato noi non possiamo rimanere molto qui bisogna che io rapisca la fanciulla prima che a vittoria si sappia che noi siamo qui e che a Montpracem vi sono pochi uomini io tremo per la mia isola se la perdessimo cosa sarebbe di noi là vi sono i nostri tesori cercherò di decidere il lord ad affrettare la partenza intanto farai armare il prao e radunare qui l'intero equipaggio bisogna rompere di colpo la scorta onde impedire al lord di lasciarsi trascinare a qualche atto disperato vi sono molti soldati nella villa una decina e altrettanti indigeni la vittoria è allora assicurata janez si era alzato ritorni gli chiese sandokan non si deve far attendere un capitano che invita a cena un sergente rispose il portoghese sorridendo quanto ti invidio janez non per la cena però è vero sandokan la fanciulla la vedrai domani lo spero addio amico va e decidilo vedrò paranoia fra due o tre ore ti attenderà fino alla mezzanotte si strinsero la mano e si lasciarono mentre sandokan e i suoi uomini si cacciavano in mezzo alle piante janez si accese una sigaretta si avviò verso il parco procedendo con passo tranquillo come se invece di una perlustrazione tornasse da una passeggiata passò dinanzi alla sentinella e si mise a passeggiare nel parco essendo ancora troppo presto per presentarsi al lord allo svolto di un sentiero si incontrò con lady marianna che pareva lo cercasse ah milady quale fortuna esclamò il portoghese inchinandosi vi cercavo rispose la giovanetta porgendogli la mano avete da dirmi qualche cosa di importante sì che fra cinque ore partiamo per vittoria ve lo disse già il lord sì sandokan è pronto milady i pirati sono stati avvertiti e attendono la scorta mio dio mormorò ella coprendosi il viso con ambo le mani milady bisogna essere forti in questi momenti irrisoluti e mio zio mi maledirà mi esecrerà poi ma sandokan vi farà felice la più felice delle donne due lacrime scendevano lentamente lungo le rose e gote della giovanetta piangete disse janez ah non piangete lady marianna ho paura janez di sandokan no dell'avvenire sarà ridente perché sandokan farà quello che voi vorrete egli è pronto ad incendiare i propri praos a disperdere le sue bande a dimenticare le sue vendette a dare un avvio per sempre alla sua isola e a sfasciare la sua potenza basterà una sola vostra parola per deciderlo mi ama immensamente adunque alla pazzia mi lady ma chi è quest'uomo perché tanto sangue e tante vendette da dove è venuto egli ascoltatemi mi lady disse janez offrendole il braccio e traendola su di un ombroso sentiero i più credono che sandokan non sia che un volgare pirata sbarcato dalle selve del borneo avido di sangue e di prede ma si ingannano egli è di stirpe reale e non è un pirata ma un vendicatore aveva vent'anni quando salì sul trono di Mulubert un regno che trovasi presso le coste settentrionali del borneo forte come un leone fiero come un eroe dell'antichità audace come una tigre coraggioso fino alla pazzia in poco volger di tempo vinse tutti i popoli vicini estendendo le proprie frontiere fino al regno di Varauni e al fiume Coti quelle imprese gli furono fatali inglesi e olandesi gelosi di quella nuova potenza che pareva volesse soggiogare l'intera isola si allearono al sultano di Borneo per fiaccare l'audace guerriero loro dapprima e le armi più tardi finirono per squarciare il nuovo reame dei traditori sollevarono i vari popoli dei sicari prezzolati spensero la madre i fratelli e le sorelle di Sandokan delle bande potenti invasero il regno in vari luoghi corrompendo i capi corrompendo le truppe saccheggiando trucidando commettendo atrocità inaudite invano Sandokan lottò col furore della disperazione battendo gli uni schiacciando gli altri i tradimenti lo raggiunsero nell'istesso suo palazzo i suoi parenti caddero tutti sotto il ferro degli assassini pagati dai bianchi ed egli in una notte di fuoco e di stragi poteva malapena salvarsi con una piccola schiera di prodi errò parecchi anni sulle coste settentrionali del Borneo ora inseguito come una belva feroce ora senza viveri in preda a miserie inenarrabili sperando di riacquistare il perduto trono e di vendicare l'assassinata famiglia fino a che una notte ormai disperando di tutto e di tutti si imbarcò su di un prao giurando guerra atroce a tutta la razza bianca e al soltano di Varauni approdato a Montpracem assoldò degli uomini e si dia a corseggiare il mare era forte era prode era valente ed assetato di vendetta devastò le coste del sultanato assalì gli olandesi e inglesi non accordando quartiere né tregua diventò il terrore dei mari diventò la terribile tigre della Malesia voi sapete il resto è adunque un vendicatore della sua famiglia esclamò Marianna che non piangeva più sì Milady un vendicatore che piange sovente sua madre i suoi fratelli e le sue sorelle caduti sotto il ferro degli assassini un vendicatore che mai commise azioni infami che rispettò in ogni tempo i deboli che risparmiò le donne e i fanciulli che saccheggia i nemici suoi non per sete di ricchezza ma per levare un giorno un esercito di prodi e riacquistare il perduto regno ah quanto bene mi fanno queste parole Janetz disse la giovanetta siete ora decisa a seguire la tigre della Malesia sì sono sua perché l'amo e al punto che senza di lui la vita sarebbe per me un martirio torniamo alla palazzina adunque Milady Dio veglierà su di noi Janetz condusse la giovanetta alla palazzina e salirono nel salotto da pranzo il lord vi era già e passeggiava innanzi e indietro con la rigidezza di un vero inglese nato sulle rive del Tamigi era cupo come prima e teneva la testa china sul petto vedendo Janetz però si arrestò dicendo siete qui? credevo che vi fosse toccata qualche disgrazia vedendovi uscire dal parco ho voluto assicurarmi coi miei occhi che non vi è alcun pericolo Milord rispose Janetz tranquillamente avete veduto nessuno di quei cani di Montprachem? nessuno Milord possiamo recarci a vittoria con tutta sicurezza il lord stette zitto per alcuni istanti poi volgendosi verso Marianna che si era fermata presso una finestra avete inteso che si va a vittoria? le disse sì rispose ella asciuttamente verrete? sapete bene che ogni resistenza da parte mia sarebbe inutile credevo che vi dovessi trascinare a forza signore il portoghese vide una fiamma minacciosa a balenare negli occhi della giovinetta ma stette zitto quantunque si sentisse indosso una smania irresistibile di sciabolare quel vecchio toh esclamò il lord con maggiore ironia per caso non amereste più quell'eroe da coltello che ha consentito a venire a vittoria ricevete le mie congratulazioni signora non continuate esclamò la giovanetta con accento tale che fece fremere lo stesso lord stettero alcuni istanti in silenzio guardandosi in un l'altro come due fiere che si provocano prima di dilaniarsi a vicenda ucciderai o ti spezzerò disse il lord con voce forente piuttosto che tu diventi la moglie di quel cane che si chiama sandokan io ti ucciderò fatelo disse ella avvicinandosi con aria minacciosa vuoi farmi delle scene sarebbero inutili sai bene che io sono inflessibile invece va a fare i tuoi preparativi per la partenza la giovanetta si era arrestata scambiò con janez un rapido sguardo poi uscì dalla stanza chiudendo violentemente la porta l'avete veduta disse il lord volgendosi verso janez ella crede di sfidarmi ma si inganna viva dio la spezzerò janez invece di rispondere si terse alcune gocce di sudore freddo che gli imperlavano la fronte ed incrociò le braccia per non cedere alla tentazione di porre mano alla sciabola avrebbe dato mezzo del suo sangue per sfarsi di quel terribile vecchio che ormai sapeva capace di tutto il lord passeggiò per la stanza per alcuni minuti poi fece cenno a janez di sedersi il pasto fu fatto in silenzio il lord toccò appena i cibi il portoghese invece fece onore ai diversi piatti da uomo che non sa se e dove potrebbe fare una seconda cena avevano appena terminato quando entrò un caporale vostro onore mi ha fatto chiamare chiese egli dirai ai soldati di tenersi pronti a partire per quale ora alla mezzanotte noi lasceremo la villa a cavallo sì e raccomando a tutti di cambiare le cariche ai loro fucili vostro onore sarà servito partiremo tutti milord chiese janez non lascerò qui che quattro uomini è numerosa la scorta si comporrà di dodici soldati fidatissimi e di dieci indigeni con tali forze noi non avremo nulla da temere voi non conoscete i pirati di monpracem giovinotto se dovessimo incontrarli non so a chi spetterebbe la vittoria mi permettete milord di scendere nel parco cosa volete fare sorvegliare i preparativi dei soldati andate giovinotto il portoghese uscì e scese rapidamente la scala mormorando spero di giungere in tempo per avvertire paranoa sandokan preparerà una bella imboscata passò dinanzi ai soldati senza fermarsi e orizzontandosi alla meglio si cacciò in mezzo ad un viale che doveva condurlo nei pressi della serra cinque minuti dopo si trovava in mezzo al macchione di banani là dove aveva fatto prigioniero il soldato inglese si guardò intorno per essere certo di non essere stato seguito poi si avvicinò alla serra spingendo la porta subito vide un'ombra nera rizzarglisi davanti mentre una mano gli puntava sul petto una pistola sono io paranoa disse ah voi padroni anez parti subito senza arrestarti e va ad avvertire sandokan che noi fra qualche ora lasceremo la villa dove dobbiamo aspettarvi sul sentiero che conduce a vittoria siete in molti una ventina parto subito arrivederci presto signor ianez il malese si slanciò sotto il viale scomparendo in mezzo alla fosca ombra delle piante quando ianez tornò alla palazzina il lord stava scendendo la scala si era cinta la sciabola e a tracolla portava una carabina la scorta si teneva pronta si componeva di 22 uomini 12 bianchi e 10 indigeni e tutti armati fino ai denti un gruppo di cavalli scalpitava presso il cancello del parco dov'è mia nipote chiese il lord eccola rispose il sergente che comandava la scorta infatti Lady Marianna scendeva in quel momento la gradinata era vestita da amazzone con un giubbettino di velluto azzurro e lunga veste di egual stoffa costume tinta che facevano doppiamente risaltare il suo pallore e la bellezza del suo viso in capo portava un grazioso berretto adorno di piume inclinato sui dorati capelli il portoghese che l'osservava attentamente vide due lacrime tremolare sotto le palpebre e sul viso profondamente scolpita una profonda ansietà non era più l'energica fanciulla di poche ore prima che aveva parlato con tanto fuoco e tanta fierezza l'idea di un rapimento in quelle condizioni l'idea di dover abbandonare per sempre suo zio che era l'unico parente che ancora vivesse che non l'amava è vero ma che aveva avuto per lei non poche attenzioni durante la sua gioventù di dover per sempre lasciare quei luoghi per gettarsi in un avvenire oscuro incerto fra le braccia ad un uomo che si appellava alla tigre della Malesia parevano atterrirla quando salì a cavallo le lacrime non più frenate le caddero abbondanti e alcuni singhiozzi le sollevarono il seno Ianez spinse il proprio cavallo verso di lei e disse coraggio milady l'avvenire sarà ridente per la perla di Labuan ad un comando del lord il drappello si mise in marcia uscendo dal parco e prendendo il sentiero che conduceva all'imboscata sei soldati aprivano la marcia con le carabine in pugno e gli occhi fissi ai due lati del sentiero onde non venire sorpresi seguivano il lord poi Ianez e la giovane lady fiancheggiati da altri quattro soldati e quindi gli altri in gruppo serrato e le armi posate dinanzi la sella malgrado le notizie recate da Ianez tutti diffitavano e scrutavano con profonda attenzione le circostanti foreste il lord pareva che non si occupasse di ciò ma di quando in quando si volgeva lanciando su Marianna uno sguardo in cui si leggeva una grave minaccia quell'uomo lo si capiva era pronto ad uccidere la nipote al primo tentativo da parte dei pirati e della tigre fortunatamente Ianez che non lo perdeva di vista si era accorto delle sue sinistre intenzioni e si teneva pronto a proteggere l'adorabile fanciulla avevano percorso nel più profondo silenzio circa due chilometri quando a destra del sentiero si udì improvvisamente un leggero fischio Ianez che già si aspettava l'assalto di momento in momento spoderò la sciabola e si mise fra il lord e Lady Marianna cosa fate? chiese il lord che si era bruscamente voltato non avete udito? chiese Ianez un fischio? sì ebbene ciò vuol dire mi lord che i miei amici vi circondano disse Ianez freddamente ah traditore urlò il lord estraendo la sciabola e spingendosi verso il portoghese troppo tardi signore gridò questi gettandosi dinanzi a Marianna infatti nell'istesso momento due scariche micidiali partirono d'ambo i lati del sentiero gettando a terra quattro uomini e sette cavalli poi trenta tigrotti di Montpracem si precipitarono fuori dai boschi mandando urla indescrivibili e caricando furiosamente il drappello Sandokan che li guidava si avventò in mezzo ai cavalli e tra i quali si erano prontamente radunati gli uomini della scorta e abbatté con un gran colpo di scimitarra il primo uomo che gli si parò dinanzi il lord gettò un vero rugito con una pistola nella sinistra e la sciabola nella destra si avventò verso Marianna che si era aggrappata alla criniera della sua cavalla ma Ianez era balzato a terra afferrò la giovanetta la levò di sella e stringendosela al petto con le robuste braccia cercò di passare fra i soldati e gli indigeni che si difendevano col furore che imponde la disperazione trincerati dietro i loro cavalli largo largo gridò egli cercando di dominare con la voce il fracasso della moschetteria e il cozzar furioso delle armi ma nessuno badava a lui all'infuori del lord che si preparava ad assalirlo per maggior disgrazia o per sua fortuna forse la giovanetta gli svenne fra le braccia egli la depose dietro un cavallo morto nel mentre che il lord pallido di furore gli faceva fuoco addosso con un salto evitò la palla poi roteando la sciabola gridò aspetta un po' vecchio lupo di mare che ti farò assaggiare la punta del mio ferro traditore ti uccido rispose il lord si scagliarono l'uno contro l'altro uno risoluto a sacrificarsi per salvare la giovanetta l'altro deciso a tutto pur di strapparla alla tigre della malesia mentre si scambiavano tremendi fendenti con accanimento senza pari inglesi e pirati combattevano con pari furore tentando di respingersi vicendevolmente i primi ridotti ad un pugno di uomini ma fortemente trincerati dietro i cavalli che erano tutti caduti si difendevano animosamente aiutati dagli indigeni che menavano ciecamente le mani confondendo le loro grida selvagge con quelle tremende dei tigrotti colpivano di punta e di taglio facevano roteare i fucili servendosene come fossero mazze retrocedevano e avanzavano ma tenevano saldo Sandokan con la scimitarra in pugno tentava ma in vano riscondare quella muraglia umana per portare aiuto al portoghese che si affannava a respingere i turbinosi attacchi del lupo di mare rugiva come una belva fendeva teste e squarciava petti s'avventava pazzamente fra le punte delle baionette trascinando seco la terribile sua banda che agitava le scuri insanguinate e le pesanti sciabole da bordaggio la resistenza degli inglesi non doveva durare però molto la tigre trascinando un'altra volta i suoi uomini all'assalto riuscì finalmente a respingere i difensori che si ripiegarono confusamente gli uni addosso gli altri tieni saldo Yanez tuonò Sandokan tempestando con la scimitarra il nemico che tentava di chiudergli il passo tieni saldo che sto per giungere ma proprio in quel momento la sciabola del portoghese si spezzava a metà egli si trovò disarmato con la fanciulla ancora svenuta e il lord di Nancy aiuto Sandokan gridò il lord gli si precipitò addosso gettando un urlo di trionfo ma Yanez non si smarrì si trasse rapidamente da un lato evitando la sciabola poi urtò col capo il lord atterrandolo caddero però entrambi e si misera di battersi cercando di soffocarsi rotolando fra i morti e i feriti John disse il lord vedendo un soldato cadere a pochi passi col viso spaccato da un colpo di scure ammazza Lady Marianna te lo comando il soldato facendo uno sforzo disperato si sollevò sulle ginocchia con la daga in mano pronto ad ubbidire ma non ebbe il tempo gli inglesi oppressi dal numero cadevano uno ad uno sotto le scuri dei pirati e la tigre era lì a due passi con un urto irresistibile atterrò gli uomini che ancora rimanevano in piedi balzò sul soldato che aveva già alzato l'arma e lo uccise con un colpo di scimitarra mia 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 esclamò il pirata afferrando la giovanetta e stringendosela al petto balzò fuori della mischia e fuggì nella vicina foresta mentre i suoi uomini finivano gli ultimi inglesi il lord scagliato da Yanez contro il tronco di un albero rimase solo e semi accoppato in mezzo ai cadaveri che coprivano il sentiero la moglie della tigre la notte era magnifica la luna quell'astro delle notti serene splendiva in un cielo senza nubi proiettando la pallida sua luce ed un azzurro trasparente d'un'infinita dolcezza sopra le oscure e misteriose foreste sopra le mormoranti acque del fiumicello e riflettendosi con vago tremolio sui flutti dell'ampio mare della Malesia un soave venticello carico delle esalazioni profumate delle grandi piante agitava con lieve sussurri o le fronde e scendendo alla placida marina moriva nei lontani orizzonti dell'Ovest tutto era silenzio tutto era mistero e pace solo di tratto in tratto udivasi la risacca che si rompeva con monotono corgoglio sulle deserte sabbie del Lido il gemito della brezza che pareva un flebile lamento e un singhiozzo che salsava sul ponte del Praho Corsaro il veloce legno aveva lasciata la foce del fiumicello e fuggiva ratto verso l'occidente lasciandosi dietro la buan che ormai confondevasi fra le tenebre tre sole persone vegliavano sul ponte Janez tacitorno triste cupo assiso a poppa con una mano sulla barra del timone Sandokan e la fanciulla dai capelli d'oro seduti a prua all'ombra delle grandi vele accarezzati dalla brezza notturna il pirata si stringeva al petto la bella fuggitiva e le tergeva le lacrime che brillavano sulle sue ciglia senti amore mio diceva egli non piangere io ti farò felice immensamente felice e sarò tuo tutto tuo noi andremo lontani da queste isole seppelliremo il mio truce passato e non udremo più mai parlare né dei miei pirati né della mia selvaggia monpracem la mia gloria la mia potenza le mie sanguinose vendette il mio temuto nome tutto dimenticherò per te perché voglio diventare un altro uomo odimi fanciulla adorata fino ad oggi fui il temuto pirata di monpracem fino ad oggi fui assassino fui crudele fui feroce fui tremendo fui tigre ma non lo sarò più frenerò gli impeti della mia natura selvaggia sacrificherò la mia potenza abbandonerò questo mare che un dì ero orgoglioso di chiamare mio e la terribile banda che fece la mia triste celebrità non piangere Marianna l'avvenire che ci aspetta non sarà tetro non sarà oscuro ma bensì ridente tutto felicità andremo lontani tanto da non udire più mai parlare delle nostre isole che ci hanno veduti crescere vivere amare e soffrire perderemo patria amici parenti ma che importa ti darò una nuova isola più Gaia più ridente dove io non udrò più il ruggito dei cannoni dove non vedrò alla notte folleggiarmi intorno quel corteo di vittime da me immolate che mi urlano sempre assassino no non vedrò più nulla di tutto ciò e potrò ripeterti da mani a sera quella divina parola che per me è tutto tamo e sono tuo sposo no ripetimi anche tu questa dolce parola che mai udì risuonare agli orecchi miei durante la mia burrascosa vita la giovinetta si abbandonò nelle braccia del pirata ripetendo fra i singhiozzi tamo Sandokan tamo è come giammai donna alcuna ha mosso la terra Sandokan se la strinse al petto le sue labbra baciavano i dorati capelli di lei e la sua fronte nivea ora che sei mia guai a chi ti tocca riprese il pirata oggi siamo su questo mare ma domani saremo al sicuro nel mio inaccessibile nido dove nessuno avrà l'ardire di venire ad assalirci poi quando ogni pericolo sarà scomparso andremo dove tu vorrai o mia diletta fanciulla sì mormorò Mariana andremo lontani tanto da non udire più mai parlare delle nostre isole mandò un profondo sospiro che pareva un gemito e svenne tra le braccia di Sandokan quasi nel medesimo istante una voce disse fratello il nemico ci insegue il pirata si volse stringendosi al petto la fidanzata e si trovò di fronte Ianez che gli additava un punto luminoso scorrente sul mare il nemico chiese Sandokan coi lineamenti alterati ho veduto ora quel lume viene dall'oriente forse laggiù una nave corre sulle nostre tracce desiosa di riacquistare la preda rapita al lord ma noi la difenderemo Ianez esclamò Sandokan guai a chi tenterà di sbarrarci il passo guai a loro io sarei capace di pugnare sotto gli occhi di Mariana contro il mondo intero guardò attentamente il fanale segnalato e si strappò dal fianco la scimitarra Marianna allora tornava in sé vedendo il pirata con l'arma in pugno gettò un leggero grido di terrore perché quell'arma sguainata o Sandokan chiese impallidendo il pirata la guardò con suprema tenerezza ed esitò ma poi traendola dolcemente a poppa le mostrò il fanale una stella chiese Marianna no amor mio è una nave che ci insegue è un occhio che scruta avidamente il mare cercandoci mio dio ci inseguono adunque è probabile ma troveranno palle e mitraglia per dieci dei loro ma se ti uccidessero uccidermi esclamò egli raddrizzandosi mentre un lampo superbo gli guizzava negli occhi io mi credo ancora invulnerabile l'incrociatore poiché tale doveva essere non era più una semplice umbra i suoi alberi spiccavano ormai nettamente sul fondo chiaro del cielo e si vedeva innalzarsi una grossa colonna di fumo in mezzo alla quale volteggiavano miriadi di scintille la sua prua tagliava rapidamente le acque che scintillavano al chiarore dell'astro notturno e il vento portava fino al prago il fragore delle ruote mordenti i frutti vieni vieni maledetto da dio esclamò Sandokan sfidandolo con la scimitarra mentre con l'altro braccio cingeva la fanciulla vieni a misurarti con la tigre dia i tuoi cannoni di ruggire lancia i tuoi uomini all'abordaggio io ti sfido poi volgendosi verso Marianna che guardava ansiosamente il legno nemico che guadagnava via vieni amor mio le disse ti condurrò nel tuo nido dove sarai al riparo dei colpi di quegli uomini che fino a ieri erano tuoi compatrioti e che oggi sono tuoi nemici si arrestò un istante fissando sul piroscafo che forzava le macchine un bieco sguardo poi condusse Marianna nella cabina era questa una stanzetta arredata con eleganza un vero nido le pareti sparivano sotto un fitto tessuto orientale e il pavimento era coperto da soffici tappeti indiani i mobili ricchi bellissimi di mogano e di ebano intarsiati di madreperla occupavano gli angoli mentre dall'alto pendeva una grande lampada dorata qui i colpi non ti raggiungeranno Marianna disse Sandokan le lastre di ferro che coprono la poppa del mio legno saranno sufficienti per arrestarli ma tu Sandokan io risalgo sul ponte a comandare la mia presenza è necessaria per dirigere la battaglia se l'incrociatore ci assalirà ma se una palla ti colpisse non avere questa paura Marianna alla prima scarica lancerò fra le ruote del legno nemico tale granata da fermarlo per sempre io tremo per te la morte ha paura della tigre della Malesia rispose il pirata con suprema fierezza e se quegli uomini venissero all'abordaggio io non li temo mia fanciulla i miei uomini sono tutti valorosi sono veri tigri pronte a morire per il loro capo e per te vengano pure all'abordaggio i tuoi compatrioti noi li stermineremo e li cacceremo tutti in mare ti credo mio valoroso campione pure io ho paura essi ti odiano Sandokan e per prenderti sarebbero capaci di tentare qualunque pazzia guardati da loro mio prode amico perché hanno giurato di ucciderti uccidermi esclamò Sandokan quasi con dispregio essi uccidere la tigre della Malesia si provino a se l'osano mi sembra di essere ora diventato tanto possente da arrestare con le mie mani le palle delle loro artiglierie no non temere per me fanciulla mia vado a punire l'insolente che viene a sfidarmi poi tornerò da te io intanto pregherò per te mio valoroso Sandokan il pirata la guardò per alcuni istanti con profonda ammirazione le prese poi il capo fra le mani e le sfiorò con le labbra ai capelli ed ora disse poi alzandosi fieramente a noi due maledetto vascello che vieni a turbare la mia felicità mio dio proteggilo mormorò la giovanetta cadendo in ginocchio l'equipaggio del prago svegliato dal grido d'allarme di Yanez e dalla prima cannonata era salito precipitosamente in coperta pronto alla lotta scorgendo il legno a così breve distanza i pirati si gettarono bravamente sui cannoni e sulle spingarde per rispondere alla provocazione dell'incrociatore gli artiglieri avevano già accese le micce e stavano per accostarle ai pezzi quando Sandokan comparve vedendolo comparire sul ponte un urlo solo s'alzò fra i tigrotti viva la tigre largo a me gridò Sandokan respingendo gli artiglieri basterò io solo a punire quell'insolente il maledetto non andrà alla buona a raccontare d'aver cannoneggiata la bandiera di Montpracem ciò detto andò a collocarsi a poppa appoggiando un piede sulla culatta di uno dei due cannoni quell'uomo pareva che fosse ritornato alla terribile tigre della Malesia ad altri tempi i suoi occhi luccicavano come carboni accesi e i suoi lineamenti avevano presa un'espressione di tremenda ferocia si capiva che una rabbia terribile avvampava nel suo petto mi sfidi disse vieni e ti mostrerò mia moglie essa sta sotto di me difesa dalla mia scimitarra e dai miei cannoni vieni a prendermela se ne sei capace le tigri di Montpracem ti aspettano si volse verso Paranoa che gli stava vicino tenendo la barra del timone e gli disse manda dieci uomini nella stiva e fa portare in coperta quel mortaio che io ho fatto imbarcare un istante dopo dieci pirati savano faticosamente sul ponte un grosso mortaio assicurandolo con alcune funi presso l'albero maestro un artigliere lo caricò con una bomba da otto pollici del peso di ventun chilogrammi e che scoppiando doveva lanciare ben ventotto schegge di ferro ora attendiamo l'alba disse Sandokan voglio mostrarti un legno maledetto la mia bandiera e mia moglie salì sulla murata a poppiera e si sedette con le braccia incrociate sul petto e gli sguardi fissi sull'incrociatore ma cosa ha intenzione di fare gli chiese Janetz il piroscafo fra poco sarà a buon tiro e aprirà il fuoco contro di noi tanto peggio per lui aspettiamo dunque già che così vuoi il portoghese non si era ingannato dieci minuti dopo quantunque il prao divorasse la via l'incrociatore era a soli duemila metri a un tratto un lampo balenò a prua del legno e una forte detonazione scosse gli strati dell'aria ma non si udì il fischio acuto della palla ah esclamò Sandokan sogginando mi inviti ad arrestarmi e domandi la mia bandiera Janetz spiega il vessillo della pirateria la luna è splendida e coi cannocchiali vedranno il portoghese obbedì il piroscafo che pareva che non aspettasse che un segnale subito raddoppiò la corsa e giunto a mille metri sparò una cannonata ma questa non ha polvere perché il proiettile passò fischiando sopra il prao Sandokan non si mosse né batte ciglio i suoi uomini si disposero ai posti di combattimento ma non diedero risposta né all'intimazione né alla minaccia il vascello continuò a venire innanzi ma più lentamente con prudenza quel silenzio doveva preoccuparlo e non poco ben sapendo che i legni corsari sono sempre armati e montati da equipaggi risoluti a 800 metri lanciò un secondo proiettile il quale mal diretto rimbalzò in mare dopo di aver rasentata la corazza poppiera del piccolo legno una terza palla poco dopo infilava la coperta del prao forando le due vele di maestra e di trinchetto mentre una quarta si frantumava contro uno dei due cannoni di poppa lanciando un frammento fino alla murata sulla quale stava seduto Sandokan questi si raddrizzò con un gesto superbo e tendendo la destra verso il legno nemico gridò con voce minacciosa tira tira nave maledetta io non ti temo quando tu potrai vedermi io ti fracasserò le ruote e ti arresterò di volo altri due lampi balenarono sulla prora del piroscafo seguiti da due acute detonazioni una palla andò a fracassare parte della murata di poppa soli due passi da Sandokan mentre l'altra portava via nettamente la testa ad un uomo che stava legando una scotta sul piccolo castello di prora un urlo di furore salzò tra l'equipaggio tigre della malesia vendetta Sandokan si volse verso i suoi uomini dardeggiando su di loro uno sguardo corrucciato silenzio tuono qui comando io il legno non ci risparmia Sandokan disse Yanez lascia che tiri cosa vuoi aspettare l'alba è una pazzia Sandokan se una palla ti colpisse sono invulnerabile gridò la tigre della malesia guarda io sfido il fuoco di quel legno con un balzo erasi slanciato sulla murata poppiera aggrappandosi all'asta della bandiera Yanez provò un brivido di spavento la luna era sorta sull'orizzonte e dal ponte del legno nemico con un buon cannocchiale si poteva distinguere quel temerario che si esponeva ai colpi di cannone scendi Sandokan gridò Yanez tu vuoi farti uccidere un sorriso sprezzante fu la risposta del formidabile uomo pensa a Marianna disse Yanez ella sa che io non ho paura silenzio ai vostri posti sarebbe stato più facile arrestare il piroscafo nella sua corsa che decidere Sandokan ad abbandonare quel posto Yanez che conosceva la tenacia del suo compagno rinunciò ad un secondo tentativo e si ritirò dietro ad uno dei due cannoni l'incrociatore dopo quelle cannonate quasi infruttuose aveva sospeso il fuoco il suo capitano voleva certamente guadagnare maggior via per non sprecare inutilmente le munizioni per un altro quarto d'ora i due legni continuarono la loro corsa poi a 500 metri il cannoneggiamento venne ripreso con maggior furia le palle cadevano numerose attorno al piccolo veliero e non sempre andavano perdute qualche proiettile passava assimilando attraverso la velatura recidendo qualche corda o smussando le estremità dei pennoni e qualche altro veniva a rimbalzare o scrosciava contro le piastre metalliche una palla attraversò il ponte di infilata rasentando l'albero maestro se fosse passata pochi centimetri più a destra il veliero sarebbe stato arrestato nella sua corsa Sandokan nonostante quel pericoloso grandinare non si muoveva guardava freddamente la nave nemica che forzava la sua macchina per guadagnare via e sorrideva ironicamente ogni volta che una palla gli si bilava alle orecchie vi fu un momento però che Yanez lo vide balzare in piedi e curvarsi come se fosse lì per slanciarsi verso il mortaio ma poi riprese quasi subito il suo posto mormorando non ancora voglio che tu veda mia moglie per altri dieci minuti il piroscafo bombardò il piccolo veliero il quale non faceva alcuna manovra per sottrarsi a quella grandine di ferro poi le detonazioni a poco a poco diventarono rade finché cessarono del tutto guardando attentamente sull'alberatura del legno nemico Sandokan vide sventolare una grande bandiera bianca ah esclamò il formidabile uomo tu mi inviti ad arrendermi Yanez cosa vuoi fratellino spiega la mia bandiera sei pazzo quei birboni riprenderanno il cannoneggiamento già che si sono stancati lasciali tranquilli voglio che si sappia che chi guida questo prao è la tigre della Malesia e ti saluterà con una grandine di granate il vento comincia a diventare più fresco Yanez fra dieci minuti noi saremo fuori di portata dai suoi colpi sia pure a un suo cenno un pirata attaccò la bandiera alla drizza di poppa e la essò fino alla punta dell'albero maestro un colpo di vento la sciolse e alla limpida luce della luna mostrò il suo colore sanguigno tira ora tira gridò Sandokan tendendo il pugno verso il legno nemico fattonare i tuoi cannoni arma i tuoi uomini empi di carbone le tue caldaie io ti aspetto voglio mostrarti la mia conquista al baleno delle mie artiglierie due colpi di cannone furono la risposta l'equipaggio dell'incrociatore aveva di già scorta la bandiera delle tigri di Monpracem e riprendeva con maggior vigore il cannoneggiamento l'incrociatore precipitava la marcia per dare addosso al veliero e dargli occorrendo l'abordaggio il suo camino fumava come un vulcano e le ruote mordevano fragorosamente le acque quando le detonazioni cessavano si udivano perfino i sordi mugiti della macchina il suo equipaggio dovette però ben presto convincersi che non era cosa facile gareggiare con un veliero attrezzato a Praho essendo cresciuto il vento il piccolo legno che fino allora non aveva potuto raggiungere i dieci nodi aveva preso un'andatura più rapida le sue immense vele gonfie come due palloni esercitavano sul legno uno sforzo straordinario non correva più volava sulle tranquille acque del mare sfiorandole appena vi erano anzi certi momenti che pareva perfino che si sollevasse e che il suo scafo non toccasse nemmeno l'acqua l'incrociatore tirava furiosamente ma ormai le sue palle cadevano tutte nella scia del Praho Sandokan non si era mosso seduta accanto alla sua rossa bandiera spiava attentamente il cielo pareva che non si occupasse nemmeno più del vascello che gli dava la caccia con tanto accanimento il portoghese che non capiva quale idea avesse Sandokan gli si avvicinò dicendogli cosa vuoi fare adunque fratellino mio fra un'ora noi saremo ben lontani da quel legno se questo vento non cessa aspetta ancora un po' Janetz rispose Sandokan guarda laggiù ad oriente le stelle cominciano ad impallidire e pel cielo si diffondono di già i primi chiarori dell'alba puoi trascinare quell'incrociatore fino a Montpracem per poi abbordarlo non ho questa intenzione non ti comprendo appena l'alba permetterà l'equipaggio di quel legno di scorgermi io punirò quell'insolente tu sei troppo abile artigliere per aspettare la luce del sole il mortaio è pronto voglio che vedano chi darà fuoco al pezzo forse lo sanno di già è vero forse lo sospettano ma non mi basta voglio mostrare loro anche la moglie della tigre della Malesia Marianna si Janetz quale pazzia così si saprà alla Buan che la tigre della Malesia ha osato violare le coste dell'isola e affrontare i soldati che vegliavano su Lord Gillong a vittoria non si ignorerà ormai l'ardita spedizione da te tentata non importa è pronto il mortaio è già caricato Sandokan fra pochi minuti noi puniremo quel curioso frantumerò una delle sue ruote lo vedrai Janetz mentre parlavano verso oriente una pallida luce che si tingeva però rapidamente di riflessi rosei continuava a diffondersi in cielo la luna stava tramontando in mare mentre gli astri continuavano ad impallidire ancora pochi minuti e il sole doveva comparire il legno da guerra era allora lontano circa a 1500 metri forzava sempre le macchine però perdeva cammino ad ogni minuto il veloce prago guadagnava rapidamente aumentando il vento con lo spuntare dell'alba fratellino mio disse a un tratto Janetz giù un buon colpo all'incrociatore fa prendere terza ruoli sulle vele di trinchetto e di maestra rispose Sandokan quando sarà a 500 metri darò fuoco al mortaio Janetz diede subito il comando dieci pirati si inerpicarono sulle griselle abbassarono le due vele ed eseguirono rapidamente la manovra ridotta la velatura il prago cominciò a rallentare la corsa l'incrociatore a corto se ne riprese il cannoneggiamento quantunque fosse ancora assai lontano per sperare in un buon successo ci vuole ancora una buona mezz'ora perché giungesse alla distanza desiderata da Sandokan già le sue palle cominciavano a cadere sul ponte del prago quando la tigre slanciandosi bruscamente giù dalla murata si collocò dietro al mortaio un raggio di sole era sorto dal mare illuminando le vele del prago ed ora a me gridò Sandokan con un sorriso strano Janetz metti il legno attraverso il vento un istante dopo il piccolo veliero si poneva attraverso al vento rimanendo quasi in panna Sandokan si fece dare una miccia che Paranoa aveva già accesa e si curvò sul pezzo calcolando con lo sguardo la distanza il legno da guerra vedendo il veliero ad arrestarsi approfittava per tentare di raggiungerlo si avanzava con crescente rapidità fumando e sbuffando ed alternando colpi di granata e proiettili pieni le schegge di ferro balzavano per la coperta forando le vele e recidendo le corde scivolavano sulle piastre stridendo e maltrattando i madieri guai se quella pioggia fosse durata solamente due minuti Sandokan impassibile sempre continuava a mirare fuoco gridò ad un tratto facendo un salto indietro si curvò sul fumante pezzo trattenendo il respiro con le labbra stritte e gli occhi fissi dinanzi a sé come se volesse seguire l'invisibile traiettoria del proiettile pochi istanti dopo una seconda detonazione scoppiava a largo la bomba era scoppiata fra i raggi della tambura di babordo facendo saltare con inaudita violenza le ferramenta della ruota e le pale il piroscafo colpito gravemente si inchinò sul fianco lacerato poi si mise a girare su se stesso sotto le battute dell'altra ruota la quale mordeva ancora le acque viva la tigre urlarono i pirati gettandosi sui cannoni marianna marianna esclamò sandokan mentre il piroscafo rovesciato sul fianco squarciato imbarcava acqua a tonnellate la giovanetta a quella chiamata comparve sul ponte sandokan la prese fra le braccia la sollevò fino alla murata e mostrandola all'equipaggio del piroscafo tuonò ecco mia moglie poi mentre i pirati scagliavano sul vascello un uragano di mitraglia il prago virava di bordo allontanandosi rapidamente verso l'ovest a montpracem punito il legno nemico il quale aveva dovuto fermarsi per riparare i gravissimi danni causatigli dalla granata così destramente lanciata da sandokan il prago coperto dalle sue immense vele si era subito allontanato con quella velocità che è propria di quel genere di legni i quali sfidano i più celeri clippers della marina dei due mondi marianna affranta da tante emozioni si era nuovamente ritirata nella graziosa cabina e anche buona parte dell'equipaggio aveva lasciata la coperta non essendo il legno minacciato da alcun pericolo almeno per il momento janez e sandokan però non avevano lasciato il ponte seduti sul coronamento di poppa discorrevano fra di loro guardando di quando in quando verso l'est dove scorgevasi ancora un sottile pennacchio di fumo quel piroscafo avrà molto da fare a trascinarsi fino a vittoria diceva janez la bomba l'ho acconciato così gravemente da rendergli impossibile ogni tentativo di inseguimento credi tu che ce l'abbia mandato dietro lord gilong no janez rispose sandokan al lord sarebbe mancato il tempo di accorrere a vittoria e di avvertire il governatore di ciò che era accaduto quel legno però doveva cercarci forse da qualche giorno ormai nell'isola si doveva sapere che noi eravamo sbarcati credi tu che il lord ci lascerà tranquilli dubito molto janez io conosco quell'uomo e so quanto è tenace e vendicativo noi dobbiamo aspettarci e presto un formidabile assalto che venga ad assalirci nella nostra isola ne sono certo janez lord james gode molta influenza e per di più so che è ricchissimo a lui sarà quindi facile noleggiare tutti i legni che sono disponibili arruolare marinai ed avere l'aiuto del governatore fra breve noi vedremo comparire dinanzi a monpracem una flottiglia lo vedrai e noi cosa faremo daremo la nostra ultima battaglia l'ultima perché dici così sandokan perché monpracem perderà poi i suoi capi disse la tigre della malesia con un sospiro la mia carriera sta per finire janez questo mare teatro delle mie imprese non vedrà più i praos della tigre assolcare le sue onde sandokan cosa vuoi janez così è scritto l'amore della fanciulla dei capelli d'oro doveva spegnere il pirata di monpracem è triste immensamente triste mio buon janez dover dare un addio e per sempre a questi luoghi e dover perdere la fame e la potenza eppure dovrò rassegnarmi non più battaglie non più tuonare di artiglierie non più fumanti carcassi inabissanti si nei baratri di questo mare non più tremendi abbordaggi ah sento il mio cuore sanguinare janez pensando che la tigre morrà per sempre e che questo mare e la mia stessa isola diverranno d'altri e i nostri uomini essi seguiranno l'esempio del loro capo se lo vorranno e daranno anche loro un addio a monpracem disse sandokan con voce triste e la nostra isola dopo tanto splendore dovrà rimanere deserta come lo era prima della tua comparsa lo diverrà povera monpracem esclamò janez con profondo rammarico io che l'amavo come fosse già la mia patria la mia terra natia e io credi che non l'amassi credi tu che non mi si stringa il cuore pensando che forse non la rivedrò più mai e che forse non solcherò coi miei prahos questo mare che io chiamavo mio se io potessi piangere vedresti quante lacrime bagnerebbero le mie gote orsù così voleva il destino rassegniamoci janez e non pensiamo più al passato eppure non so rassegnarmi sandokan veder sparire d'un solo colpo la nostra potenza che ci era costata immensi sacrifici tremende battaglie e fiumi di sangue è la fatalità che così vuole disse sandokan con voce sorda o meglio l'amore della fanciulla dei capelli d'oro disse janez senza quella donna il ruggito della tigre della malesia giungerebbe ancora possente fino alla buan e farebbe tremare per lunghi anni ancora gli inglesi e anche il soltano di varauni è vero amico mio disse sandokan è la fanciulla che ha dato il colpo mortale a monpracem se non l'avessi mai veduta chissà per quanti anni ancora le nostre trionfanti bandiere scorrazzerebbero questo mare ma ormai è troppo tardi per rompere le catene che ha gettato su di me se fosse stata un'altra donna pensando alla rovina della nostra potenza l'avrei sfuggita o ricondotta alla buan ma sento che spezzerei per sempre la mia esistenza se non dovessi più mai rivederla la passione che mi arde in petto è troppo gigante per soffocarla se ella lo volesse se ella non avesse in orrore il nostro mestiere non avesse paura del sangue e del rombo delle artiglierie quanto farei brillare l'astro di monpracem accanto a lei un trono potrei darglielo qui o sulle coste del borneo e invece orsù si compia il nostro destino andremo a dar a monpracem l'ultima battaglia poi lasceremo l'isola e faremo vela per dove Sandokan lo ignoro Yanez andremo dove ella vorrà molto lontano da questi mari e da queste terre tanto anzi da non udirne più mai parlare se dovessi rimanere vicino non so se saprei resistere a lungo alla tentazione di tornare a monpracem ebbene sia andiamo ad impegnare l'ultima pugna e poi si vada pur lontani disse Yanez con accento rassegnato la lotta sarà però tremenda Sandokanilord ci darà un assalto disperato troverà la tana della tigre inespugnabile nessuno finora è stato tanto audace da violare le coste della mia isola e non le toccherà nemmeno lui aspetta che noi siamo giunti e vedrai quali lavori noi intraprenderemo per non farci schiacciare dalla flottiglia che manderà contro di noi renderemo il villaggio talmente forte da poter resistere al più terribile bombardamento la tigre non è ancora domata e ruggirà forte ancora e getterà lo sgomento nelle file nemiche e se dovessimo venire oppressi dal numero tu sai Sandokan che gli olandesi sono alleati degli inglesi nella repressione della pirateria le due flotte potrebbero unirsi per dare a Monpracem il colpo mortale se dovessi vedermi vinto darò fuoco alle polveri e salteremo tutti assieme al nostro villaggio e ai nostri praos non potrei rassegnarmi alla perdita della fanciulla piuttosto di vedermela rapire preferisco la morte mia e sua speriamo che ciò non succeda Sandokan la tigre della Malesia chinò il capo sul petto e sospirò poi dopo qualche istante di silenzio disse eppure ho un triste presentimento quale chiese Yanez con ansietà Sandokan non rispose abbandonò il portoghese e si appoggiò sulla murata di prua esponendo l'ardente viso alla brezza notturna era inquieto profonde rughe solcavano la sua fronte e di tratto in tratto dei sospiri gli uscivano dalle labbra fatalità e tutto per quella creatura celeste mormorò per lei dovrò perdere tutto tutto perfino questo mare che chiamavo mio e che consideravo come sangue delle mie vene diverrà di loro di quegli uomini che da dodici anni combatto senza posa senza tregua di quegli uomini che mi hanno precipitato dai gradini d'un trono nel fango che mi hanno ucciso madre fratelli sorelle tutti lamenti continuò guardando il mare che gorgogliava dinanzi la prua del veloce legno tu gemi tu non vorresti diventare di quegli uomini tu non vorresti tornare tranquillo come prima che io qui giungessi ma credi che anche io non soffra? se fossi capace di piangere da questi occhi schizzerebbero non poche lacrime orsu a che lamentarsi ora questa fanciulla divina mi compenserà di tante perdite portò le mani alla fronte come se volesse scacciare i pensieri che gli tumultuavano nell'ardente cervello poi si raddrizzò e a lenti passi scese nella cabina si arrestò udendo Marianna a parlare no no diceva la giovanetta con voce affannata lasciatemi non appartengo più a voi sono della tigre della Malesia perché volermi separare da lui via quel William lo odio via via sogna mormono Sandokan dormi sicura fanciulla che qui non corri più alcun pericolo io veglio e per strapparti a me bisognerà che passino sul mio cadavere aprì la porta della cabina e guardò Marianna dormiva respirando affannosamente e agitava le braccia come se cercasse di allontanare una visione il pirata la contemplò alcuni istanti con indefinibile dolcezza poi si ritirò senza far rumore ed entrò nella sua cabina all'indomani il Praho che aveva navigato tutta la notte con velocità ragguardevole si trovava a sole 60 miglia da Montpracem ormai tutti si consideravano al sicuro quando il portoghese che sorvegliava con grande attenzione scorse una sottile colonna di fumo che pareva si dirigesse verso est oh esclamò egli abbiamo un altro incrociatore in vista che io sappia non ci sono vulcani in questo tratto di mare si armò d'un cannocchiale e si arrampicò fino sulla cima dell'albero di maestra scrutando con profonda attenzione quel fumo che allora erasi considerevolmente avvicinato quando ridiscese la sua fronte era annuvolata cos'hai Yanez chiese Sandokan che era tornato in coperta ho scoperto una cannoniera fratellino mio poco di male lo so che non si arrischierà di attaccarci essendo quei legni armati usualmente di un solo cannone ma sono inquieto per un altro motivo quale mai quel legno viene dall'est e forse da Montpracem ah non vorrei che durante la nostra assenza una flotta nemica avesse bombardato il nostro nido Montpracem bombardata chiese una voce argentina dietro di loro Sandokan si volse rapidamente e si trovò dinanzi a Mariana ah sei tu amica mia esclamò egli ti credevo ancora addormentata mi sono alzata Aurora ma voi di cosa parlavate forse che un nuovo pericolo ci minaccia no Mariana siamo però inquieti nel vedere una cannoniera che viene dall'occidente ossia dalla parte di Montpracem temi che abbia cannoneggiato il tuo villaggio sì ma non sola una scarica dei nostri cannoni sarebbe bastata per affondarla au esclamò Yanez facendo due passi innanzi cosa vedi la cannoniera ci ha scorti e vira di bordo dirigendosi verso di noi verrà a spiarci disse Sandokan infatti il pirata non si era ingannato la cannoniera una delle più piccole della portata di forse cento tonnellate armata ad un solo cannone situato sulla piattaforma di poppa si accostò fino a mille metri poi virò di bordo ma non si allontanò del tutto poiché si vedeva sempre il suo pennacchio di fumo ad una decina di miglia verso l'est i pirati non si preoccupavano per questo ben sapendo che quel piccolo legno non avrebbe ardito gettarsi contro il prago le cui artiglierie erano così numerose da tenere testa quattro disinfatti nemici verso il mezzodì un pirata che si era arrampicato sul pennone di trinchetto per accomodare una fune segnalò monpracem il tenuto covo della tigre della malesia janez e sandokan respirarono ritenendosi ormai sicuri e si precipitarono verso prua seguiti da marianna là dove il cielo si confondeva con il mare si scorgeva una lunga striscia ancora di colore indeciso ma che a poco a poco diventava verdeggiante presto presto esclamò sandokan che era in preda ad una viva ansietà cosa temi chiese marianna non so ma il cuore mi dice che laggiù qualche cosa è accaduto la cannoniera ci segue sempre sì vedo il pennacchio di fumo verso l'est disse janez brutto segno lo temo anch'io sandokan vedi nulla tu janez puntò un cannocchiale e guardò con profonda attenzione per alcuni minuti vedo i praos ancorati nella baia sandokan respirò e un lampo di gioia abbalenò nei suoi occhi speriamo mormorò il prao spinto da un buon vento in capo ad un'ora giunse a poche miglia dall'isola e si diresse verso la baia che si apriva dinnanzi al villaggio ben presto giunse tanto vicino ad ad discernere completamente le fortificazioni i magazzini e le capanne sulla grande rupe sulla cima del vasto edificio che serviva di abitazione alla tigre si vedeva ondeggiare la grande bandiera della pirateria ma il villaggio non era più florido come era stato lasciato e i praos non erano più tanto numerosi parecchi bastioni apparivano gravemente danneggiati molte capanne si vedevano mezze arse e parecchi legni mancavano ah esclamò Sandokan comprimendosi il petto ciò che sospettavo è accaduto il nemico ha salito il mio covo è vero mormorò janez con dolore povero amico disse marianna colpita dal dolore che rifletteva sul viso di Sandokan i miei compatrioti hanno approfittato della tua assenza si rispose Sandokan scuotendo tristemente il capo la mia isola un dì temuta e inaccessibile è stata violata e la mia fama si è oscurata per sempre la regina di Monpracem purtroppo Monpracem isola ritenuta così formidabile da sgomentari più coraggiosi al solo vederla ma per poco non era caduta nelle mani dei nemici gli inglesi probabilmente informati della partenza di Sandokan certi di trovare un presidio debole si erano improvvisamente portati contro l'isola bombardando le fortificazioni colando a fondo parecchi legni e incendiando parte del villaggio avevano spinto la loro audacia fino a sbarcare delle truppe per tentare di impadronirsene ma il valore di Girobatol e dei suoi tigrotti aveva finalmente triunfato e i nemici erano stati costretti a ritirarsi per tema di venire sorpresi alle spalle dai praos di Sandokan che ritenevano poco lontani era stata una vittoria è vero ma per poco l'isola non era andata nelle mani del nemico quando Sandokan e i suoi uomini sbarcarono i pirati di Monpracem ridotti a metà si precipitarono incontro a lui con Immensi e viva reclamando vendetta contro gli invasori andiamo alla Wuhan tigre della Malesia urlavano prendiamo le palle che hanno scagliate contro di noi capitano disse Girobatol facendosi innanzi noi abbiamo fatto il possibile per abbordare la squadra che ci assalì ma non vi riuscimmo conduceteci alla Wuhan e noi distruggeremo quell'isola fino all'ultimo albero all'ultimo cespuglio Sandokan invece di rispondere prese Marianna e la condusse dinanzi alle orde è la patria di Costei disse la patria di mia moglie i pirati vedendo la giovanetta che fino all'ora era rimasta dietro a Yanez mandarono un grido di sorpresa e d'ammirazione la perla di la Wuhan viva la perla esclamarono cadendo in ginocchio dinanzi a lei la sua patria mi è sacra esclamò Sandokan ma fra poco avrete campo di rimandare ai nostri nemici le palle che si scagliarono su queste coste stiamo per venire assaliti chiesero tutti il nemico non è lontano miei prodi voi potete scorgere la sua avanguardia in quella cannoniera che gira arditamente presso le nostre coste gli inglesi hanno forti motivi per assalirmi vogliono vendicare gli uomini che noi uccidemmo sotto le foreste di la Wuhan e strapparmi questa giovanetta tenetevi pronti che il momento forse non è lontano tigre della Malesia disse un capo avanzandosi nessuno finché uno di noi rimarrà vivo verrà a rapire la perla di la Wuhan ora che la ricopre la bandiera della pirateria ordinate noi siamo pronti a dare tutto il nostro sangue per lei Sandokan profondamente commosso guardò quei prodi che acclamavano le parole del capo e che dopo aver perduto tanti compagni ancora offrivano la loro vita per salvare colei che era stata la principale causa di tutte le loro sventure grazie amici disse con voce soffocata si passò più volte una mano sulla fronte mandò un profondo sospiro forse il braccio alla lady che non era meno commossa e si allontanò col capochino sul petto è finita mormorò Yanez con voce triste Sandokan nella sua compagna salirono la stretta gradinata che conduceva sulla rupe seguiti dagli sguardi di tutti i pirati che li guardavano con un misto d'ammirazione e di rammarico e si fermarono innanzi alla grande capanna ecco la tua dimora disse gli entrando era la mia è un brutto nido dove si svolsero talora cupidrammi è indegno di ospitare la perla di Labuan ma è sicuro inaccessibile al nemico che non potrà forse mai qui giungere se tu fossi diventata la regina di Monpracem l'avrei abbellito ne avrei fatto una reggia forse perché parlare di cose impossibili tutto è morto o sta per morire qui Sandokan portò le mani al cuore e il suo viso si alterò dolorosamente Marianna gli gettò le braccia al collo Sandokan tu soffri mi nascondi i tuoi dolori no anima mia sono commosso ma nulla di più che vuoi nel ritrovare la mia isola violata le mie bande decimate nel pensare che fra poco tutto dovrò perdere Sandokan tu rimpiangi adunque la tua passata potenza e soffri all'idea di dover perdere la tua isola odimi mio eroe vuoi tu che io rimanga in quest'isola fra i tuoi tigrotti che impugni anch'io la scimitarra e che combatta al tuo fianco lo vuoi tu tu esclamò egli no non voglio che tu diventi una donna simile sarebbe una mostruosità all'obbrigarti a rimanere qui l'assordarti sempre col rimbombo delle artiglierie e con le urla dei combattenti ed esporti ad un continuo pericolo due felicità sarebbero troppo e non le voglio tu dunque mi ami più della tua isola dei tuoi uomini della tua fama si anima celeste questa sera radunerò le mie bande e dirò loro che noi dopo combattuta l'ultima battaglia abbasseremo per sempre la nostra bandiera e lasceremo monpracem e che cosa diranno i tuoi tigrotti a simile proposta essi mi odieranno sapendo che io sono la causa della rovina di monpracem nessuno un bacio quindi chiamò i due malesi addetti all'abitazione e ecco la vostra padrona disse loro indicando la giovane obbeditele come a me stesso ciò detto dopo di aver scambiato con Marianna un lungo sguardo uscì a rapidi passi e discese sulla spiaggia la cannoniera fumava sempre in vista dell'isola dirigendosi ora verso il nord ed ora verso il sud pareva che cercasse di scoprire qualche cosa probabilmente qualche altra cannoniera o incrociatore proveniente dalla Wuhan intanto i pirati prevedendo ormai un non lontano attacco lavoravano febbrilmente sotto la direzione di Yanez rinforzando i bastioni scavando fossati e rialzando scarpe e stecconate Sandokhan si avvicinò al portoghese che stava disarmando i prahos delle loro artiglierie per guarnire un potente ridotto costruito proprio al centro del villaggio nessun'altra nave è comparsa no rispose Yanez ma la cannoniera non lascia le nostre acque e questo è un brutto segno se il vento fosse tanto forte da superare la macchina la assalirei con molto piacere bisogna prendere delle misure per mettere al riparo le nostre ricchezze e in caso di sconfitta preparaci la ritirata temi di non poter far fronte agli assalitori ho dei presentimenti sinistri Yanez sento che quest'isola io sto per perderla ah oggi ho fra un mese tutt'uno da chi hai deciso di abbandonarla i nostri pirati lo sanno no ma questa sera condurrai le bande nella mia capanna e là prenderanno le mie decisioni sarà un brutto colpo per loro fratello lo so ma se vorranno continuare per proprio conto la pirateria io non lo impedirò non pensarlo Sandokan nessuno abbandonerà la tigre della Malesia e tutti ti seguiranno nove vorrai lo so mi amano troppo questi prodi lavoriamo Yanez prendiamo la nostra rocca se non imprendibile almeno formidabile raggiunsero i loro uomini che lavoravano con accanimento senza pari rizzando nuovi terrapieni e nuove trincee piantando enormi palizzate che guarnivano di spingarde accumulando immense piramidi di palle e di granate riparando le artiglierie con barricate di tronchi d'albero di macigni e di lastre di ferro strappate ai navigli saccheggiati nelle loro numerose scorrerie alla sera la rocca presentava un aspetto imponente e poteva dirsi inespugnabile quei 150 uomini poiché a così pochi erano ridotti dall'attacco della squadra e dalla perdita di due equipaggi che avevano seguito Sandokan alla Boan e dei quali non si aveva avuto nessuna nuova avevano lavorato come 500 calata la notte Sandokan Sandokan fece imbarcare le sue ricchezze su di un grande prago e lo mandò assieme ad altri due sulle coste occidentali onde prendere il largo se la fuga fosse diventata necessaria alla mezzanotte Yanez coi capi e tutte le bande saliva alla gran capanna dove lo aspettava Sandokan una sala ampia tanto da contenere 200 e più persone era stata arredata con lusso insolito grandi lampade dorate versavano torrenti di luce facendo scintillare l'oro e l'argento degli arazzi e dei tappeti e la madre perla che adornava i ricchi mobili di stile indiano Sandokan aveva indossato il costume di gala di raso rosso e il turbante verde adorno di un pennacchio tempestato di brillanti portava alla cintura i due cris in segna di gran capo e una splendida scimitarra con la guaina d'argento e l'impugnatura d'oro Marianne invece indossava un vestito di velluto nero trapunto in argento frutto di chissà mai quale saccheggio e che lasciava allo scoperto le braccia e le spalle sulle quali cadevano come pioggia d'oro i suoi stupendi capelli biondi ricchi braccialetti adorni di perle di inestimabile valore e un diadema di brillanti che mandava sprazzi di luce la rendevano più bella più affascinante i pirati nel vederla non avevano potuto trattenere un grido d'ammirazione dinanzi a quella superba creatura che essi riguardavano come una divinità amici miei fedeli tigrotti disse Sandokan chiamando intorno a sé la formidabile banda qui vi ho chiamati per decidere la sorte della mia monpracem voi mi avete veduto lottare per tanti anni senza posa e senza pietà contro quella razza esecrata che assassinò la mia famiglia che mi rapì una patria che dai gradini di un trono mi precipitò a tradimento nella polvere che mira ora la distruzione della razza malese voi mi avete veduto a lottare come una tigre respingere sempre gli invasori che minacciavano la nostra selvaggia isola ma ora basta il destino vuole che mi arresti e così sia ormai sento che la mia missione vendicatrice è finita sento di non saper più rugire né combattere come un tempo sento di aver bisogno di riposo combatterò ancora un'ultima battaglia con il nemico che verrà forse domani ad assalirci poi darò un addio a Monpracem e andrò lontano a vivere con questa donna che amo e che diverrà mia moglie vorrete voi continuare le imprese della tigre vi lascio i miei legni e i miei cannoni e se preferite seguirmi nella nuova patria vi considererò ancora come miei figli i pirati i pirati che parevano atterriti da quella rivelazione inaspettata non risposero ma si videro quei volti anneriti dalla polvere dei cannoni e dai venti del mare bagnarsi di lacrime piangete esclamò Sandokan con la voce alterata dalla commozione ah sì vi comprendo miei prodi ma credete che anch'io non soffra l'idea di non rivedere forse più mai la mia isola il mio mare di perdere la mia potenza di rientrare nell'oscurità dopo aver tanto brillato di aver conquistata tanta fama sia pure terribile sinistra è la fatalità che così vuole e poi ora non appartengo che alla perla di Labuan capitano mio capitano esclamò Girobatol che piangeva come un fanciullo rimanete ancora fra noi non abbandonate la nostra isola noi la difenderemo contro tutti noi leveremo uomini noi se vorrete distruggeremo Labuan Varauni e Sarawak onde più nessuno asiminacciare la felicità della perla di Labuan Milady esclamò Giuyoko rimanete anche voi noi vi difenderemo contro tutti noi faremo con i nostri corpi scudo contro i colpi del nemico e se vorrete conquisteremo un regno per darvi un trono fra tutti i pirati vi fu un'esplosione di vero delirio i più giovani supplicavano i più vecchi piangevano rimanete Milady rimanete a Monpracem gridavano tutti affollandosi dinanzi alla giovanetta questa ad un tratto si avanzò verso le bande reclamando con un gesto il silenzio Sandokan disse con un accento che non tremava se ti dicessi rinuncia alle tue vendette alla pirateria e se io spezzassi per sempre il debole vincolo che mi lega ai miei compatrioti e adottassi per patria quest'isola accetteresti tu tu Mariana rimanere sulla mia isola lo vuoi sì e ti giuro che non prenderò le armi che in difesa della mia terra Monpracem sia adunque la mia patria e qui rimango cento armi si innalzarono e si incrociarono sul petto della giovanetta che era caduta fra le braccia di Sandokan mentre i pirati ad una voce gridarono viva la regina di Monpracem guai a chi la tocca il bombardamento di Monpracem all'indomani pareva che il delirio si fosse impadronito dei pirati di Monpracem non erano uomini ma titani che lavoravano con energia sovrumana a fortificare la loro isola che ormai più non volevano abbandonare da che la perla di La Boan aveva giurato di rimanervi si affacendavano intorno alle batterie rizzavano nuove trincee battevano furiosamente le rupi per staccare massi che dovevano rinforzare i ridotti empivano i gabbioni che disponevano dinanzi ai cannoni abbattevano alberi per rizzare nuove palizzate costruivano nuovi bastioni che munivano con le artiglierie elevate ai prahos scavavano trabocchetti preparavano mine empivano i fossati di ammassi di spine e piantavano nel fondo punte di ferro avvelenate col succo del lupas fondevano palle rinforzavano le polveriere affilavano le armi la regina di Monpracem bella affascinante scintillante d'oro e di perle era là ad incoraggiarli con la sua voce e coi suoi sorrisi Sandocan era alla testa di tutti e lavorava con un'attività febbrile che pareva una vera pazzia correva dove era necessario il suo intervento aiutava i suoi uomini a porre in batteria le artiglierie spezzava rupi per ricavare materiali dirigeva le opere di difesa su tutti i punti validamente aiutato da Yanez che pareva avesse perduta la sua solita calma la cannoniera che navigava sempre in vista dell'isola spiando i lavori bastava a stimolare i pirati convinti ormai che attendesse una potente squadra per bombardare la Rocca della Tigre verso il mezzodì giunsero al villaggio parecchi pirati che erano partiti la sera innanzi coi tre praos e le notizie che recarono non erano inquietanti una cannoniera che pareva spagnola si era mostrata al mattino diretta verso l'est ma sulle coste occidentali nessun nemico era apparso temo un grande attacco disse Sandokana Yanez gli inglesi non verranno soli ad assalirmi lo vedrai che abbiano fatto lega con gli spagnoli e con gli olandesi sì Yanez e il mio cuore mi dice che non mi inganno troveranno pane per i loro denti il nostro villaggio è diventato inespugnabile forse Yanez ma non disperiamo ad ogni modo in caso di sconfitta i praos sono pronti a prendere il largo si rimise dal lavoro mentre alcuni pirati invadevano i villaggi indigeni disseminati nell'interno dell'isola per reclutare gli uomini più validi alla sera il villaggio era pronto a sostenere la lotta e presentava una cinta di fortificazioni veramente imponente tre linee di bastioni gli uni più robusti degli altri coprivano interamente il villaggio estendendosi in forma di semicerchio alizzate e fossati ampi rendevano la scalata di quei fortini quasi impossibile 46 cannoni del calibro di 12 di 18 e alcuni da 24 collocati nel gran ridotto centrale una mezza dozzina di mortai e 60 spingarde difendevano la piazza pronti a vomitare palle granate e mitraglia sulle navi nemiche durante la notte Sandokan fece disalberare e vuotare di tutto ciò che contenevano i praos quindi li affondò nella baia onde il nemico non se ne impadronisse o li sfracellasse e mandò parecchi canotti a largo onde sorvegliare le mosse della cannoniera ma questa non si mosse all'alba Sandokan Mariana e Yanez che da alcune ore dormivano nella grande capanna furono bruscamente svegliati da acuti clamori il nemico il nemico si gridava nel villaggio si precipitarono fuori della capanna e si spinsero sull'orlo della gigantesca rupe il nemico era là a 6 o 7 miglia dall'isola e si avanzava lentamente in ordine di battaglia nel vederlo una profonda ruga solcò la fronte di Sandokan mentre il viso di Yanez si oscurava ma è una vera flotta moromorò questi dove quei cani d'inglesi hanno raccolto tante forze è una lega che quelli di Labuan mandano contro di noi disse Sandokan guarda vi sono legni inglesi olandesi spagnoli e perfino dei praos di quella canaglia del sultano di Varaoni pirata quando vuole e che è geloso della mia potenza ed era proprio vero la squadra assalitrice si componeva di tre incrociatori di grande tonnellaggio portanti bandiere inglese di due corvette olandesi potentemente armate di quattro cannoniere e d'un cutter spagnoli e di otto praos del soldato di Varaoni potevano disporre tutti assieme di 150 o 160 cannoni e 1500 uomini sono molti per Giove esclamò Yanez ma noi siamo valorosi e la nostra rocca è forte vincerai Sandokan chiese Marianna con voce che tremava speriamo amor mio i miei uomini sono audaci ho paura Sandokan di cosa? che una palla ti uccida? il mio buon genio che per tanti anni mi protesse non mi abbandonerà oggi che pugno per te vieni Marianna che i minuti sono preziosi scesero la gradinata e si recarono al villaggio dove i pirati avevano già preso posto dietro ai cannoni pronti ad impegnare con gran coraggio la titanica lotta 200 indigeni uomini che sapevano se non resistere ad un urto almeno trarre archivugiate anche cannonate manovra che avevano appreso con facilità sotto i loro maestri erano già giunti e si erano disposti nei punti assegnati dai capi della pirateria buono disse Yanez saremo in 350 a sostenere l'urto Sandokan chiamò sei dei più valorosi uomini e affidò loro Marianna onde la internassero nei boschi per non esporla al pericolo va mia diletta disse gli stringendosela al cuore se io vinco tu sarai ancora la regina di Monpragem e se la fatalità mi farà perdere spiccheremo il volo e andremo a cercare la felicità su altre terre Sandokan ho paura esclamò la giovinetta piangendo tornerò da te non temere mia diletta le palle risparmieranno la tigre della Malesia anche in questa pugna la baciò in fronte poi fuggì verso i bastioni tuonando su tigrotti che la tigre è con voi il nemico è forte ma noi siamo ancora le tigre della selvaggia Monpragem un urlo solo vi rispose viva Sandokan viva la nostra regina la flotta nemica si era arrestata a sei miglia dall'isola e parecchie imbarcazioni si staccavano dalle navi conducendo qua e là numerosi ufficiali sull'incrociatore che aveva inalberate le insegne di comando si teneva senza dubbio consiglio alle dieci le navi e i praos sempre schierati in ordine di battaglia muovevano verso la baia tigri di Monpragem gridò Sandokan che si trovava ritto sul gran ridotto centrale dietro un cannone da 24 rammentatevi che difendete la perla di Labuan e che quegli uomini là che vengono ad assalirci sono coloro che assassinarono sulle coste di Labuan i vostri compagni vendetta sangue urlarono i pirati un colpo di cannone partì in quel momento dalla cannoniera che da due giorni spiava l'isola e per un caso strano la palla battè la bandiera della pirateria che sventolava sul bastione centrale Sandokan sussultò e sul suo viso si dipinse un vivo dolore vincerai o flotta nemica esclamò con voce triste il cuore me lo dice la flotta si avvicinava sempre mantenendosi su una linea il cui centro era occupato dagli incrociatori e le ali dal sultano di Varauni Sandokan lasciò che si avvicinasse sino a mille passi poi alzando la scimitarra tuonò ai vostri pezzi tigrotti non vi trattengo più spazzatemi il mare da questi prepotenti fuoco al comando della tigre i ridotti i bastioni i terrapieni avvamparono su tutta la linea formando una sola detonazione capace di essere udita fino alle Romades sembrò che l'intero villaggio saltasse in aria e la terra fremette fino al mare nubi densissime di fumo avvolsero le batterie ingigantendo sotto nuovi colpi che si succedevano furiosamente distendendosi a destra e a sinistra dove tiravano le spingarde la squadra quantunque assai maltrattata da quella formidabile scarica non stette molto a rispondere gli incrociatori le corvette le cannoniere e i praos si coprirono di fumo tempestando le opere di difesa con palle e granate mentre un gran numero di abili bersaglieri apriva un vivo fuoco di moschetteria che se riusciva inefficace contro i bastioni molestava e non poco gli artiglieri di Montpracem non si perdeva colpo né da una parte né dall'altra si gareggiava di celerità e di precisione risoluti di esterminarsi da lontano prima e poi da vicino la flotta aveva la supremazia delle bocche da fuoco e degli uomini e aveva il vantaggio di muoversi e di isolarsi dividendo i fuochi del nemico ma con tutto ciò non guadagnava era bello vedere quel villaggio difeso da un pugno di prodi che avvampava da tutti i lati rispondendo colpo per colpo vomitando torrenti di palle di granate e uragani di mitraglia fracassando i fianchi dei navigli massacrando le manovre e sventagliando gli equipaggi aveva ferro per tutti rugiva più forte di tutti i cannoni della flotta puniva i bravacci che venivano a sfidarlo a poche centinaia di metri dalle coste faceva indietreggiare i più audaci che cercavano di sbarcare i soldati e per tre miglia faceva saltare le acque del mare Sandokan in mezzo alle sue valorose bande con gli occhi in fiamme ritto dietro un grosso cannone da 24 che scatenava dalla sua fumigante gola enormi proiettili tuonava sempre fuoco miei prodi spazzatemi il mare sventratemi queste navi che vengono per rapire la nostra regina la sua voce non andava perduta i pirati conservando un ammirabile sangue freddo fra quella fitta pioggia di palle che sbranava le palizzate che forava i terrapieni che sfasciava i bastioni puntavano intrepidamente le artiglierie incoraggiandosi con clamori tremendi un prago del sultano fu incendiato e fatto saltare mentre cercava con un'insolente trovata di approdare ai piedi della grande rupe i suoi rottami giunsero fino alle prime palizzate del villaggio e i 7 od 8 uomini scampati all'esplosione furono fulminati da un nembo di mitraglia una cannoniera spagnola che cercava di avvicinarsi per sbarcare i suoi uomini fu completamente disalberata e venne ad arenarsi dinanzi al villaggio essendogli scoppiata la macchina neppure uno dei suoi uomini si salvò venite a sbarcare tuono Sandokan venite a misurarvi con le tigri di Monpracem se lo usate voi siete fanciulli e noi giganti era chiaro che finché i bastioni tenevano d'oro e le polveri non venivano a mancare nessuna nave sarebbe riuscita ad avvicinarsi alle coste della terribile isola disgraziatamente pei pirati verso le sei pomeridiane quando già la flotta orribilmente malmenata stava per ritirarsi giunse nelle acque dell'isola un inaspettato soccorso che fu accolto con strepitosi urrà da parte degli equipaggi erano altri due incrociatori inglesi e una grossa corvetta olandese seguiti a breve distanza da un brigantino a vela ma munito di numerose artiglierie Sandokan e Janez nel vedere quei nuovi nemici impallidirono compresero ormai che la caduta della rocca era questione di ore pure non si perdettero d'animo e volsero parte dei loro cannoni contro quei nuovi navigli la squadra così rinforzata riprese nuova lena avvicinandosi alla piazza battendo furiosamente le opere di difesa già gravemente danneggiate le granate cadevano a centinaia dinanzi ai terrapieni ai bastioni ai ridotti e sul villaggio provocando violente esplosioni che diroccavano le opere frantumando le palizzate introducendosi attraverso alle feritore in capo ad un'ora la prima linea dei bastioni non era più che un ammasso di rovine sedici cannoni erano ridotti inservibili e una dozzina di spingarde giacevano fra le macerie e fra un mucchio di cadaveri Sandokan tentò un ultimo colpo drizzò il fuoco dei suoi cannoni sulla nave comandante lasciando alle spingarde di rispondere al fuoco degli altri navigli per venti minuti l'incrociatore resistette a quella pioggia di proiettili che l'attraversavano da parte a parte che gli frantumavano le manovre e gli uccidevano l'equipaggio ma una granata da 21 kg lanciatagli da giro batol con un mortaio gli apria a prua una falla enorme il legno si inclinò su di un fianco affondando rapidamente l'attenzione delle altre navi si rivolse a salvare i naufraghi e numerose imbarcazioni solcarono i flutti ma ben pochi sfuggirono alla mitraglia dei pirati in tre minuti l'incrociatore affondò trascinandose con gli uomini che ancora restavano in coperta la squadra per alcuni minuti sospese il fuoco ma poi lo riprese con maggior furia e si avanzò fino a soli 400 metri dall'isola le batterie di destra e di sinistra oppresse dal fuoco furono ridotte in silenzio e i pirati furono costretti a ritirarsi dietro la seconda linea dei bastioni e poi dietro alla terza che era già mezza rovinata in piedi e ancora in buono stato non rimaneva che il grande ridotto centrale il meglio armato e il più robusto Sandokan non si stancava ad incoraggiare i suoi uomini ma prevedeva che il momento della ritirata non era lontano mezz'ora dopo una polveriera saltava con terribile violenza sconquassando le cadenti trincee e seppellendo fra macerie dodici pirati e venti indigeni fu tentato un altro sforzo per arrestare la marcia del nemico concentrando il fuoco su un altro incrociatore ma i cannoni erano troppo pochi molti essendo stati imbroccati o smontati alle 7 e 10 minuti anche il grande ridotto franava seppellendo parecchi uomini e le più grosse artiglierie Sandokan gridò Yanez precipitandosi verso il pirata che stava puntando il suo cannone la posizione è perduta è vero rispose la tigre con voce soffocata comanda la ritirata o sarà troppo tardi Sandokan lanciò uno sguardo disperato sulle rovine in mezzo alle quali soli 16 cannoni e 20 spingarde ancora tuonavano e un altro sulla squadra che stava calando in mare le imbarcazioni per gli uomini da sbarco un prago aveva già gettata l'ancora ai piedi della grande rupe e i suoi uomini si preparavano a prendere posizione la partita era irreparabilmente perduta tra pochi minuti gli assalitori 30 o 40 volte più numerosi dovevano sbarcare per attaccare le cadenti trincee alla baionetta e distruggere gli ultimi difensori un ritardo di pochi momenti poteva diventare funesto e compromettere la fuga verso le coste occidentali Sandokan raccolse tutte le forze per pronunciare quella parola già mai uscita dalle sue labbra e comandò la ritirata nel momento che i tigrotti della perduta Monpracem con le lacrime agli occhi il cuore straziato si salvavano nei boschi e gli indigeni fuggivano in tutte le direzioni il nemico sbarcava irrompendo furiosamente con le baionette calate contro le trincee dietro le quali credeva di trovare ancora il nemico la stella di Monpracem si era estinta per sempre sul mare i pirati ridotti a soli 70 la maggior parte feriti ma ancora assettati di sangue ancora pronti a riprendere la lotta ma ancora nell'anti di vendetta si ritirarono guidati dai valorosi capi la tigre della Malesia e Yanez miracolosamente scampati al ferro e al piombo nemico Sandokan quantunque avesse ormai perduta per sempre la sua potenza la sua isola il suo mare tutto conservava in quella ritirata una calma veramente ammirevole senza dubbio egli che ormai aveva preveduta l'imminente fine della pirateria e che ormai si era abituato all'idea di ritirarsi lontano da quei mari si consolava pensando che frattanto disastro gli rimaneva ancora la sua adorata perla di Labuan non di meno non di meno sul suo volto si scorgevano le tracce di una forte commozione e in mano sforzavasi di nascondere affrettando il passo i pirati giunsero in breve sulle rive di un torrente disseccato dove trovarono Marianna e i suoi uomini posti a guardia di lei la giovanetta si precipitò fra le braccia di Sandokan che la strinse teneramente al petto Dio si è ringraziato dissella tu mi ritorni ancora vivo vivo sì ma sconfitto così volle il destino mio prode partiamo Marianna che il nemico non è lontano orsutti grotti non facciamoci raggiungere dai vincitori forse ci rimane ancora da pugnare e terribilmente in lontananza si udivano le grida dei vincitori e appariva una luce intensa segno evidente che il villaggio era stato incendiato Sandokan fece salire Marianna su di un cavallo fatto con la condurre fino dal giorno innanzi e la piccola truppa si mise rapidamente in cammino per guadagnare le coste occidentali prima che il nemico giungesse in tempo a tagliare loro la ritirata alle undici di notte essi giungevano in un piccolo villaggio della costa dinanzi al quale stavano ancorati tre praos presto imbarchiamoci disse Sandokan i minuti sono preziosi verremo assaliti chiese Marianna forse ma la mia scimitarra ti coprirà e il mio petto ti farà scudo contro i colpi dei maledetti che mi oppressero col numero egli si spinse sulla spiaggia e scrutò il mare che pareva nero come se fosse d'inchiostro non vedo alcun fanale disse a Marianna forse potremo abbandonare la mia povera isola senza essere inquietati emise un profondo sospiro e si asciugò la fronte madida di sudore imbarchiamoci disse poi i pirati si imbarcarono con le lacrime agli occhi trenta presero posto sul prao più piccolo gli altri parte su quello di Sandokan e parte su quello comandato da Yanez che portava gli immensi tesori del capo nel momento di salpare le ancore si vide Sandokan portare le mani al cuore come se nel petto gli si fosse spezzato qualche cosa amico mio disse Marianna abbracciandolo no esclamò egli con tetro dolore mi sembra che mi si spezzi il cuore tu rimpiangi la tua perduta potenza Sandokan e la perdita della tua isola è vero amor mio forse un giorno la riconquisterai e ritorneremo no è tutto finito per la tigre della Malesia e poi sento di non essere più l'uomo d'altri tempi chi no il capo sul petto essi intese una specie di singhiozzo ma poi sollevandolo con energia tu no allargo i tre legni sciolsero le gomene e si allontanarono dall'isola portando seco gli ultimi superstiti di quella formidabile banda che per dodici anni aveva sparso tanto terrore sul mare della Malesia avevano già percorso sei miglia quando un urlo di furore scoppiò a bordo dei legni in mezzo alle tenebre erano improvvisamente apparsi i due punti luminosi i quali correvano addosso alla flottiglia con cupo fragore gli incrociatori gridò una voce attenti amici sandokan che si era seduto a poppa con gli occhi fissi sull'isola che scompareva lentamente fra le tenebre si alzò gettando un vero rugito ancora il nemico esclamò egli con intraducibile accento e serrandosi al petto la fanciulla che stava gli presso anche in mare maledetti venite ad inseguirmi tigrotti ecco i leoni che ci corrono addosso su tutti con le armi in pugno non ci voleva di più per animare i pirati che ardevano di vendetta e che già si illudevano con un combattimento disperato di riacquistare la perduta isola tutti brandirono le armi pronti a montare l'abordaggio al comando dei capi marianna disse sandokan volgendosi verso la giovanetta che guardava con terrore quei due punti luminosi scintillanti fra le tenebre e la tua cabina anima mia grandio siamo per tutti mormorò ella non ancora le tigri di monprace amano sete di sangue forse sono due poderosi incrociatori sandokan fossero anche montati da mille uomini noi li abborderemo non tentare un nuovo combattimento mio prode amico forse quei due legni non c'hanno ancora scorti e si potrebbe ingannarli è vero le di marianna disse uno dei capi malesi ci cercano di questo son certo ma dubita sai che ci abbiano veduti la notte è oscura e non abbiamo alcun fanale acceso a bordo quindi è impossibile che si siano di già accorti della nostra presenza sii prudente tigre della malesia se possiamo evitare una nuova lotta avremo tutto da guadagnare sia rispose sandokan dopo alcuni istanti di riflessione tomerò per il momento la rabbia che mi brucia il cuore e cercherò di sfuggire a loro a bordaggio ma guai a loro se dovessero seguirmi nella nuova rotta sono deciso a tutto anche ad assalirli non compromettiamo inutilmente gli ultimi avanzi delle tigri di Montprac disse il capo malese siamo prudenti per ora l'oscurità favoriva la ritirata ad un comando di sandokan il prao virò di bordo appoggiando verso le coste meridionali dell'isola dove esisteva una baia abbastanza profonda per ricoverare una piccola flottiglia gli altri due legni si affrettarono ad eseguire la manovra avendo ormai compreso qual era il piano della tigre della malesia il vento piuttosto fresco era favorevole soffiando dal nord est quindi vera la possibilità a Pei Praos di giungere alla baia prima dello spuntare del sole hanno cambiato rotta le due navi chiese marianna che scrutava il mare con viva ansietà è impossibile saperlo per ora rispose sandokan che era salito sulla murata poppiera per meglio osservare i due punti luminosi mi pare che si tengano sempre a largo è vero sandokan mi inganno forse io ti inganni marianna rispose il pirata dopo alcuni istanti anche quei due puntini luminosi hanno virato di bordo e muovono su di noi mi sembra e non riusciremo a sfuggire loro chiese la giovanetta con angoscia come lottare con le loro macchine il vento è ancora debole per imprimere ai nostri legni tale velocità da gareggiare col vapore chissà però l'alba non è lontana e all'avvicinarsi del sole in questi paraggi il vento aumenta sempre sandokan marianna ho dei tristi presentimenti non temere mia fanciulla le tigri di monpracem sono pronte a morire tutte per te lo so sandokan eppure io tremo per te per me io non ho paura di quei due leopardi che ci cercano per darci ancora battaglia la tigra è stata bensì vinta ma non ancora domata se una palla ti colpisse grandio quale pensiero tremendo mio valoroso sandokan la notte è oscura e nessun lume brilla a bordo dei nostri legni e una voce partita dal secondo prago gli tagliò la frase ehi fratello cosa vuoi anez chiese sandokan che aveva riconosciuta la voce del portoghese mi pare che quei due vascelli si preparino a tagliarci la via i fanali che prima proiettavano una luce rossa ora sono diventati verdi e ciò indica che quei legni hanno cambiata rotta allora gli inglesi si sono accorti della nostra presenza lo temo sandokan cosa mi consigli di fare muovere audacemente a largo e tentare di passare in mezzo ai nemici guarda si allontanano l'uno dall'altro per prenderci in mezzo il portoghese non si era ingannato i due legni nemici che da qualche tempo pareva che eseguissero una manovra misteriosa si erano bruscamente allontanati mentre uno si dirigeva verso le coste settentrionali di Montpracem l'altro muoveva rapidamente verso quelle meridionali ormai non vi era più da dubitare sulle loro intenzioni volevano frapporsi fra i velieri e la costa per impedire a quelli di cercare un rifugio in qualche seno ed in qualche baia e costringerli a prendere il largo per poi assalirli in piano mare sandokan accortosene aveva mandato un urlo di rabbia ah gridò volete darmi battaglia ebbene l'avrete non ancora fratellino gridò Yanez che era salito sulla prora del suo legno muoviamo a largo e cerchiamo di passare fra quei due avversari ci raggiungeranno Yanez il vento è ancora debole tentiamo sandokan oe alle scotte voi e viriamo all'ovest i cannonieri ai loro posti i tre velieri un istante dopo cambiavano rutta dirigendosi risolutamente verso l'ovest i due vascelli quasi si fossero accorti di quella audace manovra avevano quasi subito cambiata pure direzione muovendo a largo certamente volevano prendere in mezzo i tre praos prima che potessero appoggiare su qualche altra isola credendo però che muovessero in quella direzione per puro caso sandokan e Yanez non cambiarono rutta anzi ordinarono ai loro equipaggi di spiegare alcuni stragli per cercare di guadagnare maggior via per venti minuti tre velieri continuarono ad avanzarsi tentando di sfuggire alla stretta dei due vascelli da guerra i quali tendevano a riunirsi tutti i pirati non staccavano i loro sguardi dai fanali cercando di indovinare la manovra dei nemici erano però pronti a far tuonare i cannoni e i fucili al comando dei loro capi già con alcune bordate si erano portati molto a largo quando videro i fanali virare nuovamente di bordo un momento dopo si udì Yanez a gridare oè non vedete che ci danno la caccia ah canaglie urlò Sandokan con accento intraducibile anche sul mare venite ad assalirmi avremo ferro e piombo per tutti siamo perduti è vero Sandokan disse Mariana stringendosi al pirata non ancora fanciulla rispose la tigre presto torna nella tua cabina tra pochi minuti le palle grandineranno sul ponte del mio prao voglio rimanere al tuo fianco mio valoroso se tu muori cadrò anch'io presso di te no Mariana se io ti vedessi vicino a me mi mancherebbe l'audacia e temerei troppo bisogna che io sia libero per tornare la tigre della Malesia aspetta almeno che quelle navi siano qui forse non ci hanno ancora veduti muovono su di noi a tutto vapore mia diletta io le scorgo di già sono legni poderosi una corvetta ed una cannoniera non potrai vincerle siamo tutti valorosi e monteremo all'assalto della più grossa or su torna nella tua cabina ho paura Sandokan esclamò la giovanetta singhiozzando non temere le tigre di Montpracem lotteranno con coraggio disperato in quell'istante un colpo di cannone gheggiò a largo una palla passò con un ronforauco al di sopra del prao attraversando due vele odi chiese Sandokan essi ci hanno scoperti e si preparano a darci battaglia guardali muovono contemporaneamente tutti e due su di noi per speronarci infatti i due legni nemici si avanzavano a tutto vapore come se avesse l'intenzione di passare addosso ai tre piccoli velieri la corvetta forzava le sue macchine eruttando nuvoloni di fumo rossastro e di scorie e si dirigeva verso il prao di Sandokan mentre la cannoniera cercava di gettarsi contro quello comandato da Yanez nella tua cabina gridò Sandokan mentre una seconda cannonata veniva sperata dalla corvetta qui vi è la morte afferrò fra le vigorose braccia la giovanetta e la trasportò nella cabina in quel mentre un nembo di mitraglia spazzava la coperta del legno scrosciando sullo scafo e contro l'alberatura Marianna si aggrappò disperatamente a Sandokan non lasciarmi mio valoroso disse con voce soffocata dai singhiozzi non allontanarti dal mio fianco ho paura Sandokan il pirata la scostò con dolce violenza non tremare per me le disse lascia che vada a combattere la mia ultima battaglia e che oda ancora il rumbo delle artiglierie lascia che guidi ancora le tigri di Montpracem alla vittoria ho dei sinistri presentimenti Sandokan lascia che io resti presso di te ti difenderò contro le armi dei miei compatrioti basterò io a ricacciare in mare i miei nemici il cannone tuonava allora furiosamente sul mare sul ponte si udivano le urla selvagge delle tigri di Montpracem e i gemiti dei primi feriti Sandokan si svincolò dalle braccia della giovanetta e si precipitò sulla scala urlando avanti i miei prodi la tigre della Malesia è con voi la battaglia infuriava da ambo le parti la cannoniera aveva assalito il prajo del portoghese tentando di abbordarlo ma aveva subito la peggio le artiglierie di Janetz l'avevano di già assai maltrattata frantumandole le ruote fracassandole le murate e troncandole perfino l'albero la vittoria da quel lato non poteva essere dubbia però vi era la corvetta una nave poderosa armata di molti cannoni e montata da un equipaggio numerosissimo essa si era gettata addosso ai due prajos di Sandokan coprendoli di ferro e facendo strage di pirati la comparsa della tigre della Malesia rianimò i combattenti i quali cominciavano a sentirsi impotenti dinanzi a tanto fulminare il formidabile uomo si slanciò verso uno dei due cannoni urlando sempre ferocemente avanti miei prodi la tigre della Malesia sete di sangue spaziamo il mare e cacciamo in acqua quei cani che vengono a sfidarci la sua presenza però non valeva a cambiare le sorti della sprapugna quantunque non mancasse ai suoi colpi e spazzasse le murate della corvetta con nembi di mitraglia le palle e le granate piovevano incessantemente sul suo legno demattandolo e sventrando i suoi uomini era impossibile resistere a tanta furia ancora pochi minuti e i due poveri prajos sarebbero stati ridotti a due pontoni sdruciti solo il portoghese disputava e con vantaggio la vittoria alla cannoniera tirandole delle bordate disastrose Sandokan con un solo sguardo si accorse della gravità della situazione vedendo l'altro prajo ormai demattato e quasi affondante la bordò facendo imbarcare sul proprio legno i superstiti poi sfoderando la scimitarra urlò su tigrotti all'abordaggio la disperazione centoplicava le forze dei pirati scaricarono ad un sol colpo i due cannoni e le spingarde per spazzare la murata dai fucilieri che la occupavano poi quei trenta valorosi lanciarono i grappini d'abordaggio non aver paura Marianna gridò un'ultima volta Sandokan odendo la giovanetta ad invocarlo poi alla testa dei suoi valorosi mentre Janetz più fortunato di tutti faceva saltare la cannoniera lanciandole una granata nella Santa Barbara montò all'abordaggio precipitandosi sul ponte nemico come un toro ferito largo suonorro roteando la sua terribile scimitarra sono la tigre seguito dai suoi uomini andò a cozzare contro i marinai che accorrevano con le scurie alzate e li respinse fino a poppa ma da prua irrompeva un'altra fiumana di uomini guidati da un ufficiale che Sandokan subito riconobbe ah sei tu baronetto esclamò la tigre precipitandosi contro di lui dov'è Marianna chiese l'ufficiale con voce soffocata dal furore eccola rispose Sandokan prendila con un colpo di scimitarra lo atterrò poi gettandosi su di lui gli piantò il cris nel cuore ma quasi nel medesimo tempo stramazzava sul ponte di legno colpito al cranio con lo rovescio d'una scure i prigionieri quando tornò in sé ancora semintronato dal fiero colpo ricevuto sul cranio si trovò non più libero sul ponte del proprio legno ma incatenato nella stiva della corvetta la prima si credette in preda ad un terribile sogno ma il dolore che gli martoriava ancora il capo le carni straziate in più luoghi dalle punte delle baionette e soprattutto le catene che gli serravano i polsi lo richiamarono in breve alla realtà si alzò scuotendo furiosamente i ferri e gettò all'intorno uno sguardo smarrito come se non fosse ancora ben sicuro di non trovarsi più sul suo legno poi un urlo gli irruppe dalle labbra un urlo da belva ferita prigioniero esclamò digrignando i denti e tentando di torcere le catene cos'è accaduto adunque siamo stati ancora una volta vinti dagli inglesi morte e dannazione quale terribile risveglio e marianna cos'è successo a quella povera fanciulla è forse morta uno spasimo tremendo gli strinse il cuore a quel pensiero marianna urlò continuando a torcere i ferri fanciulla mia dove sei tu janet giuioco tigrotti nessuno risponde siete tutti morti adunque ma no è impossibile io sogno o io sono pazzo quell'uomo che non aveva mai saputo cosa fosse la paura in quel momento la provò sentì che smarriva la ragione e si guardò intorno con il spavento morti tutti morti esclamò con angoscia solo io sono sopravvissuto alla strage per venire forse trascinato alla buon marianna janez mio buon amico giuioco anche tu mio valoroso sei caduto sotto il ferro e il piombo dei massacratori meglio sarebbe stato che anch'io fossi morto e trascinato col mio legno nei baratri del mare dio quale catastrofe poi preso da un impeto di disperazione o di follia si scagliò attraverso al frapponte scuotendo furiosamente le catene e gridando uccidetemi uccidetemi la tigre della Malesia non può più vivere a un tratto si arrestò udendo una voce a gridare la tigre della Malesia è vivo ancora il capitano Sandokan si guardò intorno una lanterna sospesa ad una punta illuminava scarsamente il frapponte però quella luce era sufficiente per poter distinguere una persona da prima Sandokan non vide altro che delle botti ma poi guardando meglio scorse una forma umana accovacciata presso lo scassero dell'albero maestro chi siete voi gridò chi parla della tigre della Malesia domandò invece la voce di prima Sandokan trasalì poi un lampo di gioia gli balenò negli sguardi quell'accento non gli era ignoto v'è uno dei miei uomini qui chiese giuioco forse giuioco mi si conosce adunque allora non sono morto l'uomo si alzò scuotendo lugubremente delle catene e si fece innanzi giuioco esclamò Sandokan il capitano esclamò l'altro pur slanciandosi innanzi cade ai piedi della tigre della Malesia ripetendo il capitano il mio capitano e io l'avevo pianto come morto quel nuovo prigioniero era il comandante del terzo prago un valoroso daiaco che godeva fama grandissima fra le bande di Montpracem per il suo valore e per la sua abilità marinaresca era un uomo di alta statura bene proporzionato come lo sono in generale i bornesi dell'interno dagli occhi grandi e intelligenti e la pelle giallo dorata come i suoi compatrioti portava i capelli lunghi e aveva le braccia e le gambe adorne di un gran numero di anelli di rame e dottone il bravo uomo vedendosi dinanzi la tigre della Malesia piangeva e rideva ad un tempo vivo ancora vivo esclamava oh quale felicità almeno voi siete sfuggito alla strage alla strage gridò Sandokan sono morti tutti dunque i valorosi che io trascinavo all'abordaggio di questa nave ohimè sì tutti rispose il daiaco con voce rotta e Marianna è scomparsa assieme al prao dimmelo giuioco dimmelo no è viva ancora viva la mia fanciulla viva urlò Sandokan fuori di sé per la gioia sei certo di quello che tu dici sì mio capitano voi eravate caduto ma io assieme ad altri quattro compagni resistevamo ancora quando la fanciulla dei capelli d'oro fu portata sul ponte della nave da chi dagli inglesi capitano la fanciulla spaventata dall'acqua che doveva aver invasa la cabina era salita sulla tolda chiamandovi ad alta voce alcuni marinai vedendola furono pronti a gettare in mare una scialuppa e a raccoglierla pochi minuti che avessero tardato la fanciulla sarebbe scomparsa nel gorgo aperto dal prao ed era ancora viva sì capitano e la vi chiamava ancora quando la portavano sul ponte maledizione e io non poter correre in suo aiuto l'abbiamo tentato capitano non eravamo che in quattro ed avevamo intorno più di cinquanta uomini che ci intimavano la resa pure ci avventammo contro i marinai che portavano la regina di Montpracem eravamo troppo pochi per impegnare ancora la lotta io fui atterrato calpestato e poi legato e trascinato qui e gli altri si erano fatti uccidere dopo di aver fatto strage di coloro che li accerchiavano e Marianna si trova a bordo di questa nave sì tigre della Malesia non è stata trasbordata sulla cannoniera credo che la cannoniera navighi ormai sott'acqua disse Giuyoko vuoi dire che è stata colata a fondo da Yanez sì capitano allora Yanez è ancora vivo poco prima che mi trascinassero qui vidi ad una grande distanza il suo prao fuggire a tutte vele spiegate durante la nostra pugna aveva messo fuori combattimento la cannoniera frantumandole le ruote poi l'ha incendiata ho veduto le fiamme alzarsi sul mare ed ho udito poco dopo un lontano rombo doveva essere la Santa Barbara che scoppiava e dei nostri non è fuggito nessuno nessuno capitano disse Giuyoko con un sospiro tutti morti mormorò Sandokan con cupo dolore prendendosi fra le mani la fronte e tu hai visto cadere Singhal il più prode ed il più vecchio campione della pirateria è stramazzata al mio fianco con una palla di spingarda nel petto e Sanghan il leone delle Romades l'ho veduto cadere in mare con la testa sfracellata da una scheggia di mitraglia quale massacro poveri compagni triste fatalità pesava sulle ultime tigri di Montprojem Sanno Cantacque immergendosi in dolorosi pensieri per quanto si reputasse forte si sentiva finalmente accasciato da quel disastro che gli era costato la perdita della sua isola la morte di quasi tutti i prodi che l'avevano fin allora seguito in cento battaglie e da ultimo la perdita della fanciulla amata in un tale uomo però lo scoramento non doveva durare molto non erano trascorsi dieci minuti che Giuyoko lo vide balzare in piedi con gli sguardi sfavillanti dimmi gli disse volgendosi verso il daiaco credi che Yanez ci segua ho questa convinzione mio capitano il signor Yanez non ci abbandonerà nella sventura anch'io lo spero disse Sandokan un altro uomo al suo posto avrebbe approfittato della mia sventura per fuggire con le immense ricchezze che tiene nel suo prao ma lui non lo farà egli mi amava troppo per tradirmi e che cosa volete concludere capitano che noi fuggiremo il daiaco lo guardò con stupore domandandosi in cuor suo se la tigre della Malesia aveva perduta la ragione fuggiremo esclamò e come non abbiamo nemmeno un'arma e per di più siamo incatenati ho il mezzo per farci gettare in mare non vi comprendo capitano chi ci butterà in acqua quando un uomo muore a bordo di una nave cosa se ne fa lo si mette in una maca con una palla di cannone e lo si manda a tenere compagnia ai pesci e di noi faranno altrettanto volete suicidarvi sì ma in modo da poter ritornare poi in vita ho i miei dubbi tigre della Malesia ti dico che noi ci sveglieremo vivi e liberi sul libero mare se voi lo dite devo credervi tutto dipende da Yanez egli deve essere lontano ma se segue la corvetta presto o tardi ci raccoglierà e poi poi torneremo a Montpracemo alla Buana a liberare Mariana io mi domando se sogno dubiti di quanto ti ho detto un poco lo confesso mio capitano penso che noi non possediamo nemmeno un Chris non ci sarà necessario e che siamo incatenati incatenati esclamò Sandokan la tigre della Malesia può spezzare i ferri che la tengono prigioniera a me e mie forze guarda torse con furore gli anelli poi con uno strappo irresistibile li aperse e gettò lontano da sé la catena ecco la tigre libera gridò quasi nel medesimo istante il boccaporto di poppa si alzò e la scala scricchiolò sotto il passo di alcuni uomini eccoli esclamò il daiaco ora li mando tutti urlò Sandokan che era stato preso da un tremendo accesso di furore vedendo al suolo una manovella spezzata la prese e fece atto di scagliarsi verso la scala il daiaco fu pronto ad arrestarlo volete farvi uccidere capitano gli disse pensate che sul ponte ci sono altri duecento uomini e armati è vero rispose Sandokan gettando lungi da sé la manovella la tigre è domata tre uomini si avanzarono verso di loro uno era un tenente di vascello probabilmente il comandante della corvetta gli altri due erano marinai a un cenno del loro capo i due ultimi innestarono la baionetta e puntarono le loro carabine verso i due pirati un sorriso sdegnoso comparve sulle labbra della tigre della Malesia avete paura forse? chiese egli o siete sceso signor tenente per prestarmi quei due uomini armati vi avverto che i loro fucili non mi fanno tremare potevate quindi fare a meno di un così grottesco spettacolo so che la tigre della Malesia non ha paura rispose il tenente ho preso semplicemente delle precauzioni eppure sono inerme signore ma non più incatenato mi pare non sono uomo da tenere a lungo le catene ai polsi una bella forza in fede mia signore lasciate le chiacchiere signore e ditemi cosa volete sono stato qui mandato per vedere se avevate bisogno di qualche cura non sono ferito signore pure avevate ricevuto una mazzata sul cranio che il mio turbante è stato sufficiente a riparare quale uomo esclamò il tenente con sincera ammirazione avete finito non ancora tigre della Malesia orsù cosa volete mi ha mandato qui una donna marianna gridò sandokan sì lady gillong riprese il tenente è viva è vero riprese sandokan mentre un'ondata di sangue gli montava in viso sì tigre della Malesia io l'ho salvata nel momento in cui il vostro prao stava per inabissarsi oh parlatemi di lei ve ne prego a quale scopo io vi consiglierei di dimenticarla signore dimenticarla mai lady gillong è perduta per voi quali speranze potete avere ancora è vero mormorò sandokan con un sospiro io sono un uomo condannato a morte è vero il tenente non rispose ma quel silenzio valeva quanto un'affermazione così era scritto rispose sandokan dopo alcuni secondi le mie vittorie dovevano fruttarmi una morte ignominiosa dove mi conducete alla bohane e mi appiccherete anche questa volta il tenente rimase silenzioso potete dirmelo francamente la tigre della malesia non ha mai tremato dinanzi alla morte lo so voi l'avete sfidata in cento e più abbordaggi e tutti sanno che voi siete l'uomo più coraggioso che viva nel borneo allora ditemi tutto non vi siete ingannato voi sarete appiccato avrei preferito la morte dei soldati la fucilazione vero sì io invece vi avrei risparmiata la vita e vi avrei dato un comando nell'esercito delle indie disse il tenente uomini audaci e coraggiosi come voi sono rari al giorno d'oggi grazie della vostra buona intenzione ma essa non mi salverà dalla morte purtroppo signore cosa volete i miei compatrioti pur ammirando il vostro straordinario valore hanno sempre paura di voi e non vivrebbero tranquilli anche se vi vedessero lontano da qui eppure tenente quando voi mi avete assalito io stavo per dare un addio alla mia vita di pirata e a Montpracem volevo andarmene assai lontano da questi mari non perché temessi i vostri compatrioti poiché se l'avessi voluto avrei potuto radunare nella mia isola migliaia di pirati e armare centinaia di praos ma solo perché io incatenato da Marianna dopo tanti anni di sanguinose pugne desideravo la vita tranquilla accanto a colei che amavo il destino non ha voluto che io potessi realizzare quel caro sogno e sia uccidetemi pure saprò morire da forte non amate più adunque Lady Gilnock se l'amo voi non potete farvi un'idea della passione che quella fanciulla ha fatto nascere nel mio cuore ascoltate ponete qui Monpracem e la Marianna e io abbandonerò la prima per la seconda datemi la libertà con la condizione di non riveder più mai quella fanciulla e mi vedreste rifiutarla cosa volete di più guardate io sono disarmato quasi solo eppure se avessi la più piccola speranza di poter salvare Marianna mi sentirei capace di qualsiasi sforzo anche di aprire i fianchi di questo vascello per mandarvi tutti in fondo al mare siamo più numerosi di quello che credete disse il tenente con un sorriso di incredulità sappiamo quanto valete e di che cosa sareste capace e abbiamo prese le nostre precauzioni per rendervi impotente non tentate quindi nulla tutto sarebbe inutile una palla di fucile può uccidere l'uomo più coraggioso del mondo la preferirei alla morte che m'attende alla Wuhan disse Sandokan con cupa disperazione vi credo tigre della Malesia ma noi non siamo ancora alla Wuhan e potrebbe succedere qualcosa prima di giungervi cosa volete dire chiese il tenente guardandolo con una certa apprensione pensereste a suicidarvi cosa importerebbe a voi che io muoia in un modo o nell'altro e il risultato sarebbe identico forse non ve lo impedirei disse il tenente vi confesso che mi rincrescerebbe assai vedervi a piccare Sandokan stette un momento silenzioso guardando fisso fisso il tenente come se dubitasse della verità di quelle parole poi chiese non vi opporreste voi se mi suicidassi no rispose il tenente ad un valoroso come voi non negherei un simile favore allora consideratemi come un uomo morto io però non vi offro i mezzi per finire la vostra vita ho con me il necessario qualche veleno forse fulminante però prima di andarmene all'altro mondo vorrei pregarvi di un favore a un uomo che sta per morire non si può rifiutare nulla vorrei vedere un'ultima volta Marianna il tenente rimase muto ve ne prego io avevo ricevuto l'ordine di tenervi separati nel caso che fossi stato tanto fortunato di catturarvi e poi credo che sarebbe meglio per voi e per lei di Marianna impedire di rivedervi a quale scopo farla piangere me lo negate per un raffinamento di crudeltà io non credevo che un prode marinaio potesse diventare un agozzino il tenente impallidì vi giuro che ne ebbi l'ordine disse poi mi rincresce che voi dubitiate della mia parola perdonatemi disse Sandokan non vi servo rancore e per dimostrarvi che io non ho mai avuto alcun odio contro un valoroso vostro pari vi prometto di condurvi qui Lady Gillong darete però a lei un grande dolore lo vedrete non le farò parola del suicidio e allora cosa vorreste dirle io ho lasciato in un luogo nascosto degli immensi tesori e tutti lo ignorano e vorreste donarli a lei sì onda ne disponga come meglio le piacerà tenente quando potrò vederla prima di questa sera grazie signore promettetemi però di non parlarle del vostro suicidio avete la mia parola eppure credetelo è atroce dover morire quando ormai credevo di godere la felicità a fianco di quella fanciulla che amo tanto vi credo avrei fatto meglio ad affondare il mio prao in alto mare almeno sarei sceso negli abissi marini abbracciato alla mia fidanzata e dove andavate quando i nostri legni vi assalirono lontano assai lontano forse in India o in qualche isola nel grande oceano orsù è finita si compia il mio destino addio tigre della Malesia tengo la vostra promessa fra poche ore rivedrete Lady Marianna il tenente chiamò i soldati che avevano liberato dalle catene Giuyoko e risalì lentamente in coperta Sandokan rimase lì a guardarlo con le braccia incrociate e uno strano sorriso sulle labbra vi ha recato buone nuove chiese Giuyoko avvicinandosi questa notte noi saremo liberi rispose Sandokan ma se la fuga riuscisse Vana allora apriremo i fianchi di questo vascello e moriremmo tutti noi ma anche loro speriamo però Marianna ci aiuterà la fuga partito il tenente Sandokan si era seduto sull'ultimo gradino della scala con la testa stretta fra le mani immergendosi in profondi pensieri un dolore immenso traspariva dai suoi lineamenti se fosse stato capace di piangere non poche lacrime avrebbero bagnate le sue gote Giuyoko si era coccolato a breve distanza guardando con ansietà il suo capo vedendolo assorto nei suoi pensieri non aveva più osato interrogarlo sui suoi futuri progetti erano trascorsi quindici o venti minuti quando il boccaporto tornò ad alzarsi Sandokan vedendo entrare uno sprazzo di luce si era precipitosamente alzato guardando verso la scala una donna scendeva rapidamente era la giovane dai capelli d'oro pallida anzi livida e lagrimante il tenente l'accompagnava tenendo però la destra sul calcio di una pistola che aveva messa nella cintura Sandokan era scattato in piedi mandando un urlo e si era slanciato verso la fidanzata stringendosela forse natamente al petto amor mio esclamò traendola dalla parte opposta della stiva mentre il comandante si sedeva a mezza scala con le braccia incrociate e la fronte abbuiata finalmente ti rivedo Sandokan mormorò ella scoppiando in singhiozzi credevo di non rivederti mai più coraggio Marianna non piangere crudele tergi queste lacrime che mi strazziano ho il cuore infranto mio prode amico non voglio che tu muoia non voglio che ti separino da me io ti difenderò contro tutti io ti libererò io voglio che tu sia ancora mio tuo esclamò egli mettendo un profondo sospiro sì ritornerò tuo ma quando perché quando ma non sai sventurata fanciulla che mi portano alla buon per uccidermi ma io ti salverò tu sì forse se mi aiuterai hai un progetto adunque esclamò ella delirante per la gioia sì se il dio mi protegge ascoltami amor mio lanciò uno sguardo sospettoso sul tenente che non si era mosso dal suo posto poi traendo la giovanetta più lontana che era possibile le disse progetto una fuga e ho speranza di riuscire ma tu non potrai venire con me perché Sandokan dubiti che io non sia capace di seguirti temi forse che mi manchi il coraggio per affrontare i pericoli sono energica e non temo più nessuno se vuoi pugnalerò le tue sentinelle o farò saltare questo vascello con tutti gli uomini che lo montano se è necessario è impossibile Marianna darei mezzo del mio sangue per condurti meco ma non posso mi è necessario il tuo aiuto per fuggire o tutto sarà vano ma ti giuro che non rimarrai molto tempo fra i tuoi compatrioti dovessi levare con le mie immense ricchezze un esercito e guidarlo contro la buon Marianna si nascose il capo fra le mani e grosse lacrime inundarono il suo bel viso rimanere qui senza di te mormorò con voce straziante è necessario mia povera fanciulla ascolta miura si trasse dal petto una microscopica scatoletta e apertala mostrò a Marianna alcune pillole ed una tinta rossiccia e che tramandavano un odore acutissimo vedi queste pallottoline le chiese contengono un veleno potente ma non mortale che ha la proprietà di sospendere la vita in un uomo robusto per sei ore è un sonno che somiglia perfettamente alla morte che inganna il medico più esperto e cosa vuoi fare? io e Giuyoco ne inghiotteremo una ciascuno ci crederanno morti ci getteranno in mare ma poi risusciteremo liberi sul libero mare ma non vi annegherete? no poiché io conto su di te cosa devo fare? parla comanda Sandokan sono pronta a tutto pur di vederti libero sono le sei disse il pirata estraendo il suo cronometro fra un'ora io e il mio compagno inghiottiremo le pillole e manderemo un acuto grido tu marcherai esattamente sul tuo orologio il minuto secondo in cui quel grido sarà emesso conterai sei ore e due secondi prima ci farai gettare in mare procurerai di lasciarci senza amaca e senza palla ai piedi e cercherai di gettare qualche galleggiante in mare onde ci possa poi giovare e possibilmente vedrai di nascondere qualche arma sotto le nostre vesti mi hai compreso bene? ho scolpito tutto nella mia memoria Sandokan ma dopo dove andrai? ho la certezza che Yanez ci segue ed egli ci raccoglierà poi radunerò armi e pirati e verrò a liberarti dove si porre la buona ferrefuoco ed esterminare i suoi abitanti si arrestò cacciandosi le unghie nelle carni maledetto sia il dì in cui mi chiamai la tigre della Malesia maledetto sia il giorno in cui divenni vendicatore e pirata scatenando su di me l'odio dei popoli che si frappone come terribile spettro fra me e questa divina fanciulla se non fossi mai stato l'uomo sanguinario almeno non sarei stato incatenato a bordo di questo legno né trascinato verso il patibolo né mai diviso da questa donna che così immensamente amo sandokan non parlare così sì hai ragione perla di la buona lascia che ti contempli un'ultima volta disse vedendo il tenente alzarsi e avvicinarsi sollevò il biondo capo di marianna e la baciò in viso come un forsennato quanto ti amo sublime creatura esclamò egli fuori di sé e bisogna separarci soffocò un gemito e si terse rapidamente una lacrima che gli rotolava sulla bruna guancia parti marianna parti disse bruscamente se tu rimanessi io piangerei come un fanciullo sandokan sandokan il pirata si nascose il viso fra le mani e fece due passi indietro ah sandokan esclamò marianna con accento straziante volle slanciarsi verso di lui ma le forze le vennero meno e cadde fra le braccia del tenente che si era avvicinato partite gridò la tigre della malesia volgendosi altrove e celandosi il viso quando si rivolse il boccaporto era stato già abbassato tutto è finito esclamò con voce triste non mi rimane che di addormentarmi sulle onde del marmalese possa un giorno rivedere felice colei che tanto amo si lasciò cadere ai piedi della scala col viso fra le mani e rimase così quasi un'ora giuioco lo strappò da quella muta disperazione capitano disse coraggio non disperiamo ancora sandokan si alzò con un gesto energico fuggiamo non domando di meglio estrasse la scatoletta e levò due pillole porgiandone una al daiaco bisogna inghiottirla al mio segnale disse sono pronto estrasse l'orologio e guardò sono le sette meno due minuti riprese sandokan fra sei ore noi torneremo in vita sul libero mare chiuse gli occhi e inghiottì la pillola mentre giuioco lo imitava tosto si videro quei due uomini contorcersi come sotto un violento e improvviso spasimo quindi stramazzare al suolo emettendo due acute urla quelle grida malgrado lo sbuffare della macchina e il fragore delle onde sollevate dalle possenti ruote furono udite in coperta da tutti neanche da marianna che già le attendeva in preda a mille ansie il tenente discese precipitosamente nella stiva seguito da alcuni ufficiali e dal medico di porto ai piedi della scala portò contro i due creduti cadaveri sono morti disse quello che temevo è avvenuto il medico li esaminò ma quel bravo uomo non poteva far altro che constatare la morte dei due prigionieri mentre i marinai li sollevavano il tenente risalì in coperta e si avvicinò a marianna che si teneva appoggiata alla murata di babordo facendo sforzi sovrumani per soffocare il dolore che lo primeva milady le disse una disgrazia è toccata alla tigre e al suo compagno la indovino sono morti è vero milady signore disse la con voce rotta ma energica vivi appartenevano a voi morti appartengono a me vi lascio libera di fare di loro ciò che meglio vi aggrada ma voglio darvi un consiglio quale fateli gettare in mare prima che l'incrociatore giunga alla buon vostro zio potrebbe far appendere Sandokan sebbene morto accetto il vostro consiglio fate portare i due cadaveri a poppa e mi si lasci sola con loro il tenente si inchinò e dia degli ordini necessari onde si eseguisse la volontà della giovane lady un momento dopo i due pirati venivano collocati su due tavole portati a poppa pronti ad essere gettati in mare Marianna si inginocchiò accanto a Sandokan irrigidito e contemplò mutamente quel volto scomposto dalla potente azione del narcotico ma che conservava ancora quella maschia fierezza che incuteva timore e rispetto attese che nessuno facesse a lei osservazione e che le tenebre fossero calate poi si trasse dal corsetto due pugnali e li nascose sotto le vesti dei due pirati almeno potrete difendervi o miei valorosi mormorò Ella con profonda emozione poi si assise ai loro piedi contando sull'orologio ora per ora minuto per minuto secondo per secondo con pazienza inaudita all'una meno venti si alzò pallida ma risoluta si avvicinò alla muratura di Babordo e non vista staccò due salvagente che gettò in mare poi si diresse verso Prua e fermandosi dinanzi al tenente che pareva l'attendesse signore disse si compie l'ultima volontà della tigre della Malesia ad un ordine del tenente quattro marinai si recarono a poppa e alzarono le due tavole su cui posavano i cadaveri fino al capo di banda non ancora disse Marianna rompendo impianto si avvicinò a Sandokan e posò le labbra su quelle di lui sentì a quel contatto un lieve tepore e una specie di fremito un momento d'esitazione e con voce soffocata disse lasciate andare i marinai alzarono le due tavole e i due pirati scivolarono in mare inavissandosi i pei neri flutti mentre il vascello si allontanava rapidamente portando la sventurata giovanetta verso le coste dell'isola maledetta Yanez la sospensione della vita come aveva detto Sandokan doveva durare sei ore né un secondo di più né un secondo di meno e così infatti doveva essere poiché appena inavissatisi i due pirati tornarono prontamente in loro senza provare la meno malterazione di forze ritornati a galla con un vigoroso colpo di tallone girarono subito gli occhi intorno a meno di una gomena scorsero l'incrociatore che si allontanava a piccolo vapore verso oriente primo moto di Sandokan fu quello di inseguirlo mentre Giuyoko ancora tutto stordito da quella strana e per lui inesplicabile risurrezione prendeva prudentemente il largo la tigre si arrestò però quasi subito lasciandosi dondolare fra le onde ma con gli occhi fissi su quel legno che gli rapiva la disgraziata fanciulla un urlo soffocato gli irruppe dal petto e gli si spense fra le increspate labbra perduta esclamò con voce semispenta dal dolore un impeto di follia lo prese per qualche tratto si misa ad inseguire il vapore dibattendosi furiosamente fra le acque poi si arrestò guardando sempre il vascello che a poco a poco si perdeva fra le tenebre tu mi fuggi orribile nave portando te con la metà del mio cuore ma per quanto l'oceano ti sampio ti raggiungerò un giorno e squarcerò i tuoi fianchi si rovesciò rabbiosamente sui flutti e raggiunse giù Yoko che lo aspettava ansiosamente andiamo disse con voce strangolata ormai tutto è finito coraggio capitano noi la salveremo e forse più presto di quello che crediate taci non riaprire la ferita che sanguina cerchiamo il signor Yannetz capitano sì cerchiamolo perché solo lui può salvarci il vasto mare della Malesia si estendeva dinanzi a loro sepolto fra fitte tenebre senza un isolotto su cui approdare senza una vela o un lume che segnalasse la presenza di una nave amica o nemica per ogni dove non si vedevano che onde spumeggianti le quali si cozzavano le une con le altre con fragore aizzate dal venticello notturno i due nuotatori per non consumare le loro forze cotanto preziose in quel terribile frangente procedevano lentamente a breve distanza l'uno dall'altro cercando con avidità sull'oscura superficie una vela di quando in quando Sandokan si arrestava per volgersi verso oriente come se cercasse di scorgere ancora i fanali del piroscafo poi proseguiva la via emettendo dei profondi sospiri avevano già percorso un buon miglio e già cominciavano a sbarazzarsi delle vesti per essere più liberi nei movimenti quando giuioco urtò un oggetto che cedette un pesce cane esclamò egli rabbrividendo e levando il pugnale dove? chiese Sandokan ma no no non è uno squalo riprese il daiaco mi sembra un gavitello è un salvagente gettato da marianna esclamò Sandokan ah divina fanciulla speriamo che non sia solo cerchiamo amico mio si misero a nuotare all'ingiro cercando dovunque e riuscirono dopo pochi minuti a trovare l'altro che non era sì troppo allontanato dal primo ecco una fortuna che non mi aspettavo disse giuioco con tono allegro dove ci dirigeremo ora? la corvetta veniva dal nord ovest credo dunque che sarà in quella direzione che potremo trovare Yanez lo incontreremo poi lo spero rispose Sandokan ci saranno però necessarie parecchie ore il vento è debole e il prao del signor Yanez non deve camminare molto cosa importa? pur di trovarlo rimarrei in acqua anche ventiquattro ore disse Sandokan e non pensate ai pescicani capitano voi sapete che questi mari abbondano di tali ferocissimi squali Sandokan involontariamente rabbrividì e girò all'intorno uno sguardo inquieto non vedo finora emergere alcuna coda né alcuna pinna disse poi speriamo quindi che gli squali ci lasciano tranquilli or su spingiamoci verso il nord ovest se non incontreremo Yanez continuando in quella direzione approderemo a Montpracem o sulle scogliere che si estendono verso il sud si avvicinarono l'uno all'altro per essere più pronti a proteggersi in caso di pericolo e si misero a nuotare verso la direzione già scelta cercando però di economizzare le loro forze non ignorando che la terra era molto lontana quantunque fossero entrambi decisi a tutto la paura di venire da un istante all'altro sorpresi da qualche pescecane si faceva strada nei loro cuori specialmente il Daiaco si sentiva salire da un vero terrore di quando in quando si arrestava per guardarsi alle spalle credendo di udire dietro di sé dei colpi di coda e dei rauchi sospiri ed istintivamente raggrinzava le gambe per paura di sentirsele mozzare dai denti formidabili di quelle tigri del mare io non ho mai provata la paura diceva egli ho preso parte a più di 50 abbordaggi ho uccisi di mia mano non pochi nemici e mi sono perfino misurato con le grandi scimmie del borneo e anche con le tigri delle giungle eppure ora io tremo come se avessi la febbre l'idea di trovarmi da un istante all'altro dinanzi ad uno di quei ferocissimi squali mi fa gelare il sangue capitano vedete nulla? no rispondeva invariabilmente Sandokan con voce tranquilla mi è sembrato anche ora di aver udito dietro di me un rauco sospiro effetto della paura io non ho udito nulla e questo tonfo è stato prodotto dai miei piedi ho i denti che galoppano sii calmo giuioco siamo armati di solidi pugnali e se gli squali arrivano sott'acqua ci immergeremo anche noi e li affronteremo risolutamente e il signor Yanez non si vede deve essere ancora molto lontano che lo incontriamo capitano ho questa speranza Yanez mi ama troppo per abbandonarmi al mio triste destino il cuore mi dice che gli seguiva la corvetta però non lo si vede comparire pazienza giuioco il vento aumenta poco a poco e farà correre il prao e col vento avremo anche delle onde non fanno paura a noi continuarono a nuotare l'uno vicino all'altro per un'altra ora scrutando sempre attentamente l'orizzonte e guardandosi intorno per paura di veder comparire i temuti squali poi entrambi sostarono guardandosi l'un l'altro hai udito? chiese Sandkan sì il fischio donnava vapore vero? sì capitano sta fermo si appoggiò alle spalle del daiaco e con una spinta uscì di più di mezzo fuori dell'acqua guardando verso il nord vide due punti luminosi solcare il mare ad una distanza di due o tre miglia una nave si avanza verso di noi disse con voce un po' commossa allora possiamo farci raccogliere noi non sappiamo a quale nazione appartenga e se è mercantile o da guerra da dove viene? dal nord rotta pericolosa mio capitano così la penso anch'io può essere qualche nave che ha preso parte al bombardamento di Montpracem e che va in cerca del prago di Yanez e la lasceremo andare senza farci raccogliere la libertà costa troppo cara per perderla nuovamente giù Yoko se noi venissimo nuovamente presi più nessuno ci salverebbe e dovrei rinunciare per sempre alla speranza di rivedere Mariana ma può essere una nave mercantile non siamo sulla rotta di quei legni vediamo un po' se si può distinguere qualche cosa tornò ad appoggiarsi alle spalle di Yoko guardando attentamente dinanzi a sé non essendo la notte molto oscura pote distinguere chiaramente la nave che muoveva loro incontro non un grido Yoko esclamò ricadendo in acqua è un legno da guerra di questo sono certo grosso un incrociatore mi sembra sarà inglese non dubito della sua nazionalità lo lasceremo passare non possiamo far assolutamente nulla preparati ad immergerti poiché quella nave passerà a poca distanza da noi presto abbandoniamo i salvagente teniamoci prutti l'incrociatore tale almeno lo credeva Sandokan e forse con ragione s'avanzava rapidamente sollevando sui suoi fianchi delle vere ondate in causa delle ruote la sua direzione era sempre al sud quindi doveva passare a brevissima distanza dai due pirati Sandokan e Juyoko appena lo videro a 150 metri si inabissarono mettendosi a nuotare sott'acqua nel momento che risalirono alla superficie per respirare udirono una voce a gridare giurerei di aver visto due teste a babordo se non fossi sicuro che abbiamo a poppo una zigaena farei mettere una scialuppa in acqua udendo quelle parole Sandokan e Juyoko serrano subito rituffati ma la loro immersione fu di breve durata fortunatamente per loro quando ricomparvero videro il vascello allontanarsi rapidamente verso il sud si trovavano allora in mezzo alla scia biancheggiante ancora di spuma le onde sollevate dalle ruote li sballottavano a destra e a manca ora spingendoli in alto e ora precipitandoli negli avvallamenti capitano in guardia aveva gridato il daiaco abbiamo una zigaena nelle nostre acque avete udito il marinaio si prepara il pugnale verremo assaliti lo temo mio povero Juyoko simili mostri ci vedono male però hanno un fiuto incredibile il maledetto non avrà seguita la nave te l'assicuro ho paura capitano disse il daiaco il quale si agitava fra le onde come il diavolo nella pila dell'acqua benedetta si calmo finora non la vedo può arrivarci sott'acqua forse la sentiremo giungere e i salvagente stanno dinanzi a noi due bracciate e li raggiungeremo non oso muovermi capitano il povero uomo era in preda ad uno spavento tale che le sue membra si rifiutavano quasi di agire Juyoko non perdere la testa disse Sandokan se ti preme salvare le gambe non devi rimanere lì semi stupidito aggrappati al tuo salvagente e tira il pugnale il daiaco rimessosi un po' obbedì e raggiunse il suo gavitello il quale ondeggiava proprio in mezzo alla spuma della scia ora vediamo se si vede questo pesce martello disse Sandokan forse potremo sfuggirlo per la terza volta si appoggiò a Juyoko e si spinse fuori dell'acqua girando all'intorno un rapido sguardo là in mezzo alla candida spuma aveva scorto una specie di gigantesco martello sorgere improvvisamente fra le acque stiamo in guardia non dista da noi che cinquanta o sessanta metri non ha continuato a seguire la nave chiese il daiaco battendo i denti ha fiutato l'odore della carne umana che venga lo vedremo fra poco non muoverti e non abbandonare il pugnale si avvicinarono l'uno all'altro e si tennero immobili aspettando con ansietà la fine di quella pericolosa avventura le zigaene chiamate anche pesci martello e anche balance fish ossia pesci bilancia sono avversari pericolosissimi appartengono alla specie dei pescicani però hanno una forma molto diversa avendo la testa affoggiata a martello la loro bocca tuttavia non la cede a quella dei loro congeneri sia per l'ampiezza sia per la potenza dei loro denti sono audacissimi hanno una grande passione per la carne umana e quando si accorgono della presenza di un nuotatore non indugiano ad assalirlo e tagliarlo in due anche a loro però riesce un po' difficile afferrare la preda avendo la bocca quasi al principio del ventre sicché devono rovesciarsi sul dorso per poter mordere sanno che nel daiaco rimase da alcuni minuti immobili ascoltando attentamente poi non odendo nulla cominciarono ad adoperare una prudente ritirata avevano già percorsi 50 o 60 metri quando d'improvviso videro comparire a breve distanza la ributtante testa della zigaena il mostro dardeggiò sui due notatori un brutto sguardo a riflessi giallastri poi mandò un rauco sospiro che parve come un tuono lontanissimo stette alcuni istanti immobile lasciandosi dondolare dalle onde quindi si precipitò innanzi sferzando poderosamente le acque capitano esclamò giuioco la tigre della malesia che cominciava a perdere la pazienza invece di continuare a ritirarsi abbandonò bruscamente il salvagente messosi il pugnale fra i denti mosse risolutamente contro lo squalo anche tu vieni a darci addosso gridò vedremo se la tigre del mare sarà più forte della tigre della malesia lasciatela andare capitano supplicò giuioco voglio finirla a noi dannato squalo il pesce martello spaventato forse dalle grida e dall'attitudine risoluta di sandokan invece di continuare la corsa s'arrestò rovesciando a destra e a manca due ondate poi si tuffò ci viene sotto capitano gridò il daiaco si ingannava lo squalo un istante dopo ricompariva a galla e contrariamente ai suoi istinti feroci invece di ritentare l'attacco si spingeva a largo giocarellando fra la scia della nave sandokan e giuyoco stettero alcuni istanti fermi seguendo con gli occhi lo squalo poi vedendo che non pensava più a loro almeno per il momento ripresero la ritirata dirigendosi verso il nord ovest il pericolo non era però ancora cessato anzi la zigaena pur continuando a giocarellare non li perdeva di vista con un colpo di coda si slanciava di frequente più di mezza fuori dall'acqua per assicurarsi della loro direzione poi con poche guizzate guadagnava la via perduta tenendosi sempre a distanza di 50 o 60 metri probabilmente voleva attendere il momento propizio per ritentare l'attacco infatti poco dopo giuyoco che si trovava un po' indietro vide lo squalo avanzarsi rumorosamente scuotendo la sua testa e avventando poderosi colpi di coda esso descrisse intorno ai due nuotatori un grande cerchio poi cominciò a volteggiare ora sotto ed ora a fior d'acqua tendendo a restringere sempre più i suoi giri badate capitano grido giuyoco sono pronto a riceverlo e io ad aiutarvi è passata la paura comincio a sperarlo non abbandonare il gavitello prima che io ne dia il segnale cerchiamo intanto di forzare il cerchio con la sinistra stretta attorno al salvagente e la dritta armata del pugnale i due pirati si misero a battere in ritirata volgendo sempre la faccia allo squalo questi non li abbandonava anzi continuava a stringerli da vicino sollevando con la possente coda vere ondate e mostrando i suoi acuti denti i quali biancheggiavano sinistramente fra l'oscurità a un tratto fece un balzo gigantesco uscendo quasi tutto dall'acqua e si precipitò addosso a Sandokan che gli stava più vicino la tigre della Malesia abbandonato il gavitello fu pronta ad immergersi mentre Juyoko reso audace dall'imminenza del pericolo si scagliava innanzi col pugnale alzato la zigaena vedendo Sandokan scomparire sott'acqua con un colpo di coda si sottrasse all'attacco di Juyoko e a sua volta si cacciò sott'acqua Sandokan l'aspettava appena se la vide da vicino le si gettò addosso afferrandola per una delle pinne del dorso e con un terribile colpo di pugnale le squarciò il ventre l'enorme pesce ferito forse a morte con un brusco contorcimento si sbarazzò dell'avversario che stava per ritentare il colpo e risalì a galla vedendo a due passi il daiaco si rovesciò sul dorso per tagliarlo in due ma Sandokan era pure emerso il pugnale che l'aveva già ferita la colpì questa volta in mezzo al cranio e con tale forza che la lama le rimase infissa e prendi anche questi urlò il daiaco tempestandola di colpi la zigaena questa volta si immerse per sempre lasciando alla superficie una grande macchia di sangue la quale rapidamente si allargava credo che non tornerà più alla superficie cosa dici giuioco il daiaco non rispose appoggiato al gavitello cercava di alzarsi per spingere lontani gli sguardi cosa cerchi gli chiese Sandokan là guardate verso il nord ovest urlò giuioco per allà vedo una grande umbra un veliero janez forse chiese Sandokan con viva emozione l'oscurità è troppo profonda per ben discernirla ma sento che il cuore mi batte forte capitano lascia che salga sulle tue spalle il daiaco si avvicinò e Sandokan appoggiandosi su di lui uscì più che mezzo fuori dalle onde cosa vedete capitano è un prao se fosse lui maledizione perché imprecate sono tre i legni che s'avanzano ne siete certo certissimo che janez abbia trovato dei soccorsi è impossibile cosa facciamo dunque sono tre ore che nuotiamo e vi confesso che comincio ad essere affranto ti comprendo amici o nemici facciamoci raccogliere chiama aiuto giuyoko radunò le proprie forze e con voce tuonante gridò oè della nave aiuto un momento dopo si udì a largo un colpo di fucile e una voce che gridava chi chiama naufraghi aspettate si videro tosto i tre legni virare di bordo e avvicinarsi rapidamente essendo il vento alquanto forte dove siete chiese la medesima voce di prima a costa rispose sandokan tenne dietro un breve silenzio poi un'altra voce esclamò per giove un minganno assai o è lui chi vive sandokan con una spinta uscì dalle onde fino a mezzo corpo gridando janez janez sono io la tigre della malesia a bordo dei tre legni partì un solo urlo viva il capitano viva la tigre il primo prao era vicino i due nuotatori afferrarono una gomena che era stata loro lanciata e sissarono sul ponte con la rapidità di due veri quadrumani un uomo si avventò contro sandokan stringendolo al petto con frenesia ah mio povero fratello esclamò credevo di non rivederti mai più sandokan strinse il bravo portoghese mentre gli equipaggi gridavano sempre viva la tigre vieni nella mia cabina disse janez tu devi narrarmi tante cose che desidero arditamente riconoscere sandokan lo seguì senza parlare e discesero nella cabina mentre i legni proseguivano la via a tutte vele spiegate il portoghese strurò una bottiglia di gin e la porse a sandokan che vuotò uno dietro l'altro parecchi bicchieri o su narra come mai ti ho raccolto in mare mentre ti sospettavo prigioniero morto a bordo del piroscafo che da 20 ore seguo accanitamente ah tu seguivi l'incrociatore l'avevo sospettato per giove dispongo di tre legni e di 120 uomini e vuoi che non lo seguissi ma dove hai raccolto tante forze sai chi comandano i due legni che mi seguono no di certo paranoa e maratua non si erano dunque affondati durante la burrasca che ci colse presso la buon no come lo vedi maratua fu spinto verso l'isola di pulo gaia e paranoa si rifugiò alla baia di ambong stettero colà parecchi giorni a riparare le gravi avarie riportate poi scesero verso la buon dove si incontrarono non avendoci trovati alla piccola baia tornarono a montpracem li incontrai ieri sera mentre stavano per recarsi in india sospettando che là a noi ci fossimo diretti e sono sbarcati a montpracem chi occupa ora la mia isola nessuno poiché gli inglesi l'abbandonarono dopo ad aver incendiato il nostro villaggio e fatti saltare gli ultimi bastioni meglio così mormorò Sandokan sospirando e ora cosa accadde a te ti vedi abbordare il vascello mentre io sventravo la cannoniera a colpi di cannone poi udì gli urrà di vittoria degli inglesi indi più nulla fuggì per salvare almeno i tesori che portavo ma poi mi misi sulle tracce dell'incrociatore con la speranza di raggiungerlo e di abbordarlo sono caduto sul ponte del legno nemico mezzo accoppato da un colpo di mazza e poi fatto prigioniero assieme a Giuyoko le pillole che come tu sai portavo sempre indosso mi salvarono comprendo disse Yanez scoppiando in una risata ma vi hanno gettati in mare credendovi morti ma di Marianna cosa successe è prigioniera sull'incrociatore rispose Sandokan con voce cupa chi guidava il vascello il baronetto ma nella mischia l'uccisi me l'era immaginato perbacco che brutta fine ha fatto quel povero rivale cosa pensi di fare ora cosa faresti tu io seguirei il piroscafo e l'aborderei e ciò che volevo proporti sai dove si dirigeva il vascello lo ignoro ma mi pare che navigasse verso le tre isole quando io lo lasciai cosa andrà a fare Colà qui gatta ci cova fratellino mio camminava molto filava otto nodi allora quale vantaggio può avere su di noi forse di trenta miglia allora possiamo raggiungerlo se il vento si mantiene buono ma egli si fermò udendo sul ponte un movimento insolito e un vociare acuto cosa succede chiese che abbiano scoperto l'incrociatore saliamo fratellino mio abbandonarono precipitosamente la cabina e salirono in coperta proprio in quel momento alcuni uomini stavano traendo dall'acqua una cassetta di metallo che un pirata alla prima luce dell'alba aveva scorta a poche dozzine di metri dal tribordo oh oh esclamò Janetz cosa vuol dire ciò che contenga qualche documento prezioso non mi sembra una scatola comune noi siamo sempre sulle tracce del piroscafo è vero chiese Sandokan che senza sapere il perché si sentiva agitato sempre rispose il portoghese ah se fosse che cosa Sandokan invece di rispondere strasse il Chris e con un colpo rapido sventrò la scatola tosto nell'interno si scorse una carta un po' umida sì sulla quale si rivelavano nettamente alcune righe di una calligrafia fine ed elegante Janetz Janetz balbettò Sandokan con voce tremante leggi fratellino mio leggi mi pare di essere diventato cieco il portoghese gli tolse la carta e lesse aiuto mi trasportano alle tre isole dove mi raggiungerà mio zio per condurmi a Sarawak Marianna Sandokan nell'udire quelle parole mise un urlo di belva ferita alzò il braccio cacciandosi le mani nei capelli che si strappò con furore e vacillò come se fosse stato colpito da una palla perduta perduta il lord esclamò Janetz e i pirati l'avevano circondato e lo guardavano con ansietà con profonda commozione pareva che soffrissero le medesime pene che dilaniavano il cuore di quello sventurato Sandokan esclamò il portoghese noi la salveremo te lo giuro dovessimo abbordare il legno dell'ordo a salire Sarawak e James Brooke che la governa la tigre un istante prima abbattuta da quel fiero dolore scattò in piedi col viso contraffatto e gli occhi in fiamme tigri di Monpragem tuono egli abbiamo dei nemici da esterminare e la nostra regina da salvare tutti alle tre isole vendetta urlarono i pirati morte agli inglesi e viva la nostra regina l'ultima pugna della tigre cambiata la rotta i pirati si misero febbrilmente all'opera onde prepararsi alla pugna che doveva essere senza dubbio tremenda e forse l'ultima che impegnavano contro l'aborrito nemico caricavano i cannoni montavano le spingarde aprivano i barili di polvere ammonticchiavano a prua e a poppa enormi quantità di palle e di granate toglievano le manovre inutili e rinforzavano le più necessarie improvvisavano le barricate e preparavano i grappini da bordaggio perfino dei recipienti di bevande alcoli che furono portati in coperta onde riversarli sul ponte del legno nemico e incendiarlo Sandokan ne animava tutti col gesto e con la voce promettendo a tutti di mandare a picco quel vascello che l'aveva tenuto incatenato e che gli aveva distrutti più pro di campioni della pirateria e rapita la fidanzata sì lo distruggerò quel maledetto lo incendierò esclamava egli dio faccia che giunga in tempo per impedire al lord di rapirmela assaliremo anche il lord se sarà necessario disse Yanez chi resisterà all'attacco di 120 tigri di Montpracem ma se giungessimo troppo tardi e il lord fosse già partito per Sarawak a bordo di un rapido legno lo raggiungeremo nella città di Jamesbrook piuttosto quello che mi inquieta è il modo di impadronirci dell'incrociatore che a quest'ora deve essere già ancorato alle tre isole bisognerebbe sorprenderlo ma smemorati che siamo cosa vuoi dire Sandokan ti ricordi ciò che tentò di fare lord James quando la salimmo sul sentiero di vittoria sì mormorò Sandokan che si sentì rizzare i capelli grandio e tu vuoi che il comandante può aver ricevuto l'ordine di uccidere Marianna piuttosto di lasciarla ricadere nelle nostre mani non è possibile non è possibile e io ti dico che tremo per la tua fidanzata e dunque chiese Sandokan con un filo di voce Yanez non rispose pareva che fosse assorto in un profondo pensiero a un tratto si batte la fronte con violenza esclamando ci sono parla spicciati fratello se hai un progetto gettalo fuori per impedire che una catastrofe possa accadere bisognerebbe che uno di noi al momento dell'attacco fosse vicino a Marianna per difenderla è vero ma in qual modo ecco il progetto tu sai che fra la squadra che ci assalì a Monpracem vi erano dei prahos del sultano del Borneo non l'ho dimenticato io mi camuffo da ufficiale del sultano in albero la bandiera di varauni e a bordo l'incrociatore fingendomi mandato da Lord James benissimo al comandante dirò che devo consegnare una lettera a Lady Marianna e appena mi trovo nella sua cabina mi barrico con lei al mio fischio voi balzate sul legno e cominciate la lotta ah Yanez quanto ti dovrò se riesci riuscirò Sandokan purché noi giungiamo prima del Lord in quell'istante si udì gridare sul ponte le tre isole Sandokan e Yanez si affrettarono a salire in coperta le isole segnalate apparivano a sette o otto miglia tutti gli occhi dei pirati scandagliarono quell'ammasso di rupi cercando avidamente l'incrociatore eccolo esclamò un daiaco vedo del fumo laggiù sì confermò Sandokan i cui occhi parvero incendiarsi ecco là un pennacchio nero alzarsi dietro quelle scogliere l'incrociatore è là procediamo con ordine e prepariamoci all'attacco disse Yanez paranoa fa imbarcare altri quaranta uomini sul nostro prao il trasporto fu subito operato e l'equipaggio forte di settanta uomini si radunò attorno a Sandokan che accennava a voler parlare tigrotti di Montpracem disse gli con quel tono di voce che affascinava e infondeva in quegli uomini un coraggio sovrumano la partita che noi giochiamo sarà terribile poiché avremo da pugnare contro un equipaggio numeroso più di noi e agguerrito ma rammentatevi che sarà l'ultima battaglia che voi combatterete sotto la tigre della Malesia e che sarà l'ultima volta che voi vi troverete di fronte a coloro che distrussero la nostra potenza e che violarono la nostra isola la nostra patria adottiva quando io darò il segnale irrompete con l'antico valore delle tigri di Montpracem sul ponte del legno io lo voglio li stermineremo tutti esclamarono i pirati agitando freneticamente le armi comandate tigre là sul legno maledetto che stiamo per assalire vi è la regina di Montpracem voglio che ritorni mia che ritorni libera la salveremo o morremo tutti grazie amici ai vostri posti di combattimento ora e sugli alberi piegate le bandiere del sultano innalzati i vessilli i tre praos si diressero verso la prima isola e più precisamente verso una piccola baia in fondo alla quale si vedeva confusamente una massa nera sormontata da un pennacchio di fumo Janetz disse Sandokan preparati che fra un'ora saremo alla baia è presto fatto rispose il portoghese che scomparve sotto il ponte i praos continuavano intanto ad avanzare con le vele terza rolate e la gran bandiera del sultano di Varauni sulla cima dell'albero di maestra i cannoni erano preparati le spingarde pure e i pirati tenevano le armi sotto mano pronti a slanciarsi all'abordaggio Sandokan da prua spiava attentamente l'incrociatore che diventava di minuto in minuto più visibile e che pareva fosse ancorato quantunque avesse la macchina ancora accesa si sarebbe detto che il formidabile pirata cercava con la potenza del suo sguardo di scoprire la sua adorata Mariana profondi sospiri gli irrompevano di tratto in tratto dall'ampio petto la sua fronte si annuvolava e le sue mani tormentavano impazientemente l'impugnatura della scimitarra poi il suo sguardo che brillava ad un vivo fuoco percorreva il mare che circondava le tre isole come se cercasse di scoprire qualche cosa senza dubbio temeva di venire sorpreso dal lord nel furore della battaglia e preso alle spalle il cronometro di bordo segnava mezzodì quando i tre prahos giungevano all'imboccatura della baia l'incrociatore era ancorato proprio nel mezzo sul picco della randa sventolava la bandiera inglese e sulla cima della maestra il gran nastro dei legni da guerra sul ponte si vedevano passeggiare parecchi uomini i pirati nel vederselo a portata dei cannoni si precipitarono come un solo uomo sulle artiglierie ma Sandokan con un gesto li arrestò non ancora disse Janez il portoghese saliva allora camuffato da ufficiale del sultano di Varauni con una casacca verde larghi calzoni e un grande turbante in capo in mano teneva una lettera cosa hai in quella carta è la lettera che consegnerò alle di Marianna e cosa hai scritto che noi siamo pronti e che non si tradisca ma bisognerà che gliela consegni tu se vuoi barricarti assieme a lei nella cabina non la cederò a nessuno sta certo fratellino mio e se il comandante ti accompagnasse dalla lady se vedo che la faccenda si imbroglia lo uccido rispose Janez freddamente giochi una brutta carta Janez la pelle vuoi dire ma spero di conservarla ancora intatta orsù nasconditi e lasciami il comando dei legni per pochi minuti e voi tigrotti componete un po' cristianamente i vostri musi e ricordatevi che siamo fedelissimi sudditi di quella gran canaglia che si fa chiamare il sultano del Borneo strinse la mano a Sandokan si accomodò il turbante e gridò alla baia il legno entrò arditamente nel piccolo seno e si avvicinò all'incrociatore seguito a breve distanza dagli altri due chi vive? chiese una sentinella Borneo e Varauni rispose Yanez notizie importanti da vittoria ehi Paranoa lascia andare l'ancorotto e fila catena e voi altri fuori i parabordi attenti alle tambure prima che le sentinelle aprissero bocca per impedire al Praho di venire bordo contro bordo la manovra era stata eseguita il legno andò ad urtare l'incrociatore sotto l'ancora di Tribordo e vi rimase come appiccicato dov'è il comandante? chiese Yanez alle sentinelle scostate il legno disse un soldato al diavolo i regolamenti rispose Yanez per giove avete paura che i miei legni affondino il vostro su spicciatevi chiamatemi il comandante che ho degli ordini da comunicargli il tenente saliva allora sul ponte con i suoi ufficiali egli si avvicinò alla murata di Poppa e vedendo Yanez che gli mostrava una lettera fece abbassare la scala coraggio mormorò Yanez volgendosi verso i pirati che fissavano con occhio truce il piroscafo volse poi uno sguardo a Poppa e i suoi occhi si incontrarono con quelli fiammeggianti di Sandokan il quale si teneva celato sotto una tela gettata sopra il boccaporto in meno che lo si dica il bravo portoghese si trovò sul ponte del piroscafo si sentì invadere da un vivo timore ma il suo viso non tradì il turbamento dell'anima capitano disse gli inchinandosi spigliatamente dinanzi a lui ho una lettera da consegnare a Lady Marianna Gilonk da dove venite? dalla Buan cosa fa il lord? stava armando un vascello per venirvi a raggiungere vi diede nessuna lettera per me? nessuna comandante ciò è strano date la lettera che la consegnerò a Lady Marianna scusate comandante ma devo consegnarla io rispose Yanez audacemente venite adunque Yanez si sentì gelare il sangue nelle vene se Marianna fa un gesto io sono perduto mormorò gettò uno sguardo a poppa e vide arrampicati sui pennoni del prao dieci o dodici pirati e altrettanti affollati sulla scala pareva che fossero lì per avventarsi sui marinai inglesi che li osservavano curiosamente seguì il capitano e scesero assieme la scala che conduceva a poppa il povero portoghese si sentì rizzare i capelli quando di il capitano bussare ad una porta e Lady Marianna a rispondere entrate un messo di vostro zio Lord James Gillong disse il capitano entrando Marianna si teneva ritta in mezzo alla cabina pallida ma fiera vedendo Yanez non poté frenare un sussulto ma non emise alcun grido aveva compreso tutto e la ricevette la lettera la prima finalmente e la lesse con calma ammirabile a un tratto Yanez che era diventato pallido come un morto si avvicinò alla finestra di Babordo esclamando capitano vedo un piroscafo che si dirige a questa volta il comandante si precipitò verso il finestrino per accertarsi coi propri occhi pronto come il lampo Yanez gli si fece addosso e lo percosse furiosamente al cranio con l'impugnatura del Chris il capitano stramazzò al suolo mezzo accoppato senza emettere un sospiro Lady Marianna non poté trattenere un grido d'orrore silenzio sorellina mia disse Yanez che imbavagliava e legava il povero comandante se l'ho ammazzato Dio mi perdonerà essendo can dov'è è pronta a cominciare la pugna aiutatemi a barricarci sorellina prese un pesante armadio e lo spinse verso la porta accumulandovi poi dietro casse scaffali e tavoli ma cosa sta per succedere chiese Marianna lo saprete subito sorellina rispose Yanez traendo la scimitarra e le pistole si affacciò al finestrino ed emise un fischio acuto attenzione sorellina disse poi mettendosi dietro la porta con le pistole in pugno in quell'istante urla terribili scoppiarono sul ponte sangue sangue viva la tigre della Malesia tennero dietro colpi di fucile e di pistola poi urla indescrivibili bestemmie invocazioni gemiti lamenti un cozzar furioso di ferri un calpestio un accorrere e un rumore sordo di corpi che cadevano Yanez gridò Marianna che era diventata pallida come una morta coraggio tuoni di dio vociò il portoghese viva la tigre della Malesia si udirono dei passi precipitosi scendere le scale e alcune voci che chiamavano capitano capitano Yanez si appoggiò contro la barricata mentre Marianna faceva altrettanto per mille boccaporti aprite capitano gridò una voce viva la tigre della Malesia tuonò Yanez al di fuori si udirono imprecazioni e urla di furore poi un colpo violento scosse la porta Yanez esclamò la giovanetta non temere altri tre colpi sgangherarono l'uscio e una larga fessura fu aperta da un colpo di scure una canna di fucile fu introdotta ma Yanez pronto come un lampo l'alzò e scaricò attraverso l'apertura una pistola si udì un corpo stramazzare pesantemente a terra mentre gli altri risalivano precipitosamente la scala gridando tradimento tradimento la pugna continuava sul ponte del vascello e le urla echeggiavano più forti che mai mescolate a colpi di fucili e di pistole di tratto in tratto fra tutto quel baccano si udiva la voce tonante della tigre della Malesia che lanciava le sue bande all'assalto Marianne era caduta in ginocchio e Yanez sbaglioso di sapere come stavano le cose al di fuori si affaccendava a rimuovere le mobilie d'improvviso si udirono alcune voci gridare al fuoco si salvi chi può il portoghese impallidì tuoni di dio esclamò con uno sforzo disperato rovesciò la barricata tagliò con un colpo di scimitarra i legami che stringevano il povero comandante afferrò a Marianna fra le braccia e uscì correndo dense nubi di fumo avevano già invaso la corsia e nel fondo si vedevano delle fiamme in rompere dai camerini degli ufficiali Yanez salì in coperta con la scimitarra tra i denti la battaglia stava per finire la tigre della Malesia saliva allora furiosamente il castello di prua sul quale si erano trincerati trenta o quaranta inglesi al fuoco gridò Yanez a quel grido gli inglesi che ormai si vedevano perduti balzarono confusamente in mare Sandokan si volse verso Yanez rovesciando con impeto irresistibile gli uomini che lo circondavano Marianna esclamò prendendo fra le braccia la giovanetta mia mia al fine sì tua e questa volta sempre nel medesimo istante si udì un colpo di cannone rombare in alto mare Sandokan emise un vero ruggito il lord tutti a bordo dei praos Sandokan Marianna Yanez e i pirati scampati alla pugna abbandonarono il vascello che ormai bruciava come un fastello di legna secca e si imbarcarono sui tre legni portando con loro i feriti in un lampo le vele furono spiegate i pirati diedero mano ai reimi e i tre praos uscirono rapidamente dalla baia inoltrandosi verso l'alto mare Sandokan trasse Marianna a prua e con la punta della scimitarra le mostrò un piccolo brigantino che navigava ad una distanza di settecento passi dirigendosi verso la baia a prua appoggiato all'albero di buon presso si scorgeva un uomo lo vedi Marianda le chiese Sandokan la giovanetta gettò un grido e si coperse il volto con le mani mio zio balbettò guardalo per l'ultima volta ah Sandokan tuoni di dio è lui esclamò Janez stroppò ad un malese la carabina e la puntò verso il lord ma Sandokan gli fece cadere l'arma egli è per me sacro disse con aria tetra il brigantino si avanzava rapidamente cercando di tagliare la strada e i tre praos ma era ormai troppo tardi il vento spingeva i rapidi legni verso l'est fuoco su quei miserabili si udì a gridare il lord un colpo di cannone partì e la palla abbatté la bandiera della pirateria che Janez aveva allora fatta spiegare Sandokan portò la destra al cuore e il suo viso divenne più tetro addio pirateria addio tigre della malesia mormorò dolorosamente abbandonò bruscamente Marianna e si abbassò sul cannone di poppa mirando a lungo il brigantino tuonava allora furiosamente lasciando sui tre legni palle e nembi di mitragli Sandokan non si muoveva mirava sempre d'improvviso s'alzò accostando la miccia il cannone si infiammò ruggendo e un istante dopo l'albero di trinchetto del brigantino spaccato alla base rovinava in mare schiantando le murate guarda guarda esclamò Sandokan seguimi ora il brigantino si era arrestato di colpo virando di bordo ma continuava a cannoneggiare Sandokan prese Marianna la trasse a poppa e mostrandola al lord che urlava come un pazzo sulla prua del suo legno guarda mia moglie disse poi retrocesse a passi lenti con la fronte abbuiata gli occhi torvi le labbra strette e i pugni chiusi mormorando Janetz la prua agiava girò due volte su se stesso poi cadde fra le braccia della sua adorata Marianna e quell'uomo che non aveva mai pianto in vita sua scoppiò in singhiozzi mormorando la tigre è morta per sempre grazie a tutti grazie a tutti